giovannino guareschi mondo piccolo qui con tre storie e una citazione si spiega il mondo di mondo piccolo io da giovane facevo il cronista in un giornale e andavo in giro tutto il giorno in bicicletta per trovare dei fatti da raccontare poi conobbi una ragazza e allora passavo le giornate pensando a come si sarebbe comportata quella ragazza se io fossi diventato imperatore del messico o se fossi morto e alla sera riempivo la mia pagina inventando i fatti di cronaca e questi fatti piacevano parecchio alla gente perché erano molto più verosimili di quelli veri io nel mio vocabolario avrò sì e no 200 parole e sono le stesse che usavo per raccontare l'avventura del vecchio travolto da un ciclista o quella della massaia che sbucciando le patate ci rimetteva un polpastrello quindi niente letteratura o altra mercanzia del genere in questo libro io sono quel cronista di giornale e mi limito a raccontare dei fatti di cronaca roba inventata e perciò tanto verosimile che mi è successo un sacco di volte di scrivere una storia e di vederla dopo un paio di mesi ripetersi nella realtà e non c'è niente di straordinario è semplice questione di ragionamento uno considera il tempo la stagione la moda e il momento psicologico e conclude che stando così le cose in un ambiente x possono verificarsi questa e quest'altra vicenda queste storie quindi vivono in un determinato clima e in un determinato ambiente il clima politico italiano dal dicembre del 1946 al dicembre del 1947 la storia insomma di un anno di politica l'ambiente è un pezzo della pianura padana e qui bisogna precisare che per me il po comincia a piacenza il fatto che da piacenza in su sia sempre lo stesso fiume non significa niente anche la via emilia da piacenza a milano è in fondo la stessa strada però la via emilia è quella che va da piacenza a rimini non si può fare un paragone tra un fiume e una strada perché le strade appartengono alla storia e i fiumi alla geografia e con questo la storia non la fanno gli uomini gli uomini subiscono la storia come subiscono la geografia e la storia del resto è in funzione della geografia gli uomini cercano di correggere la geografia bucando le montagne e deviando i fiumi e così facendo si illudono di dare un corso diverso alla storia ma non modificano un bel niente perché un bel giorno tutto andrà a catafascio e le acque ingoiaranno i ponti e romperanno le dighe e riempiranno le miniere crolleranno le case i palazzi e le catapecchie e l'erba crescerà sulle macerie e tutto ritornerà a terra e i superstiti dovranno lottare a colpi di sasso con le bestie e ricomincerà la storia la solita storia poi dopo 3000 anni scopriranno sepolto sotto 40 metri di fango un rubinetto dell'acqua potabile e un tornio della breda di sesto san giovanni e diranno guarda che roba e si daranno da fare per organizzare le stesse stupidaggini dei lontani antenati perché gli uomini sono delle disgraziate creature condannate al progresso il quale progresso porta irrimediabilmente a sostituire il vecchio padre eterno con le nuovissime formule chimiche e così alla fine il vecchio padre eterno si secca sposta di un decimo di millimetro l'ultima falange del mignolo della mano sinistra e tutto il mondo va all'aria dunque il po comincia a piacenza e fa benissimo perché è l'unico fiume rispettabile che esiste in italia e i fiumi che si rispettano si sviluppano in pianura perché l'acqua è roba fatta per rimanere orizzontale e soltanto quando è perfettamente orizzontale l'acqua conserva tutta la sua naturale dignità le cascate del niagara sono fenomeni da baraccone come gli uomini che camminano sulle mani il po comincia a piacenza e a piacenza comincia anche il mondo piccolo delle mie storie il quale mondo piccolo è situato in quella fetta di pianura che sta fra il po e l'appennino il cielo è spesso d'un bell'azzurro come ovunque in italia salvo nella stagione membuona in cui si levano fittissime nebbie il suolo è la più parte gentile arenoso e fresco alquanto forte a monte e talora schiettamente argilloso una lussureggiante vegetazione ammanta il territorio che non ha un palmo spoglio di verzura la quale cerca di stendere il suo dominio fin sopra i larghi renai del po i campi di ondeggianti messi listati per tutto da filare di viti sposate agli oppii coronati da prode di ben inchiomati gelsi mostrano la feracità del suolo frumento grano turco uve in copia bacchi da seta canape trifoglio sono i principali prodotti vi prova bene ogni generazione di piante e assai vi allignavano ondile roveri e ogni ragione di frutti folte vincaie rendono i orsute le coste della riviera lungo la quale in passato più che adesso verdeggiavano larghi e ricchi boschi di pioppi qua e là tramezzati da ontani e da salici o resivaghi dall'odorosa madre selva che abbraccia le piante forma capannucce e guglie cosparse di colorite campanelline via di molti buoi bestie suine e pollame insidiato questo dal martore e dalla faina il cacciatore vi scova non poche lepri preda su venti volte delle volpi e a tempo offendono l'aria quaglie torto le pernici dal pennaggio brizzolato beccacce che bezzicano il terreno a modi crivello e altri volatili di passo vedi sopra capo grandi schiere di rapidi storni suoli dani tre stendonsi d'inverno sul po il biancheggiante gabbiano brilla sull'ali attento indi piomba e germisce il pesce fra i canneti s'asconde il vario pinto piombino la passera cannaiola la gallinella acquatica e l'astuta folaga sul fiume odi ciurlotti scorgi aironi pivieri pavoncelli e altri uccelli ripuari rapaci falchi e roteanti poane terror delle chiocce notturni barbagianni e silenziosi fatappi talora furono ammirati e presi volatili maggiori cui su per il po o giù dall'alpi recarono i venti da strani paesi in quella conca ti appinzano le zanzare da fangosi stagni gli antichi lai cantan le rane ma nelle smaglianti notti d'estate l'incantevole usignolo accompagna del suavissimo suo canto la divina armonia dell'universo lamentando forse che una simile non addolcisca i liberi cuori degli uomini nel fiume pescoso guizzano barbi tinche lucci voraci argente i carpi squisiti persici dalle pinne rosse lubriche anguille e grossi storioni che talor tormentati da piccole lamprede risalgono il fiume del peso qualche volta di 150 e più chilogrammi ciascuno sulla spiaggia del fiume giacciono i resti della villa di stagno un dì molto distesa or pressoché tutta inghiottita dalle onde nel canto ove il comune tocca stirone vicino al taro sorge la villa di fontanelle aprica e sparta là dove la strada provinciale sincrocicchia con l'argine del po sta il casale di ragazzola verso mattina dove il suolo più si abbassa e il piccolo villaggio della fossa e la romita villicciuola di rigosa sta umile incattucciata tra gatteri e pioppi ed altre piante poco lontano dal luogo dove il rivo rigosa mette in taro fra queste ville verdi rocca bianca quando rileggo questa pagina del notaio francesco luigi campari mi sembra di diventare un personaggio della favola che gli racconta perché io sono nato nella villa aprica e sparta il piccolo mondo del mondo piccolo non è qui però non è in nessun posto fisso il paese di mondo piccolo è un puntino nero che si muove assieme ai suoi pepponi ai suoi smilzi in su e in giù lungo il fiume per quella fettaccia di terra che sta tra il po e l'appennino ma il clima è questo il paesaggio è questo e in un paese come questo basta fermarsi sulla strada a guardare una casa colonica affogata in mezzo al gran turco e alla canapa e subito nasce una storia prima storia io abitavo al boscaccio nella bassa con mio padre e mia madre e i miei 11 fratelli io che ero il più vecchio toccavo appena i 12 anni e chico che era il più giovane toccava appena i due mia madre mi consegnava ogni mattina una cesta di pane un sacchetto di mele o di castagne dolci mio padre ci metteva in riga nell'aia e ci faceva dire ad alta voce il pater nostro poi andavamo con dio e tornavamo al tramonto i nostri campi non finivano mai e avremmo potuto correre anche una giornata intera senza sconfinare mio padre non avrebbe avuto neppure mezza parola anche se noi gli avessimo calpestato tre intere biolche di frumento in germoglio o se gli avessimo diverto un filare di viti eppure noi sconfinavamo sempre e ci davamo parecchio da fare anche chico che aveva due anni appena e aveva la bocca piccolina e rossa e gli occhi grandi con lunghe ciglia e ricciolini sulla fronte come un angioletto non si faceva certamente scappare un papero quando gli arrivava a tiro poi ogni mattina appena partiti noi venivano alla fattoria delle vecchie con sporte piene di paperi di gallinelle di pulcini assassinati e mia madre per ogni capo morto dava un capo vivo noi avevamo mille galline che razzolavano per i nostri campi ma quando si doveva mettere qualche pollo a bollire nella pentola bisognava comprarlo mia madre scuoteva il capo e continuava a cambiare paperi vivi con paperi morti mio padre faceva la faccia scura si arricciava i lunghi baffi e interrogava brusco le donnette per sapere se si ricordavano chi dei dodici era stato a fare il colpo quando qualcuna gli diceva che era stato chicco il più piccolino mio padre si faceva raccontare per tre o quattro volte la storia e come aveva fatto a lanciare il sasso e se era un sasso grosso e se aveva colpito il papero al primo colpo queste cose le ho sapute tanto tempo dopo allora non ci si pensava ricordo che una volta mentre io lanciato chicco contro un papero che passeggiava come uno stupido in mezzo a un praticello spelacchiato stavo con gli altri dieci appostato dietro un cespuglione vidi mio padre a venti passe di distanza che fumava la pipa all'ombra di una grossa quercia quando chicco ebbe spacciato il papero mio padre se ne andò tranquillamente con le mani in tasca e io e i miei fratelli ringraziamo il buon dio non si è accorto di niente dissi io sottovoce ai ragazzi ma allora io non potevo capire che mio padre ci aveva pedinati per tutta la mattinata nascondendosi come un ladro pur di riuscire a vedere come chicco ammazzava i paperi ma io sto uscendo da seminato questo è il difetto di chi ha troppi ricordi io devo dirvi che il boscaccio era un paese dove non moriva mai nessuno per via di quell'aria straordinaria che vi si respirava al boscaccio sembrava quindi impossibile che un bambino di due anni potesse ammalarsi invece chicco si ammalò sul serio una sera mentre stavamo per tornare a casa chicco si sdraiò improvvisamente per terra e cominciò a piangere poi smise di piangere e si addormentò non si volle svegliare e io lo presi in braccio chicco scottava sembrava pieno di fuoco allora noi tutti provammo una paura terribile il sole tramontava il cielo era nero e rosso le ombre lunghe abbandonammo chicco in mezzo all'erba e fuggimmo urlando e piangendo come se qualcosa di terribile di misterioso ci inseguisse chicco dorme e scotta chicco ha il fuoco dentro la testa singhiozzai io appena mi trovai davanti a mio padre mio padre lo ricordo bene staccò la doppietta dalla parete la caricò se la mise sotto braccio e ci seguì senza dir nulla e noi camminammo stretti attorno a lui e non avevamo più paura perché nostro padre era capace di fulminare un leprotto a 80 metri di distanza chicco era abbandonato in mezzo all'erba scura e con la sua lunga veste chiara e i suoi ricciolini sulla fronte sembrava un angelo del buon dio cui si fosse guastata una luzza e che fosse caduto nel trifoglio al boscaccio non moriva mai nessuno e quando la gente seppe che chicco stava male tutti provarono un enorme sgomento anche nelle case si parlava sottovoce per il paese bazzicava un forestiero pericoloso e nessuno di notte si azzardava ad aprire una finestra per paura di vedere nell'aia imbiancata dalla luna a girarsi la vecchia vestita di nero e con la falce in mano mio padre mandò a prendere col calessino tre o quattro dottori famosi e tutti toccarono chicco e gli appoggiarono l'orecchio alla schiena poi guardarono mio padre senza dir niente chicco continuava a dormire e a scottare e il suo viso era diventato più bianco del lenzuolo mia madre piangeva in mezzo a noi e non voleva più mangiare mio padre non si sedeva mai e continuava ad arricciarsi i baffi senza parlare il quarto giorno i tre ultimi dottori che erano arrivati insieme allargarono le braccia e dissero mio padre non c'è che il buon dio che possa salvare il vostro bambino ricordo che era mattina mio padre fece un cenno con la testa e noi lo seguimmo nell'aia poi con un fischio chiamò i famigli erano 50 fra uomini donne e bambini mio padre era alto magro e potente con lunghi baffi un grande cappello la giacca attillata e corta i calzoni stretti alla coscia e gli stivali alti da giovane mio padre era stato in america e vestiva all'americana faceva paura quando si piantava gambe larghe davanti a qualcuno mio padre si piantò a gambe larghe davanti ai famigli e disse soltanto il buon dio può salvare chico in ginocchio bisogna pregare il buon dio di salvare chico tutti ci inginocchiamo e cominciamo a pregare ad alta voce il buon dio le donne dicevano a turno delle cose e noi e gli uomini rispondevamo amen mio padre rimase a braccia concerte fermo come una statua davanti a noi fino alle sette di sera e tutti pregavano perché avevano paura di mio padre e perché volevano bene a chico alle sette di sera mentre il sole cominciava a tramontare venne una donna a chiamare mio padre lo seguì i tre dottori erano seduti pallidi attorno al letto di chico peggiora disse il più anziano non arriverà domattina mio padre non disse nulla ma sentì che la sua mano stringeva forte la mia uscimmo mio padre prese la doppietta la caricò a palla se la mise a tracolla preso un grosso pacco me lo consegnò andiamo disse camminammo attraverso i campi il sole si era nascosto dietro l'ultima boscaglia scavalcamo il muretto di un giardino e bussamo a una porta il prete era solo in casa e stava mangiando al lume della lucerna mio padre entrò senza levarsi il cappello reverendo disse mio padre chico sta male e soltanto il buon dio può salvarlo oggi per 12 ore e 60 persone hanno pregato il buon dio ma chico peggiora e non arriverà domattina il prete guardava mio padre con gli occhi sbarrati reverendo continuò mio padre tu soltanto puoi parlare al buon dio e fargli capire come stanno le cose fargli capire che se chico non guarisce io gli butto all'aria tutto in quel pacco ci sono cinque chili di dinamite da mina non resterà più in piedi un mattone di tutta la chiesa andiamo il prete non disse parola si avviò seguito da mio padre entrò in chiesa si inginocchiò davanti all'altare giunse le mani mio padre stava in mezzo alla chiesa col fucile sotto braccio a gambe larghe piantato come un macigno sull'altare ardeva una sola candela e tutto il resto era buio verso mezzanotte mio padre mi chiamò va a vedere come sta chico e torna subito volai fra i campi arrivai a casa col cuore in gola poi ritornai e correva ancora più forte mio padre era ancora lì fermo a gambe larghe col fucile sotto braccio e il prete pregava bocconi sui gradini dell'altare papà gridai col mio ultimo fiato chico è migliorato il dottore ha detto che fuori pericolo il miracolo tutti ridono e sono contenti il prete si alzò sudava e il suo viso era disfatto va bene disse bruscamente mio padre poi mentre il prete guardava bocca aperta si tolse dal taschino un biglietto da mille e li infilò nella cassetta delle lemosine io i piaceri li pago disse mio padre buonasera mio padre non si vantò mai di questa faccenda ma al boscaccio c'è ancora oggi qualche scomunicato il quale dice che quella volta dio ebbe paura questa è la bassa terra dove c'è gente che non battezza i figli e bestemmia non per negare dio ma per far dispetto a dio e sarà lontana 40 chilometri o meno dalla città ma nella piana frastagliata dagli argini dove non si vede oltre una siepe o al di là della svolta ogni chilometro vale per dieci e la città è roba di un altro mondo io mi ricordo seconda storia qualche volta si vedevano al boscaccio quelli di città meccanici muratori andavano al fiume per avvitare i bulloni del ponte di ferro o al canale della bonifica per dare il cemento ai muretti delle chiuse portavano la paglietta o dei berretti di pezza buttati da una parte si sedevano davanti all'osteria della nita e chiedevano birra bistecchine con spinaci il boscaccio era un paese dove la gente mangiava a casa sua e andava all'osteria soltanto per bestemmiare per giocare alle bocce e per bere del vino in compagnia vino minestra collardo e ova con la cipolla rispondeva la nita affacciandosi alla porta e allora quegli uomini si buttavano le pagliette i berretti all'indietro e cominciavano a gridare che la nita aveva di bello questo e quest'altro e a picchiare gran pugni sulla tavola e a schiamazzare come oche quelli di città non capivano niente quando giravano per la campagna facevano come le scrofe nel gran turco fracasso e scandalo quelli di città a casa loro mangiavano polpetti di cavallo e venivano a chiedere birra al boscaccio dove al massimo si poteva bere vino nelle scodelle o a trattare con prepotenza uomini che come mio padre avevano 350 bestie 12 figli e 1500 biolche di terra adesso è cambiata perché anche in campagna c'è gente che porta il berretto tutto da una parte mangia polpette di cavallo e grida in pubblico alle ragazze d'osteria che hanno di bello questo e quest'altro il telegrafo e la ferrovia hanno fatto molto in questo campo ma allora la cosa era diversa e quando arrivavano quelli di città al boscaccio c'era gente che stava in forse se uscire di casa con la doppietta carica pallettoni oppure a palla il boscaccio era un benedetto paese fatto così una volta seduti davanti al ceppo dell'aia guardavamo nostro padre che con una zappa cavava fuori da un pezzo di pioppo una palla da frumento quando arrivò di corsa chico disse chico che aveva due anni e non poteva fare lunghi discorsi io non riesco a capire come facesse mio padre a intendere sempre quello che borbottava chico c'è qualche forestiero o qualche bestiaccia disse mio padre e fattosi portare la doppietta si avviò trascinato da chico verso il prato davanti al primo frassino provammo sei maledetti di città avevano dei trespoli e dei pali bianchi e rossi e misuravano non so che cosa calpestando il trifoglio cosa fate domandò mio padre al più vicino che reggeva uno dei pali rossi e bianchi faccio il mio mestiere spiegò l'imbecille senza voltarsi e se anche voi faceste il vostro si risparmierebbe fiato toglietevi di là gridarono gli altri che stavano in mezzo al trifoglio attorno al tre piedi via disse mio padre puntando la doppietta contro i sei imbecilli di città e quelli quando lo videro alto come un pioppo in mezzo alla carrareccia presero i loro arnesi e scapparono come lepri alla sera mentre seduti attorno al ceppo dell'aia stavamo guardando nostro padre dare gli ultimi colpi di zappetta alla pala i sei di città ritornarono accompagnati da due guardie che erano andati a stanare fino alla stazione di gazzola è quello lì disse uno dei sei miserabili indicando mio padre mio padre continuò a zappettare senza neppure alzare la testa e capoguardia affermò che non capiva come potesse essere successo è successo che ho visto sei estranei rovinarmi il trifoglio e li ho mandati fuori della mia terra spiegò mio padre il capoguardia disse che si trattava dell'ingegnere dei suoi aiutanti venuti a prendere le misure per il binario del tramvai a vapore dovevano dirlo chi entra in casa mia deve domandare permesso dichiarò mio padre rimirando soddisfatto il suo lavoro e poi attraverso i miei campi non deve passare nessun tramvai se ci fa comodo il tramvai passerà rise con rabbia l'ingegnere ma mio padre si era accorto che la pala aveva su un fianco una gobba e ora era molto impegnato a spianarla il capoguardia affermò che mio padre doveva lasciar passare l'ingegnere e i suoi aiutanti è roba governativa concluse quando avrò una carta coi timbri del governo lascerò passare quella gente borbottò mio padre il mio diritto lo conosco il capoguardia convenne che mio padre aveva ragione e che l'ingegnere avrebbe portato la carta coi timbri l'ingegnere e i cinque di città tornarono il giorno dopo entrarono nell'aia con le pagliette all'indietro i berretti sull'orecchio ecco la carta disse l'ingegnere presentando un foglio a mio padre mio padre prese il foglio e si avviò verso casa lo seguimo tutti leggi ad agio mi ordinò mio padre quando fummo in cucina e io lessi e rilessi vaglia a dire che può andare concluse alla fine mio padre cupo ritornato in casa seguì mio padre e gli altri sul solaio e ci disponemmo davanti alla finestra rotonda che dava sui campi i sei imbecilli camminarono canticchiando per la carrareccia fino al frassino improvvisamente li vedemmo gesticolare rabbiosi uno fece l'atto di correre verso casa nostra ma gli altri lo trattennero quelle di città anche oggi si regolano sempre così fanno l'atto di correre addosso a qualcuno ma gli altri li trattengono stettero discutere sulla carrareccia un certo tempo poi si tolsero le scarpe le calze e si rimboccarono i calzoni alla fine entrarono saltellando nel prato di trifoglio era stato un lavoraccio durato da mezzanotte alle 5 del mattino quattro arati da coltura fonda tirati da 80 buoi avevano buttato all'aria tutto il prato del trifoglio poi si erano dovuti sbarrare dei fossi aprirne degli altri per allagare la terra rata alla fine si erano dovuti portare 10 cisterne di roba del pozzo nero della stalla e svuotarle nell'acqua mio padre rimase con noi alla finestra del solaio fino a mezzogiorno a vedere sgambettare gli uomini di città chico faceva degli strilli da uccellino ogni volta che vedeva qualcuno dei sei barcollare e mia madre che era salita per dirci che la minestra era pronta era contenta guardalo lì da stamattina riacquistato tutto il suo colore aveva proprio bisogno di divertirsi povero pulcino si è ringraziato il buon dio che ti ha fatto passare per il cervello l'idea di stanotte disse mia madre verso sera vennero ancora i sei di città accompagnati dalle guardie e da un signore vestito di nero stanato fuori chissà dove i signori assediscono che avete allagato un campo per ostacolare il loro lavoro affermò l'uomo vestito di nero irritato perché mio padre stava seduto e non lo guardava neanche mio padre fece il suo fischio e vennero sull'ai a tutti i famigli che fra uomini donne e bambini erano 50 dicono che io ho allagato stanotte il prato prima del frassino spiegò mio padre sono 25 giorni che il campo è allagato asserì un vecchio 25 giorni dissero tutti uomini donne e bambini si saranno sbagliati col prato di trifoglio che è vicino al secondo frassino concluse il vaccaro è facile sbagliarsi per chi non è pratico se ne andarono tutti masticando rabbia mio padre il mattino dopo fece attaccare il cavallo al barroccio e andò in città dove rimase tre giorni ritornò molto buio in viso le rotaie debbono passare di lì non c'è niente da fare spiegò a mia madre vennero altri uomini di città che cominciarono a piantare picchetti di legno tra le zolle ormai asciutte il binario doveva attraversare tutto il campo di trifoglio per poi rientrare nella strada e fiancheggiarlo fino alla stazione di gazzola il tram a vapore sarebbe arrivato dalla città fino alla stazione di gazzola ed era una bella comodità ma sarebbe passato attraverso i poderi di mio padre e ci sarebbe passato di prepotenza questo era il grave glielo avessero domandato garbatamente mio padre avrebbe concesso la terra senza neppure pretendere soldi mio padre non era contrario al progresso il primo a comprare una doppietta moderna coi cani interni non era forse stato lui al boscaccio ma così buon dio lungo la strada provinciale lunghe schiere di uomini di città piantavano sassi interravano traversini e avvitavano rotaie e a mano a mano che il binario si allungava la locomotiva che trascinava vagoni di materiale faceva un passo avanti di notte gli uomini dormivano nei carri coperti che erano in coda al convoglio ormai la linea si avvicinava al campo di trifoglio e una mattina gli uomini cominciarono a buttar giù un pezzo di siepe io e mio padre eravamo seduti ai piedi del primo frassino c'era anche gringo il cagnaccio che mio padre amava come fosse uno di noi appena i badili sforacchiarono la siepe gringo si buttò verso la strada e quando gli uomini ebbero aperto un varco fra le gagge se lo trovarono davanti minaccioso che mostrava i denti uno degli imbecilli fece un passo e gringo gli si avventò al collo erano in una trentina con picconi e badili non ci vedevano perché eravamo dietro il frassino l'ingegnere si fece avanti con un bastone via bestiaccia gridò ma gringo lo azzannò un polpaccio facendolo cadere urlante gli altri eseguirono un attacco in massa menando badilate gringo non cedeva sanguinava ma continuava a mordere stracciava polpacci stritolava mani mio padre si mordeva i baffi era pallido come un morto e sudava se avesse fischiato gringo sarebbe ritornato subito e avrebbe avuta salva la vita mio padre non fischiò continuò a guardare pallido come un morto con la fronte piena di sudore stringendomi la mano mentre io singhiozzavo al tronco del frassino era appoggiata la doppietta e rimase così appoggiata gringo ormai non aveva più forza e lottava soltanto con l'animaccia sua uno gli spaccò la testa col taglio del badile un altro lo inchiodò per terra con la vanga gringo si lamentò un poco poi si stecchi allora mio padre si alzò si mise sotto braccio la doppietta e si avanzò lentamente verso quelli di città come se lo videro apparire davanti alto come un pioppo coi baffi a punta il largo cappello la giacca corta e gli stivali coi calzoni a coscia tutti fecero un passo indietro e lo guardarono muti stringendo il manico dei loro arnesi mio padre arrivò fino a gringo si chinò lo afferrò per il collare e se lo trascinò via come uno straccio lo seppellimmo a piede dell'argine e quando io ebbi pestata la terra e tutto ritornò come prima mio padre si tolse il cappello anch'io mi tolse il cappello il tram non arrivò mai a gazzola era d'autunno e il fiume si era gonfiato e scorreva giallo di fango una notte l'argine si ruppe e l'acqua corse per i campi allogò tutta la parte bassa del podere il campo di trifoglio e la strada diventarono un lago allora sospesero i lavori e per evitare ogni futuro pericolo fermarono la linea al boscaccio 8 chilometri da casa nostra e quando calmatosi il fiume andammo con gli uomini per riparare la falla mio padre mi strinse forte la mano l'argine si era rotto proprio là dove avevamo sepolto gringo di tanto è capace l'animaccia di un cane io dico che questo è il miracolo della bassa su uno scenario scrupolosamente veristico come quello dipinto dal notaio francesco luigi campari uomo di gran cuore e innamorato della bassa ma che non avrebbe concesso alla bassa neppure una tortorella se le tortorelle non avessero fatto parte della fauna locale un cronista di giornale ficca dentro una storia e non si sa più se sia maggiormente vera la descrizione del notaio o la vicenda inventata dal cronista questo è il mondo di mondo piccolo strade lunghe e diritte case piccole pitturate di rosso di giallo e di blu oltremare sperdute in mezzo ai filari di viti nelle sere d'agosto si alza lentamente dietro l'argine una luna rossa ed enorme che pare roba di altri secoli uno è seduto su un mucchio di ghiaia sulla riva del fosso con la bicicletta appoggiata al palo del telegrafo si arrotola una sigaretta di trinciato tu passi quello ti domanda uno zolfanello parlate tu gli dici che vai al festival a ballare e quello scuote la testa tu gli dici che ci sono delle belle ragazze e quello scuote ancora la testa terza storia ragazze no niente ragazze se si tratta di fare un po di baracca all'osteria una cantata sempre pronto niente altro però io ho già la mia ragazza che mi aspetta tutte le sere vicino al terzo palo del telegrafo lungo la strada del fabbricone io avevo 14 anni e tornavo a casa in bicicletta per la strada del fabbricone un albero di prugne lasciava uscire un ramo da un muretto e una volta mi fermai una ragazza uscì dai campi con un cesto in mano e io la chiamai doveva avere un 19 anni perché era molto più alta di me e ben formata tu fammi la scaletta le dissi la ragazza depose il cesto e io mi sai sulle sue spalle il ramo era stracarico e io mi riempì la camicia di prugne gialle allarga il grembiule che facciamo a mezzo disse alla ragazza la ragazza rispose che non occorreva non ti piacciono le prugne domandai sì ma io le posso staccare quando voglio spiegò la pianta è mia io abito lì io allora avevo 14 anni e portavo i calzoni a mezza gamba ma facevo il manovale di muratore e non avevo paura di nessuno lei era molto più alta di me è formata come una donna tu prendi in giro la gente esclamai guardandola male ma io sono anche capace di romperti la faccia brutta spilungona non fiatò neanche la incontrai due sere dopo sempre sulla stradetta ciao spilungona le gridai poi le feci un versaccio con la bocca adesso non sarei più capace ma allora li facevo meglio del capomastro che aveva imparato a napoli la incontrai delle altre volte ma non le dissi più niente una sera finalmente perdetti la pazienza saltai giù dalla bicicletta e le sbarrai il passo si potrebbe sapere che cos'hai da guardarmi così le domandai buttandomi la visiera del berretto tutto da una parte la ragazza spalancò due occhi chiari come l'acqua due occhi come non ne avevo visti mai io non ti guardo rispose timidamente rimontai sulla bicicletta sta in gamba spilungona le gridai io non scherzo una settimana dopo la vidi di lontano che stava camminando davanti a me a fianco di un giovanotto e mi venne una gran rabbia mi alzai in piedi sui pedali e cominciai a spingere come un dannato a due metri dal giovanotto sterzai e nel passargli vicino gli diedi una spallata che lo appiccicò lungo disteso per terra come una buccia di fico sentì che mi gridava dietro del figlio di donnaccia e io allora smontai e appoggiai la bicicletta a un palo telegrafico vicino a un mucchio di ghiaia lo vidi che mi correva incontro come un maledetto era un giovanotto di vent'anni e con un pugno mi avrebbe spaccato ma io facevo il manovale di muratore e non avevo paura di nessuno quando fu ora gli sparai una sassata che lo prese dritto in faccia mio padre era un meccanico straordinario e quando avevo una chiave inglese in mano faceva scappare un paese intero però anche mio padre se vedeva che io riuscivo a raccattare un sasso faceva dietro front e per chiarmi aspettava che io dormissi ed era mio padre figurati quel baggiano là gli riempì la faccia di sangue poi quando ne ebbi voglia saltai sulla bicicletta e filai via per un paio di sere girai alla larga poi alla terza ritornai per la strada del fabbricone e appena vidi la ragazza la raggiunsi e smontai all'americana saltando giù dal sellino per di dietro i ragazzi del giorno d'oggi fanno ridere quando vanno in bicicletta parafanghi campanelli freni fanali elettrici cambi di velocità e poi io avevo una frera con sopra le croste di ruggine ma per scendere i sedici gradini della piazza mica smontavo pigliavo il manubrio alla gerbi e volavo giù come un fulmine smontai e mi trovai davanti alla ragazza avevo la sport attaccata al manubrio e cavai fuori una martellina se ti trovo ancora con un altro ti spacco la testa a te e a lui dissi la ragazza mi guardò con quei suoi maledetti occhi chiari come l'acqua perché dici così mi domandò sottovoce non lo sapevo ma cosa importa perché sì risposi tu devi andare a spasso da sola o se no con me io ho diciannove anni e tu quattordici al massimo disse la ragazza se tu ne avessi almeno diciotto sarebbe un'altra cosa adesso io sono una donna e tu sei un ragazzo e tu aspetta fino a quando avrò diciotto anni gridai e vada non farti vedere con qualcuno o sei fritta allora io facevo il manovale di muratore e non avevo paura di niente quando sentivo parlare di donne pigliavo su e andavo via non me ne importava un fico secco delle donne però quella là non doveva farla stupida con gli altri rividi la ragazza per quasi quattro anni tutte le sere meno la domenica era sempre la appoggiata al terzo palo del telegrafo sulla strada del fabbricone se pioveva aveva il suo bravo ombrello aperto non mi fermai neanche una volta ciao le dicevo passando ciao mi rispondeva il giorno in cui compì 18 anni smontai dalla bicicletta ho 18 anni le dissi adesso puoi venire a spasso con me se fai la stupida ti spacco la testa lei aveva adesso 23 anni e sarà fatta una donna completa però aveva sempre gli stessi occhi chiari come l'acqua e parlava sempre a voce bassa come prima tu hai 18 anni mi rispose ma io ne ho 23 i ragazzi mi prenderebbero a sassate se mi vedessero insieme con uno così giovane lasciai andare la bicicletta per terra rimediai un sasso piatto e le dissi lo vedi quell'isolatore là il primo sul terzo palo fece cenno di sì con la testa lo centrai netto e rimase soltanto il gancio di ferro nudo come un verme i ragazzi esclamai prima di prenderci a sassate dovranno saper lavorare così facevo per dire spiegò la ragazza non sta bene che una donna vada in giro con un minorenne se tu avessi almeno fatto il soldato mi girai la visiera del berretto tutta a sinistra ragazza mia per caso mi avresti preso per un toro totella quando avrò fatto il soldato io avrò 21 anno e tu ne avrai 26 e allora ricomincerai la storia no rispose la ragazza fra 18 e 23 è una cosa e fra 21 e 26 è un'altra più si va avanti e meno gli anni di differenza contano un uomo che abbia 21 anno o che ne abbia 26 è la stessa cosa mi pareva un ragionamento giusto però io non ero il tipo che si lasciasse menare per il naso allora ne riparleremo quando avrò fatto il soldato dissi saltando in sella però bada che se quando ritorno non ti trovo vengo a spaccarti la testa anche sotto il letto di tuo padre tutte le sere la vedevo ferma al terzo palo della luce e io non scesi mai le dicevo buonasera e lei mi rispondeva buonasera quando mi chiamarono io le gridai domani parto per il militare arrivederci rispose la ragazza adesso non è il caso di ricordare tutta la mia vita militare macinai 18 mesi di naia e al reggimento ero lo stesso di quando stavo a casa avrò fatto tre mesi di riga si può dire che tutte le sere o ero consegnato o ero dentro appena passati i 18 mesi mi mandarono a casa arrivai nel pomeriggio tardi e senza neanche mettermi in borghese saltai sulla bicicletta e andai verso la strada del fabbricone se quella trovava ancora delle storie la facevo fuori a biciclettate nella schiena cominciava a farsi scuro lentamente e io andavo come un fulmine pensando dove diavolo sarei andato a stanarla fuori ma non dovetti cercare un bel niente invece la ragazza era là che mi aspettava puntualmente sotto il terzo palo del telegrafo era precisa come l'avevo lasciata e gli occhi erano gli stessi identici smontai davanti a lei ho finito le dissi mostrando le foglie di congedo c'è l'italia seduta e vuol dire congedo illimitato dove c'è invece l'italia in piedi significa congedo provvisorio è una bella cosa rispose la ragazza avevo corso come un dio ti fulmine e avevo la gola secca si potrebbe avere un paio di quelle prugne gialle di quella volta domandai la ragazza sospirò mi dispiace tanto ma la pianta è bruciata bruciata mi meravigliai da quando in qua le piante di prugne bruciano è stato sei mesi fa rispose la ragazza una notte prese fuoco il pagliaio e bruciò la casa e tutte le piante dell'orto come zolfanelli tutto è bruciato dopo due ore c'erano soltanto i muri li vedi guardai là in fondo e vede un pezzo di muro nero con una finestra che si apriva sul cielo rosso e tu domandai anch'io rispose con un sospiro anch'io come tutto il resto un mucchietto di cenere e buonanotte al secchio io guardai la ragazza che stava appoggiata contro il palo del telegrafo la guardai fisso e attraverso la sua faccia e il suo corpo vidi la venatura del legno del palo e l'erba del fosso le misi un dito sulla fronte e toccai il palo del telegrafo ti ho fatto male domandai niente male rimanemmo un po in silenzio mentre il cielo diventava di un rosso sempre più cupo e allora dissi alla fine ti ho aspettato sospirò la ragazza per farti vedere che la colpa non è mia adesso posso andare io allora avevo 21 anni e facevo il presentatarm con un pezzo da 75 le ragazze quando mi vedevano passare buttavano in fuori il petto come se si trovassero alla rivista del generale e mi guardavano finché avevano una fessura d'occhio allora ripete la ragazza con voce bassa debbo andare no le risposi io tu devi aspettarmi finché ho finito quest'altro servizio in giro non mi prendi bella mia va bene disse la ragazza e mi che sorridesse ma a me queste stupidaggini non vanno tanto e rimontai subito in bicicletta adesso sono ormai 12 anni che tutte le sere ci vediamo io passo e neanche smonto dalla bicicletta ciao 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 capite se si tratta di fare una cantata all'osteria un po di baracca sempre pronto niente altro però io ho già la mia ragazza che mi aspetta tutte le sere vicino al terzo palo del telegrafo sulla strada del fabbricone uno adesso dice fratello perché mi racconti queste storie perché si rispondo io perché bisogna rendersi conto che in quella fettaccia di terra tra il fiume e il monte possono succedere cose che da altre parti non succedono cose che non stonano mai col paesaggio e là tira un'aria speciale che va bene per i vivi e per i morti e là hanno un'anima anche i cani allora si capisce meglio don camillo peppone e tutta l'altra mercanzia e non ci si stupisce che il cristo parli e che uno possa spaccare la zucca un altro ma onestamente però cioè senza odio e che due nemici si trovino alla fine d'accordo nelle cose essenziali perché è l'ampio eterno respiro del fiume che pulisce l'aria del fiume placido e maestoso sull'argine del quale verso sera passa rapida la morte in bicicletta o passi tu sull'argine di notte e ti fermi e ti metti a sedere e guardi dentro un piccolo cimitero che è lì sotto l'argine e se l'ombra di un morto viene a sedersi vicino a te tu non ti spaventi e parli tranquillo con lei ecco l'aria che si respira in quella fettaccia di terra fuori mano e si capisce facilmente cosa possa diventare laggiù la faccenda della politica adesso c'è il fatto che in queste storie parla spesso il cristo crocifisso perché i personaggi principali sono tre il prete don camillo il comunista peppone e il cristo crocifisso ebbene qui occorre spiegarsi se i preti si sentono offesi per via di don camillo padronissimi di rompermi un candelotto in testa se i comunisti si sentono offesi per via di peppone padronissimi di rompermi una stanga sulla schiena ma se qualcun altro si sente offeso per via dei discorsi del cristo niente da fare perché chi parla nelle mie storie non è il cristo ma il mio cristo cioè la voce della mia coscienza roba mia personale affari interni miei quindi ognuno per sé e dio per tutti peccato confessato don camillo era uno di quei tipi che non hanno peli sulla lingua e la volta che in paese era successo un sudicio pasticcio nel quale erano immischiati vecchi possidenti e ragazze don camillo durante la messa aveva cominciato un discorsetto generico e ammodino poi a un bel momento scorgendo proprio in prima fila uno degli scostumati gli erano scappati i cavalli e interrotto il suo dire aveva gettato un drappo sulla testa di gesù crocifisso dell'altar maggiore perché non sentisse e piantandosi i pugni sui fianchi aveva finito il discorso a modo suo e tanto era tonante la voce che usciva dalla bocca di quello maccione e tanto grosse le diceva che il soffitto della chiesetta tremava naturalmente don camillo venuto il tempo delle elezioni si era espresso in modo così esplicito nei riguardi degli esponenti locali delle sinistre che una bella sera tra il lusco e il brusco mentre tornava in canonica un pezzaccio d'uomo intabarrato gli era arrivato alle spalle schizzando fuori da una siepe e approfittando del fatto che don camillo era impacciato dalla bicicletta al manubrio della quale era appeso un fagotto con 70 uova e aveva dato una robusta suonata con un palo scomparendo poi come inghiottito dalla terra don camillo non aveva detto niente a nessuno arrivato in canonica e messa in salvo le uova era andato in chiesa a consigliarsi con gesù come faceva sempre nei momenti di dubbio cosa devo fare aveva chiesto don camillo spennellati la schiena con un po d'olio sbattuto nell'acqua e stati zitto gli aveva risposto gesù dal sommo dell'altare bisogna perdonare chi ci offende questa è la regola va bene aveva obiettato don camillo qui però si tratta di legnate non di offese e cosa vuole dire gli aveva sussurrato gesù forse che le offese recate al corpo sono più dolorose di quelle recate allo spirito d'accordo signore ma voi dovete tenere presente che legnando me che sono il vostro ministro hanno recato offesa a voi io lo faccio più per voi che per me e io non ero forse più ministro di dio di te e non ho forse perdonato a chi mi ha inchiodato sulla croce con voi non si può ragionare aveva concluso don camillo avete sempre ragione voi sia fatta la vostra volontà perdoneremo però ricordatevi che se quelli imbaldanziti dal mio silenzio mi spaccheranno la zucca la responsabilità sarà vostra io potrei citare dei passi del vecchio testamento don camillo a me vieni a parlare di vecchio testamento per quanto riguarda il resto mi assumo ogni responsabilità però detto fra noi una pestatina ti sta bene così impari a fare della politica in casa mia don camillo aveva perdonato però una cosa gli era rimasta di attraverso nel gozzo come una lisca di merluzzo la curiosità di sapere chi l'avesse spennellato passò del tempo e una sera tardi mentre era nel confessionale don camillo vide attraverso la grata la faccia del capoccia dell'estrema sinistra peppone peppone che veniva a confessarsi era un avvenimento da far rimanere a bocca aperta don camillo si compiacque dio sia con te fratello con te che più di ogni altro hai bisogno della sua santa benedizione è da molto tempo che non ti confessi dal 1908 rispose peppone figurati i peccati che hai fatto in questi 28 anni con quelle belle idee che hai per la testa eh sì parecchi sospirò peppone per esempio per esempio due mesi fa vi ho bastonato è grave rispose don camillo offendendo un ministro di dio tu hai offeso dio me ne sono pentito esclamò peppone io poi non vi ho bastonato come ministro di dio ma come avversario politico è stato un momento di debolezza oltre a questo e all'appartenenza a quel tuo diabolico partito hai altri peccati gravi peppone vuotò il sacco in complesso era poca roba e don camillo lo liquidò con una ventina fra patere ave marie poi mentre peppone si inginocchiava davanti alla balaustra per dire la sua penitenza don camillo andò inginocchiarsi sotto il crocifisso gesù disse perdonatemi ma io gliele pesto neanche per sogno rispose gesù io l'ho perdonato e anche tu devi perdonare in fondo è un bravo uomo gesù non ti fidare dei rossi quelli tirano a fregare guardalo bene non vedi che faccia da barabba che ha una faccia come tutte le altre don camillo tu hai il cuore avvelenato gesù se vi ho servito bene fatemi una grazia lasciate almeno che gli sbatta quel candelotto sulla schiena cos'è una candela gesù mio no rispose gesù le tue mani sono fatte per benedire non per percuotere don camillo sospirò si inchinò e uscì dal cancelletto si volse verso l'altare per segnarsi ancora e così si trovò dietro le spalle di peppone che inginocchiato era immerso nelle sue preghiere sta bene gemette don camillo giungendo le palme e guardando gesù le mani sono fatte per benedire ma i piedi no anche questo è vero disse gesù dall'alto dell'altare però mi raccomando don camillo una sola la pedata partì come un fulmine peppone incassò senza battere ciglio poi si alzò e sospirò sollevato a dieci minuti che l'aspettavo disse adesso mi sento meglio anch'io esclamò don camillo che aveva ora il cuore sgonfro e netto come il cielo sereno gesù non disse niente ma si vedeva che era contento anche lui il battesimo entrarono improvvisamente in chiesa un uomo e due donne e una delle due era la moglie di peppone il capo dei rossi don camillo che in cima a una scala stava lucidando col sidol laureola di san giuseppe si volse e domandò cosa volevano c'è da battezzare della roba rispose l'uomo e una delle donne mostrò un fagotto con dentro un bambino chi l'ha fatto chiese don camillo scendendo io rispose la moglie di peppone con tuo marito si informò don camillo si capisce con chi vuole che l'abbia fatto con lei ribatte secca la moglie di peppone c'è poco da arrabbiarsi osservò don camillo avviandosi verso la sagristia so assai io non avevano detto che nel vostro partito è di moda l'amore libero passando davanti all'altare don camillo si inchinò e strizzò l'occhio al cristo crucifisso avete sentito e don camillo ridacchiò glielo ho dato un colpetto a quei senza dio non dire stupidaggini don camillo rispose seccato il cristo se fossero senza dio non verrebbero qui a far battezzare i figli se la moglie di peppone ti avesse rifilato una sberla te la saresti guadagnata se la moglie di peppone mi dava una sberla io li prendevo tutte e tre per il collo e domandò severo gesù niente si fa per dire rispose in fretta don camillo alzandosi don camillo sta in guardia lo ammonì gesù indossati i paramenti don camillo si appressò al fonte battesimale come lo volete chiamare chiese don camillo alla moglie di peppone lenin libero antonio rispose la moglie di peppone vallo a battezzare in russia disse calmo don camillo rimettendo il coperchio al fonte battesimale don camillo aveva mani grandi come badili e i tre se ne andarono senza fiatare don camillo cercò di sgattaiolare in sagristia ma la voce del cristo lo bloccò don camillo hai fatto una gran brutta cosa va a richiamare quella gente e battezza il bambino gesù rispose don camillo dovete mettervi in mente che il battesimo non è mica una burletta il battesimo è una cosa sacra il battesimo don camillo lo interruppe il cristo a me vuoi insegnare cos'è il battesimo a me che l'ho inventato io ti dico che hai fatto una grossa superchieria perché se quel bambino metti il caso in questo momento muore la colpa è tua se non hai il libero ingresso in paradiso gesù non drammatizziamo ribatte don camillo perché dovrebbe morire è bianco e rosso come una rosa non vuol dire lo ammonì il cristo gli può cadere una tegola in testa gli può venire un colpo apoplettico tu lo devi battezzare don camillo allargò le braccia gesù pensateci un momento si fosse sicuri che quello poi va all'inferno si potrebbe lasciar passare ma quello pur essendo figlio di un brutto ornese può benissimo capitarvi fra capo e collo in paradiso e allora ditemi voi come posso permettere che vi arrivi in paradiso della gente che si chiama lenin io lo faccio per il buon nome del paradiso al buon nome del paradiso ci penso io gridò seccato gesù a me interessa che uno sia un galantuomo che si chiami poi lenin o bottone non mi importa niente al massimo tu potevi far presente a quella gente che dare ai bambini nomi strampalati spesso può significare metterli nei pasticci da grandi va bene rispose don camillo io ho sempre torto cercheremo di rimediare in quel momento entrò qualcuno era peppone solo col bambino in braccio peppone chiuse la porta col chiavistello di qui non esco disse se mio figlio non è stato battezzato col nome che voglio io ecco sussurrò sorridendo don camillo rivolto al cristo lo vedete che gente uno è pieno delle più sante intenzioni e guardate come lo trattano mettiti nei suoi panni rispose il cristo non sono sistemi da provare ma si possono comprendere don camillo scosse il capo ho detto che di qui non esco se non mi battezzate il figlio come voglio io ripete peppone e deposto il fagotto col bimbo su una panca si tolse la giacca si rimboccò le maniche e avanzò minaccioso gesù implorò don camillo io mi rimetto a voi se voi stimate giusto che un vostro sacerdote ceda alle imposizioni dei privati io cedo ad ogni modo domani non lamentatevi se poi mi porteranno un vitello e mi imporranno di battezzarlo voi lo sapete guai a creare dei precedenti beh rispose il cristo in questo caso tu devi cercare di fargli capire e se quello me le dà prendile don camillo sopporta soffri come ho fatto io allora don camillo si volse d'accordo peppone disse il bambino uscirà di qui battezzato però non con quel nome dannato don camillo borbottò peppone ricordatevi che ho la pancia delicata per quella palla che mi sono preso in montagna non tirate colpi bassi o comincio a lavorare con una panca sta tranquillo peppone io te li sistemo tutti al piano superiore rispose don camillo collocandogli una sventola a cavalcioni di un'orecchia erano due omacci con le braccia di ferro e volavano sberle che facevano fischiare l'aria dopo venti minuti di lotta furibonda e silenziosa don camillo sentì una voce alle sue spalle forza don camillo tiragli alla mascella era il cristo da sopra l'altare don camillo sparò alla mascella e peppone rovinò per terra peppone rimase lungo disteso una decina di minuti poi si rialzò si massaggiò il mento si rassettò si rimise la giacca si rifece il nodo al fazzoletto rosso e prese in braccio il bambino vestito dei paramenti d'uso don camillo lo aspettava fermo come un macigno davanti al fonte battesimale peppone si avvicinò lentamente come lo chiamiamo chiese don camillo camillo libero antonio borbottò peppone don camillo scosse il capo ma no chiamiamolo invece libero camillo lenin disse sì anche lenin quando hanno un camillo vicino i tipi come quello là non hanno niente da fare amen borbottò peppone tastandosi la mascella quando finito tutto don camillo passò davanti all'altare il cristo disse sorridendo don camillo bisogna dire la verità in politica ci sai fare meglio tu di me anche a cazzotti però rispose don camillo con molto sussiego tastandosi con indifferenza un grosso bernoccolo sulla fronte il proclama sul tardi arrivò in canonica il vecchio barchini il cartolaio del paese il quale possedendo due casse di caratteri e una pedalina del 1870 aveva scritto sulla bottega tipografia doveva avere cose grosse da raccontare perché rimase un bel po' nello studiolo di don camillo quando barchini se ne fu andato don camillo corse a confidarsi col gesù dell'altare novità importanti esclamò don camillo domani il nemico manda fuori un manifesto lo stampa barchini che mi ha portato la bozza don camillo trasse di tasca un foglietto fresco di stampa e lesse ad alta voce primo e ultimo avviso ancora ieri sera una vile mano anonima ha scritto un offensivo insulto sul nostro giornale murale stia in gamba quella mano di qualche mascalzone che approfitta dell'ombra per svolgere azione provocatrice qualora il quale non la smette dovrà poi pentirsene quando sarà ormai irreparabile ogni pazienza ha un limite il segretario della sezione giuseppe bottazzi don camillo sghignazzò cosa ve ne pare non è un capolavoro pensate domani che spasso la gente quando vedrà sui muri i manifesti peppone che si mette a fare i proclami non è roba da crepare dal ridere e cristo non rispose e allora don camillo si stupì non avete sentito che stile volete che ve lo rilegga ho capito ho capito rispose il cristo ognuno si esprime come può mica è lecito pretendere che uno il quale ha fatto solo la terza elementare badi alle sfumature stilistiche signore esclamò don camillo allargando le braccia voi chiamate sfumatura un guazzabuglio di questo genere don camillo l'azione più misera che si può commettere in una polemica è quella di aggrapparsi agli errori di grammatica e di sintassi dell'avversario quelli che contano nella polemica sono gli argomenti piuttosto tu devi dirmi che è bruttissimo quel tono di minaccia che hai in manifesto don camillo ripose in tasca il foglietto è sottinteso borbottò la cosa veramente riprovevole è il tono minaccioso del manifesto d'altra parte cosa volete aspettarvi da questa gente non capiscono che la violenza eppure osservò il cristo nonostante le sue intemperanze quel peppone non mi ha l'aria di essere proprio un soggettaccio don camillo si strinse nelle spalle è come mettere vino buono dentro una botta e marcia patocca quando uno entra in certi ambienti e pratica certe idee sacrilege certa gentaccia finisce che si guasta ma il cristo non parve convinto io dico che nel caso di peppone non ci si deve fermare alla forma ma bisogna indagare sulla sostanza vedere cioè se il peppone agisce spinto da un naturale malanimo oppure se agisce sotto l'impulso di una provocazione con chi ce l'ha secondo te don camillo allargò le braccia e chi poteva saperne niente basterebbe sapere di che genere era l'offesa insistè il cristo e gli parla di un insulto che qualcuno ha scritto ieri sera sul suo giornale murale quando tu ieri sera sei andato dal tabaccaio non sei per caso passato davanti a quel giornale murale cerca di ricordarti effettivamente sì ci sono passato ammise francamente don camillo vede e non ti è capitato di fermarti un momentino a leggere la tabella leggere veramente no più che altro ho dato una sbirciatina ho fatto male neanche per sogno don camillo bisogna sempre tenersi al corrente su quello che dice scrive e possibilmente pensa il nostro gregge te lo chiedevo soltanto per sapere se tu hai notato qualche strana scritta quando ti sei fermato don camillo scosse il capo posso garantirvi che quando mi sono fermato non ho visto scritto niente di strano sulla tabella il cristo rimase qualche istante sopra pensiero e quando te ne sei andato don camillo hai visto se c'era scritto qualcosa di strano don camillo si concentrò ecco disse alla fine ripensandoci bene mi pare quando me ne sono andato di aver visto che su un foglio c'era scarabocchiato qualcosa in lapis rosso con permesso credo che ci sia gente in canonica don camillo si inchinò rapidissimamente e fece per sgattaiolare in sagrestia ma la voce del cristo lo bloccò don camillo don camillo ritornò indietro lentamente e si fermò imbronciato davanti all'altare e allora chiese severo il cristo e allora si borbottò don camillo mi è scappato scritto qualcosa mi è scappato scritto peppone asino però se aveste letta quella circolare sono sicuro che anche voi don camillo non sai quello che fai tu e pretendi sapere quello che farebbe il figlio del tuo dio scusatemi ho fatto una fesseria lo riconosco d'altra parte peppone adesso ne fa un'altra mettendo fuori i manifesti con le minacce e così siamo pari pari un bel niente esclamò il cristo peppone si è preso dell'asino da te ieri sera e domani si prenderà ancora dell'asino da tutto il paese figurati la gente che pioverà qui da tutte le parti per poter sghignazzare sugli strafalcioni del capopopolo peppone di cui tutti hanno una paura matta è tutto per colpa tua ti pare bello don camillo si rinfrancò d'accordo ma ai fini politici generali non mi interessano i fini politici generali lo interruppe il cristo ai fini della carità cristiana l'offrire alla gente motivo di deridere un uomo per il fatto che quest'uomo è arrivato soltanto alla terza elementare è una grossa porcheria e tu ne sei la causa don camillo signore sospirò don camillo ditemi voi cosa posso fare mica ho scritto io peppone asino chi fa il peccato faccia la penitenza arrangiati don camillo don camillo si rifugiò in canonica e presa a camminare in su e in giù per la camera e gli pareva di sentire le risate della gente ferma davanti ai manifesti di peppone imbecilli esclamò arrabbiatissimo si volse alla statuetta della madonna signora la pregò aiutatemi voi è un affare di stretta competenza di mio figlio sussurrò la madonnina non posso immischiarmene metteteci una buona parola proverò ed ecco improvvisamente entrò peppone sentite disse peppone qui la politica non c'entra qui si tratta di un cristiano che si trova nei guai e viene a chiedere consiglio a un prete posso essere sicuro so il mio dovere chi hai ammazzato io non ammazzo don camillo replicò peppone io caso mai quando uno mi pesta troppo i calli faccio volare sberle fulminanti come stai il tuo libro camillo lenin si informò con aria sorniona don camillo e allora peppone si ricordò della spazzolata che aveva ricevuto il giorno del battesimo e alzò le spalle si sa come succede brontolò le sberle sono merce che viaggia sberle vanno e sberle vengono ad ogni modo questa è un'altra questione insomma qui succede che c'è in paese un farabutto un vigliaccone nero un giude escariota dal dente velenoso il quale tutte le volte che appicchiamo al nostro albo una carta con la mia firma di segretario si diverte a scriverci sopra peppone asino tutto qui esclamò don camillo non mi pare poi una grande tragedia mi piacerebbe vedere se ragionereste così quando per 12 settimane di seguito trovaste scritto sulla tabella delle funzioni don camillo asino don camillo disse che quello era un paragone che non stava in piedi altro è l'albo di una chiesa altro è l'albo di una sezione di partito altro è dare dell'asino sacerdote di dio altro è dare dell'asino a un capo di matti scatenati non hai un'idea di chi possa essere si informò alla fine è meglio che non l'abbia rispose truce peppone se l'avessi quel barabba viaggerebbe ora con due occhi neri come la sua animaccia sono già 12 volte che mi fa lo scherzo quel saltastrada e sono sicuro che è sempre lui e adesso vorrei avvertirlo che la cosa è arrivata al massimo che si sappia regolare perché se lo appizzico succede il terremoto di messina e allora faccio stampare dei manifesti li appiccico a tutte le cantonate in modo che li vedano lui e la sua banda don camillo si strinse nelle spalle mica sono una stamperia disse cosa centro io rivolgiti a un tipografo già fatto spiegò cupo peppone ma siccome non mi va di fare la figura dell'asino voi dovreste dare una guardata alla bozza prima che barchini stampi il manifesto ma barchini non è mica un ignorante e se ci fosse stato qualcosa di difettoso te lo avrebbe detto figuriamoci sghignazzò peppone quello è un pretaccio voglio dire quello è un reazionario nero come la sua animaccia e anche se vedesse che ho scritto cuore con due q non fiaterebbe pur di farmi fare una figura magra ma ai tuoi uomini ribatte don camillo già io mi abbasso a farmi correggere il compito dai miei inferiori e poi bella roba fra tutti non riescono a mettere insieme mezzo alfabeto vediamo disse don camillo e peppone gli porse la bozza don camillo scorse lentamente le righe di stampa beh strafalcioni a parte mi pare un po troppo forte come tono forte gridò peppone ma quello è una canaglia maledetta un tal farabutto un tale manigoldo provocatore che per dirgli tutto quello che merita ci vogliono due vocabolari don camillo prese la matita e corresse con cura alla bozza adesso ripassati le correzioni a penna disse quando ebbe finito peppone guardò con tristezza il foglio pieno di cancellature e di segnacci pensare che quel vigliacco di barchini mi aveva detto che tutto era posto quanto vi debbo niente vedi piuttosto di tenere chiusa la ciabatta non ci tengo si sappia che lavoro per l'agit prop vi manderò delle uova peppone uscì e don camillo prima di mettersi a letto andò a salutare il cristo grazie per avergli suggerito di venire da me è il meno che potevo fare rispose sorridendo il cristo come è andata un po duretta ma bene non sospetta neppure lontanamente che sia stato io ieri sera invece lo sa benissimo ribatte il cristo lo sa benissimo che sei stato tu sempre tu tutte dodici le volte ti ha anche visto un paio di sere don camillo sta in gamba pensaci su sette volte prima di scrivere ancora peppone asino quando uscirò lascerò sempre a casa la matita promise solennemente don camillo amen concluse il cristo sorridendo inseguimento don camillo si era lasciato un po andare durante un fervorino a sfondo locale con qualche puntatina piuttosto forte per quelli là e così la sera dopo attaccatosi alle corde delle campane perché il campanaro l'avevano chiamato chissà dove era successo l'inferno un'anima dannata aveva legato delle castagnole al batacchio delle campane nessun danno ma un putiferio di scoppio da far venire il trepacuore don camillo non aveva aperto bocca aveva celebrato la funzione serale in perfetta calma e c'era la chiesa zeppa non ne mancava uno di quelli là peppone in prima fila e tutti con una faccia con punta da mettere la frenesia addosso un santo ma don camillo era un incassatore formidabile e la gente se n'era andata via delusa chiusa la porta grande don camillo si era buttata addosso la mantella e prima di uscire era andato a fare un rapido inchino davanti all'altare don camillo aveva detto il cristo crocifisso metti giù non capisco aveva protestato don camillo metti giù don camillo aveva tratto di sotto il mantello un palo e l'aveva deposto davanti all'altare brutta cosa don camillo gesù non è mica rovere è pioppo roba leggera pieghevole si era giustificato don camillo va a letto don camillo e non pensare più a peppone don camillo aveva allargato le braccia ed era andato a letto con la febbre così la sera dopo quando sul tardi gli comparve davanti la moglie di peppone saltò in piedi come gli fosse scoppiata una castagnola sotto don camillo cominciò la donna che era molto agitata ma don camillo l'interruppe via di qui razza sacrilega don camillo lasciate stare queste stupidaggini a castellino c'è quel maledetto che aveva tentato di fare la festa a peppone l'hanno messo fuori don camillo aveva acceso il sigaro compagna a me lo dici mica l'ho fatta io l'amnestia dal resto che te ne importa la donna si mise a gridare me ne importa perché lo sono venuti a dire a peppone e peppone è partito per castellino come un dannato ha preso sul mitra ah dunque le avete le armi nascoste vero don camillo lasciate stare la politica non capite che quello lo ammazza se non mi aiutate voi quello si rovina don camillo rise perfidamente così impara a legare le castagnole al batacchio delle campane in galera lo voglio vedere morire fuori di questa casa tre minuti dopo don camillo con la sottana legata attorno al collo arrancava come uno stesso sulla strada per castellino a cabalcioni della volsit da corsa del figlio del sacrestano c'era una splendida luna e a quattro chilometri da castellino don camillo vide un uomo seduto sulla spalletta del punticello del fossone allora rallentò perché bisogna essere prudenti quando si viaggia di notte fermò una decina di metri prima del ponte tenendo a portata di mano un gingilletto che si era trovato in tasca giovanotto chiese avete visto passare un uomo grosso in bicicletta diretto a castellino no don camillo rispose tranquillo l'altro don camillo si avvicinò sei già stato a castellino si informò no ci ho ripensato sopra non ne vale la pena è stata quella stupida di mia moglie a farvi scomodare scomodare figurati una passeggiatina però che effetto fa un prete in bicicletta da corsa sghignazzò peppone don camillo venne a sedergli essi vicino figlio mio bisogna prepararsi a vederne di tutti i colori a questo mondo un'oretta dopo don camillo era di ritorno e andava a stendere il suo rapportino al cristo tutto bene come mi avevate suggerito voi bravo don camillo ma dimmi un po ti avevo anche suggerito di prenderlo per i piedi e buttarlo dentro nel fosso don camillo allargò le braccia veramente non ricordo bene il fatto è che a lui non gli andava molto di vedere un prete in bicicletta da corsa e allora ho fatto in modo che non mi vedesse più capisco è già tornato arriverà fra poco vedendolo cadere nel fosso ho pensato che ritornando su un po bagnato si sarebbe trovato impicciato con la bicicletta e allora ho pensato di tornare solo con tutte e due le biciclette è stato un pensiero molto gentile don camillo approvò il cristo molto gravemente peppone si affacciò verso l'alba alla porta della canonica era bagnato fradicio e don camillo gli chiese se piovesse nebbia rispose peppone a denti stretti posso prendere la mia bicicletta figurati è lì peppone guardò la bicicletta non vi risulta che legato alla canna ci fosse per caso un mitra don camillo allargò le braccia sorridendo mitra che roba è io disse peppone sulla porta ho fatto un solo errore nella mia vita quello di legarvi delle castagnole ai batacchi delle campane dovevo legarci mezza tonnellata di dinamite errare umanum est osservò don camillo scuola serale la squadra degli uomini intabarrati prese cauta la via dei campi era buio profondo ma tutti conoscevano quella terra zolla per zolla e marciavano sicuri arrivarono dietro una piccola casa isolata fuori del paese mezzo miglio e scavalcarono la siepe dell'orto attraverso le gelosie di una finestra del primo piano filtrava un po di luce andiamo bene sussurrò peppone che aveva il comando della piccola spedizione è ancora alzata il colpo è riuscito bussa tu spiccio uno alto e ossuto dalla faccia decisa si avanzò e bussò un paio di colpi alla porta chi è disse dal di dentro una voce scartazzini rispose l'uomo di lì a poco la porta si è perse e apparve una vecchia piccola dai capelli bianchi come la neve che reggeva in mano una lucernetta gli altri uscirono dall'ombra e vennero davanti alla porta chi è tutta quella gente chiese la vecchia sospettosa sono con me spiegò l'ospiccio tutti amici dobbiamo parlarle di cose importanti entrarono tutti e dieci in una saletta pulita e ristettero muti accigliati e intabarrati davanti al tavolino al quale la vecchia era andata a sedersi la vecchia inforcò gli occhiali e guardò le facce che spuntavano dai tabarri neri borbottò li conosceva tutti a memoria dal principio alla fine quei tipi aveva 86 anni e aveva cominciato a insegnare l'abc in paese quando ancora l'abc era roba da grande città aveva insegnato ai padri ai figli e ai figli dei figli aveva pestato bacchettate sulle zucche più importanti del paese da un pezzo si era ritirata dall'insegnamento e viveva sola in quella remota casetta ma avrebbe potuto lasciare spalancate le porte perché la signora cristina era un monumento nazionale e nessuno avrebbe usato toccarle un dito cosa c'è chiese la signora cristina è successo un fatto spiegò l'ospiccio ci sono state le elezioni comunali e hanno vinto i rossi brutta gente i rossi commentò la signora cristina i rossi che hanno vinto siamo noi continuò l'ospiccio brutta gente lo stesso insistè la signora cristina nel 1901 quel cretino di tuo padre voleva che togliessi il crucifisso dalla scuola altri tempi disse l'ospiccio adesso è diverso meno male borbottò la vecchia e allora allora il fatto è che abbiamo vinto noi ma ci sono anche due della minoranza due dei neri neri sì due reazionari spilletti e il cavalier bignini la signora cristina ridacchiò quelli se siete rossi vi faranno diventare gialli dall'itterizia figurati con tutte le stupidaggini che direte per questo siamo qui borbottò l'ospiccio noi non possiamo che venire da lei perché soltanto di lei possiamo fidarci lei si capisce pagando ci deve aiutare aiutare qui c'è tutto il consiglio comunale noi veniamo per i campi la sera tardi e lei ci fa un po di ripasso ci riguarda le relazioni che dovremo leggere ci spiega le parole che non riusciamo a capire noi sappiamo quello che vogliamo e non ci sarebbe bisogno di tante poesie ma con quelle due carogne bisogna parlare in punta di forchetta o ci fanno passare per stupidi davanti al popolo la signora cristina scosse gravemente il capo se voi invece di fare i mascalzoni aveste studiato quando era ora adesso signora roba di trent'anni fa la signora cristina inforcò gli occhiali ed eccola col busto diritto come ringiovanita di trent'anni e anche gli altri erano ringiovaniti di trent'anni seduti disse la signora cristina e tutti si accomodarono su sedie e panchette la signora cristina alzò la fiamma della lucerna e passò in rassegna le facce dei dieci appello senza parole ogni viso un nome e il ricordo di una fanciullezza peppone era in un angolo buio messo un po di traverso la signora cristina alzò la lucerna poi rimise giù la lucerna e alzò il dito ossuto tu vattene disse con voce dura lo spiccio tentò di dire qualcosa ma la signora cristina scosse il capo in casa mia peppone non deve neanche entrarci in fotografia esclamò troppe me ne hai fatte giovanotto troppe e troppo grosse fuori e non farti più vedere lo spiccio allargò le braccia desolato signora cristina ma come si fa peppone il sindaco la signora cristina si alzò e brandì minacciosa una lunga bacchetta sindaco non sindaco via di qui o ti do tante bacchettate che ti pelo la zucca peppone si alzò ve l'avevo detto disse uscendo troppe ne ho fatte e ricordati che qui dentro non ci metti più piede neanche se tu diventassi ministro dell'istruzione lo minacciò la signora cristina rimettendosi a sedere asino don camillo nella chiesa deserta illuminata soltanto da due cieli dell'altare stava chiacchierando col cristo crucifisso non è certo per criticare il vostro operato concluse un bel momento ma io non avrei permesso che un peppone diventasse sindaco con una giunta nella quale soltanto due persone sanno correttamente leggere e scrivere la cultura non conta un bel niente don camillo rispose sorridendo il cristo quelle che contano sono le idee i bei discorsi non concludono niente se sotto le belle parole non ci sono idee pratiche prima di dare un giudizio mettiamoli alla prova giustissimo approvò don camillo io dicevo questo semplicemente perché se avesse vinto la lista dell'avvocato avevo già l'assicurazione che il campanile sarebbe stato rimesso a posto ad ogni modo se la torre crollerà in compenso sorgerà in paese una magnifica casa del popolo con sale da ballo vendita di liquori sale per il gioco d'azzardo teatro per spettacoli di varietà e serraglio per metterci dentro i serpenti velenosi come don camillo concluse il cristo ton camillo abbassò il capo gli dispiaceva di essersi dimostrato così maligno alzò la testa voi mi giudicate male disse voi sapete cosa significhi per me un sigaro ebbene ecco questo è l'unico sigaro che io posseggo e guardate quel che ne faccio trasse di tasca un sigaro e lo sbriciolò con l'enorme mano bravo disse il cristo bravo don camillo accetto la tua penitenza però adesso tu mi fai vedere a buttar via le briciole perché tu saresti capace di mettertele in tasca e fumartele poi nella pipa ma qui siamo in chiesa protestò don camillo don camillo non ti preoccupare butta il tabacco in quell'angolo don camillo eseguì sotto lo sguardo compiaciuto del cristo ed ecco si udì bussare alla porticina della sagristia ed entrò peppone buonasera signor sindaco esclamò don camillo con molta deferenza sentite disse peppone se un cristiano ha un dubbio su una cosa che ha fatto e viene da voi a raccontarvela se vi accorgete che quello ha commesso degli errori voi glieli fate rilevare o potete anche infischiarvene don camillo si seccò come osi mettere in dubbio la dirittura di un sacerdote il primo dovere di un sacerdote è quello di far rilevare chiaramente tutti gli errori che il penitente ha commesso bene esclamò peppone siete pronto a raccogliere la mia confessione sono pronto peppone trasse di tasca un grosso scartafaccio e cominciò a leggere cittadini nel mentre salutiamo la vittoria affermativa della lista da un camillo lo ruppe con un gesto e andò a inginocchiarsi davanti all'altare gesù mormorò io non rispondo più delle mie azioni ne rispondo io rispose il cristo peppone ti ha battuto e tu devi accusare onestamente il colpo e comportarti secondo i tuoi impegni gesù insistete don camillo vi rendete conto che mi fate lavorare per l'agit prop tu lavori per la grammatica la sintassi e l'ortografia le quali cose non hanno niente di di diabolico né di settario da un camillo inforcò gli occhiali impugnò il lapis e rimise in piedi i periodi traballanti del discorso che peppone doveva leggere il giorno dopo peppone rilesse gravemente bene approvò l'unica cosa che non capisco è questa dove io dicevo è nostro intendimento fare ampliare l'edificio scolastico e ricostruire il ponte sul fossalto voi avete corretto è nostro intendimento fare ampliare l'edificio scolastico far riparare la torre della chiesa e far ricostruire il ponte sul fossalto perché è una questione di sintassi spiegò gravemente don camillo beati voi che avete studiato il latino e capite tutte le sfumature della lingua sospirò peppone e così aggiunse anche la speranza che vi caschi in testa la torre sfuma don camillo allargò le braccia bisogna inchinarsi alla volontà di dio quando rientrò dopo aver accompagnato peppone alla porta don camillo venne a salutare il cristo bravo don camillo gli disse sorridendo il cristo ti avevo giudicato male e mi dispiace che tu abbia rotto l'ultimo tuo sigaro è una penitenza che non meritavi però siamo sinceri è stato ben villano quel peppone a non offrirti neppure un sigaro dopo tutta la tua fatica e va bene sospirò don camillo cavando dalla tasca un sigaro e accingendosi a stritolarlo nella grossa mano no don camillo disse il cristo sorridendo vattelo a fumare in pace te lo sei meritato ma no don camillo non l'hai rubato peppone ne aveva due nel taschino di sigari peppone è comunista prelevandone destramente uno tu non hai fatto che prenderti la tua parte nessuno meglio di voi sa queste cose esclamò don camillo con molto rispetto in riserva don camillo tutte le mattine andava a misurare la famosa crepa della torre e ogni volta era la stessa storia la crepa non si allargava ma neppure si restringeva e allora perdette la calma e un giorno mandò il sagrestano in comune va a dire al sindaco che venga subito a vedere questo guaio spiegagli che è una cosa grave il sagrestano andò e ritornò ha detto il sindaco peppone che vi crede sulla parola che sia una roba grave ad ogni modo ha detto che se proprio ci tenete a fargli vedere la crepa gli portiate la torre in municipio lui riceve fino alle cinque don camillo non battè ciglio si limitò a dire dopo la funzione serale se domattina peppone o qualcuno della sua banda hanno il coraggio di farsi vedere a messa assisteremo a cose da cinematografo ma lo sanno hanno paura e non si faranno vedere la mattina dopo non c'era l'ombra di un rosso in chiesa ma cinque minuti prima che cominciasse la messa si sentì sul sagrato risuonare il passo cadenzato di una formazione in marcia inquadrati perfettamente tutti i rossi non solo del paese ma delle frazioni vicine tutti persino bilò il calzolaio che aveva una gamba di legno e roldo dei prati che aveva una febbre da cavallo marciavano fieramente verso la chiesa con peppone in testa che dava l'un due compostamente presero posto in chiesa tutti in blocco granitico e tutti con una faccia feroce da corazzata potenkin don camillo arrivato al discorsetto illustrò con bel garbo la parabola del buon samaritano e terminò rivolgendo un breve fervorino ai fedeli come sanno tutti meno coloro che dovrebbero saperlo una incrinatura pericolosa staminando la saldezza della torre mi rivolgo quindi a voi miei cari fedeli perché veniate in aiuto alla casa di dio dicendo fedeli io intendo rivolgermi agli onesti i quali vengono qui per appressarsi a dio e non certo ai faziosi che vengono qui per fare sfoggio della loro preparazione militare a costoro ben poco può importare se la torre crolla finita la messa don camillo si insediò a un tavolino presso la porta della canonica e la gente sfilò davanti a lui ma nessuno andò via e tutti fatta l'offerta ristettero sulla piazzetta per vedere come andava a finire e andò a finire che arrivò peppone seguito dal battaglione perfettamente inquadrato che fece un formidabile alt davanti al tavolino peppone si avanzò fiero da questa torre queste campane hanno salutato ieri l'alba della liberazione e da questa torre queste stesse campane dovranno salutare domani l'alba radiosa della rivoluzione proletaria disse peppone a don camillo e gli mise davanti tre grandi fazzoletti rossi pieni di soldi poi se ne andò a testa alta seguito dalla banda eroldo dei prati crepava per la febbre e faceva fatica a rimanere in piedi ma anche lui aveva la testa alta e bilò lo zoppo quando passò davanti al tavolino di don camillo marcò fiero il passo con la zampa di legno quando don camillo portò a far vedere al cristo la cesta piena di soldi e disse che ce n'era davanzo per accomodare la torre il cristo sorrise sbalordito avevi ragione tu don camillo si capisce rispose don camillo perché voi conoscete l'umanità ma io conosco gli italiani fin qui don camillo si comportò bene sbagliò invece quando mandò a dire a peppone da aver molto apprezzata la preparazione militare dei suoi ma che secondo lui doveva esercitarli di più nel dietro front e nel passo di corsa perché ne avrebbero avuto un gran bisogno il giorno della rivoluzione proletaria questo non fu bene e peppone aspettò don camillo al varco don camillo era un perfetto gallantuomo ma possedeva oltre a una formidabile passione per la caccia una splendida doppietta e delle mirabili cartucce waltzrood oltre a questa la riserva del barone stocco era a soli cinque chilometri dal paese e costituiva una vera provocazione perché non soltanto la selvaggina ma persino le galline dei paraggi avevano imparato che bastava andarsi a rifugiare dietro quella siepe di rete metallica per poi poter sghignazzare in faccia a chi voleva tirar loro il collo quindi niente di strano se una sera don camillo con la sottana in un enorme paio di brache di fustagno e con un cappellaccio di feltro sulla zucca si trovò dentro la riserva del barone la carne è debole e più debole ancora la carne dei cacciatori e niente di strano se a don camillo scappò un doppietto che fulminò una lepre lunga un metro vista la lì per terra la mise nel carniere e già si accingeva a battere in ritirata quando si trovò davanti improvvisamente qualcuno e allora calcatosi il cappello fin sugli occhi gli sparò una zuccata sullo stomaco per mandarlo a gambe all'aria perché non era bello che in paese sapesse che il parroco era stato sorpreso da un guardacaccia a cacciare di frodo in riserva il guaio è che anche l'altro ebbe la stessa idea della zuccata e così le due zucche si incontrarono a mezza strada e fu una botta così potente che li mandò a sedere di rimbalzo per terra col terremoto in testa una zucca così dura come quella non può appartenere che al nostro beneamato signor sindaco brontolò don camillo quando gli si fu snebbiata la vista una zucca come quella non può appartenere che al nostro beneamato arciprete rispose peppone grattandosi in testa anche peppone cacciava di frodo in quei paraggi e aveva anche lui un diavolaccio di lepre nel carniere e ora guardava beffardo don camillo non avrei mai creduto che proprio colui il quale ci predica il rispetto per la roba altrui disse peppone tagliasse le siepi delle riserve per fare il bracconiere e io non avrei mai creduto che proprio il primo cittadino il compagno sindaco sindaco ma compagno lo interruppe peppone quindi rovinato dalle teorie infernali che vogliono l'equa distribuzione dei beni e perciò coerente alle sue idee molto di più del reverendo don camillo il quale invece qualcuno si avvicinava stava già a pochi passi ed era impossibile darsi la gambe senza rischiare di prendersi una schioppettata perché questa volta si trattava proprio di un guardacaccia bisogna fare qualcosa sussurrò don camillo se ci trovano qui succede uno scandalo non mi interessa rispose tranquillo peppone io rispondo sempre delle mie azioni i passi si avvicinavano e don camillo si addossò un grosso tronco peppone non si mosse e anzi quando apparve il guardacaccia con lo schioppo imbracciato lo salutò buonasera che fate qui chiese il guardacaccia raccolgo funghi con lo schioppo è un sistema come un altro il sistema per rendere meno pericolosi guardacaccia non è molto complicato trovandosi alle spalle di un guardacaccia basta avvolgergli improvvisamente la testa in un tabarro e picchiarli un pugno in testa poi basta approfittare del momentaneo stordimento del personaggio per raggiungere la siepe e scavalcarla una volta fuori tutto è a posto don camillo e peppone si ritrovarono seduti dietro un cespuglio lontano un miglio dalla riserva don camillo sospirò peppone abbiamo fatto una gran brutta cosa abbiamo alzato le mani su un tutore dell'ordine è un delitto don camillo che era stato lui ad alzarle le mani sudava freddo la coscienza mi rimorde continuò l'infame io non avrò più pace pensando a questa orribile cosa come troverò il coraggio di presentarmi a un ministro di dio per chiedere perdono del mio misfatto sia maledetto il giorno in cui ho prestato orecchio alle infami lusinghe del verbo moscovita dimenticando i sacri precetti della carità cristiana don camillo era tanto umiliato che aveva voglia di piangere d'altra parte aveva anche una voglia matta di dare un pugno sulla zucca di quel perverso e siccome peppone lo capì smise la lagna maledetta tentazione gridò peppone traendo dal carniere la lepre e scagliandola lontano maledetta sì gridò don camillo e tratta la sua lepre la buttò via in mezzo alla neve allontanandosi a testa bassa peppone lo seguì fino alle gagge poi voltò a destra scusate disse peppone fermandosi sapreste indicarmi un buon parroco delle vicinanze per andare a scaricarmi di questo peccato don camillo strinse i pugni e tirò dritto quando ebbe trovato il coraggio di ripresentarsi al cristo dell'altare don camillo allargò le braccia non l'ho fatto per me disse l'ho fatto semplicemente perché se si fosse saputo che io caccio di frodo più che me avrebbe avuto un danno la chiesa ma il cristo rimase muto e in questi casi a don camillo veniva la febbre quartana e si metteva a pane acqua per giorni e giorni fino a quando impietosito il cristo non gli diceva basta quella volta prima che il cristo gli dicesse basta don camillo stette a pane d'acqua per sette giorni e proprio la sera del settimo quando ormai per rimanere in piedi doveva appoggiarsi ai muri e la fame gli urlava nello stomaco peppone venne a confessarsi ho contravvenuto alla legge e alla carità cristiana disse peppone lo so rispose don camillo per di più appena voi vi siete allontanato sono tornato indietro mi sono preso tutte e due le lepri e me le sono cucinate una alla cacciatura e una in salmì me lo immaginavo rispose don camillo in un soffio e quando poi passò davanti all'altare il cristo gli sorrise non tanto in considerazione dei sette giorni di digiuno quanto in considerazione del fatto che don camillo rispondendo me lo immaginavo non sentì il desiderio di pestare la zucca di peppone anzi si vergognò profondamente ricordandosi che quella sera aveva avuto per un istante la tentazione di tornare indietro per fare la stessa cosa povero don camillo sussurrò il cristo commosso e don camillo allargò le braccia come per dire che lui faceva tutto il possibile e che se qualche volta sbagliava non era per cattiveria lo so lo so don camillo rispose il cristo ora vatti pure a mangiare la tua lepre che peppone ti ha portata belle cucinata in canonica incendio doloso era una notte piovosa quando improvvisamente la casa vecchia cominciò a bruciare la casa vecchia era un'antica bicocca abbandonata in cima a un montarozzo e la gente si faceva scrupolo di avvicinarvisi anche di giorno perché dicevano che era piena di vipere e di fantasmi la cosa strana stava nel fatto che la casa vecchia consisteva in una gran macchina di sassi perché il legno anche il pezzetto più minuto che era rimasto da quando l'avevano abbandonata portandosi via tutti gli fissi se l'era mangiato l'aria e invece adesso la bicocca bruciava come un falò molta gente scese nella strada e uscì dal paese a vedere e non c'era uno che non si meravigliasse arrivò anche don camillo il quale si mise nel crocchio che stava infilando la carrareccia che conduceva alla casa vecchia sarà qualche bella testa rivoluzionaria che ha riempito di paglia la baracca e poi le ha dato fuoco per festeggiare qualche dato importante disse ad alta voce don camillo facendosi largo a spintoni e mettendosi in testa al branco cosa ne dice il signor sindaco peppone non si volse neppure cosa vuol che ne sappia io brontolò beh come sindaco dovresti saper tutto ribatte don camillo che ci prendeva un gusto matto ricorre oggi forse qualcosa di storico non lo dica neanche per il scherzo o domattina il paese dirà che l'abbiamo organizzata noi questa maledetta faccenda interruppe il brusco che assieme a tutti i capocciarossi marciava a fianco di peppone la carrareccia finite le due siepi che la fiancheggiavano sfociava in un grande pianoro pelato come la miseria al centro del quale c'era il breve montarozzo che faceva da basamento alla casa vecchia la distanza dalla bicocca era di 300 metri e si vedeva la bicocca bruciare come una torcia peppone si fermò e la gente si allargò a destra e a sinistra una fuolata di vento portò una nuvola di fumo verso il gruppo altro che paglia questo è petrolio la gente cominciò a commentare il fatto curioso e qualcuno si mosse per proseguire ma furono fermati da grandi urla non fate stupidaggini truppe si erano fermate a lungo nel paese nei dintorni sulla fine della guerra si poteva trattare di serbatoi di nafta o benzina messi lì da qualche reparto oppure nascosti da qualcuno che li aveva rubati non si sa mai don camillo si mise a ridere non facciamo dei romanzi a me la faccenda non mi convince e voglio andare a vedere coi miei occhi di che cosa si tratta si staccò deciso dal gregge e si avviò con passo rapido verso la bicocca ormai aveva percorso un centinaio di metri quando peppone con quattro zampate lo raggiunse vada indietro lei e con quale diritto ti impicci dei fatti miei rispose brusco don camillo gettandosi indietro il cappello e mettendosi grossi pugni sui fianchi glielo ordino come sindaco io non posso permettere che un mio cittadino si esponga stupidamente al pericolo e quale pericolo non sente che puzzo di petrolio e benzina cosa sa lei che diavoleria ci sia là dentro don camillo lo guardò sospettoso e tu cosa ne sai chiese io io non ne so niente ma ho il dovere di metterla in guardia perché come c'è il petrolio là dentro ci potrebbe essere altra roba don camillo si mise a ridere ho capito sai cos'è la faccenda che ti ha preso la fifa e adesso ti secca di far vedere ai tuoi gregari che il loro capo prende lezioni di coraggio civile da un povero pretonzolo reazionario com'è don camillo peppone strinse i pugni i miei uomini mi han visto lavorare in montagna e adesso si tratta di lavorare in pianura compagno sindaco la fifa è differente al piano e al monte peppone si sputò nelle mani e gonfiato l'ampio torace si avviò verso l'incendio con passo deciso dopo 50 metri don camillo che era stato a guardarlo a braccia con certe scattò e ben presto lo raggiunse alt disse arraffandolo ad un braccio alto un corno gridò peppone divincolandosi lei va da innaffiare i suoi gerani io continuo si vedrà adesso chi avrà paura fra me e lei don camillo avrebbe voluto sputarsi nelle mani ma non lo fece perché si ricordò che era perciprete si limitò a gonfiare anche lui il torace e a stringere i pugni e si avviò camminarono a fianco a fianco peppone e don camillo e la distanza diminuiva e già si sentiva il riverbero della fiamma e passo passo stringevano sempre di più i denti e i pugni studiandosi con la coda dell'occhio sperando ognuno che l'altro si fermasse ma decisi tutte e due a fare ognuno un passo più avanti dell'altro 80 60 50 metri alt disse una voce alla quale era impossibile non obbedire e i due si arrestarono nello stesso identico istante fecero dietro front poi scattarono di corsa come fulmini dieci secondi dopo uno scoppio tremendo squarciava il silenzio mentre la bicocca saltava in aria aprendosi come un fiore di fuoco si ritrovarono seduti per terra in mezzo alla strada e non c'era più anima viva perché tutti erano schizzati verso il paese come lepri tornarono per una scorciatoia e camminarono a fianco a fianco in silenzio a un tratto peppone borbottò sarebbe stato molto meglio che l'avessi lasciata andare avanti è quello che penso anch'io rispose don camillo magnifica occasione perduta se io l'avessi lasciata andare avanti continuò peppone avrei avuto il piacere di vedere il più nero reazionario del mondo saltare in aria non credo rispose senza voltarsi don camillo a 200 metri mi sarei fermato e perché perché sapevo che nella grotta sotto la casa vecchia c'erano sei bidoni di benzina 95 mitra 275 bombe a mano due casse di munizioni sette mitragliatrici e tre quintali di tritolo peppone si fermò e lo guardò con occhi sbarrati niente di strano spiegò don camillo prima di dar fuoco alla benzina ho fatto l'inventario peppone strinse i pugni io dovrei ammazzarla adesso urlò digrignando i denti lo capisco peppone ma è difficile ammazzarmi ripresero a camminare dopo un po peppone si fermò ma allora esclamò lei lo sapeva che pericolo c'era eppure è arrivata fino a 50 metri e se non ci avessero dato l'alt avrebbe continuato si capisce lo sapevo come lo sapevi tu rispose don camillo qui era in ballo il nostro coraggio personale peppone tentennò la testa però non c'è niente da dire siamo in gamba tutte e due peccato che lei non sia dei nostri è quello che penso anch'io peccato che tu non sia dei nostri davanti alla canonica si lasciarono in fondo lei mi ha fatto un piacere disse peppone tutta quella maledetta mercanzia mi stava sulla coscienza come la spada di damocle va ad agio con le citazioni storiche peppone rispose don camillo però continuò peppone lei ha detto che le mitragliatrici erano sette e invece erano otto chi avrà preso l'altra non ti preoccupare rispose don camillo l'ho presa io quando scoppierà la rivoluzione proletaria devi girare alla larga dalla canonica ci rivedremo all'inferno borbottò peppone andandosene don camillo andò a inginocchiarsi davanti al cristo all'altare vi ringrazio disse vi ringrazio di averci dato l'alt se voi non avesse dato l'alt sarebbe stato un pasticcio ma no rispose sorridendo il cristo sapendo cosa andavi incontro il continuare avrebbe costituito per te un suicidio e tu saresti tornato indietro lo stesso don camillo lo so ad ogni modo non bisogna mai fidarsi troppo della propria fede alle volte l'orgoglio ci rovina piuttosto com'è quella storia della mitragliatrice tu avresti preso una simile macchina maledetta no rispose don camillo otto erano e otto sono saltati in aria ma è utile che quelli là credano che qui dentro ci sia una mitragliatrice bene disse il cristo bene se fosse vero il guaio è che tu quel maledetto ornese te lo sei preso sul serio perché sei così bugiardo don camillo don camillo allargò le braccia il tesoro arrivò in canonica lo smilzo un giovane ex partigiano che faceva da porta ordine a peppone quando peppone lavorava in montagna e adesso l'avevano assunto come messo in comune aveva una gran lettera di lusso in carta a mano con stampa in gotico e l'intestazione del partito la signoria vostra è invitata a onorare della sua presenza la cerimonia sfondo sociale che si svolgerà domattina alle ore 10 in piazza della libertà il segretario della sezione compagno bottazzi sindaco giuseppe don camillo guardò in faccia lo smilzo dia signor compagno peppone sindaco giuseppe che io non ho nessuna voglia di venire a sentire le solite stupidaggini contro la reazione i capitalisti le so già a memoria no spiegò lo smilzo niente discorsi politici roba di patriottismo sfondo sociale se dite di no significa che non capite niente della democrazia don camillo tentennò gravemente il capo se le cose stanno così esclamò non parlo più bene dice il capo che veniate in divisa con gli arnesi gli arnesi sì la secchia il pennello c'è da benedire roba lo smilzo parlava in questo modo a don camillo appunto in quanto era lo smilzo uno cioè che per la sua taglia speciale per la sua sveltezza diabolica in montagna poteva passare tra palla e palla senza scalfirsi così quando il grosso libro lanciato da don camillo arrivò nel punto dove c'era la testa dello smilzo lo smilzo era già fuori della canonica e pigiava sui pedali della sua bicicletta don camillo si alzò raccolse il libro e andò sfogare il suo risentimento col cristo dell'altare gesù disse possibile che non si riesca a sapere cosa combineranno domani quelli là non ho mai visto una cosa tanto misteriosa cosa vorranno dire tutti quei preparativi quelle fronde che stanno piantando tutto attorno al prato che sta tra la farmacia e la casa dei baghetti che razza di diavoleria è quella figlio mio se fosse una diavoleria per prima cosa non la farebbero all'aperto e secondariamente non ti chiamerebbero per benedirla abbi pazienza fino a domani don camillo la sera andò a dare un'occhiata ma non c'erano altro che fronde e festoni attorno al prato e nessuno riusciva a capire niente quando la mattina partì seguito da due chiarichetti gli tremavano le gambe sentiva che c'era sotto qualcosa che non funzionava c'era sotto il tradimento ritornò un'ora dopo disfatto con la febbre addosso cos'è successo richiese il cristo dell'altare una cosa da far rizzare i capelli balbettò don camillo una cosa orrenda banda inno di garibaldi discorso di peppone e posa della prima pietra della casa del popolo e io ho dovuto benedire la prima pietra peppone schiattava di soddisfazione quel farabutto mi ha invitato a dire due parole e così ho dovuto fare anche il discorsetto di circostanza perché sì una roba del partito ma il mascalzone la presentata come opera pubblica don camillo passeggiò in su e in giù per la chiesa deserta poi si fermò davanti al cristo uno scherzo esclamò sale di ritrovo e di lettura biblioteca palestra ambulatorio e teatro un grattacielo di due piani con annesso campo sportivo e gioco delle bocce il tutto per la miserabile somma di 10 milioni non è caro dato i prezzi attuali osservò il cristo don camillo si accasciò su una panca gesù sospirò dolorosamente perché mi avete fatto questo dispetto don camillo tu sragioni no non sragiono sono dieci anni che vi prego in ginocchio di farmi trovare un po di quattrini per impiantare una bibliotechina una sala di ritrovo per i ragazzi un campo di gioco per i bambini con la giostra e l'altalena e magari una piccola piscinetta come c'è a castellina sono dieci anni che mi arrabatto facendo complimenti a degli sporcaccioni di spilorci proprietari che prenderei volentieri a sberle tutte le volte che l'incontro avrò combinato 200 lotterie avrò bussato a 2000 porte non sono riuscito a niente arriva un pezzo di farabutto scomunicato ed ecco 10 milioni piovergli in tasca dal cielo il cristo scosse il capo non gli sono piovuti dal cielo rispose se li è trovati in terra io non centro don camillo è frutto della sua iniziativa personale don camillo allargò le braccia allora la cosa è semplice significa che io sono un povero stupido don camillo andò a camminare ruggendo nel suo camerone in canonica escluse il fatto che peppone si fosse procurato i 10 milioni assaltando la gente per la strada o scassinando la cassaforte di una banca quello nei giorni della liberazione quando arrivato giù dalla montagna e sembrava che dovesse esserci la rivoluzione proletaria da un momento all'altro ha sfruttato la fifa di quei vigliacchi di signori e ha spillato loro quattrini poi pensò che in quei giorni di signori non ce n'era uno in paese mentre invece c'era un reparto inglese arrivato assieme agli uomini di peppone gli inglesi si erano insediati nelle case dei signori prendendo il posto dei crucchi i quali essendo stati fermi in paese un bel pezzo avevano ripulito razionalmente le case dei signori di tutte le cose migliori quindi non c'era neppure da pensare che peppone si fosse procurato i 10 milioni razziando forse i soldi venivano dalla russia si mise a ridere figuriamoci se i russi hanno in mente peppone gesù andò a implorare alla fine don camillo non puoi dirmi dove peppone ha trovato i quattrini don camillo rispose sorridendo il cristo mi prendi forse per un agente investigativo perché chiedere a dio quale sia la verità quando la verità è dentro di te cercala don camillo intanto per distrarti un po perché non fai un giro fino alla città la sera dopo ritornando dalla gita in città don camillo si presentò al cristo in uno stato di impressionante agitazione che ti succede don camillo una cosa pazzesca esclamò don camillo ansimando ho incontrato un morto a faccia a faccia nella strada don camillo calmati e ragiona di solito i morti che si incontrano a faccia a faccia nella strada sono dei vivi lo escludo gridò don camillo quello è un morto morto perché l'ho portato io stesso al cimitero se è così rispose il cristo non dico più niente sarà un fantasma don camillo alzò le spalle ma no i fantasmi esistono soltanto nella zucca delle donette stupide e allora già borbottò don camillo don camillo raccolse le idee il morto era un notto magro uno non del paese che era sceso giù dai monti assieme agli uomini di peppone era ferito alla testa e malconcio e lo avevano sistemato al pian terreno della villa d'occhi che era stata la sede del comando crucco e che ora era diventata la sede del comando inglese nella stanza attigua quella del malato peppone aveva sistemato il suo ufficio comando don camillo ricordava benissimo la villa era circondata da tre ordini di sentinelle inglesi e non entrava né usciva una mosca perché vicino si combatteva ancora e gli inglesi ci tengono particolarmente alla propria pelle ciò era successo la mattina la notte stessa il giovanotto ferito era morto peppone mandò chiamare don camillo verso la mezzanotte ma quando don camillo arrivò il ragazzo era già freddo gli inglesi non volevano morti in casa e verso il mezzogiorno la bara contenente il povero ragazzo usciva dalla villa portata a braccia da peppone e dai suoi tre più fidi e coperta da un drappo tricolore un reparto armato d'inglesi bontaloro aveva reso gli onori don camillo ricordava che la cerimonia funebre era stata commoventissima tutto il paese dietro al feretro posto su un affusto da cannone e il discorso al cimitero prima che la bara venisse calata nella fossa l'aveva fatto proprio lui don camillo e la gente piangeva anche peppone che era in prima fila si inghiozzava quando mi ci metto io so parlare si compiacque don camillo rievocando questo episodio poi riprese il filo logico del suo discorso e concluse e con tutto questo io sono pronto a giurare che il giovanotto magro che ho incontrato oggi in città è quello che ho portato alla sepoltura sospirò così è la vita il giorno dopo don camillo andò a trovare nella sua officina peppone che lavorava sdraiato sotto un'automobile buondì compagno sindaco sono venuto per dirti che da due giorni sto ripensando alla descrizione della tua casa del popolo che ve ne pare ghignò peppone magnifica mi ha fatto decidere a mettere in piedi quello caletto con piscina giardino campo di giochi teatrino eccetera che come sai ho in testa da tanti anni farò la posa della prima pietra la domenica ventura ci terrei molto che venissi anche tu come sindaco peppone uscì di sotto la vettura e si pulì con la manica della tuta la faccia unta volentieri cortesia per cortesia bene nel frattempo cerca di stringere un tantino il progetto della tua casa è troppo grossa per il mio temperamento peppone lo guardò sbalordito ton camillo siete svanito non più di quella volta quando ho fatto una funzione funebre con discorso patriottico a una cassa da morto che non doveva essere chiusa bene perché ieri ho incontrato il cadavere a spasso in città peppone digrignò i denti cosa vorreste insinuare niente che quella cassa alla quale gli inglesi hanno presentato le armi e che io ho benedetto era piena di roba trovata da te nella cantina della villa dotti dove prima c'era il comando tedesco e il morto era vivo e nascosto in solaio a urlò peppone ci siamo con la solita storia si tenta di infamare il movimento partigiano lascia stare i partigiani peppone a me non mi freghi e se ne andò mentre peppone borbottava oscure minacce la sera stessa don camillo lo vede arrivare in canonica accompagnato dal brusco e da altri due pezzi grossi quelli stessi che avevano portato la bara lei disse cupo peppone ha poco da insinuare era tutta roba rubata dai tedeschi argenteria macchine fotografiche strumenti oro eccetera se non la prendevamo noi la prendevano gli inglesi era l'unico modo per farla uscire qui ho ricevute testimonianze nessuno ha toccato una lira 10 milioni sono stati ricavati e 10 milioni saranno spesi per il popolo il brusco che era focoso si mise a gridare che questa era la verità e che lui caso mai sapeva benissimo come va trattata certa gente anch'io rispose calmo don camillo e lasciò cadere il giornale che teneva sciorinato davanti e allora si vide che sotto l'ascella destra don camillo teneva il famoso mitra che era stato un tempo di peppone il brusco impallidì e fece un salto indietro e peppone allargò le braccia don camillo non mi pare che sia il caso di litigare neanche a me rispose don camillo tanto più che sono perfettamente d'accordo con voi 10 milioni di ricavo e 10 milioni debbono andare al popolo 7 con la vostra casa del popolo e 3 col mio ritrovo giardino per i figli del popolo sinite parvulos venire ad me io chiedo soltanto la mia aspettanza i quattro si consultarono a bassa voce poi peppone parlò se non aveste quel maledetto ornese fra le mani vi risponderei che questo è il più vile ricatto dell'universo la domenica seguente il sindaco peppone presenziò con tutte le autorità alla posa della prima pietra del ritrovo giardino di don camillo e fece anche un discorsetto però trovò modo di sussurrare a don camillo questa prima pietra forse sarebbe stato meglio legarvi l'alcollo e poi buttarvi in po don camillo la sera andò a riferire al cristo dell'altare cosa ne dite chiese alla fine quel che ti ha risposto peppone se tu non avessi quel maledetto ornese tra le mani direi che questo è il più vile ricatto del mondo ma io tra le mani non ho che l'assegno che mi ha consegnato peppone protestò don camillo appunto sussurrò il cristo con questi tre milioni farai troppe cose buone e belle don camillo perché io possa maltrattarti don camillo si inchinò e andò a letto a sognare un giardino pieno di bambini un giardino con giostra e altalena e sull'altalena c'era il figlio più piccolo di peppone che cinguettava come un uccelletto rivalità arrivò uno importante dalla città e la gente accorse da tutte le frazioni quindi peppone stabilì che il comizio si tenesse nella piazza grande e non solo fece drizzare un bel palco pavesato di rosso ma si procurò anche uno di quei camioncini che hanno sul tetto quattro grandi trombe e dentro tutto il meccanismo elettrico per ampliare la voce così il pomeriggio di quella domenica la piazza era zeppa e la gente riempiva anche il sagrato che confinava appunto con la piazza don camillo aveva bloccato tutte le porte e si era ritirato in sagristia per non veder nessuno non sentir nessuno e non farsi sangue cattivo e sonnecchiava quando una voce che pareva quella della collera divina lo fece sussultare compagni come se i muri neanche esistessero don camillo andò a sfogare la sua indignazione col cristo dell'altar maggiore debbono aver puntato una delle loro maledette trombe proprio contro di noi esclamò questa è una violazione di domicilio bella e buona cosa vuoi farci don camillo è il progresso rispose il cristo dopo una premessa generica l'oratore era entrato subito nel vivo della faccenda e siccome era un estremista tirava giù di grosso bisogna rimanere nella legalità e ci rimarremo a costo di dover imbracciare il mitra e di dover appiccicare al muro tutti i nemici del popolo don camillo scalpitava come un cavallo gesù sentite che roba sento don camillo sento purtroppo gesù perché non gli sparate un fulvine in mezzo a quella marmaglia don camillo rimaniamo nella legalità se per far capire a uno che sbaglia tu lo stendi con una schioppettata mi vuoi dire a che scopo io mi sarei fatto mettere in croce don camillo allargò le braccia avete ragione non ci rimane che aspettare che mettano in croce anche noi il cristo sorrise se invece di parlare e poi pensare a quello che hai detto tu prima pensassi a quello che devi dire poi parlassi eviteresti di pentirti di aver detto delle sciocchezze da un camillo abbassò il capo in quanto poi a coloro che nascondendosi nell'ombra del crucifisso tentano di disgregare col veleno della loro ambigua parola la massa dei lavoratori la voce dell'altoparlante portata dal vento riempì la chiesa e fece tremolare i vetri rossi gialli e blu delle finestrine gotiche don camillo afferrò un grosso candelabro di bronzo e impugnandolo come una clava si avviò a denti stretti verso la porta don camillo fermati gridò il cristo tu non uscirai di qui fino a quando tutti non se ne saranno andati va bene rispose don camillo rimettendo a posto il candelabro obbedisco passeggiò in su e in giù per la chiesa poi si fermò davanti al cristo qui dentro però posso fare quel che voglio naturalmente don camillo sei in casa tua e puoi fare quel che vuoi meno che mettersi alla finestra e sparare schioppettate sulla gente tre minuti dopo don camillo salta beccando allegramente nella cella campanaria della torre stava eseguendo il più infernale carillon che mai fosse stato udito nel paese l'oratore dovette interrompersi e si volse ai capoccia del paese che stavano sul palco dietro a lui bisogna farlo smettere gridò indignato peppone approvò gravemente tentennando il capo giusto disse i sistemi per farlo smettere sono due o far brillare una mina sotto la torre o prenderla cannonate l'oratore gli ordinò di non dire sciocchezze che diamine ci voleva poco sfondare la porta della torre e a salire relativamente spiegò calmo peppone si sale con scalette a pioli che corrono da pianerottolo a pianerottolo vedi compagno quella roba che spunta dal finestrone a sinistra della cella campanaria sono tutte le scalette che il campanaro salendo ha ritirato chiusa la botola dell'ultimo pianerottolo il campanaro è isolato dal mondo si potrebbe provare a sparare contro le finestre del campanile propose lo smilzo si approvò peppone però bisognerebbe avere la garanzia di farlo fuori al primo colpo altrimenti comincia a sparare lui e allora sono pasticci le campane tacquero e l'oratore riprese a parlare e tutto andò bene fino a quando non gli scappò detto qualcosa che a don camillo non andava perché immediatamente don camillo cominciò il contraddittorio con le campane e poi smise di scampanare e poi ancora scampanò quando l'oratore uscì dal seminato e così via fino al pistolotto finale che fu di semplice intonazione patetica e patriottica e venne perciò rispettato dal men cool pop campanario la sera peppone incontrò don camillo state in gamba don camillo che a forza di provocare finirete male nessuna provocazione rispose calmo don camillo voi suonate le vostre trombe e noi suoniamo le nostre campane questa è la democrazia compagno se invece deve essere permesso a uno solo di suonare questa è dittatura peppone incassò ma una mattina don camillo trovò piazzati davanti alla chiesa mezzo metro oltre la linea che divideva il sagrato dalla piazza una giostra un'altalena tre tiri al bersaglio un ottovolante una pista elettrica il muro della morte e un numero imprecisato di altri baracconi quelli del parco divertimenti gli fecero vedere tanto di permesso firmato dal sindaco e don camillo si limitò a ritirarsi in canonica la sera stessa cominciò l'inferno organetti altoparlanti scoppi urla canti campanelle fischi boati muggiti don camillo andò a protestare davanti al cristo questa è mancanza di rispetto alla casa di dio esclamò c'è qualcosa di immorale di scandaloso si informò il cristo no giostre altalene automobiletti roba più che altro da ragazzi e allora questa è semplicemente democrazia e questo baccano dannato chiese don camillo anche il baccano è democrazia purché stia nella legalità oltre il sagrato comanda il sindaco figlio mio la canonica era 30 metri più avanti della chiesa ed aveva il lato lungo a filo della piazza e proprio sotto la finestra che dava sulla piazza avevano sistemato una macchina che incuriosì subito don camillo una colonnetta alta un metro con una specie di fungo imbottito di pelle ficcato in cima dietro un'altra colonnina più smilza e più alta con un grande quadrante segnato da uno a mille un misuratore di forza si dava un pugno sulla testa del fungo e la lancetta segnava la forza don camillo sbirciando attraverso lo spiraglio delle gelosie cominciò a divertirsi alle 11 di sera il punto massimo totalizzato era 7 50 e lo segnò badile il vaccaro dei gretti che aveva dei pugni che parevano sacchi di patate poi improvvisamente attorniato dal suo stato maggiore arrivò il compagno peppone la gente corse tutta a vedere e tutti gridavano forza forza e peppone allora si tolse la giacca si rimboccò le maniche e si piantò davanti alla macchina misurando col pugno la distanza si fece silenzio e anche a don camillo venne il batticuore il pugno balenò nell'aria e si abbatté sul fungo 950 urlò il padrone della macchina soltanto nel 39 a genova ho visto totalizzare questo punto da una scaricatore di porto la folla urlò d'entusiasmo peppone si rimise la giacca poi alzò la testa e guardò la finestra dietro la quale era il rimpiattato don camillo se a qualcuno interessa disse forte tenga presente che a quota 950 tira brutta aria tutti guardarono la finestra di don camillo e sghignazzarono don camillo andò a letto con le gambe che gli tremavano la sera dopo egli era ancora lì rimpiattato dietro la finestra e aspettò fremendo le 11 allora arrivò peppone con lo stato maggiore si tolse la giacca si rimboccò le maniche e sparò il cazzotto sul fungo 951 urlò la folla e tutti guardarono sghignazzando verso la finestra di don camillo guardò in su anche peppone se a qualcuno interessa disse forte tenga presente che a quota 951 tira brutta aria don camillo si mise a letto con la febbre il giorno dopo andò a inginocchiarsi davanti al cristo gesù sospirò quello mi tira al precipizio sii forte resisti don camillo alla sera don camillo si avviò verso lo spiraglio della finestra come al patibolo ormai la voce si era sparsa e c'era tutto il paese a vederlo spettacolo e quando apparve peppone si sentì serpeggiare un mormorio eccolo peppone guardò in su beffardo si tolse la giacca alzò il pugno e la gente amuto lì 952 don camillo vide un miliardo di occhi fissi alla sua finestra e allora perdette il lume della ragione e si buttò fuori della stanza se a qualcuno peppone non fece in tempo a finire la frase dell'aria cattiva che tira quota 952 davanti a lui già stava don camillo la folla mugolò poi tacque don camillo gonfiò il torace si piantò saldo sulle gambe buttò via il cappello e si segnò poi alzò il pugno formidabile e sparò una mazzata sul fungo mille urlò la folla se a qualcuno gli interessa sappia che a quota mille tira brutta aria disse don camillo peppone era diventato pallido e gli uomini del suo stato maggiore lo sbirciavano tra delusi offesi altra gente ghignava contenta peppone guardò negli occhi don camillo si ritolse la giacca si piazzò davanti alla macchina e alzò il pugno gesù sussurrò in fretta don camillo il pugno di peppone balenò nell'aria mille urlò la folla e lo stato maggiore di peppone fece un balzo di gioia a quota mille tira brutta aria per tutti concluse lo sghembo meglio rimanere al piano peppone si allontanò trionfante da una parte e don camillo trionfante dall'altra gesù disse don camillo quando fu davanti al cristo ti ringrazio ho avuto una paura matta di non far mille no che non facesse mille anche quel testone là l'avrei avuto sulla coscienza lo sapevo e lo ho aiutato io rispose sorridendo il cristo del resto anche peppone appena ti ha visto ha avuto una paura matta che non riuscissi a fare 952 anche tu sarà borbottò don camillo al quale ogni tanto piaceva fare lo scettico blu spedizione punitiva i braccianti si riunirono in piazza e cominciarono a far fracasso perché volevano lavoro dal comune ma il comune non aveva soldi e allora il sindaco peppone si affacciò al balcone del municipio e gridò che stessero calmi perché ci avrebbe pensato lui pigliate macchine motociclette camion e birocci e portatemeli qui tutti fra un'ora ordinò peppone ai capocce riuniti nel suo ufficio ci vollero invece tre ore ma alla fine tutti i più facoltosi proprietari terrieri affettuari del comune erano radunati pallidi e sbigottiti nella sala del consiglio e giù da basso la folla rumoreggiava peppone fu spiccio io arrivo fin dove posso arrivare disse brusco la gente che ha fame vuole pane non belle parole o voi cacciate fuori mille lire per ettaro nel qual caso si fa lavorare la gente per l'utilità pubblica o io come sindaco e come capo delle masse operaie me ne lavo le mani il brusco si affacciò al balcone e spiegò alla gente che il sindaco aveva detto questo e quest'altro avrebbe poi riferito le risposte degli agrari e la gente rispose con un urlo che fece impallidire i prelevati la discussione non durò molto e una buona metà firmò l'impegno di offrire spontaneamente tanto per ettaro e pareva che dovessero firmare tutti quando arrivati al vecchio verola l'affettuario di campo lungo l'affare si bloccò non firmo neanche se mi ammazzate disse il verola quando ci sarà la legge allora pagherò adesso di soldi non ne do ve li verremo a prendere gridò il brusco sì sì borbottò il vecchio verola il quale a campo lungo tra figli figli dei figli mariti delle figlie nipoti poteva mettere assieme una quindicina di schioppi di buona mira sì sì la strada la sapete quelli che avevano firmato si morsero le mani per la rabbia e gli altri dissero se non firma verola non firmiamo neanche noi il brusco riferì a quelli della piazza e quelli della piazza urlarono che o buttavano giù il verola o sarebbero saliti loro a prenderlo ma peppone allora si fece al balcone e disse che non facessero stupidaggini con quello che abbiamo ottenuto possiamo andare avanti tranquilli due mesi intanto senza uscire dalla legalità come abbiamo fatto fino ad ora troveremo il modo di convincere il verola e gli altri tutto andò liscio e peppone in persona riaccompagnò in macchina il verola per convincerlo ma per tutta risposta quando scesa davanti al ponticello di campo lungo il vecchio disse a 70 anni c'è una sola paura quella di dover campare ancora molto dopo un mese si era allo stesso punto di prima e la gente si inviperiva sempre di più ed ecco che una notte successe il fatto don camillo fu avvertito subito alla mattina presto e corse a campo lungo in bicicletta trovò tutti verola riuniti in un campo in fila che guardavano per terra muti come sassi e a braccia concerte don camillo si fece avanti e rimase senza fiato mezzo filare di viti era stato tagliato al piede e i tralci abbandonati fra l'erba parevano bisce nere e su un olmo c'era inchiodato un cartello primo avviso a un contadino tagliategli magari una gamba piuttosto che tagliargli una vite gli fate meno male don camillo ritornò a casa atterrito come se avesse visto mezzo filare di assassinati gesù disse al cristo qui non c'è che una cosa trovarli e impiccarli don camillo rispose il cristo dimmi un po se ti duole la testa tu te la tagli per guarire il male però le vipere velenose si schiacciano gridò don camillo quando il padre mio ha creato il mondo ha fatto una distinzione precisa fra animali e uomini il che significa che tutti coloro che appartengono alla categoria degli uomini rimangono sempre uomini qualunque cosa essi facciano e vanno perciò trattati da uomini altrimenti invece di scendere in terra per redimerli facendomi mettere in croce non sarebbe stato molto più semplice annientarli quella domenica don camillo parlò in chiesa delle viti assassinate come se le avessero tagliate a suo padre che era contadino si commosse divenne lirico ma quando a un tratto vide peppone tra i fedeli diventò sarcastico ringraziamo l'eterno il quale ha collocato il sole in alto nel cielo e intoccabile altrimenti qualcuno per far dispetto all'avversario politico venditore di occhiali affumicati già l'avrebbe spento ascolta popolo il verbo dei tuoi capi essi posseggono la vera saggezza essi ti insegnano che per punire il calzolaio esoso tu devi tagliarti i piedi e continuò a fissare peppone come se il discorso lo facesse soltanto per lui verso sera peppone apparve in canonica cupo voi disse ce l'avevate con me stamattina io ce l'ho semplicemente con quelli che mettono nella testa della gente certe teorie rispose don camillo peppone strinse i pugni don camillo voi non avrete forse l'idea che sia stato io a insegnare a quelli là di andare a tagliare le viti del verola don camillo scosse il capo no tu sei un violento ma non sei un vile ma sei tu che scateni questa gente io cerco di frenarla invece ma la gente mi scappa don camillo si alzò e andò piantarsi a gambe larghe davanti a peppone peppone disse tu sai chi è stato a tagliare le viti non so niente esclamò peppone tu sai chi è stato peppone e se tu non sei diventato l'ultimo dei farabutti o degli imbecilli sai pure che il tuo dovere di denunciarli io non so niente insiste peppone non solo per il danno morale e materiale prodotto dalle 30 viti tagliate tu devi parlare è come un punto che si rompe in una maglia o lo fermi subito o domani la tua maglia sarà distrutta tu che sai e non intervieni sei come l'uomo che vede il mozzicone acceso nel fienile e non lo spegne fra poco tutta la casa sarà distrutta per colpa tua non per colpa di chi anche dolosamente ha gettato il mozzicone peppone insistè che non sapeva niente ma don camillo lo incalzava e gli toglieva il fiato e alla fine si arrese non parlo nemmeno se mi scannate nel mio partito c'è fior di galantuomini e per tre mascalzoni ho capito lo interruppe don camillo se domani si sapesse una cosa simile gli altri diventerebbero talmente aggressivi e spavaldi che ci sarebbe da fare alle schioppettate don camillo passeggiò a lungo in su e in giù e infine si fermò ammetti almeno che quei farabutti meritano una punizione ammetti che bisogna fare in modo che essi non ripetano il crimine che hanno commesso sarei un maiale se non lo ammettessi va bene concluse don camillo aspettami venti minuti dopo don camillo rientrò vestito di fustagno alla cacciatora con stivaloni ai piedi e in testa un berrettaccio andiamo disse intabarrandosi dove alla casa del primo dei tre ti spiego lungo la strada era una sera buia e piena di vento e non c'era un'anima per le strade giunto nei pressi di una casa isolata don camillo si imbaccuccò con lo sciarpone fino agli occhi e si nascose nel fossato peppone invece andò avanti bussò entrò e dopo un po' ritornò assieme a un uomo al momento giusto don camillo saltò su dal fosso mani in alto disse cacciando fuori il mitra i due alzarono le braccia don camillo buttò loro in faccia la luce di una lampadina elettrica tu fila senza voltarti disse a peppone e peppone filò da un camillo spinse l'altro in mezzo a un campo lo fece sdraiare faccia a terra e tenendo il mitra con la sinistra con la destra gli pitturò sul sedere dieci inerbate da far levare il pelo a un ipopotamo primo avviso spiegò hai capito l'altro fece di sì con la testa da un camillo trovò peppone che lo aspettava al posto convenuto il secondo fu più facile da calappiare perché mentre don camillo nascosto dietro la casetta del forno architettava con peppone un piano diverso dal primo l'uomo uscì per attingere un secchio d'acqua e don camillo lo colse al volo finita la lavorazione anche il secondo prese buona nota che si trattava del primo avviso e disse che aveva capito don camillo aveva il braccio indolenzito perché aveva fatto le cose con coscienza e si sedette dietro una macchia a fumare un mezzo toscano assieme a peppone poi il senso del dovere lo riprese e spense il toscano contro la corteccia di un albero e adesso dal terzo disse alzandosi il terzo sono io rispose peppone don camillo si sentì mancare il fiato il terzo sei tu balbettò e perché se non lo sapete voi che siete in collegamento col padre eterno come volete che faccia a saperlo io gridò peppone poi buttò via il tabarro si sputò nelle mani e abbroncò con rabbia il tronco di un albero picchia prete maledetto gridò a denti stretti picchia o picchio io don camillo scosse il capo e si allontanò senza parlare gesù disse don camillo costernato quando fu davanti all'altare non avrei mai immaginato che peppone don camillo quello che tu hai fatto stasera è orrendo lo interruppe il cristo io non ammetto che un mio sacerdote si metta a fare delle spedizioni punitive gesù perdonate al vostro indegno figlio sussurrò don camillo perdonate a me come l'eterno padre ha perdonato a voi quando avete preso anerbate i mercanti che contaminavano il tempio don camillo disse il cristo rasserenato voglio sperare che adesso non mi rimprovererai un passato di squadrista don camillo prese a camminare cupo per la chiesa deserta era offeso umiliato la faccenda di peppone assassino di viti non gli andava giù don camillo lo chiamò il cristo perché ti rodi peppone ha confessato e si è pentito il cattivo sei tu che non lo assolvi don camillo fa il tuo dovere solo nella officina deserta peppone con la testa tuffata nel cofano di un camion stava avvitando con rabbia un bullone quando entrò don camillo peppone rimase curvo sul motore e don camillo gli pitturò dieci inerbata in fondo alla schiena ego te absolvo disse appioppandogli una pedata extra e così impari a darmi del prete maledetto a buon rendere disse peppone a denti stretti sempre con la testa nel cofano del camion l'avvenire nelle mani di dio sospirò da un camillo uscendo buttò il nerbo lontano e la sognò che ricadendo il nerbo si conficcava per terra e subito metteva fronde e fiori e pampini e ben presto si caricava di grappoli d'uva dorata la bomba erano i giorni in cui al parlamento e sulle gazzette i politici si prendevano per i capelli a causa di quel famoso articolo 4 che poi diventò 7 e siccome vedeva in ballo chiesa e religione don camillo non aveva esitato a buttarsi fino al collo nella faccenda quando era sicuro di lavorare per una causa giusta don camillo procedeva come un carro armato e così siccome gli altri facevano invece soprattutto una questione di partito e vedevano l'approvazione dell'articolo come una vittoria del più potente avversario politico i rapporti fra don camillo e rossi erano molto tesi e tirava aria di legnate noi vogliamo che il giorno in cui sarà bocciato l'articolo sia di gioia per tutti aveva detto peppone ai suoi durante una riunione quindi parteciperà ai festeggiamenti anche il nostro reverendissimo orciprete e aveva impartito direttive per la confezione di un magnifico don camillo in paglia e stracci da portare in gran pompa a suon di musica al camposanto con scritto sulla pancia grosso così articolo 4 naturalmente don camillo lo aveva saputo subito e si era fatto premura di mandare qualcuno a chiedere a peppone se avendo egli don camillo stabilito di aprire un circolo per le donne cattoliche nella sede della sezione il compagno peppone era disposto a cedere gli locali subito anziché aspettare il giorno dell'approvazione dell'articolo la mattina dopo comparivano sul sagrato il brusco e altri 5 o 6 della genga i quali cominciavano a discutere ad alta voce indicando con grandi gesti or questa or quella parte della canonica ecco io direi di fare il salone da ballo utilizzando tutto il pian terreno e impiantando il buffet al primo piano volendo si potrebbe aprire una porta nel muro divisorio e collegare il pian terreno con la cappella di sant'antonio tirar su una parete per isolarla dalla chiesa e impiantare il buffet nella cappella troppo complicato piuttosto dove lo si sistema l'alloggio dell'arciprete in cantina troppo umido poveretto meglio in solaio lo si potrebbe anche impiccare al palo della luce ma no in paese ci sono ancora tre o quattro cattolici e bisogna accontentarli anche loro lasciamoglielo il prete tanto che fastidio dà poveretto don camillo ascoltava nascosto dietro le gelosie di una finestra del primo piano e aveva il cuore che batteva in testa come un i8 bl in salita e alla fine non ne poté più e spalancate le imposte si affacciò con la doppietta aperta nella sinistra e con una scatola di cartucce nella destra tu brusco che te ne intendi disse don camillo per tirare i beccaccini che misura di pallini adopereresti dipende disse il brusco tagliando la svelta la corda assieme a tutta la compagnia le cose stavano a questo punto quando improvvisamente arrivò il giornale con la notizia dell'articolo 7 approvato ed è il sì dell'estrema sinistra don camillo giunse di corsa davanti all'altare sventolando il giornale ma il cristo non lo lasciò parlare so tutto don camillo disse il cristo adesso mettiti il tabarro e va a fare una bella passeggiata per i campi torna stasera e guardati bene dal passare dal paese e specialmente davanti alla sede di quelli là credete forse che io abbia paura protestò don camillo tutt'altro don camillo anzi è appunto perché non ci tengo che tu vada a chiedere a peppone a che ora è il funerale dell'articolo 7 e se poi ha deciso di fare il buffet al pian terreno o al primo piano della canonica don camillo allargò le braccia gesù disse nobilmente offeso voi state facendo il processo le intenzioni io non pensavo neppure lontanamente d'altra parte dovete considerare che il signor peppone ho considerato tutto don camillo e ho concluso che l'unica cosa che tu devi fare è una passeggiata in mezzo ai campi sia fatta la vostra volontà disse don camillo don camillo ritornò verso sera bravo don camillo disse il cristo quando lo vide apparire è andata bene la passeggiata benissimo rispose da un camillo vi sono molto grato del vostro consiglio ho passato una meravigliosa giornata a cuore sgombro e con l'animo leggero come l'ombra di una farfalla ci si sente più buoni quando si ha contatto con la natura come sembrano spregevole cosa allora i nostri risentimenti i nostri odi le nostre gelosie di piccoli uomini proprio così don camillo approvò gravemente il cristo proprio così se la cosa non vi infastidisce disse don camillo potrei fare una capatina di un minuto fino al tabaccaio per un sigaro scusate la mia improntitudine ma sento di meritarmelo te lo meriti senz'altro don camillo va pure però ti sarei grato se tu mi accendessi prima di uscire quel cero lì a sinistra mi fama l'inconia il vederlo spento se non volete altro esclamò don camillo frugandosi nelle tasche per trovare i fiammiferi non sciupare i fiammiferi lo ammonì il cristo prendi un pezzetto di carta e accendilo alla fiamma di quel cero lì dietro di te adesso trovare un pezzo di carta sarà un po' difficile ma don camillo esclamò il cristo sorridendo tu mi stai perdendo la memoria non ti ricordi più che hai in tasca una lettera che tu volevi stracciare bruciala invece un viaggio e due servizi già è vero riconobbe don camillo a denti stretti e cacciò di tasca una lettera e l'avvicinò alla fiamma del cero e presto la lettera diva un po' e la lettera era indirizzata a peppone e dentro c'era scritto se adesso che i rossi dell'estrema sinistra avevano approvato all'unanimità l'articolo 7 il compagno peppone desiderasse dominare un consiglio di gestione per la chiesa allo scopo di amministrare i peccati della parrocchia e di stabilire di comune accordo col titolare don camillo le penitenze da assegnare di volta in volta ai peccatori che lui don camillo era pronto ad ascoltare ogni sua richiesta e sarebbe stato felicissimo se il compagno peppone o il compagno brusco avessero consentito a tenere alcune prediche ai fedeli in occasione della santa pasqua egli don camillo per ricambiare la cortesia avrebbe spiegato ai compagni il segreto e profondo senso religioso e cristiano delle teorie marxistiche adesso puoi andare don camillo disse il cristo quando la lettera fu ridotta in cenere così eviti il pericolo che trovandoti dal tabaccaio in un momento di disattenzione non ti venga fatto di appiccicare un francobollo sulla busta ed imbucare poi la lettera don camillo andò invece a letto brontolando che allora era peggio di quando c'era il ministero della cultura popolare si era ormai sotto pasqua radunati in sede tutti capoccia del capoluogo e delle frazioni peppone stava sudando come un maledetto per spiegare come i compagni deputati avessero fatto benissimo a votare per l'approvazione dell'articolo 7 prima di tutto è per non turbare la pace religiosa del popolo come ha detto il capo il quale sa benissimo quello che dice e non ha bisogno che glielo insegniamo noi secondariamente per evitare che la reazione sfrutti la faccenda piagnucolando sulla triste sorte di quel povero vecchio del papa che noi cattivoni vogliamo mandare ramingo per il mondo come ha detto il segretario del partito il quale è uno che ha la testa sulle spalle e dentro la testa un cervello grosso così terzo perché il fine giustifica i mezzi come dico io che non sono uno stupido il quale affermo che per arrivare al potere tutto fa brodo e quando saremo al potere i reazionari clericali dell'articolo 7 sentiranno il sapore dell'articolo 8 così concluse peppone e afferrato sulla scrivania un cerchietto di ferro che fungeva da portacarte lo torse con le manacce sì da affoggiarlo a 8 e tutti capirono cosa voleva dire peppone e urlarono d'entusiasmo peppone si asciugò il sudore l'idea di mettere sul tavolo il cerchietto di ferro e di usarlo ai fini della battuta dell'articolo 8 era stata eccellente era soddisfatto e concluse per il momento calma perfetta però sia ben chiaro che articolo 7 o no noi continuiamo per il nostro cammino senza deflettere di un milionesimo di millimetro e non tollereremo nessuna benché minimissima interferenza estranea nessuna in quel preciso istante la porta dello stanzone si spalancò ed entrò don camillo con l'aspersorio in mano seguito da due chierichetti col secchiello dell'acqua santa e la sporta per le uova cadde un silenzio di gelo senza dire una parola don camillo si avanzò di qualche passo e asperse d'acqua santa tutti i presenti poi consegnò l'aspersorio a un chierichetto e fece il giro ficcando in mano a ciascuno dei presenti un santino no a te un'immagine di santa lucia disse don camillo arrivato a peppone così ti conserverà la vista compagno poi spruzzò abbondantemente d'acqua santa il grande ritratto del capo accennando un piccolo inchino e uscì chiudendo la porta e fu come se fosse passato il vento stregato che fa diventare di sasso la gente a bocca aperta peppone guardò sbalordito il santino che aveva tra le mani poi guardò la porta indi esplose in un urlo quasi disumano tenetemi o l'ammazzo lo tennero e così don camillo poter ritornare a casa col petto gonfio come un pallone tanto schiattava di gioia il cristo sull'altare era coperto ancora col triangolo di velluto ma vide ugualmente don camillo quando entrò in chiesa don camillo disse con voce severa gesù rispose tranquillo don camillo se benedico le galline e i vitelli perché non dovrei benedire peppone i suoi uomini ho forse sbagliato no don camillo hai ragione tu però sei un briccone lo stesso la mattina di pasqua don camillo uscendo di buonora trovò davanti alla porta della canonica un colossale uovo di cioccolata con una bella gala di seta rossa o meglio un uovo formidabile che assomigliava molto a un uovo di cioccolata ma che in realtà era semplicemente una bomba da 100 chili che avevano pitturato di marrone dopo averle segato via gli alettoni la guerra era passata anche per il paese di don camillo e gli aerei avevano fatto più di una visita buttando giù bombe e parecchi di questi maledetti arnesi erano rimasti in esplosi appena ficcati in terra o addirittura liberi sul terreno perché gli aerei avevano bombardato da bassa quota finito tutto erano arrivati da qualche parte due artificieri che avevano fatto brillare le bombe giacenti lontano dall'abitato e avevano disindescato quelle che non si poteva far brillare perché cadute vicino alle case e le avevano ammassate riservandosi di venirle a prendere una di queste bombe era caduta sul molino vecchio sconquassando il tetto e rimanendo poi incastrata fra il muro e una trave maestra e l'avevano lasciata lì perché la casa era disabitata e poi tolto l'innesco non c'era più pericolo quella era la bomba che tagliati gli alettoni era stata trasformata in uovo pasquale dagli ignoti ignoti per modo di dire perché sotto a buona pasqua con la c stava scritto per ricambiare la cortesia della gradita visita e poi il nastro rosso e la cosa era stata studiata con cura perché quando don camillo alzò gli occhi dallo strano uovo trovò il selciato pieno di gente quei maledetti si erano dati tutti convegno per godersi la faccia di don camillo don camillo si stizi e diede una pedata all'arnese che naturalmente neanche si scompose è roba massiccia gridò qualcuno ci vuole l'impresa dei trasporti urlò un altro si sentirono delle sghignazzate prova a benedirla chissà che non vada via da sola gridò un terzo don camillo si volse e incontrò gli occhi di peppone peppone era in prima fila assieme a tutto lo stato maggiore e lo guardava a braccia concerte e ghignava don camillo allora in pallidi e le gambe cominciarono a tremargli lentamente don camillo si chinò e con mani enormi agguantò la bomba ai due poli cadde un silenzio di ghiaccio la gente guardava don camillo trattenendo il fiato con occhi sbarrati quasi con terrore gesù sussurrò don camillo con angoscia forza don camillo gli rispose sommessa una voce che veniva dall'altar maggiore scricchiolarono le ossa di quella gran macchina di carne lento e implacabile don camillo si levò con l'enorme blocco di ferro saldato alle mani ristette un istante guardando la folla poi si mosse ogni passo pesava una tonnellata uscì dal sagrato e un passo dopo l'altro lento e inesorabile come il destino don camillo traversò tutta la piazza e la folla lo seguiva muta sbalordita arrivò al lato opposto della piazza dove c'era la sede della sezione e qui si fermò e anche la folla ristette gesù sussurrò don camillo con angoscia forza don camillo gli rispose una voce ansiosa che veniva dall'altar maggiore della chiesa laggiù in fondo forza don camillo don camillo si rannicchiò in se stesso poi con uno scatto si portò l'immane blocco d'acciaio sul petto un altro scatto poi la bomba cominciò lenta a salire e la gente nera sgomenta ecco che le braccia si tendono e la bomba è alta sopra il capo di don camillo la bomba precipita e si va a conficcare per terra proprio davanti alla porta della sezione don camillo si volse alla folla respinta al mittente disse a voce alta pasqua si scrive con la q correggere e rimandare la folla si aperse e don camillo ritornò trionfante verso la canonica peppone non rimandò la bomba in tre la caricarono su un carretto e andarono a buttarla in una vecchia cava fuori del paese la bomba rotolò per il pendio e non arrivò neppure in fondo perché arrivata un arbusto si fermò rimanendo in piedi e dall'alto si leggeva buona pasqua tre giorni dopo accadde che una capra arrivò nella cava e andò a brucare l'erba ai piedi dell'arbusto così toccò la bomba che riprese a rotolare e fatti due metri sbattè contro un sasso e scoppiò con un fragore spaventoso e al paese che pure era lontano andarono in bricio le vetri di 30 case peppone arrivò poco dopo in canonica ansimando e trovò don camillo che stava salendo la scala e io gorgogliò peppone e io che ho smartellato tutta una sera per scalpellare via gli alettoni e io che rispose gemendo don camillo e non poté più andare avanti perché si figurava la scena della piazza vado a mettermi a letto ansimò peppone io ci stavo appunto andando ansimò don camillo si fece portare poi in camera da letto il crocifisso dell'altar maggiore scusate se vi incomodo sussurrò don camillo che aveva un febbrone da cavallo volevo ringraziarvi a nome di tutto il paese non c'è di che don camillo rispose sorridendo il cristo non c'è di che l'uovo e la gallina fra gli uomini di peppone ce n'era uno che chiamavano fulmine si trattava di un enorme bestione lento e tardo come un elefante e un po tocco nel cervello fulmine apparteneva alla squadra politica comandata dal bigio e aveva la funzione di carro armato quando c'era cioè da buttare in aria qualche comizio avversario fulmine si metteva in testa alla squadra e non lo fermava più nessuno perché il suo incedere era inesorabile e così il bigio e gli altri che stavano dietro di lui potevano arrivare ben presto fin sotto la tribuna dell'oratore e qui con fischi e mugiti lo riducevano al silenzio in pochi minuti un pomeriggio dunque peppone era nella sede della sezione assieme a tutti capoccia delle frazioni quando entrò fulmine una volta messo in moto per fermare fulmine ci sarebbe voluto un panzer faust quindi tutti si spostarono e lasciarono passare fulmine il quale si arrestò soltanto davanti alla scrivania di peppone cosa vuoi chiese peppone seccato ieri ho bastonato mia moglie spiego a fulmine abbassando il capo vergognoso però la colpa è sua a me lo vieni a dire urlò peppone ma allora contare al parroco glielo sono già andato a raccontare rispose fulmine ma don camillo ha detto che adesso per via dell'articolo 7 la faccenda è cambiata e lui non può assolvermi bisogna che mi assolva tu che sei il capo della sezione peppone con un pugno sul tavolo fece tacere gli altri che si erano messi a sghignazzare torna da don camillo e digli che vada all'inferno urlò sì ci vado capo disse fulmine però tu prima mi devi assolvere peppone cominciò a sbraitare ma fulmine scosse il testone io non mi muovo di qui se tu non mi assolvi mugolò fra due ore se tu non mi hai assolto io comincio a spaccare tutto perché allora significa che ce l'hai con me i casi erano due o ammazzare fulmine o cedere ti assolvo gridò peppone no borbottò fulmine mi devi assolvere in latino come fa il prete se no non vale ego ti absolvio disse peppone che schiattava dalla rabbia c'è della penitenza da fare si informò fulmine no niente bene si compiacque fulmine innestando la marcia adesso volo da don camillo a dirgli che vada all'inferno se fa delle storie tiro giù se fa delle storie stati zitto altrimenti te le suona lui urlò peppone va bene approvò fulmine ma se tu mi comandi di tirar giù io gliele do lo stesso anche se le piglio don camillo aspettava di vedersi arrivare la sera stessa peppone in bestialito invece peppone non si fece vedere apparve la sera dopo assieme al suo stato maggiore e si misero tutti a chiacchierare seduti sulle panchine davanti alla canonica commentando un giornale don camillo in certe cose era un po come fulmine e abboccò l'esca come un pesciolino apparve sulla porta della canonica con le mani dietro la schiena e il sigaro in bocca buonasera reverendo lo salutarono tutti con molta cordialità toccandosi la falda del cappello avete visto reverendo disse il brusco dando una manata sul giornale cose straordinarie era la storia della famosa gallina di ancona che benedetta dal parroco aveva scodellato un uovo stranissimo col disegno in rilievo di un emblema sacro qui c'è proprio la mano di dio esclamò serio peppone questo è un miracolo bello e buono ad agio coi miracoli giovanotti prima di stabilire che una cosa è un miracolo bisogna indagare vedere che non si tratti di un semplice fenomeno naturale peppone approvò gravemente muovendo il testone si capisce si capisce però secondo me un uovo così sarebbe stato meglio farlo più sotto le elezioni adesso siamo ancora troppo lontani il brusco si mise a ridere sei ingenuo è tutta questione di organizzazione quando si ha una stampa ben organizzata se ne fanno scodellare così delle uova miracolose buonasera tagliò corto don camillo il giorno dopo passando davanti alla sezione don camillo vede affisso al giornale murale il ritaglio col racconto del fatto di ancona e la fotografia dell'uovo e sotto un cartello agli ordini dell'ufficio stampa della dc le galline cattoliche lavorano per la propaganda elettorale quale mirabile esempio di disciplina la sera seguente egli era alla finestra quando apparvelo davanti alla canonica peppone e il suo stato maggiore è veramente una cosa miracolosa esclamò peppone sventolando un giornale ecco qui che a milano un'altra gallina ha scodellato un uovo preciso di quello di ancona venite a vedere reverendo don camillo scese guardò la fotografia dell'uovo e della gallina e lesse l'articolo che idea ci siamo lasciati scappare sospirò peppone pensate se l'avessimo avuta prima noi una gallina si iscrive al partito e il giorno dopo dalla luce un uovo recante in rilievo l'emblema della falce martello tutti sospirarono ma peppone ci ripensò su e scosse il capo no disse noi non avremmo potuto farlo gli altri hanno la faccenda della religione che mette a posto tutto invece noi non possiamo fare dei miracoli c'è chi nasce fortunato e chi no esclamò il brusco cosa ci vuoi fare don camillo non entrò in discussione salutò e se ne andò mentre peppone e compagni correvano ad appiccicare il ritaglio con la faccenda dell'uovo milanese al giornale murale commentandolo con una nota intitolata un'altra gallina di propaganda più tardi non riuscendo a concludere niente don camillo si andò a consigliare col cristo dell'altar maggiore gesù disse che faccenda è questa lo sai don camillo l'hai letta sul giornale io l'ho letta sì sul giornale ma non so un accidente di niente replicò don camillo sul giornale uno può scrivere quello che gli pare a me sembra impossibile un miracolo così don camillo tu non credi che l'eterno possa fare una cosa simile no rispose deciso don camillo figuratevi se l'eterno si perde a fare i disegnini sulle uova delle galline il cristo sospirò se un uomo che non ha fede a no protestò don camillo questo no lasciami finire don camillo dicevo che sei un uomo che non ha fede nelle galline don camillo rimase perplesso poi allargò le braccia e segnatosi se ne andò alla mattina celebrata la messa entrò nel pollaio perché gli era venuta voglia di un uovo fresco e la nera ne aveva appena scodellato uno lo colse dal nido caldo caldo e lo portò in cucina e qui gli vennero le traveggole era un uovo identico preciso spiccicato di quelli visti nelle fotografie sui giornali con nitidamente tracciato in rilievo il disegno di un ostia raggiante allora non capì più niente e messo l'uovo in un bicchierino si sedette a rimirarselo e stette lì in contemplazione per un'ora poi d'improvviso si alzò andò a nascondere l'uovo in un armadio e diede un urlaccio al figlio del campanaro corri da peppone e digli di venire qui subito assieme a tutti i suoi capi perché devo parlargli di una cosa seria urgentissima questione di vita o di morte mezz'ora dopo arrivava peppone seguito dai capoccia e risette sulla soglia sospettoso avanti disse don camillo chiudete la porta col catenaccio e sedetevi si sedettero in silenzio e stettero a guardarlo don camillo staccò dal muro un piccolo crocifisso e lo depose sul tappeto rosso del tavolino signori disse se io vi giuro su questo crocifisso di dire la verità voi siete disposti a credermi erano seduti a semicerchio e peppone in mezzo tutti si volsero verso peppone sì disse peppone sì risposero gli altri don camillo frugò nello stipo poi stese la destra sul crocifisso giuro che quest'uovo io l'ho raccolto un'ora fa nel nido della mia gallina nera e nessuno può avercelo messo perché era appena scodellato e il lucchetto della porta l'ho aperto io stesso con la chiave che sta assieme alle altre in un mazzo che porto in tasca forse l'uovo a peppone fai girare disse si alzarono in piedi e si passarono l'uovo l'uno con l'altro lo guardarono contro luce e con lunghi aggrattarono il rilievo alla fine peppone che era diventato pallido depose delicatamente l'uovo sul tappeto rosso del tavolino cosa scriverete sul vostro stupidario morale quando io avrò mostrato a tutti e fatto toccare con mano questo uovo chiese don camillo quando avrò fatto venire i più importanti professori della città perché analizzino e dichiarino con certificati con tanti bolli che non c'è trucco scriverete che è un'invenzione dei giornalisti così il giorno dopo le donnette di tutto il comune vi piomberanno addosso trattandovi come sacrileghi e vi caveranno gli occhi don camillo aveva teso il braccio e l'uovo colpito dal sole brillava nel palmo della grande mano come fosse d'argento peppone allargò le braccia davanti a un miracolo così borbottò cosa volete che possiamo dire don camillo irrigidì il braccio e parlò con voce solenne dio che ha fatto il cielo e la terra e l'universo e tutto quello che c'è dentro l'universo compresi voi quattro scalzacani per dimostrare la sua onnipotenza non ha bisogno di mettersi d'accordo con una gallina disse lentamente don camillo e strinse il pugno e stritolò l'uovo e per far intendere alla gente la grandezza di dio io non ho bisogno di farmi aiutare da una stupida gallina continuò don camillo uscì come una saetta e rientrò stringendo per il collo la gallina nera ecco disse torcendole il collo ecco gallina sacrilega che ti permetti di immischiarti nelle sacre cose del culto don camillo gettò la gallina in un angolo e ancor tutto agitato si avviò coi pugni serrati verso peppone un momento don camillo valbettò peppone retrocedendo e mettendosi le mani davanti al collo io l'uovo non l'ho mica fatto la squadra uscì dalla canonica e traversò la piazza piena di sole bah disse a un certo punto il brusco fermandosi io non so esprimermi perché non ho studiato ma quello è uno che anche se mi riempie la zucca di cazzotti non mi ci arrabbierei borbottò peppone il quale a suo tempo aveva già avuto la zucca annebbiata di cazzotti e in fondo non ci si era arrabbiato intanto don camillo era andato a riferire al cristo dell'altare e allora concluse ho fatto bene o male hai fatto bene rispose il cristo hai fatto bene don camillo forse hai esagerato prendendotela anche con quella povera innocente gallina gesù sospirò don camillo erano due mesi che morivo dalla voglia di farmela in padella il cristo sorrise anche tu hai ragione povero don camillo delitto e castigo don camillo una mattina uscendo sul sagrato trovò che durante la notte qualcuno con colore rosso aveva scritto sul muro candido della canonica un don camalo a lettere alte mezzo metro don camillo con una secchia di calce e un pennello si diede da fare per coprire la scritta ma si trattava di colore all'anilina e l'anilina a coprirla di calce è come invitarla a nozze e viene a galla anche a mettercene su tre dita allora don camillo arraffò una raspa e per grattare via tutto ci volle mezza giornata di lavoro si presentò al cristo dell'altare bianco come un mugnaio ma di umore nero se so chi è stato disse gliene do tante fino a che il palo diventa stoppa non drammatizzare don camillo lo consigliò il cristo e roba da ragazzacci non ti han detto niente di grave infine non è bello chiamare scaricatore di porto un sacerdote protestò don camillo e poi un nomignolo azzeccato e se la gente lo scopre me lo appiccica la schiena per tutta la vita hai due buone spalle don camillo lo consolò sorridendo il cristo io non avevo le tue spalle e ho dovuto portare la croce e non ho bastonato nessuno don camillo disse che il cristo aveva ragione ma non era del tutto convinto e la sera invece di andare a letto si acquattò in un punto ben defilato e aspettò pazientemente e verso le due di notte quando apparve sul sagrato un tizio che deposto un secchiello per terra si mise cautamente a lavorare di pennello contro il muro della canonica don camillo non gli fece neppure finire la d e infilato gli in testa il secchiello lo spedì via con una pedata fulminante il colore all'anilina è una maledetta cosa e gigotto uno degli uomini di punta di peppone il quale si era preso la doccia di tinta all'anilina in testa dovette stare tre giorni chiuso in casa a fregarsi la faccia con tutti i detersivi dell'universo ma poi dovette uscire per andare a lavorare e il fatto già lo si sapeva in giro e gli appiopparono subito il nomignolo di pelle rossa don camillo soffiava sul fuoco e così la rabbia da rosso faceva diventare verde il povero gigotto fino a che una sera don camillo rincasando da una visita al dottore si accorse che qualcuno gli aveva spennellato di robaccia la maniglia della porta ma se ne accorse quando era troppo tardi allora senza dire ne hai ne vai andò a pescare gigotto all'osteria e con una sberla da annebbiare la vista un elefante gli appiccicò sulla faccia la roba della maniglia naturalmente queste faccende scivolano subito in politica e siccome gigotto era in compagnia di cinque o sei dei suoi don camillo fu costretto a sventolare una panca così la notte stessa qualche ignoto gli fece una serenata buttandogli un petardo davanti alla porta della canonica i sei che erano stati spazzolati dalla panca di don camillo schiattavano di rabbia e all'osteria urlavano come maledetti e sarebbe bastato quindi un niente per far divampare l'incendio e la gente era preoccupata così una bella mattina don camillo dovette andare d'urgenza in città perché il vescovo voleva parlargli il vescovo era vecchio e curvo e per guardare in faccia don camillo doveva alzare la testa don camillo disse il vescovo tu sei malato tu hai bisogno di startene qualche mese tranquillo in un bel paesino di montagna sì sì è morto il parroco di punta rossa e tu così fai un viaggio e due servizi mi riorganizzi bene la parrocchia e ti rimetti in salute poi torni giù fresco come una rosa ti sostituirà don pietro un ragazzo giovane che non ti combinerà niente di male sei contento don camillo no monsignore però partirò quando monsignore lo vorrà bravo rispose il vescovo la tua disciplina ancora più meritevole perché accetti di fare senza discutere una cosa che non ti va monsignore non vi dispiacerà poi se in paese diranno che sono scappato per la paura no rispose sorridendo il giardo nessuno al mondo potrà mai pensare che don camillo abbia paura va con dio don camillo e lascia stare le panche non sono mai un argomento cristiano in paese si riseppe subito la faccenda e la notizia la portò peppone stesso in una riunione straordinaria don camillo se ne va annunciò peppone trasferito per punizione in un paese di montagna a casa del diavolo parte domani alle 3 bene urlò il consesso e che crepi lassù in fondo è meglio che sia finita così gridò peppone egli credeva di essere diventato il papare e se rimaneva bisognava per forza dargli una spazzolata maiuscola tutta fatica risparmiata deve andar via come un cane urlò il brusco fate capire alla gente che tira brutta aria perché si fa vedere in giro domani dalle 2 alle 3 e mezzo venne l'ora e don camillo preparata la valigia andò a salutare il cristo dell'altare mi dispiace di non potervi prendere con me sospirò da un camillo ti accompagnerò lo stesso rispose il cristo va tranquillo ho fatto davvero una fesseria così grossa da dovermi mandare al confino chiese don camillo sì allora ce li ho proprio tutti contro sospirò don camillo proprio tutti rispose il cristo pure don camillo è contro di te e disapprova quello che hai fatto anche questo è vero riconobbe don camillo mi prenderei a schiaffi tieni a posto le mani don camillo e fa buon viaggio la paura nelle città fa 90 ma nei paesi fa 180 e le strade del paese erano deserte don camillo montò sul vagone e quando vide scomparire il suo campanile dietro un ciuffo d'alberi si sentì pieno di amarezza neanche un cane si è ricordato di me sospirò don camillo si vede proprio che non ho fatto il mio dovere si vede proprio che sono un cattivo soggetto l'accelerato fermava a tutte le stazioni e fermò quindi anche a boschetto che era una borgatella di quattro case a sei chilometri dal paese di don camillo e così improvvisamente don camillo si trovò lo scompartimento invaso e fu spinto al finestrino e si trovò davanti a un mare di gente che batteva le mani e lanciava fiori gli uomini di peppone avevano detto che se uno si faceva vedere in paese la vostra partenza l'avrebbero annebbiato di legnate spiegò il fattore di strada lunga per non far succedere dei pasticci siamo venuti tutti a salutarvi qui don camillo non capiva più niente e sentiva un urlio infernale dentro le orecchie e quando il treno ricominciò a camminare si trovò lo scompartimento pieno di fiori di bottiglie di pacchi di fagotti di pacchetti e galline legate per i piedi schiamazzavano sulle reticelle ma una spina gli rimaneva nel cuore gli altri dunque ce l'hanno veramente a morte con me se hanno fatto questo non gli è bastato farmi cacciare via il treno fermò un quarto d'ora dopo a bosco planche ultima frazione del comune qui don camillo si sentì chiamare si affacciò e si trova davanti il sindaco peppone e la giunta al completo e il sindaco peppone pronunciò il seguente discorso prima che voi uscite dal territorio del comune di nostra pertinenza desideriamo porgervi il saluto della popolazione e l'augurio che la vostra guarigione sia rapida la quale potrete ritornare presto la vostra missione spirituale poi mentre il treno si rimetteva in moto peppone si tolse il cappello con largo gesto e anche don camillo si tolse il cappello e rimase affacciato così col cappello in aria come una statua del risorgimento la chiesa di punta rossa era in cima al cocuzzolo e pareva una cartolina illustrata e don camillo quando arrivò respirò a pieni polmoni l'aria che sapeva di pino ed esclamò soddisfatto un po di riposo quassù mi rimetterà a posto la quale potremo ritornare presto alla nostra missione spirituale e lo quel la quale gli pareva che valesse più di tutti i discorsi di cicerone messi in fila ritorno all'ovile il sacerdote mandato a reggere la parrocchia durante la convalescenza politica di don camillo era un pretino giovane e delicato il quale sapeva perfettamente il fatto suo e parlava con garbo con delle belle paroline rotonde pulitine che parevano appena vendemmiate nella vigna del vocabolario naturalmente pur sapendo che si trattava di una gestione provvisoria il pretino aveva apportato alla chiesa quelle piccole innovazioni che sono necessarie perché un uomo possa trovare sopportabile il soggiorno in casa altrui qui non si fanno paragoni di sorta ma è come quando uno va a dormire all'albergo e anche se sa di doverci rimanere soltanto una notte non può fare a meno di spostare a destra il tavolino che era a sinistra e mettere a sinistra una sedia che stava a destra perché ognuno di noi ha un concetto tutto suo dell'estetica e dell'equilibrio delle masse e dei colori e così prova una sofferenza ogni volta che potendolo non si dà da fare per cercare di ristabilire quell'equilibrio che gli risulta turbato il fatto è che la prima domenica nella quale il pretino ufficiò la gente notò due importanti innovazioni la grande torcia di cera tutta decorata fiorellini che stava a sinistra dell'altare sul secondo gradino della balaustra era stata spostata a destra davanti a un quadretto rappresentante una santa un quadretto che prima non esisteva per la curiosità di vedere il nuovo parroco c'era tutto il paese e peppone e gli altri capocciarossi stavano in prima fila hai visto disse sogghignando il brusco peppone indicandogli il candelabro spostato novità borbottò peppone che era nervosissimo e rimase nervosissimo fino a quando il pretino si appressò la balaustra per fare il rituale di scorsetto allora peppone non ne poté più e prima che il pretino prendesse a parlare si staccò dal gruppo marciò decisamente verso destra agguantò il grande candelabro lo portò verso sinistra e lo sistemò nell'antico posto sul secondo gradino davanti alla balaustra poi ritornò al centro della prima fila e piantatosi a gambe larghe a braccia concerte guardò fieramente negli occhi il pretino bene mormorò tutta la folla dei fedeli reazionari compresi il pretino che a bocca aperta aveva seguito l'azione di peppone impallidì e balbettando alla belle meglio il suo discorsetto ritornò all'altare per terminare la messa quando uscì trovò ad aspettarlo peppone e tutto lo stato maggiore e il sagrato era pieno di gente silenziosa e corrucciata di campo lei don don non so che cosa domandò peppone facendo cadere le parole dall'alto chi sarebbe quella faccia nuova e lei appesa al pilastro a destra dell'altare santa rita da cascia balbettò il pretino in questo paese non c'è niente da fare per santa rita da cascia o altra roba del genere affermò peppone qui va tutto bene come era prima il pretino allargò le braccia io credo di essere nel mio diritto cominciò a protestare il pretino ma peppone non lo lasciò continuare ah lei la prende così e allora parliamoci chiaro qui non c'è niente da fare neanche per i sacerdoti come lei il pretino si sentì mancare il fiato io non so cosa vi ho fatto glielo dico io cosa ha fatto esclamò peppone lei è uscito dalla legalità lei ha cercato di sovvertire un ordine che il titolare effettivo della parrocchia aveva instaurato interpretando la volontà del popolo bene approvò la folla reazionari compresi il pretino tentò di sorridere se non è che questo si rimette tutto come prima e la cosa torna a posto non le pare no rispose peppone buttandosi il cappello all'indietro e piantandosi gli enormi pugni sui fianchi e perché sei lecito peppone era alla fine di tutta la sua riserva di diplomazia beh disse se vuole proprio sapere la cosa non va perché se io le do una sberla la faccio volare lontano 15 metri mentre se do una sberla al titolare effettivo quello non si muove di un centimetro peppone non ritenne utile spiegare che se gli avesse dato una sberla a don camillo don camillo gliene avrebbe restituite otto sorvolò ma il senso era chiaro a tutti meno che al pretino il quale lo guardò atterrito scusi sussurrò ma perché lei vuole picchiarmi peppone perdette la pazienza ma chi la vuole picchiare comincia anche le a denigrare i partiti di sinistra io le ho fatto un paragone semplicemente per chiarire il concetto capirà se io mi perdo a prendere a scapaccioni un acconto di prete come lei a sentirsi qualificare acconto di prete il pretino si erse in tutta la fierezza del suo metro e sessanta e gonfiò le vene del collo acconto o non acconto gridò con voce stridula qui mi ci ha mandato l'autorità ecclesiastica e qui resterò fino a quando vorrà l'autorità ecclesiastica qui dentro non comanda mica lei e santa rita rimarrà dov'è e in quanto al candelabro guardi cosa faccio entrò in chiesa affrontò decisamente il candelabro che era più pesante di lui e dopo una lotta acerrima riuscì a ricollocarlo a sinistra davanti alla nuova immagine ecco disse fieramente va bene rispose peppone che aveva assistito dal portale della chiesa alla scena peppone si volse verso la folla che assiepata sul sagrato aspettava muta e corrucciata e urlò il popolo dirà la sua parola tutti al comune a fare una dimostrazione di protesta bene urlò il popolo peppone fendette la folla e si mise in testa e la massa si inquadrò e lo seguì urlando e agitando bastoni giunto il corteo davanti al municipio le urla si fecero più forti e urlava anche peppone alzando il pugno verso il balcone della sala del consiglio peppone gli gridò nell'orecchio il brusco che dio ti strafulmini piantala di gridare ti sei dimenticato che il sindaco sei tu sacre esclamò peppone quando questi maledetti mi fanno perdere la tramontana non capisco più niente corse su e si affacciò al balcone e la folla lo applaudì reazionari compresi compagni cittadini gridò peppone non sopporteremo questo sopruso che offende la nostra degnità di uomini liberi rimarremo nell'ordine nella legalità fino a quando sarà possibile ma siamo disposti ad arrivarci in fondo anche a cannonate propongo intanto che una commissione al mio comando venga con me dall'autorità ecclesiastica e faccia presente democraticamente la desiderata del popolo bene urlò la folla infischiandosene che i desiderata fossero stati retrocessi al grado di semplice singolare viva il sindaco peppone quando peppone seguito dalla commissione si trovò davanti al vescovo fece fatica a incominciare il suo discorso ma poi prese l'aere eccellenza disse quello che ci avete mandato è un prete che non è degno delle tradizioni del capoluogo comunale il vescovo alzò la testa per guardare la vetta di peppone dite pure cosa ha fatto peppone allargò le braccia per l'amor di dio fatto non ha fatto niente di grave anzi non ha fatto niente il guaio è che insomma eminenza una mezza calzetta voglio dire un pretino così è roba da oratorio quello quando è addobbato scusate ma sembra un attaccapanni con su tre palto è un tabarro il vecchio vescovo tentennò gravemente il capo ma voi disse con molta grazia il valore dei sacerdoti lo misurate col metro e con la bilancia no eccellenza rispose peppone mica siamo selvaggi il fatto è che insomma anche l'occhio vuole la sua parte e in queste cose di religione è come per il medico dove conta molto la simpatia personale per via della suggestione fisica e della fiducia morale il vecchio vescovo sospirò capisco capisco mi rendo conto perfettamente però beati figlioli l'avevate un arciprete che pareva una torre e siete stati proprio voi a venirmi a pregare di togliervelo dai piedi peppone corrugò la fronte monsignore spiegò solennemente si trattava di un caso sbello un caso sui generi come si dice perché quello come uomo era un'associazione a delinquere nel senso che tirava per i capelli al precipizio con le sue pose dittatoriali e provocatorie lo so lo so disse il vescovo me l'avete già detto l'altra volta figliolo e io come vedete l'ho allontanato appunto perché mi sono reso conto che si tratta di un uomo disonesto un momento scusi interruppe il brusco noi non abbiamo mai detto che sia un disonesto se non un disonesto continuò il vecchio vescovo don camillo è un sacerdote indegno in quanto scusi lo interruppe peppone noi non l'abbiamo mai detto che come sacerdote è uno che non fa il suo dovere noi abbiamo parlato dei suoi gravissimi difetti delle sue gravissime colpe come uomo appunto concluse il vecchio vescovo e siccome purtroppo l'uomo e il sacerdote si identificano e siccome come uomo don camillo rappresenta un pericolo per il prossimo stiamo appunto pensando di rendere definitiva la sua sistemazione lo lasceremo là in mezzo alle capre di punta rossa se lo lasceremo perché non è ancora deciso se permetteremo che continui a ufficiare o se lo sospenderemo a divinis staremo a vedere peppone confabulò un poco con la commissione poi si volse monsignore disse sottovoce ed era pallido e sudava perché era costretto a parlare sottovoce se l'autorità ecclesiastica ha dei motivi particolari per fare così padronissima però il dovere di avvertire che fino a quando non ritornerà il titolare effettivo della parrocchia nessuno andrà più in chiesa il vecchio vescovo allargò le braccia figlioli esclamò vi rendete conto della gravità di quanto state dicendo questo è una coercizione no signore spiegò peppone noi non coercizziamo nessuno perché tutti staranno a casa per conto loro e nessuna legge li obbliga ad andare in chiesa è un semplice esercizio della libertà democratica perché gli unici che possono giudicare se un sacerdote va bene o no siamo noi che lo abbiamo sulle costole quasi da vent'anni vox populi vox dei sospirò il vecchio vescovo sia fatta la volontà di dio riprendetevi pure il vostro cattivo soggetto però non venite poi allagnarvi che è un prepotente peppone rise eminenza le smargiassate dei bulli tipo don camillo non ci impressionano certamente altra volta si è fatto così per una semplice precauzione di carattere sociale e politico per evitare che il pelle rossa gli tirasse una bomba in testa pelle rossa sarai tu rimbeccò risentito gigotto l'uomo cui don camillo aveva tinto la faccia con l'anilina e a cui aveva fatto vento con la panca io non gli volevo tirare bombe io gli ho tirato semplicemente un petardo davanti alla casa per fargli capire che io non ero disposto a lasciarmi prendere la pancata in testa anche se lui è il reverendo arciprete ah sei stato tu figliuolo a lanciare il petardo chiese con indifferenza il vecchio vescovo beh eccellenza borbottò gigotto lei sa com'è quando uno si è preso una pancata in testa gli scappa facile qualche fesseria capisco perfettamente rispose il vescovo che era vecchio e sapeva prendere la gente per il verso giusto don camillo ritornò dieci giorni dopo come va gli disse peppone incontrandolo per la strada mentre usciva dalla stazione avete passato bene le vostre vacanze beh c'era poco da stare allegri lassù per fortuna avevo le mie carte e mi sfogavo a fare dei solitari rispose don camillo trasse di tasca un mazzo di carte ecco disse adesso non servono più e delicatamente sorridendo come se rompesse un crostino di pane spaccò il mazzo in due si diventa vecchi signor sindaco sospirò don camillo accidenti a voi a chi vi ha fatto tornare borbottò peppone andandosene con la faccia scura don camillo aveva un sacco di cose da raccontare al cristo dell'altare poi alla fine della chiacchierata fu lui a far domande al cristo che tipo era il mio sostituto chiese con finta indifferenza un bravo ragazzo educato di animo gentile che quando uno gli faceva un piacere non lo ringraziava facendo la smargiassata di spaccargli davanti un mazzo di carte gesù disse don camillo allargando le braccia nessuno però gli ha fatto un piacere qui e poi certa gente bisogna ringraziarla con questo sistema scommettiamo che adesso peppone sta dicendo a quelli della sua banda capisci un mazzo di carte ha spaccato così zac zac quel figlio d'un cane e lo dice con intimo compiacimento vogliamo scommettere no rispose il cristo sospirando no perché peppone sta appunto dicendo così la disfatta la lotta a coltello che durava ormai da quasi un anno fu vinta da don camillo il quale riuscì a finire il suo ricreatorio popolare quando alla casa del popolo di peppone mancavano ancora tutti i serramenti il ricreatorio popolare risultò una faccenda molto in gamba salone ritrovo per rappresentazioni conferenze e mercanzia del genere bibliotechina con sala di lettura e scrittura area coperta per allenamenti sportivi e giochi invernali inoltre una magnifica distesa cintata contenente campo ginnico pista piscina giardino per l'infanzia con giostra altalena eccetera roba per la massima parte ancora allo stato embrionale ma in tutte le cose l'importante è cominciare per la festa di inaugurazione don camillo aveva preparato un programma in gamba canti corali gare atletiche e partita di calcio perché don camillo aveva messo assieme una squadra semplicemente formidabile e fu questo un lavoro cui don camillo dedicò tanta passione che fatti i conti alla fine degli otto mesi di allenamento le pedate che don camillo aveva dato da solo agli undici giocatori risultarono molto più numerose delle pedate che gli undici giocatori messi assieme erano riusciti a dare a un solo pallone peppone sapeva tutto e masticava amaro e non poteva sopportare che un partito il quale rappresentava veramente il popolo dovesse risultare secondo nella gara iniziata con don camillo a favore del popolo e quando don camillo gli aveva fatto sapere che per dimostrare la sua simpatia verso i più ignoranti strati e sociali del paese avrebbe generosamente concesso alla squadretta di calcio dinamos di misurarsi con la sua gagliarda peppone diventò pallido e fatti chiamare gli undici ragazzi della squadra sportiva sezionale e appiccicatili sull'attenti contro il muro fece loro questo discorso giocherete con la squadra del prete dovete vincere o vi spacco la faccia a tutti è il partito che lo comanda per l'onore del popolo vilipeso vinceremo risposero gli undici che sudavano per la paura quando lo seppe don camillo radunò gli uomini della gagliarda e riferì in merito qui non siamo tra gente rozza e selvaggia come nell'ambiente di quelli là concluse sorridendo e possiamo ragionare da gentiluomini assennati con l'aiuto di dio gli appiccicheremo sei gol a zero io non faccio minacce io dico semplicemente che l'onore della parrocchia nelle vostre mani anzi nei vostri piedi ognuno faccia il suo dovere di buon cittadino se poi naturalmente c'è qualche barabba che non ce la mette tutta fino all'ultima goccia io mica faccio le tragedie di peppone che spacca le facce io gli polverizzo il sedere a pedate alla festa dell'inaugurazione c'era tutto il paese peppone in testa con tutta la mercanzia del seguito in fazzoletto rosso sgargiante in qualità di sindaco generico si compiacque dell'iniziativa e come rappresentante del popolo in particolare affermò serenamente la sua fiducia che l'iniziativa non sarebbe servita indegni scopi di propaganda politica come qualche maligno già sussurrava in giro durante l'esecuzione dei cori peppone trovò modo di osservare col brusco che in fondo anche il canto è uno sport in quanto sviluppa i polmoni e il brusco con signorile pacatezza gli rispose che secondo lui la cosa sarebbe risultata ancora più efficace agli effetti del miglioramento fisico della gioventù cattolica se i giovinetti avessero accompagnato il canto con gesti adeguati in modo da sviluppare oltre a quelli del polmone anche i muscoli delle braccia durante la partita di palla al cesto peppone disse con sincera convinzione che anche il gioco dei cerchietti ha oltre a un indubbio valore atletico una sua finissima grazia e si stupì che in programma non fosse compresa anche una gara di cerchietti siccome queste osservazioni erano espresse con tale discrezione che si potevano agevolmente udire fino a 700 metri di distanza don camillo aveva le vene del collo che sembravano due pali di gaggia e aspettava quindi con ansia indescrivibile che arrivasse il momento della partita allora avrebbe parlato lui e venne il momento della partita maglia bianca con grande g nera sul petto gli undici della gagliarda maglia rossa con falce e martello e stella intrecciati con una elegante d gli undici della dinamos il popolo se ne infischiò dei simboli e salutò le squadre a modo suo viva peppone o viva don camillo peppone e don camillo si guardarono e con molta dignità si salutarono chinando leggermente il capo arbitro neutro l'orologiaio binella a politico dalla nascita dopo dieci minuti di gioco il maresciallo dei carabinieri pallido come un morto si avvicinò a peppone seguito dai due militi parimenti esangui signor sindaco valbettò crede opportuno che che telefono in città per avere rinforzi lei può chiamare una divisione se vuole ma qui se quei macellai non la smettono di fare il gioco pesante nessuno potrà impedire che ci scappi fuori un mucchio di morti alto fino al terzo piano neanche sua maestà il re lo potrebbe impedire ha capito urlò peppone dimenticando tanto era l'orgasmo perfino l'esistenza della repubblica il maresciallo si volse a don camillo che era lì a un metro lei crede che balbettò ma don camillo non lo lasciò finire io urlò credo semplicemente che neanche l'intervento americano in persona potrà impedire che si nuoti nel sangue qui se quei bolshevichi maledetti non la smettono di rovinarmi gli uomini tirando calci negli stinchi va bene concluse il maresciallo e andò a barricarsi coi suoi due uomini in caserma perché sapeva benissimo che alla fine di tutte queste faccende la gente chiude i festeggiamenti tentando di bruciare la caserma dei carabinieri il primo gol lo segnò la gagliarda e si levò un urlo che fece tremare il campanile peppone con la faccia stravolta si volse verso don camillo stringendo i pugni per buttarglisi addosso don camillo rispose mettendosi in guardia mancava un millimetro al cozzo ma don camillo vide con la coda dell'occhio che la gente sarà improvvisamente immobilizzata e tutti gli occhi erano fissi su di lui e su peppone se ci picchiamo noi qui succede la battaglia di maclodio disse a denti stretti don camillo va bene lo faccio per il popolo rispose peppone ricomponendosi e io per la cristianità disse don camillo non accadde niente però peppone finito dopo pochi istanti il primo tempo radunò la dinamos fascisti disse con voce piena di disgusto poi afferrò per il collo lo smilzo il centro attacco tu sporco traditore ricordati che quando eravamo in montagna io ti ho salvato la pelle tre volte se entro i primi cinque minuti non segni questa volta te la faccio la pelle lo smilzo iniziato il secondo tempo e avuta la palla partì lavorò con la testa coi piedi con le ginocchia col sedere diede perfino una morsicata al pallone sputò un polmone si spaccò la milza ma al quarto minuto spediva il pallone in porta poi si buttò per terra e non si mosse più don camillo andò a mettersi dalla parte opposta del campo per non compromettersi il portiere della gagliarda aveva la febbre per la paura i rossi si chiusero nella difensiva e non ci fu verso di rompere il cerchio 30 secondi prima della fine l'arbitro fischiò un fallo rigore contro la gagliarda il pallone partì non l'avrebbe parato neppure zamora un angolo simile gol ormai la partita era finita l'unico compito degli uomini di peppone era quello di recuperare i giocatori e riportarli in sede l'arbitro era politico si arrangiasse don camillo non capiva più niente corse in chiesa e andò inginocchiarsi davanti all'altare signore disse perché non mi hai aiutato ho perso e perché dovevo aiutare te e non gli altri 22 gambe quelle dei tuoi uomini 22 quelle degli altri don camillo tutte le gambe sono uguali io non posso occuparmi di affari di gambe io mi occupo di anime da mi animas eccetera tolle io i corpi li lascio alla terra don camillo non riesci dunque a ritrovare il tuo cervello faccio fatica ma lo ritrovo rispose don camillo non pretendevo che voi amministraste personalmente le gambe dei miei tanto più che sono migliori di quelle degli altri dico che non avete impedito che la disonestà di un uomo incolpasse i miei uomini di un fallo non commesso sbaglia il prete nel dir messa a don camillo perché non ammetti che altri possa sbagliare pur senza essere in mala fede si può ammettere che uno sbagli in tutti i campi ma non quando si tratta di arbitraggio sportivo quando c'è di mezzo un pallone anche don camillo ragiona non peggio di peppone ma addirittura peggio di fulmine che non ragiona per niente continuò il cristo anche questo è vero ammise don camillo però binella è un farabutto non poté continuare perché udì avvicinarsi un vocio tremendo e di lì a poco entrò un uomo disfatto ansimante col terrore sul viso vogliono ammazzarmi singhiozzò salvatemi la folla era davanti alla porta e stava per entrare don camillo abbrancò un candelabro di mezzo quintale e lo brandì minaccioso in nome di dio gridò indietro o vi spacco la testa ricordatevi che chi entra qui è sacro ed intoccabile la gente ristette vergognati mandria scatenata torna la tua stalla a pregare dio che ti perdoni la tua bestialità la gente abbassò il capo confusa e silenziosa e fece per andarsene segnatevi ordinò don camillo e col candelabro brandito nella mano ciclopica alto come una montagna spareva sansone tutti si segnarono fra voi e l'oggetto del vostro odio bestiale sta la croce che ognuno di voi ha tracciato con la sua mano chi cerca di violare questa sacra barriera è un sacrilego vade retro rientrò e diede il catenaccio alla porta ma non ce n'era bisogno l'uomo era accasciato su una panca e ansimava ancora grazie don camillo sussurrò don camillo non rispose camminò un poco in su in giù poi si fermò davanti all'uomo binella disse fremendo don camillo binella qui davanti a me a dio non puoi mentire il fallo non c'era quanto ti ha dato quel mascalzone di peppone per farti fischiare un fallo in caso di partita pari duemila cinquecento lire muggì don camillo mettendogli i pugni sotto il naso ma gemette binella via urlò don camillo indicandogli la porta rimasto solo don camillo si rivolse al cristo ve l'avevo detto io che quello è un venduto maledetto o o non ho ragione di arrabbiarmi no don camillo rispose il cristo la colpa è tua che per lo stesso servizio hai offerto a binella duemila lire quando peppone gliene ha offerte cinquecento di più egli ha accettato la proposta di peppone don camillo allargò le braccia gesù disse ma allora se noi ragioniamo così va a finire che il colpevole sono io proprio così don camillo proponendogli tu sacerdote per primo l'affare egli ha stimato che fosse un affare lecito e allora affare lecito per affare lecito si prende quello che frutta di più don camillo abbassò il capo vorreste dire che se quel disgraziato adesso prendeva un sacco di botte dei miei la colpa sarebbe stata mia in un certo senso sì perché sei stato tu il primo a indurre l'uomo in tentazione però la colpa tua sarebbe stata maggiore se accettando la tua offerta binella avesse concesso il fallo a favore dei tuoi perché allora lo avrebbero picchiato i rossi e quelli non avresti potuto fermarli don camillo ci pensò sopra un poco in conclusione disse è meglio che abbiano vinto gli altri proprio così don camillo gesù allora vi ringrazio di avermi fatto perdere e se vi dico che accetto serenamente la sconfitta come punizione della mia disonestà dovete credere che son pentito davvero perché a non arrabbiarsi vedendo perdere una squadra così una squadra che non faccio per vantarmi potrebbe giocare in divisione b una squadra che di dinamos se ne mangia duemila credete è una cosa che spacca il cuore e grida vendetta a dio don camillo ammoni sorridendo il cristo non potete capirmi sospirò don camillo lo sport è una faccenda tutta speciale chi c'è dentro c'è dentro e chi non c'è dentro non c'è dentro rendo l'idea fin troppo povero don camillo ti capisco tanto che beh quando farete la rivincita don camillo balzò in piedi col cuore pieno di gioia sei a zero gridò sei a palla da schioppo che non li vedranno neanche passare quanto è vero che centro quel confessionale buttò in aria il cappello e con un calcio l'agguantò al volo e lo fulminò dentro la finestrina del confessionale gol disse il cristo sorridendo il vendicatore apparve lo smilzo sulla bicicletta da corsa e frenò all'americana roba speciale che consiste nel saltar giù di sella per di dietro sedendosi a cavalcioni sulla ruota don camillo stava leggendo il giornale seduto sulla panchetta davanti alla canonica e sollevò il capo te li passa stalin i calzoni si informò pacatamente lo smilzo gli porse una lettera si toccò con l'indice la visiera del berretto rimontò sulla bicicletta e quando fu per svoltare l'angolo della canonica si volse un momentino me li passa il papa gridò alzandosi poi in piedi sui pedali e scattando a fulmine don camillo si aspettava quella lettera si trattava dell'invito alla cerimonia inaugurale della casa del popolo con annesso un programma di festeggiamenti discorsi relazioni corpo bandistico rinfresco e nel pomeriggio un grande incontro di pugilato fra il campione della sezione locale peso massimo compagno bagotti mirco e il campione della federazione provinciale peso massimo compagno gorlini anteo don camillo si recò a riferire al cristo dell'altare gesù esclamò dopo avergli letto il programma questa si chiama disonestà se peppone non fosse l'ultimo dei cafoni avrebbe messo in programma non una scazzottatura ma la partita di rivincita fra la dinamos e la gagliarda quindi io adesso quindi tu adesso non ti sogni neanche di andargli a dire quattro come desidereresti in quanto hai torto lo interruppe il cristo era logico che peppone cercasse di fare qualcosa di diverso da voi secondariamente era logico che peppone non si esponesse a inaugurare la sua casa con una sconfitta anche se il suo campione ammettiamo dovesse perdere niente di male compagno l'uno compagno l'altro roba che resta in famiglia una sconfitta subita per opera della tua squadra sarebbe risultata dannosa al prestigio del suo partito don camillo tu devi quindi ammettere che peppone non poteva programmare un incontro con la tua squadra però esclamò don camillo io l'ho invece programmato un incontro con la sua squadra e ho anche perso don camillo ribatte il cristo con dolcezza ma tu non rappresenti un partito i tuoi ragazzi non difendevano i colori della chiesa difendevano semplicemente il prestigio di una squadra sportiva che felice combinazione è sorta all'ombra della chiesa parrocchiale o credi forse che quella di domenica sia stata una sconfitta della religione cristiana don camillo si mise a ridere gesù protestò mi fate torto se pensate che io ragioni così io dicevo soltanto che sportivamente parlando peppone un cafone e quindi mi perdonerete se io mi metterò a sghignazzare quando il suo famoso campione si prenderà tante di quelle sventole che al terzo round non saprà più come si chiama sì ti perdonerò don camillo non ti perdonerò invece di trovare anche tu divertente lo spettacolo di due che tentano di accopparsi a pugni don camillo allargò le braccia io non ho mai pensato questo e mai accetterei di avallare con la mia presenza simili manifestazioni di brutalità che servono soltanto a potenziare quel culto della violenza che è già tanto radicato nell'animo delle masse io sono perfettamente d'accordo con voi e condanno ogni sport dove la destrezza è in secondo piano rispetto alla forza bruta bravo don camillo disse il cristo se un uomo sente il bisogno di sgranchire i muscoli non è per niente necessario che gli prenda pugni il suo prossimo basta che egli dopo essersi protetto le mani con guanti bene imbottiti si sfoghi con un sacco di segatura o una palla appesi in qualche parte appunto disse don camillo segnandosi rapidamente e precipitandosi per uscire levami una curiosità don camillo esclamò il cristo come si chiama quella palla di cuoio che hai fissato con la corda elastica al soffitto e al pavimento del solaio mi pare punching ball borbottò don camillo fermandosi e che cosa significa non so l'inglese rispose don camillo svicolando don camillo presenziò alla cerimonia inaugurale della casa del popolo e peppone in persona lo accompagnò a visitare i locali si trattava di una faccenda veramente in gamba cosa ve ne pare gli chiese peppone che schiattava dalla gioia carino rispose sorridendo don camillo dico la verità non pare davvero che l'abbia disegnata un povero capomastro come il brusco già borbottò peppone il quale aveva speso l'ira di dio per farsi disegnare il progetto dal migliore architetto della città mica male l'idea di mettere le finestre coricate anziché in piedi osservò don camillo si possono tenere le stanze più basse senza che la cosa stoni bene bene questo sarebbe il magazzino è il salone delle adunanze spiegò peppone e l'armeria e la cella per gli avversari pericolosi le avete sistemate nelle cantine no rispose peppone gli avversari pericolosi non ne abbiamo è tutta robetta che può rimanere in circolazione per via dell'armeria invece avremmo pensato di usufruire in caso di bisogno della vostra ottima idea rispose garbatissimo don camillo del resto voi avete visto con quale cura io custodisco il mitra che voi mi avete affidato signor peppone erano arrivati davanti a un grande quadro rappresentante un uomo con enormi baffi giù occhietti piccoli e pipa quello sarebbe uno dei vostri morti si informò con punto don camillo quello sarebbe uno dei nostri vivi che quando arriverà vi farà sedere sul parafulmine del campanile spiegò peppone che non ne poteva più è un posto troppo alto per un umile arciprete il posto più alto del paese aspetta sempre il sindaco e io lo metto sindora a vostra completa disposizione avremo l'onore di avervi fra noi alla partita di box di oggi signor arciprete grazie il mio posto datelo pure a fulmine che è più in grado di me di apprezzare l'intima bellezza e il profondo significato educativo e spirituale dello spettacolo io ad ogni modo mi tengo pronto in canonica caso mai il vostro campione avesse bisogno dell'olio santo non fate che mandarmi lo smilzo e io in due minuti sono qui nel pomeriggio don camillo rimase a chiacchierare col cristo un'oretta poi chiese licenza o sonno vado un po a letto e vi ringrazio di aver fatto piovere a catinelle secondo me ciò farà molto bene al frumento e soprattutto impedirà secondo te che molta gente che abita lontano possa venire ad assistere alla manifestazione di peppone aggiunse il cristo non è così don camillo scosse il capo la pioggia pur venendo giù a catinelle non aveva guastato per niente la festa di peppone da tutte le frazioni del comune e dai comuni più vicini era venuta gente e la grande palestra della casa del popolo era piena come un uovo il campione della federazione era un bel nome e bagotti aveva un'indubbia popolarità nella zona e poi era un po un incontro fra città e campagna e la cosa interessava peppone in prima fila sotto il ring era trionfante per quella affluenza inoltre era sicuro che alla peggio bagotti avrebbe perso i punti in un caso simile è una vittoria alle quattro precise dopo un putiferio di battimani e di urla da far crollare il soffitto risuonò il primo colpo di gong e la gente cominciò a rovinarsi il fegato per il tifo il campione provinciale si vide subito aveva uno stile superiore a quello di bagotti però bagotti era più svelto e il primo round fu una cosa davvero da togliere il fiato peppone era allagato di sudore e pareva avesse mangiato dinamite il secondo round cominciò bene per bagotti che era all'attacco ma improvvisamente bagotti crollò come un masso e l'arbitro cominciò a contare i secondi no urlò peppone balzando in piedi sulla sedia colpo basso il campione federale si volse verso peppone sorridendo sarcastico fece di no con la testa e si toccò col pugno il mento no urlò peppone esasperato mentre la gente tumultuava hanno visto tutti prima gli hai dato un colpo basso e quando lui per il dolore si è chinato tu gli hai mollato il pugno al mento non vale il campione federale scrollò le spalle sghignazzando e intanto l'arbitro aveva contato fino a dieci e ora afferrava la mano del pugile per alzargliela ma qui accadde la tragedia peppone buttò via il cappello e con un balzo fu sulla pedana e si avanzò stringendo i pugni contro il campione federale ti faccio vedere io urlò peppone pestalo peppone gridò la gente impazzita il pugile si mise in guardia e peppone gli calò addosso come un panzer e sparò un cazzotto ma peppone era troppo arrabbiato per ragionare e l'altro schivò facilmente gli saettò un diretto alla mascella e non fece fatica a tirarlo forte giusto perché peppone stava lì fermo completamente scoperto ed era come picchiare su un sacco di segatura peppone crollò come un masso e nella folla corse una ventata di sgomento che ghiacciò le parole in gola a tutti ma ecco che mentre il campione federale guarda sorridendo di commiserazione il gigante disteso sul tappeto la folla leva un urlo tremendo un uomo è salito sul ring non si cura neanche di togliersi l'impermeabile bagnato e il berretto afferra due guantoni che stanno sul panchetto all'angolo delle corde se li infila senza neanche legarli si pianta in guardia davanti al campione e gli allenta una sberla il campione federale scansa naturalmente ma non può rispondere perché l'altro è coperto si tratta di rimandare di tre secondi saltella attorno all'uomo che si limita a girarsi lento e tardo e arrivato il momento gli spara un diretto formidabile l'altro manco si muove con la sinistra devia e con la destra gli spara la macella un cazzotto talmente maledetto che il campione lo incassa a wagon lì cioè addormentandosi in viaggio e piombando già addormentato giù dal ring la gente diventa matta fu il campanaro che portò la notizia in canonica e don camillo dovette saltar giù dal letto e aprirgli perché il sagrestano pariva impazzito e se non gli raccontava tutto da la alla z sarebbe scoppiato don camillo scese per riferire al cristo e allora chiese il cristo come andata un putiferio vergognoso uno spettacolo di disordine di immoralità da non immaginarsi come la faccenda del tentato linciaggio del tuo arbitro si informò con indifferenza il cristo don camillo rise altro che arbitro al secondo round il campione di peppone è crollato come un sacco di patate e allora peppone in persona è salito sul ring e si è messo a scazzottarsi col vincitore naturalmente siccome è forte come un bue ma è talmente zuccone che va avanti a plotoni affiancati come gli zulu e i russi l'altro gli rifila un diretto al mento e te lo stende secco come un chiodo così sono due le sconfitte che ha sofferto la sua sezione sì due la sezione e una la federazione sghignazzò don camillo perché non è finita infatti appena il peppone crolla ecco che salta su un altro uno di quelli venuti dai comuni vicini pare un pezzo di accidente con barba e baffi il quale anche lui si pianta in guardia e molla uno sganassone al campione federale e così quello schiva e risponde e anche l'uomo con la barba finisce a terra per far completo questo spettacolo brutale interruppe il cristo no l'uomo è coperto come una cassaforte allora il campione federale comincia a fare i salterelli per prenderlo di sorpresa ed ecco che zack spara un diretto di destra allora io devio di sinistro lo fulmino con un destro giù dal ring cosa c'entri tu non capisco hai detto io devio di sinistro e lo fulmino con un destro non so proprio come io possa aver detto così il cristo scosse il capo che sia forse per il fatto che quell'uomo che ha picchiato il campione eri tu non mi pare rispose gravemente don camillo io non non ho né barba né baffi uno potrebbe mettersi li finti magari per non far vedere alla gente che l'arciprete trova interessante lo spettacolo di due uomini che si prendono pubblicamente a pugni don camillo allargò le braccia gesù tutto può darsi bisogna tener presente che anche gli arcipreti sono fatti di carne il cristo sospirò noi teniamo presente questo però teniamo presente pure che gli arcipreti se sono fatti di carne dovrebbero non dimenticarsi mai di essere fatti anche di cervello perché se l'arciprete di carne si traveste per andare a una partita di pugilato l'arciprete fatto di cervello gli impedisce di dare spettacolo di violenza don camillo scosse il capo giusto però bisognerebbe tener presente che gli arcipreti oltre che di carne e di cervello sono fatti anche di qualcos'altro e allora quando questo qualcos'altro vede un sindaco essere appiccicato al pavimento davanti a tutti i suoi amministrati da un puzzone di città che vince tirando colpi bassi roba che grida vendetta dio questo qualche cosa prende l'arciprete di carne l'arciprete di cervello e gli obbliga a salire sul ring il cristo tentenò il capo vorresti dire che io dovrei tener conto che gli arcipreti sono fatti anche di cuore per l'amor del cielo esclamò don camillo io non mi permetterò mai di darvi dei consigli se mai posso farvi presente che nessuno sa chi sia l'uomo con la barba beh non lo so neanche io rispose sospirando il cristo piuttosto hai un'idea di quello che voglia dire punching ball le mie nozioni di lingua inglese non sono aumentate signore rispose don camillo facciamo a meno di sapere anche questo disse sorridendo il cristo in fondo la cultura alle volte è più un male che un bene ciao campione federale notturno con campane da un pezzo don camillo si sentiva due occhi addosso volgendosi all'improvviso quando camminava sulla strada o fra i campi non vedeva nessuno ma era sicuro che se avesse cercato dietro la siepe o in mezzo ai cespugli avrebbe trovato gli occhi e il resto uscito un paio di volte la sera avendo avvertito un fruscio dietro la porta di casa intravide un'ombra lascialo fare gli aveva risposto il cristo dall'altare quando don camillo gli aveva chiesto consiglio due occhi non hanno mai fatto del male a nessuno bisognerebbe sapere se i due occhi viaggiano da soli o in compagnia di un terzo occhio per esempio calibro nove sospirò don camillo è un particolare che ha la sua importanza niente può intaccare una coscienza tranquilla don camillo lo so gesù sospirò ancora don camillo il guaio è che di solito la gente che si comporta così non spara sulla coscienza ma fra le spalle don camillo non ne fece niente però e passò ancora del tempo e una sera tardi egli era solo in canonica e stava leggendo quando sentì improvvisamente gli occhi ed erano tre e sollevando lentamente il capo don camillo vide dapprima all'occhio nero di una pistola e poi incontrò gli occhi del biondo debbo alzare le mani chiese tranquillo don camillo non voglio farvi niente rispose il biondo riponendo la pistola nella tasca della giacca avevo paura che vi spaventaste vedendomi all'improvviso e vi metteste a gridare capisco rispose don camillo non hai pensato che bussando alla porta avresti evitato tutto questo lavoro il biondo non rispose e andò ad appoggiarsi al davanzare della finestra poi si volse d'improvviso e si mise a sedere davanti al tavolino di don camillo aveva i capelli scomposti gli occhi con profonde occhiaie e la fronte piena di sudore don camillo disse il biondo fra i denti quello della casa dell'argine l'ho fatto fuori io don camillo accese il toscano quello dell'argine disse tranquillo beh roba vecchia roba a sfondo politico roba che rientra nell'amnestia di che ti preoccupi sei a posto con la legge il biondo alzò le spalle me ne frego dell'amnestia disse con rabbia io tutte le notti appena spengo la luce me lo sento vicino al letto quello là io non riesco a capire cosa sia questa faccenda don camillo soffiò in aria il fumo azzurro del sigaro niente biondo rispose sorridendo da retta dormi con la luce accesa il biondo balzò in piedi voi dovete andare a prendere in giro quel cretino di peppone gridò mica me don camillo scosse il capo prima di tutto peppone non è per niente un cretino secondariamente io per te non posso fare nient'altro se c'è da comprare delle candele o da fare delle offerte per la chiesa io pago gridò il biondo però voi dovete assolvermi del resto io con la legge sono già a posto siamo d'accordo figliolo disse con dolcezza don camillo il guaio è che l'amnestia per le coscienze non l'hanno fatta quindi qui si continua ancora col sistema di prima e per essere assolti occorre pentirsi e poi dimostrare di essere pentiti e poi fare in modo di meritare di essere perdonati roba lunga il biondo ghignò pentirmi pentirmi di aver fatto fuori quello là mi dispiace di averne fatto fuori uno solo è un ramo nel quale sono completamente incompetente d'altra parte se la tua coscienza ti dice che hai fatto bene tu sei a posto disse don camillo aprendo un libro e mettendolo davanti al biondo vedi noi abbiamo dei regolamenti molto precisi senza esclusione per il movente politico quinto non ammazzare settimo non rubare cosa c'entra questo chiese il biondo con voce misteriosa niente lo rassicurò don camillo mi pareva proprio che tu mi avessi detto che con la scusa della politica lo avessi fatto fuori per prendergli soldi non l'ho detto gridò il biondo cacciando fuori la pistola e puntandola contro il viso di don camillo non l'ho detto ma è vero sì che è vero e se voi avete il coraggio di raccontarlo a qualcuno io vi fulmino noi queste cose non le diciamo neppure al padre eterno lo rassicurò don camillo tanto egli lo sa meglio di tutti il biondo parve calmarsi aperse la mano e guardò la pistola bella testa esclamò ridendo non mi ero neanche accorto che c'è la sicura girò il piolino e mise il colpo in canna don camillo disse il biondo con voce strana io sono stufo di vedere quello là vicino al mio letto qui i casi sono due o mi assolvete o vi sparo la pistola gli tremava leggermente nella mano e don camillo impallidì e guardò il biondo negli occhi gesù disse mentalmente don camillo questo cane è rabbioso e sparerà una soluzione concessa in condizioni simili non vale niente che faccio se hai paura assolvilo rispose la voce del cristo don camillo incrociò le braccia sul petto no biondo disse don camillo il biondo strinse i denti don camillo datemi la soluzione o sparo no il biondo fece scattare il grilletto il grilletto scattò ma il colpo non partì allora don camillo lo fece partire lui un colpo e il colpo partì arrivò giusto al segno perché i cazzotti di don camillo non facevano mai cilecca poi si buttò sul campanile e alle undici di notte scampano a festa per venti minuti e tutti dissero che don camillo era diventato matto tutti meno il cristo dell'altare che scosse il capo sorridendo e il biondo che correndo attraverso i campi come pazzo era arrivato in riva al fiume e stava per buttarsi nell'acqua nera ma il suono delle campane lo raggiunse e lo fermò e il biondo tornò indietro perché aveva udito come una voce nuova per lui e questo fu il vero miracolo perché una pistola che facci lecca è un fatto di questo mondo ma la faccenda di un prete che si mette a scampanare a festa alle undici di notte è roba davvero dell'altro mondo uomini e bestie la grande era una tenuta che non finiva più con una stalla di cento vacche caseificio a vapore frutteto e via discorrendo tutta roba del vecchio pasotti il quale viveva solo alla badia e aveva ai suoi ordini un esercito di famigli un giorno i famigli si misero in agitazione e guidati da peppone andarono tutti alla badia e il vecchio pasotti diede loro udienza da una finestra di ovi fulmini gridò il pasotti mettendo fuori la testa in questo sporco paese non usa più lasciare in pace i galantuomini i galantuomini sì rispose peppone ma gli sfruttatori che negano ai lavoratori quello che gli spetta per diritto no per me il diritto è quello fissato dalla legge ribatte il pasotti e io con la legge sono a posto allora peppone disse che fino a quando il pasotti non avesse concesso le migliorie i lavoratori della grande si sarebbero astenuti da ogni lavoro alle vostre cento vacche gli darete da mangiare voi concluse peppone bene rispose il pasotti e chiusa la finestra andò a riprendere il sonno interrotto così cominciò lo sciopero alla grande e fu una cosa organizzata personalmente da peppone con squadre di sorveglianza turni di guardia staffette e posti di blocco le porte e le finestre della stalla vennero inchiodate e furono messi sui gelli il primo giorno le vacche mugirono perché non le avevano munte il secondo giorno mugirono perché non le avevano munte e perché avevano fame e il terzo giorno si aggiunse al resto la sete e i mugiti si udivano fino fuori comune allora la vecchia serva del pasotti uscì dalla porticina di servizio della badia e agli uomini del posto di blocco spiegò che andava in paese alla farmacia a comprare della roba disinfettante ha detto il padrone che lui non vuole prendere il colera per via del puzzo che faranno le vacche quando saranno morte di fame questo fece scrollare il capo ai più vecchi famigli i quali da 50 anni lavoravano con pasotti e sapevano che il pasotti aveva una testa più dura della ghisa allora intervenne personalmente peppone con lo stato maggiore e uomini suoi e disse che se uno aveva il coraggio di avvicinarsi alla stalla lo avrebbe trattato come un traditore della patria verso la sera del quarto giorno arrivò in canonica giacomo un vecchio vaccaro della grande c'è una vacca che deve partorire e grida da spaccare il cuore e quella crepa di sicuro se non la vanno ad aiutare ma se uno si avvicina alla stalla gli rompono le ossa don camillo andò ad aggrapparsi alla balaustra dell'altare gesù disse al cristo crocifisso tenetemi o faccio la marcia su roma calmati don camillo lo ammonì dolcemente il cristo con la violenza non si può ottenere niente bisogna calmare la gente con ragionamento non esasperarla con atti di violenza giusto sospirò don camillo bisogna indurre la gente a ragionare peccato però che mentre si induce la gente a ragionare le vacche crepino il cristo sorrise se usando la violenza alla quale chiama violenza riusciremo a salvare cento bestie ma perdiamo un uomo e se usando la persuasione perdiamo cento bestie ma evitiamo la perdita di quell'uomo secondo te è meglio la violenza o la persuasione don camillo che non riusciva a rinunciare all'idea di fare la marcia su roma tanto era indignato scosse il capo voi gesù mi spostate i termini qui non è questione di cento bestie qui si tratta di patrimonio pubblico e la morte di cento bestie non rappresenta semplicemente un danno per quella testa di ghisa di pasotti rappresenta un danno per tutti buoni e cattivi e può avere ripercussioni tali da inasprire ancor più i dissidi esistenti e creare un conflitto nel quale invece di uno scappano fuori venti morti il cristo non era d'accordo se col ragionamento eviti il morto oggi perché col ragionamento non potresti evitare i morti di domani don camillo hai perso la tua fede don camillo uscì a camminare attraverso i campi perché era nervoso e così a un tratto guarda il caso cominciò a udire vicini vicini i mugiti delle cento vacche della grande poi sentì parlottare gli uomini del posto di blocco e dopo dieci minuti si trovò a strisciare dentro il grosso tubo di cemento del canale di irrigazione che passava sotto la rete metallica e che per fortuna era in secca adesso pensò don camillo bisognerebbe che qualcuno fosse ad aspettarmi in fondo al tubo per pestarmi una botta in testa e saremmo a posto invece non c'era nessuno e così don camillo poteva incamminarsi cautamente dentro il canale verso la fattoria alto là disse poco dopo una voce e don camillo con un balzo fu fuori del canale e si buttò dietro un grosso tronco alto là o sparo disse ancora la voce che veniva ora da dietro un grosso tronco dall'altra parte del canale era la sera delle combinazioni e don camillo si trovò per caso un grosso affare d'acciaio tra le mani e allora tirò indietro un certo ornese che si muoveva e rispose attento peppone perché sparo anch'io ah borbottò l'altro volevo ben vedere che non mi capitasse fra i piedi anche in questo affare tregua di dio disse don camillo chi manca la parola e carne del demonio adesso conto e quando dico tre tutti e due saltiamo dentro il fosso non sareste neanche un prete se non foste così malfidente rispose peppone e altre saltò e si trovarono seduti sul fondo del canale giungeva dalla stalla l'infernale mugire delle vacche ed era una cosa da far venire il sudor freddo chissà come ti diverti con questa musica borbottò don camillo peccato che quando le vacche saranno morte la musica cesserà fate bene a tener duro anzi dovresti spiegare ai famigli di bruciare i granai i finili e anche le case dove abitano pensa che rabbia il povero pasotti costretto a rifugiarsi in un alberguccio svizzero e a spendere i pochi milioni che ha in deposito laggiù bisogna vedere se ci arriverà in svizzera rispose minaccioso peppone giusto esclamò don camillo hai ragione è ora di piantarla con la vecchia storia del quinto comandamento che dice di non ammazzare e quando poi uno si troverà davanti al padre eterno parlerà chiaro poche storie caro signor padre eterno o peppone dichiara lo sciopero generale e fa incrociare le braccia a tutti a proposito come farai peppone a far incrociare le braccia ai cherubini ci hai pensato peppone mugì peggio della vacca che doveva avere il vitellino e che urlava da spaccare il cuore voi non siete un prete disse a denti stretti siete il comandante generale della gpu della gestapo corresse don camillo la gpu è roba vostra voi girate di notte in casa d'altri con un mitra tra le zampe come un bandito e tu obiettò calmo don camillo io sono al servizio del popolo e io sono al servizio di dio peppone diede un calcio a un sasso non si può parlare coi preti dopo due parole ecco che ti buttano subito la cosa in politica peppone cominciò con dolcezza don camillo ma l'altro non lo lasciò continuare non venite a parlarmi di patrimonio nazionale e altre belle storie o quanto è vero dio vi sparo esclamò don camillo scosse il capo coi rossi non si può parlare dopo due parole ecco che ti buttano subito la cosa in politica la vacca che doveva avere il vitellino fece udire alto il suo muggito chi è là disse in quel momento qualcuno vicino al fosso ed erano il brusco il magro e il bigio fate un giro lungo la strada del mulino ordinò peppone va bene rispose il brusco con chi stai parlando con l'animaccia tua gridò peppone imbestialito la vacca che deve avere il vitello grida borbottò il brusco vallo a raccontare al prete urlò peppone lascia che si scanni io faccio gli interessi del popolo non quelli delle vacche non arrabbiare capo balbettò il brusco filando via con la squadra bene peppone sussurrò don camillo allora andiamo a fare gli interessi del popolo cosa avreste intenzione di fare don camillo si incamminò tranquillo lungo il canale verso la fattoria e peppone gli disse che si fermasse o gli avrebbe sparata una scarica tra le spalle peppone una bestia cocciuta come un mulo disse tranquillo don camillo ma non spara alle spalle dei poveri preti che stanno facendo quello che dio comanda loro di fare peppone bestemmiò e allora don camillo si volse di scatto tu piantala di comportarti come un cavallo o io ti sparo sul muso un diretto come quello che ho sparato al tuo famoso campione federale è inutile che me lo diciate lo sapevo che non potevate essere stato che voi ma questo è tutto un fatto don camillo continuò tranquillo il suo cammino e l'altro dietro a borbottare a minacciare scariche arrivati vicino alla stalla una voce gridò l'alto là ma all'inferno rispose peppone qui adesso ci sono io voi andate al caseificio don camillo non degnò neppure di uno sguardo la porta della stalla quei suggelli salì per la scala pioli nel fienile sopra la stalla e chiamò sottovoce giacomo il vecchio vaccaro che poco prima era venuto in canonica raccontargli la storia della vacca sbucò dal fieno da un camillo acceso una lampadina elettrica e tolta via una balla di fieno dal pavimento apparve una botola va giù disse don camillo al vecchio il vecchio si calò nella botola e rimase giù un bel pezzo si è liberata sussurrò riapparendo io ne ho fatte mille di queste operazioni e me ne intendo più di un veterinario adesso vai in casa ordinò da un camillo al vecchio e il vecchio scomparve allora don camillo rispalancò la botola e vi fece rotolare dentro una balla di fieno cosa avete intenzione di fare disse peppone che era stato nascosto fino a quel momento aiutami a buttare giù balle e poi te lo dico peppone mugugnando prese a buttare giù balle e balle e poi quando don camillo si fu calato nella stalla lo seguì don camillo portò una balla vicino alla mangiatoia a destra ruppe i due fili di ferro sciolse il fieno e lo buttò davanti alle vacche tu pensa alla mangiatoia di sinistra disse a peppone neanche se mi scannate gridò peppone prendendo una balla e portandola verso la mangiatoia di sinistra lavorarono come un esercito di bovari poi ci fu la faccenda del bere e siccome si trattava di una stalla moderna con le mangiatoie ai lati del corridoio e le vasche della beverata sistemate lungo i muri bisogna far fare un indietro front a cento vacche e poi rompersi le braccia e dar loro legnate sulle corna per toglierle dall'acqua se no sarebbero crepate quando ebbero finito nella stalla c'era sempre buio e questo dipendeva semplicemente dal fatto che lo sportello di legno di tutte le finestre era stato inchiodato dall'esterno sono le tre del pomeriggio disse don camillo guardando l'orologio per poter uscire dovremo aspettare fino a sera peppone cominciò a mordersi le mani per la rabbia ma poi dovette mettersi l'animo in pace alla sera in un angolo della stalla peppone e don camillo giocavano ancora a carte al lume di una lucerna petrolio ho una fame che mangerei un vescovo di traverso esclamò peppone con rabbia roba dura da digerire cittadino sindaco rispose con calma don camillo che però vedeva tutto verde per la fame e avrebbe mangiato un cardinale per dire che hai fame aspetta a digiunare i giorni che hanno digiunato quelle bestie prima di uscire buttarono ancora fieno in tutte le mangiatoie e peppone non voleva nessun costo perché diceva che era un tradimento del popolo ma don camillo fu inflessibile così durante la notte ci fu silenzio di tomba nella stalla e il vecchio pasotti non sentendo più muggire le vacche si spaventò e pensò che quelle ormai dovevano essere agli estremi se non avevano neanche più la forza di gridare e la mattina scese a parlamentare con peppone e mollando un po' da tutte e due le parti la cosa tornò a funzionare nel pomeriggio peppone arrivò in canonica e disse con voce dolcissima don camillo voi rivoluzionari dovreste sempre dar retta i consigli del vecchio orciprete proprio così figlioli cari peppone stette a contemplare a braccia concerte quella mirabile spudoratezza reverendo disse peppone il mio mitra il tuo mitra rispose sorridendo don camillo non capisco l'avevi tu il tuo mitra sì l'avevo io ma quando siamo usciti dalla stalla voi avete approfittato spudoratamente della confusione che avevo in testa per fregarmelo adesso che mi sovviene pare anche a me rispose con delizioso candore don camillo scusami peppone il guaio è che sai divento vecchio e non riesco a ricordarmi dove l'ho ficcato reverendo esclamò cupo peppone è il secondo che mi fregate beh figliuolo non ti inquietare te ne prendi un altro chissà quanti ne hai ancora sparsi qua e là per la casa voi siete uno di quei preti che dagli e dagli costringono un galantuomo di cristiano a farsi maomettano forse rispose don camillo ma tu non corri questo pericolo tu non sei un galantuomo peppone buttò il cappello per terra se tu fossi un galantuomo dovresti ringraziarmi per quello che ho fatto per te e per il popolo peppone raccattò il cappello se lo ficcò sulla zucca e si avviò sulla porta si volse voi potete fregarmi non due ma duecentomila mitra il giorno della riscossa troverò sempre un pezzo da 75 per aprire il fuoco su questa casa del diavolo e io troverò sempre un mortaio da 81 per fare la controbatteria rispose don camillo tranquillo passando davanti alla chiesa siccome la porta era spalancata e si vedeva l'altare peppone si cavò con rabbia il cappello e se lo mise subito perché non lo vedesse nessuno ma il cristo lo aveva visto e quando don camillo andò in chiesa glielo disse è passato peppone e mi ha salutato disse allegramente il cristo attento gesù rispose don camillo già altri vi ha addirittura baciato e poi per 30 lire vi ha venduto quello lì che vi ha salutato è uno che tre minuti prima mi aveva detto che il giorno della riscossa troverà sempre un pezzo da 75 per sparare addosso alla casa di dio e tu che gli hai risposto che troverò sempre un mortaio da 81 per rispondergli sparando addosso alla casa del popolo capisco don camillo il guaio è che tu il mortaio da 81 ce l'hai sul serio don camillo allargò le braccia gesù disse ci sono delle cianfrusaglie che uno non riesce a buttarle via perché sono dei ricordi noi uomini siamo tutti un po sentimentali e poi non è meglio che questa roba sia in casa mia piuttosto che in casa di altri don camillo ha sempre ragione rispose sorridendo il cristo fino a quando non farà qualche superchieria per questo non ho paura o il miglior consigliere dell'universo rispose don camillo e così il cristo non seppe più cosa rispondergli la processione tutti gli anni per la sagra del paese si portava in processione il cristo crocifisso dell'altare e il corteo arrivava fin sull'argine e c'era la benedizione delle acque perché il fiume non facesse mattate e si comportasse da galantuomo anche quella volta pareva che tutto dovesse funzionare con la solita regolarità e don camillo stava pensando agli ultimi ritocchi da dare al programma della funzione quando apparve in canonica il brusco il segretario della sezione disse il brusco mi manda ad avvertirvi che parteciperà alla processione tutta la sezione al completo con bandiera ringrazio il segretario peppone rispose don camillo sarò felicissimo che tutti gli uomini della sezione siano presenti però bisogna che siano tanto gentili da lasciare a casa la bandiera bandiere politiche in cortei sacri non ce ne devono essere questi sono gli ordini che ho io il brusco se ne andò e poco dopo arrivava peppone rosso in faccia e con gli occhi fuori della testa siamo cristiani come tutti gli altri gridò peppone entrando in canonica senza neanche domandar permesso cosa abbiamo noi di diverso dall'altra gente che quando entrate in casa ad altri non vi levate il cappello rispose tranquillo don camillo peppone si tolse con rabbia il cappello adesso sei uguale agli altri cristiani disse don camillo perché non possiamo venire alla processione con la nostra bandiera gridò peppone cosa ha la nostra bandiera e la bandiera dei ladri e degli assassini no compagno peppone spiegò don camillo accendendo il toscano è una bandiera di partito e non ci può stare qui si fa della religione non della politica e allora anche le bandiere dell'azione cattolica voi le dovete lasciare fuori e perché l'azione cattolica non è un partito politico tanto è vero che il segretario sono io anzi io consiglio te i tuoi compagni di iscrivervi peppone sghignazzò se volete salvare la vostra animaccia nera dovreste iscrivervi al nostro partito don camillo allargò le braccia facciamo così rispose sorridendo ognuno rimane dov'è e amici come prima io e voi non siamo mai stati amici affermò peppone neanche quando eravamo in montagna assieme no era una semplice alleanza strategica per il trionfo della causa ci si può alleare anche coi preti bene disse tranquillo don camillo però se volete venire in processione la bandiera la lasciate a casa peppone strinse i denti se voi credete di poter fare il duce vi sbagliate reverendo esclamò peppone o con la nostra bandiera o niente processione don camillo non si impressionò gli passerà disse fra sé e difatti nei tre giorni che precedettero la domenica della sagra non si sentì fiatare sull'argomento ma la domenica un'ora prima della messa arrivò in canonica gente spaventata la mattina presto la squadra di peppone era passata in tutte le case e aveva avvertito che se uno andava in processione voleva dire che non gli premeva la salute a me non l'hanno detto rispose don camillo quindi la cosa non mi interessa la processione doveva svolgersi alla fine della messa e mentre in sagrestia don camillo stava indossando i paramenti d'uso arrivò un gruppo di parrocchiani cosa si fa gli chiesero si fa la processione rispose tranquillo don camillo quelli sono capacissimi di buttare bombe sul corteo gli obiettarono voi non potete esporre i vostri fedeli a questo pericolo secondo noi si dovrebbe sospendere la processione avvertire la forza pubblica della città e fare poi la processione quando fossero arrivati i carabinieri in quantità sufficiente per tutelare la sicurezza della gente giusto osservò don camillo nel frattempo si potrebbe spiegare ai martiri della religione che hanno fatto malissimo a comportarsi come si sono comportati e che invece di andare a propagare il cristianesimo quando era proibito dovevano aspettare che arrivassero i carabinieri poi don camillo indicò ai presenti da che parte fosse la porta e quelli se ne andarono brontolando di lì a poco entrò in chiesa un gruppo di vecchi e di vecchie noi veniamo don camillo dissero voi invece andate a casa subito rispose don camillo dio terrà conto delle vostre pie intenzioni questo è proprio uno di quei casi in cui vecchi donne e bambini debbono starsene a casa davanti alla chiesa era rimasto un gruppetto di persone ma quando dal paese si udirono degli spari ed era semplicemente il brusco che a scopo dimostrativo faceva fare i gargarismi al mitra sparacchiando in aria anche il gruppetto superstite se la squagliò e don camillo affacciandosi alla porta della chiesa trovò il sagrato deserto e pulito come un biliardo e allora si va don camillo chiese in quel momento il cristo dell'altare deve essere magnifico il fiume con tutto questo sole lo vedrò proprio volentieri si va si rispose don camillo guardate però che stavolta purtroppo sarò io solo in processione se vi accontentate quando c'è don camillo ce n'è anche di troppo disse sorridendo il cristo don camillo si adattò addosso rapidamente la bardatura di cuoio col supporto per il piede della croce cavò l'enorme crocifisso dall'altare lo infilò nel supporto poi alla fine sospirò però potevano farla anche un tantino più leggera questa croce dillo a me rispose sorridendo il cristo che me la sono dovuta portare fin lassù e non avevo le spalle che hai tu pochi minuti dopo don camillo reggendo il suo enorme crocifisso usciva solennemente dalla porta della chiesa il paese era deserto la gente si era rintanata in casa per la paura e spiava attraverso la fessura delle gelosie dove dar l'idea di quei frati che giravano soli con la croce nera nelle strade delle città spopolate dalla pestilenza osservò don camillo tra sé poi si mise a salmodiare col suo vocione baritonale e la voce ingigantiva nel silenzio traversò la piazza prese a camminare nel centro della via principale e anche qui era silenzio e deserto un piccolo cane uscì da una via laterale e quieto quieto si mise a camminare dietro don camillo passa via borbottò don camillo lascialo sussurrò dall'alto il cristo così peppone non potrà dire che alla processione non c'era neanche un cane la strada svoltava nel fondo e poi finivano le case e dopo c'era la viottola che portava all'argine e appena svoltato don camillo si trovò improvvisamente la strada sbarrata 200 uomini avevano bloccato tutta la strada e stavano lì muti a gambe larghe e braccia concerte e davanti c'era peppone con le mani sui fianchi don camillo avrebbe voluto essere un carro armato ma non poteva essere che don camillo e quando fu arrivato a un metro da peppone si fermò allora cavò l'enorme crocifisso dal fodero di cuoio e lo sollevò brandendolo come una clava gesù disse don camillo tenetevi saldo che tiro giù ma non ce ne fu bisogno perché capita al volo la situazione gli uomini si ritrassero verso i marciapiedi e come per incanto un solco si aperse nella massa rimase in mezzo alla strada soltanto peppone con le mani sui fianchi e piantato sulle gambe aperte don camillo infilò il piede del crocifisso nel supporto di cuoio e marciò diritto su peppone e peppone si spostò non mi scanso per voi mi scanso per lui disse peppone indicando il crocifisso e allora togliti il cappello dalla zucca rispose don camillo senza guardarlo peppone si tolse il cappello e don camillo passò solennemente fra gli uomini di peppone quando fu sull'argine si fermò gesù disse ad alta voce don camillo se in questo sporco paese le case dei pochi galantuomini potessero galleggiare come l'arca di noè io vi pregherei di far venire una tal piena da spaccare l'argine e da sommergere tutto il paese ma siccome i pochi galantuomini vivono in case di mattoni uguali a quelle dei tanti farabutti e non sarebbe giusto che i buoni dovessero soffrire per le colpe dei mascalzoni tipo il sindaco peppone tutta la sua ciurma di briganti senza dio vi prego di salvare il paese dalle acque e di dargli ogni prosperità amen disse dietro le spalle di don camillo la voce di peppone amen risposero in coro dietro le spalle di don camillo gli uomini di peppone che avevano seguito il crocifisso don camillo prese la via del ritorno e quando fu arrivato sul sagrato e si volse perché il cristo desse l'ultima benedizione al fiume lontano si trovò davanti il cagnetto peppone gli uomini di peppone e tutti gli abitanti del paese il farmacista compreso che era ateo ma che per bacco un prete come don camillo che riuscisse a rendere simpatico il padre eterno non lo aveva mai trovato il comizio appena peppone lesse sulle cantonate il manifesto nel quale si diceva che un tizio di città avrebbe tenuto in piazza un comizio per invito della sezione del partito liberale fece un salto qui nella roccaforte rossa si dovrà permettere una provocazione simile urlò la vedremo chi comanda qui poi convocò lo stato maggiore e l'inaudito fatto venne studiato e analizzato la proposta di incendiare immediatamente la sede del partito liberale fu scartata quella di vietare il comizio cadde pure ecco l'insidia della democrazia concluse peppone che il primo mascalzone può permettersi il lusso di parlare in una pubblica piazza decisero di rimanere nell'ordine e nella legalità mobilitazione generale di tutte le forze organizzazione di squadri di sorveglianza per evitare agguati occupare i punti strategici presidiare la sede staffette pronte per chiamare rinforzi dalle frazioni vicine il fatto che tengano un pubblico comizio qui sta a dimostrare che si sentono sicuri di sopraffarci disse ad ogni modo non ci coglieranno impreparati le vedette lungo le strade di accesso al paese dovevano segnalare ogni movimento sospetto ed entrarono in servizio sin dalla mattina del sabato ma non si vide neppure un gatto durante la giornata nella notte lo smilzo avvisto un ciclista sospetto che poi risultò un normale ubriaco il comizio doveva svolgersi nel pomeriggio della domenica e fino alle 15 non si vide nessuno arriveranno tutti col treno delle 15 e 35 disse peppone e predispose un servizio perfetto nei paraggi della stazione ed ecco che arrivò il treno e scese soltanto un ometto magro con una valigetta di fibra si vede che hanno saputo qualcosa e non si sono sentiti in forze sufficienti per fare il colpo concluse peppone in quel momento l'ometto si avvicinò e salutando urbanamente chiese a peppone se per cortesia gli indicava la sede del partito liberale peppone lo guardò sbalordito la sede del partito liberale si spiegò all'uomo dovrei tenere un discorsetto fra 20 minuti e non vorrei far tardi tutti guardarono peppone e peppone si grattò in testa veramente è un po difficile spiegarlo perché il centro urbano è a un paio di chilometri l'ometto ebbe un gesto di sgomento sarà possibile trovare un mezzo per arrivarci ho il camion fuori borbottò se vuol salire l'ometto ringraziò poi quando fu fuori e vide l'autocarro pieno di gente dalla faccia truce e in fazzoletto rosso e con tanto di distintivo guardò peppone sono io il capo disse peppone salga pure davanti con me a mezza strada peppone bloccò la macchina e guardò in faccia l'ometto che poi era un signore di media età magro dai lineamenti molto fini lei dunque è liberale chiese sì rispose il signore e non ha paura trovandosi qui solo fra cinquanta comunisti no rispose tranquillo l'uomo un mormorio minaccioso si levò dagli uomini del camion cosa in quella valigia tritolo chiese peppone l'uomo si mise a ridere e sollevò il coperchio un pigiama un paio di pantofole uno spazzolino da denti spiegò peppone si spiegazzò il cappello e si picchiò le mani sulle cosce roba da matti gridò si può sapere perché non ha paura appunto perché io sono solo e voi siete 50 spiegò tranquillo l'ometto ma che 50 e non 50 urlò peppone non pensa lei che io da solo e con una sola mano sarei capace di farla volare fin laggiù in quel canale no non ci penso rispose tranquillo l'uomo allora lei è un pazzo o un incosciente o uno che cerca di abbindolare la gente l'uomo si mise a ridere molto più semplice signore sono un galantuomo peppone balzò in piedi no caro signore se lei fosse un galantuomo non sarebbe un nemico del popolo un servo della reazione uno strumento del capitalismo io non sono nemico di nessuno né servo di nessuno io sono uno che la pensa diversamente da lei peppone innestò la marcia e partì a razzo lei ha fatto testamento prima di venire qui ghignò lungo la strada no rispose con naturalezza l'uomo la mia unica ricchezza è il mio lavoro e se muoio non lo posso lasciare a nessuno prima di entrare in paese peppone fermò un momento per parlare con lo smilzo il motociclista porta ordini poi attraverso strade secondarie arrivò davanti alla sede del partito liberale porta e finestre chiuse nessuno disse cupo peppone saranno certamente tutti in piazza è già tardi ribatté l'ometto già deve essere proprio così rispose peppone strizzando l'occhio al brusco arrivati sulla piazza peppone e i suoi scesero accerchiarono l'uomo fendettero la calca e raggiunsero la tribuna l'uomo salì e si trovò davanti 2000 uomini in fazzoletto rosso l'uomo si volse a peppone che lo aveva seguito sul palco scusi si informò non ho per caso sbagliato comizio no rassicurò peppone il fatto è che i liberali sono in tutto 23 e non risaltano molto nella massa io dico la verità se fossi stato nei suoi panni non me lo sarei sognato neppure di indire un comizio qui si vede che i liberali hanno maggior fiducia nella correttezza democratica dei comunisti di quanto non ne abbia lei rispose l'uomo peppone masticò un pochetto amaro poi si appresso al microfono compagni gridò vi presento questo signore il quale vi terrà un discorso alla fine del quale voi tutti andrete a iscrivervi al partito liberale una enorme risata colse quelle parole e quando si fece un po di silenzio l'uomo parlò ringrazio della sua cortesia il vostro capo disse ma ho il dovere di spiegarvi che non risponde ai miei desideri quanto egli ha affermato perché se alla fine del mio discorso voi andaste tutti a iscrivervi al partito liberale io sarei costretto ad andarmi a scrivere al partito comunista e ciò sarebbe contrario ai miei principi non poté continuare perché in quell'istante arrivò sibilando un pomodoro che lo colpì in faccia la folla si mise a sghignazzare e peppone diventò pallido chi ride è un porco urlò al microfono e la folla diventò muta l'uomo non si era mosso e con la mano cercava di pulirsi il viso peppone era un istintivo e senza saperlo era capace di gesti enormi si tolse il fazzoletto dal taschino poi lo ripose e si slacciò il grande fazzoletto rosso che portava al collo e lo porse all'uomo lo portavo quando ero in montagna disse si ripulisca bravo peppone urlò una voce tonante da una finestra del primo piano di una casa vicina non ho bisogno dell'approvazione del clero rispose fierissimo peppone mentre don camillo si mordeva la lingua arrabbiatissimo di essersi lasciato scappare il grido l'uomo scosse il capo si inchinò e si avvicinò al microfono troppa storia era chiusa in quel fazzoletto perché la si possa macchiare con un volgare episodio che appartiene alla cronaca meno eroica del mondo disse per cancellare questa macchia basta un normale fazzoletto da naso peppone diventò rosso e si inchinò anche lui e allora un sacco di gente si commosse e si levò un applauso formidabile mentre il ragazzaccio che aveva buttato il pomodoro partiva a calci nel sedere verso l'uscita della piazza l'uomo prese a parlare calmo pacato senza credine smussando ogni angolo evitando ogni argomento un po duro perché aveva capito che se anche si fosse scatenato nessuno gli avrebbe detto niente e sarebbe stata un'aviltà approfittarne alla fine lo applaudirono e quando scese gli fecero largo arrivato in fondo alla piazza si trovò sotto il porticato del municipio e rimase lì imbarazzato col suo valigino in mano perché non sapeva da che parte andare e cosa fare e allora sopraggiunse don camillo che si rivolse a peppone il quale stava dietro lo metto a due passi di distanza fate presto a mettervi d'accordo è voi senza dio coi mangia preti liberali esclamò a voce alta don camillo cosa si stupì peppone rivolto all'ometto lei è dunque un mangia preti ma valbettò l'uomo taccia lo interruppe don camillo si vergogni lei che vuole la libera chiesa in libero stato l'uomo stava per protestare ma peppone non lo lasciò neanche incominciare bravo urlò qua la mano quando si tratta di mangia preti io sono amico anche dei liberali reazionari bene risposero gli uomini di peppone lei è mio ospite disse peppone all'uomo neanche per sogno ribatte don camillo il signore ospite mio io non sono un cafone che tira i pomodori in faccia agli avversari peppone si piantò minaccioso davanti a don camillo ho detto che è mio ospite disse con voce cupa e siccome l'ho detto anch'io rispose don camillo significa che se vuoi ce la facciamo a cazzotti così prendi anche quelle che dovevano prendere i balordi della tua scalcinata dinamos peppone strinse i pugni vieni via gli disse il brusco adesso ti metti a scazzottarti coi preti in piazza alla fine fu deciso per un incontro in terreno neutro andarono tutte e tre a far colazione fuori paese da gigiotto oste completamente apolitico e così anche l'incontro di democrazia si concluse con risultato nullo in riva al fiume fra l'una e le tre dei pomeriggi d'agosto il caldo nei paesi affogati dentro la melica alla canapa è una roba che si vede e si tocca quasi uno avesse davanti alla faccia a una spanna dal naso un gran velo ondeggiante di vetro bollente passi un ponte e guardi giù dentro il canale e il fondo è secco e tutto screpolato e qua e là si vede un pesce morto quando dalla strada sull'argine guardi dentro un cimitero ti pare di sentir crepitare sotto il sol battente le ossa dei morti sulla provinciale naviga lentamente qualche biroccio a ruota alta pieno di sabbia il carrettiere dorme bocconi in cima al carico con la pancia al fresco e la schiena rovente o seduto sulla stanga pesca con una piccola roncola dentro una mezza anguria che tiene in grembo come una catinella poi arrivati all'argine grande ecco il fiume vasto deserto immobile e silenzioso e più che un fiume pare il cimitero delle acque morte don camillo camminava verso l'argine grande con un gran fazzoletto bianco tra il cranio e il cappello ed era luna e mezzo di un pomeriggio d'agosto e a guardarlo così solo in mezzo alla strada bianca sotto il sole non si poteva immaginare niente di più nero e di più prete se in questo momento c'è nel raggio di venti chilometri uno solo che non dorma mi lascio tagliare la testa disse tra sé don camillo poi scavalcò l'argine e andò a sedersi all'ombra sotto una macchia di gaggia e tra i buchi del fogliame si vedeva luccicare l'acqua si spogliò ripiegando accuratamente gli indumenti e facendone un involto che nascose tra il frascame di un alberello e quando si trovò in mutande andò a buttarsi nell'acqua era tranquillissimo non l'avrebbe visto nessuno perché oltre all'ora morta aveva scelto anche il posto più giù di mano ad ogni modo fu discreto e dopo mezz'ora si tolse dall'acqua si infilò sotto le gaggie arrivò all'alberello ma i vestiti non c'erano più allora don camillo si sentì mancare il respiro quello non poteva essere un furto a nessuno può far gola una vecchia estinta sottana da prete ci doveva essere sotto qualche diavoleria e di fatti non passò molto che si udirono venire dall'argine voci che si avvicinavano quando don camillo poté distinguere qualcosa evite che si trattava di una grossa squadra di giovanotti e ragazze e quando riconobbene il tipo che marciava in testa lo smilzo capì tutta la manovra e gli venne voglia di cavare una gaggia e di cominciare a menare stangate ma certamente era proprio quello che cercavano quei maledetti stanare don camillo in mutande e godersi lo spettacolo e allora don camillo si scaraventò nell'acqua e nuotando a testa sotto arrivò fino a un isolotto in mezzo al fiume e qui approdò scomparendo fra la giuncaglia ma pur senza averlo potuto vedere perché don camillo era prodato dalla parte opposta si erano accorti del ripiegamento e ora si erano distesi lungo la riva e aspettavano cantando e ridendo don camillo era assediato come è debole l'uomo forte quando si sente ridicolo don camillo si sdraiò fra i giunchi e aspettò e non visto guardava e così vide arrivare peppone seguito dal brusco dal bigio e da tutto lo stato maggiore lo smilzo spiegava con grandi gesti e tutti ridevano poi arrivò altra gente e don camillo sentì che i rossi stavano per fargli pagare tutti i conti vecchi e nuovi e stavolta avevano trovato il sistema migliore perché quando uno si è reso ridicolo non fa più paura neanche se ha i pugni di una tonnellata e anche se rappresenta il padre eterno e si trattava di un grosso equivoco perché don camillo non aveva mai voluto far paura a nessuno soltanto al diavolo ma adesso la politica era cambiata in una maledetta maniera che i rossi consideravano il parroco come un nemico e dicevano che se le cose non erano andate come dovevano la colpa era dei preti quando gli affari vanno male l'importante non è trovare il modo di farli andar meglio ma trovare qualcuno sul quale gettare la colpa poi scosse la testa e se ne andò anche lui lentamente trascinandosi dietro il suo fagotto gesù sussurrò don camillo al cristo crocifisso la chiesa la si serve anche tutelando la dignità di un parroco in mutande il cristo non rispose gesù sussurrò ancora don camillo ho forse fatto un peccato mortale andandomi a prendere un bagno no rispose il cristo hai fatto peccato mortale quando hai sfidato lo smilzo a portarti gli abiti non credevo che me li avrebbe portati sono stato incauto non maligno si udì un boato lontano verso il fiume ogni tanto una lepre passa nella zona minata e fa scoppiare una mina spiegò più con l'intenzione che con la voce don camillo e allora bisogna concludere che voi non concludere niente don camillo lo interruppe sorridendo il cristo con la febbre addosso non si possono trarre conclusioni serene peppone intanto era arrivato davanti alla porta dello smilzo bussò e venne ad aprire un vecchio che senza parlare e prese in consegna il fagotto che peppone gli porgeva e fu in quell'istante che anche lui sentì il boato e scosse il capo e pensò un sacco di cose e allora si fece riconsegnare un momento lo smilzo e gli lasciò andare uno scapaccione che gli drizzò tutti i capelli in cima alla testa avanti disse con voce lontana lo smilzo mentre il vecchio lo riprendeva in consegna gesù disse don camillo mi vergogno a rivolgermi a voi in mutande ma la cosa è grave e se non è peccato mortale che un povero parroco che muore di caldo si butti dentro l'acqua aiutatemi perché da solo non ce la faccio avevano portato dei fiaschi dei mazzi di carte e una fisarmonica e la riva pareva una spiaggia e si vedeva che non pensavano neppure lontanamente di togliere il blocco anzi l'avevano inasprito perché avevano occupato mezzo chilometro di sponda a monte oltre la zona famosa del guado 200 metri di riva piena di cespuglie di sterpi perché dal 45 nessuno ci aveva più messo piede ritirandosi i tedeschi avevano buttato giù i punti e avevano minato un'ampia zona di sponda ai due estremi dei punti guadabili e così anche quel punto e il suo corrispondente nella sponda opposta erano stati seminati di mine messe in modo tanto maledetto che dopo un paio di disastrosi tentativi gli sminatori avevano deciso di isolare le zone con paletti e filo spinato lì i rossi di peppone non c'erano ma non occorrevano perché soltanto un pazzo avrebbe pensato di approdare in quel semenzaio di mine quindi niente da fare perché tentando di approdare oltre il presidio a monte don camillo sarebbe finito in mezzo al paese e tentando di approdare oltre il presidio a valle si sarebbe trovato nella boscaglia un parroco in mutande non può permettersi questi lussi don camillo non si mosse rimaneva sdraiato sulla terra umida limitandosi a masticare un giunco e a seguire tutto un suo complesso ragionamento beh concluse un uomo rispettabile può rimanere rispettabile anche in mutande l'importante è che faccia qualcosa di rispettabile e allora il vestito non conta più niente oramai scendeva la sera e sulla riva accesero delle torce e delle lucerne pareva davvero una serata mondana sulla spiaggia quando il verde dell'erba diventò nero don camillo si lasciò scivolare in acqua e risalì cautamente la corrente finché trovò il basso fondo del guado allora puntò deciso verso la riva non lo potevano vedere perché più che nuotare camminava sott'acqua cacciando fuori ogni tanto la bocca per tirare il fiato eccolo arriva il difficile era uscire dall'acqua senza farsi scoprire una volta dentro ai cespugli avrebbe facilmente raggiunto l'argine e sorpassatolo di corsa si sarebbe buttato dall'altra parte sotto i filari di vite tra la melica e avrebbe raggiunto senz'altro l'orto della canonica si afferrò a un cespuglio e si insò lentamente ma quando ormai era quasi arrivato il cespuglio si sradicò e don camillo ricadde giù il tonfo fu udito e la gente se ne accorse ma con un balzo don camillo aveva raggiunto la riva ed era già scomparso fra i cespugli ci furono delle grida e tutti si addensarono dall'una parte e dall'altra e si levò la luna che illuminò lo spettacolo don camillo urlò peppone facendosi avanti don camillo nessuno rispose e il silenzio cadde su tutta la gente e la ghiacciò don camillo urlò ancora peppone non muovetevi in nome di dio siete nella zona minata lo so rispose tranquilla la voce di don camillo da un cespuglio al centro della macchia maledetta lo smilzo si fece avanti con un fagotto in mano don camillo urlò non muovetevi basta che tocchiate una mina con la punta di un dito e saltate in aria lo so rispose tranquilla la voce di don camillo lo smilzo aveva la faccia piena di sudore don camillo urlò è stato uno scherzo stupido fermatevi ecco i vostri vestiti i miei vestiti grazie smilzo se me li vuoi portare io sono qui una frasca si agitò sopra il cespuglio al centro lo smilzo spalancò la bocca e si volse indietro a guardare gli altri si sentì nel silenzio la risatina ironica di don camillo peppone strappò dalle mani dello smilzo il fagotto ve li porto io don camillo disse peppone avviandosi lentamente verso i paletti col filo spinato e già stava per scavalcare il filo quando lo smilzo con un balzo lo raggiunse lo trasse indietro no capo disse lo smilzo afferrando il pacco ed entrando nel recinto chi rompe paga la gente si ritrasse e tutti avevano la fronte madida di sudore e si toccavano nervosamente con le mani la bocca lo smilzo avanzava lentamente verso il centro della macchia poggiando cautamente i piedi e il silenzio pesava come piombo ecco disse con un fil di voce lo smilzo quando raggiunse la macchia bene borbottò don camillo vieni pure dietro tu hai diritto di vedere don camillo in mutande lo smilzo girò dietro la macchia e allora che effetto ti fa un arciprete in mutande chiese don camillo non lo so balbettò lo smilzo si vede tutto nero con dei puntini rossi che girano anche la luna ansimo io balbettò ancora lo smilzo ho rubacchiato qualche cosetta ho dato via qualche sberla ma non ho mai fatto del male a nessuno ego te absolvo gli rispose don camillo segnandogli una croce sulla fronte si incamminarono lentamente verso l'argine e la gente aspettava lo scoppio trattenendo il fiato passarono il filo spinato poi presero la strada don camillo sempre davanti e lo smilzo sempre dietro che continuava a camminare in punta di piedi come se fosse ancora in terreno minato perché non capiva più niente e a un bel momento si afflosciò per terra peppone che in testa a tutti gli altri intruppati seguiva venti metri si abbassò un momentino senza abbandonare con lo sguardo le spalle di don camillo e agguantò lo smilzo per il bavero della giacca e se lo trascinò dietro come un fagotto di stracci sulla porta della chiesa don camillo si volse un istante salutò con un dignitoso inchino alla folla ed entrò gli altri se ne andarono in silenzio e sul sagrato rimase solo peppone e piantato a gambe larghe che continuava a fissare la porta chiusa sempre tenendo per il bavero lo smilzo svenuto i bruti don camillo che da una settimana era in agitazione permanente e si scordava perfino di mangiare tanto era facendato a correre a destra e a sinistra tornando un pomeriggio dal paese vicino appena arrivato in paese dovette scendere dalla bicicletta perché degli uomini stavano scavando un fosso che traversava tutta la strada e che la mattina non c'era mettiamo una conduttura nuova per lo scarico spiegò un operaio ordine del sindaco allora don camillo andò diritto in comune e quando fu al cospetto di peppone si arrabbiò qui diventiamo matti esclamò adesso vi mettete a fare quella porcheria di fosso non sapete che oggi è venerdì ebbene si stupì peppone è proibito scavare un fosso di venerdì don camillo ruggì ma non capisci che non mancano neanche due giorni a domenica peppone si preoccupò suonò un campanello e apparve il brusco senti un po lo interpellò peppone il reverendo dice che siccome oggi è venerdì non mancherebbero neanche due giorni a domenica cosa te ne pare il brusco prese in seria considerazione la cosa cavò il lapis e fece dei conti su un foglio effettivamente disse poi tenendo presente che sono le quattro del pomeriggio e quindi per arrivare alla mezzanotte mancano otto ore per arrivare a domenica mancano solo 32 ore don camillo aveva seguito schiumando tutto questo spettacolo e alla fine perdette la calma ho capito gridò è tutta una cosa studiata per boicottare la visita del vescovo reverendo rispose peppone cosa c'entra il fosso della fognatura con la visita del vescovo e poi scusate chi sarebbe questo vescovo e cosa verrebbe a fare a portare all'inferno la tua animaccia urlò don camillo bisogna subito chiudere il fosso altrimenti domenica il vescovo non potrà passare peppone fece la faccia del tonto non potrà passare e voi come siete passato sul fosso c'è tanto di passerella se non sbaglio ma il vescovo viene in automobile esclamò don camillo non si può far discendere dalla macchina il vescovo scusate non sapevo che i vescovi non potessero camminare a piedi replicò peppone se le cose stanno così è un altro affare brusco telefona in città che mandino subito una gru la si mette vicino al fosso e così appena la macchina del vescovo arriva la si imbriglia nel parancola si fa passare con la gru dall'altra parte e il vescovo non scende capito capito capo di che colore la volete la gru fatela mandare nichelata o cromata figurera meglio in casi come questo anche uno che non avesse avuto i pugni blindati di don camillo avrebbe cominciato a menare sberle ma proprio in casi come questo don camillo invece aveva la prerogativa di ridiventare immediatamente calmo perché allora il suo ragionamento era di una semplicità formidabile se costui così sfacciatamente e così palesemente mi provoca significa che egli vuole da me una reazione quindi se io gli sparo un cazzotto in faccia gli rendo un servizio infatti qui picchierei non un peppone ma un sindaco in funzione e ciò susciterebbe uno scandalo maledetto creando un'atmosfera ostile a me e quindi al vescovo non importa disse anche i vescovi possono andare a piedi la sera stessa in chiesa parlò con un accento quasi di pianto scongiurando tutti a mantenersi calmi e a limitarsi a pregare il dio di illuminare la mente del signor sindaco in modo che si evitasse di miserire la cerimonia con trasbordi e di scompaginare la processione costringendo a un bel momento la folla dei fedeli a passare una persona alla volta su una malsicura passerella e bisognava pure pregare il dio che impedisse al ponticello di spezzarsi durante il passaggio evitando di trasformare una giornata di gioia in una giornata di lutto questo perfidissimo discorso ebbe il potere di scatenare tutte le donne che uscite dalla chiesa si addensarono davanti alla casa di peppone e gliene dissero tante e poi tante che a un bel momento peppone si affacciò e gridò che andassero tutte all'inferno e che il fosso sarebbe stato ricoperto e andò tutto bene ma al mattino della domenica tutte le strade apparvero tappezzate di grandi manifesti a stampa compagni prendendo come pretesto l'inizio di lavori la reazione ha inscenato un indegna gazzarra che offende il nostro senso democratico domenica sarà ospite della nostra borgata il rappresentante di uno stato estero quello stesso rappresentante che indirettamente ha dato origine alla indegna gazzarra tenuto conto del vostro risentimento della vostra indignazione ci preoccupiamo di evitare domenica ogni dimostrazione che possa complicare le relazioni con gli stranieri e vi invitiamo quindi categoricamente a limitarvi ad accogliere il rappresentante dello stato estero con dignitosa indifferenza viva la repubblica democratica viva il proletariato viva la russia il tutto rallegrato da una mobilitazione generale di tutti i rossi i quali lo si vide immediatamente avevano il compito specifico di camminare in su e in giù con dignitosa indifferenza ostentando fazzoletti e cravate rossi don camillo pallidissimo passò un momentino in chiesa e fece per scappar via don camillo lo chiamò il cristo perché hai così fretta devo andare a ricevere il vescovo sullo stradale spiegò don camillo è lontanuccio e poi sullo stradale c'è pieno di gente in fazzoletto rosso e se il vescovo non mi vede crederà di trovarsi a stalingrado e quelle in fazzoletto rosso sono stranieri o di altra religione si informò il cristo no sono i soliti farabutti che vi vedete davanti ogni tanto qui in chiesa allora se è così don camillo sarà meglio che tu rimetta dentro l'armadio della sagristia quella faccenda che ti sei legata sotto la tonaca don camillo si cavò di sotto la sottana il mitra e andò riporlo in sagristia lo riprenderai quando te lo dirò io ordinò il cristo e don camillo scrollò le spalle se aspetto che me lo diciate voi di prendere il mitra stiamo freschi esclamò voi non me lo direte mai vi confesso in moltissimi casi il vecchio testamento via reazionario disse sorridendo il cristo mentre tu ti perdi in chiacchiere il tuo povero vecchio indifeso vescovo e in balia della demoniaca furia rossa effettivamente il vecchio povero indifeso vescovo era in balia della folla rossa fin dalle sette del mattino i fedeli si erano distesi ai lati dello stradale creando due lunghe e formidabili muraglie di entusiasmo ma peppone pochi minuti prima che l'auto del vescovo arrivasse appena cioè vide elevarsi la fumata del razzo con cui l'avamposto gli segnalava il passaggio del nemico diede l'ordine dell'avanzata e con una fulmine a manovra tutti gli effettivi rossi fecero un balzo in avanti di mezzo chilometro sì che quando arrivò il vescovo trovò la strada zeppa di una turba di gente in rosso di gente che gironzolava in su e in giù o sostava gruppetti chiacchierando ostentando il più sublime disinteressamento per la macchina che stava arrivando e che doveva procedere a passo duomo e aprirsi il varco a colpi di clacson era davvero la dimostrazione di dignitosa indifferenza che voleva lo stato maggiore e peppone e gli altri fra misti al gruppo schiattavano di gioia il vescovo quello famoso vecchio come il cucco e tutto bianco e curvo che quando parlava non pareva neanche fosse lui a parlare ma si trattasse di una voce che arrivava da un altro secolo vide subito quella dignitosa indifferenza e disse all'autista di fermare la macchina e quando la macchina fu ferma era una macchina aperta fece l'atto di girare la maniglia dello sportello per aprire e si vedeva che non aveva forza abbastanza e il brusco che era lì cadde nell'insidia e quando se ne accorse perché peppone gli allungò un calcio negli stinchi era troppo tardi e aveva già aperto lo sportello grazie figliolo disse il vescovo sarà meglio che raggiunga il paese a piedi ma è lontano borbottò il bigio prendendosi anche lui il calcio negli stinchi non fa niente rispose ridendo il vescovo non intendo disturbare in nessun modo le vostre riunioni politiche non è una riunione politica spiegò cupo peppone sono lavoratori che chiacchierano tranquillamente dei loro affari rimanga pure in macchina ma ormai il vecchio vescovo era sceso e il brusco si prese un secondo calcio perché vedendolo tanto mal certo gli aveva offerto il braccio come appoggio grazie grazie figliolo disse il vescovo e si camminò dopo aver fatto cenno al suo segretario di togliersi dai piedi che voleva andare solo e così arrivò alla zona occupata dai reparti di don camillo in testa all'orda rossa che lo seguiva cupa e silenziosa e in prima file al fianco del vescovo erano peppone lo stato maggiore e la squadraccia dei fedelissimi perché come aveva detto peppone giustamente sarebbe bastato che un cretino avesse fatto un gesto stupido contro quello lì perché la reazione ne cavasse la più sporca speculazione dell'universo l'ordine non cambia né deve cambiare concluse dignitosa indifferenza appena lo vide arrivare don camillo si precipitò verso il vescovo monsignore esclamò molto agitato mi perdoni ma la colpa non è mia io l'aspettavo qui con tutti i fedeli ma all'ultimo momento non preoccuparti rispose sorridendo il vescovo la colpa è soltanto mia che ho voluto scendere e fare una passeggiatina a piedi i vescovi quando invecchiano diventano tutti un po matti i fedeli applaudirono suonarono le bande e il vescovo si guardò attorno compiaciuto è un gran bel paese disse muovendosi proprio bello ridente e tenuto benissimo ci deve essere un'amministrazione molto in gamba si fa quel che si può per il bene del popolo rispose il brusco ricevendo il terzo calcio di peppone il vescovo arrivato in piazza vide la fontana nuova e si fermò una fontana in un paese della bassa esclamò vuol dire che c'è acqua basta saperla cercare eminenza rispose il bigio che aveva il merito principale dell'impresa abbiamo piantato 300 metri di tubo e l'acqua è venuta fuori con l'aiuto di dio il bigio si prese il calcio regolamentare poi siccome la fontana era davanti alla casa del popolo il vescovo vide l'edificio ampio e nuovo e si interessò è quel bel palazzo che cos'è è la casa del popolo rispose peppone fierissimo magnifica davvero esclamò il vescovo la vuol vedere disse peppone impulsivamente mentre un terribile calcio negli estinchi lo faceva sobbalzare e glielo aveva dato don camillo il segretario del vescovo un giovanotto magro con occhiali un gran naso si era precipitato per avvertire che era una cosa sconveniente e che non si doveva fare ma già il vescovo era in cammino e poco dopo entrava nell'edificio e gli fecero vedere tutto la palestra la sala di lettura la sala di scrittura e quando arrivò alla biblioteca egli si appresso gli scaffali e lesse i titoli sulle costole dei libri davanti allo scaffale politico pieno di libri opuscoli di propaganda non disse niente limitandosi a sospirare ma peppone che era vicino se ne accorse non li legge nessuno monsignore sussurrò peppone evitò la visita agli uffici ma non poter esistere alla tentazione di mostrare al vescovo il salone teatro che era il suo orgoglio e così il vescovo nell'uscire si trova davanti l'enorme ritratto dell'uomo dagli occhi piccoli e dai grossi baffi lei sa com'è la politica eminenza disse sottovoce peppone e poi creda non è cattivo in fondo che il buon dio illumini la mente anche a lui rispose sottovoce il vescovo in tutta questa faccenda la posizione psicologica di don camillo era specialissima perché mentre schiumava di sdegno in quanto il fatto di approfittare della bontà di un vescovo per fargli visitare una casa del popolo era una cosa che gridava vendetta a dio da un'altra parte ci teneva che il vescovo vedesse che razza di paese in gamba ed evoluto fosse quello inoltre ci teneva che il vescovo si impressionasse della organizzazione rossa così il valore dell'oratorio giardino di don camillo avrebbe aumentato agli occhi del vescovo la sua importanza e il suo significato quando la visita fu finita don camillo si appressò peccato non signore disse forte in modo che peppone udisse bene peccato che il signor peppone non vi abbia fatto vedere il deposito d'armi pare che sia il più fornito della provincia peppone stava per rispondere ma il vescovo non glielo permise non sarà mai fornito come il tuo rispose ridendo il vescovo bene approvò il bigio anche un mortaio da 81 seppellito da qualche parte esclamò il brusco il vescovo si volse verso lo stato maggiore l'avete rivoluto disse adesso tenetevelo non ve l'avevo detto che un tipo pericoloso non è il tipo da farci paura disse con una smorfia peppone tenetelo d'occhio consigliò il vescovo don camillo tentennò il capo voi scherzate sempre monsignore esclamò ma non immaginate neppure che razza di gente siano questi individui nell'uscire il vescovo vide affisso al giornale murale il famoso manifesto e si fermò a leggerlo ah disse il vescovo deve venire qui il rappresentante di uno stato estero e chi sarebbe don camillo non mi occupo di politica rispose bisogna chiederlo al signore che ha fatto il manifesto signor peppone monsignore desidererebbe sapere chi è il rappresentante dello stato estero di cui parla il vostro manifesto bah borbottò peppone e dopo aver esitato un po la solita america capito rispose il vescovo è per la questione degli americani che vengono a cercare il petrolio qui dalle vostre parti dico giusto sì rispose peppone è una porcheria il petrolio è il nostro mi rendo conto approvò il vescovo gravemente però avete fatto bene a predicare la calma e ordinare i vostri uomini di limitare la manifestazione a una dignitosa indifferenza secondo me non abbiamo nessun interesse a guastarci con l'america non vi pare peppone allargò le braccia monsignore disse lei mi capisce uno sopporta finché può poi arriva il momento che gli scappano i cavalli quando il vescovo arrivò davanti alla chiesa trovò in riga per bene tutti i bambini del giardino oratorio i quali cantarono una canzone di benvenuto poi dal gruppo dei bambini si staccò un grosso mazzo di fiori che camminando avanzava lentamente e quando fu davanti al vescovo i fiori si alzarono e via i fiori apparve un bambino così piccolino così bello così ricciuto e così ben vestito che le donne parevano diventate matte si fece un gran silenzio e il bambinello tutta di filato e senza un inceppo recitò con una voce chiara e sottile come un filo d'acqua una poesiola al vescovo e alla fine la gente urlava d'entusiasmo e diceva che era una roba prodigiosa peppone si appressò don camillo vigliacco gli disse all'orecchio avete approfittato dell'innocenza di un bambino per rendermi ridicolo davanti al mondo vi romperò le ossa in quanto a quello là vi farò vedere chi sono io me lo avete contaminato e lo vado a buttare in po buon viaggio gli rispose don camillo è figlio tuo e puoi farne quel che vuoi e fu davvero quello un disgustoso episodio di brutalità perché peppone portatosi il povero bambino come un fagotto fin sulla riva del fiume lo costrinse con minacce di una violenza bestiale a recitargli tre volte la poesia del vescovo del povero vecchio debole ingenuo vescovo che essendo il rappresentante di uno stato estero il vaticano era stato accolto secondo i piani prestabiliti con dignitosa indifferenza la campana don camillo dopo avere almeno tre volte al giorno e durante un'intera settimana aggredito dovunque lo incontrasse il bigio urlandogli che sia lui che tutti gli altri capomastri erano dei banditi che volevano arricchirsi alle spalle del popolo era riuscito a mettersi d'accordo sul prezzo e aveva potuto rifare l'intonaco alla facciata della canonica e adesso ogni tanto andava a sedersi sulla panchetta in mezzo al sagrato e mentre fumava il suo mezzo toscano stava lì a godersi come uno spettacolo tutto quel candore di calce che con le persiane verdi delle finestre riverniciate di fresco e con quella pianta di gersomino che infestonava la porta era davvero una magnificenza ma alla fine di ogni seduta don camillo si voltava a guardare il campanile e sospirava pensando alla geltrude gliel'avevano portata via i tedeschi la geltrude e quindi erano quasi tre anni che don camillo si rodeva il fegato perché la geltrude era la campana più grossa e per poter trovare i soldi occorrenti a ricomprare una campana di quella mole ci voleva soltanto la mano di dio non ti fare il sangue cattivo don camillo gli disse un giorno il cristo dell'altare una parrocchia può essere in gamba anche se la torre della sua chiesa ha una campana di meno in queste cose non è questione di baccano dio ha un orecchio finissimo e sente benissimo anche se lo chiamano con un campanellino grosso come una nucciola d'accordo rispose sospirando don camillo ma gli uomini sono duri di orecchio e le campane servono soprattutto per chiamare gli uomini con gli uomini bisogna parlare forte la massa ascolta chi fa più baccano insisti don camillo e riuscirai ho provato tutto gesù chi sarebbe disposto a dare soldi non ne ha e i ricchi non scuciano una lira neanche a scannarli con le schede della sisal sono stato lì lì due volte peccato sarebbe bastato che qualcuno mi avesse detto semplicemente una parola un nome e allora avrei potuto comprarne dieci di campane e cristo sorrise perdonami don camillo la mia trascuratezza vuol dire che l'anno venturo seguirò con attenzione il campionato di calcio ti interessa anche il lotto don camillo arrossì mi avete male interpretato protestò dicendo qualcuno io non intendevo neppure lontanamente parlare di voi io parlavo in senso generico mi fa piacere don camillo approvò gravemente il cristo è molto saggio quando si tratta di cose come questa parlare sempre in senso generico alcuni giorni dopo don camillo fu chiamato alla villa della signora giuseppina la padrona del boscaccio e quando tornò a casa scoppiava di gioia gesù esclamò don camillo fermandosi ansimante davanti all'altare domani vedrete ardere qui davanti a voi un cero di dieci chili vado io a comprarlo in città e se non ce l'hanno me lo faccio fare apposta don camillo e chi te li dà i soldi non vi preoccupate a costo di vendere il materasso del letto voi avrete il cero troppo avete fatto per me poi don camillo si calmò la signora giuseppina offre alla chiesa il danaro occorrente per rifare la celtrude e come le è venuta l'idea dice che aveva fatto un voto spiegò da un camillo se gesù mi aiuta a combinare un certo affare offrirò la campana alla chiesa l'affare è andato bene e grazie al vostro aiuto fra un mese la geltrude leverà di nuovo la sua voce al cielo vado a ordinare il cero il cristo richiamò don camillo che era partito a tutto vapore niente ceri don camillo disse il cristo severamente niente ceri e perché si stupì don camillo non ho nessun merito in questo rispose il cristo io non ho aiutato la signora giuseppina a combinare il suo affare io non mi occupo di concorsi a premio né di commercio se io mi occupassi di commercio chi in un affare guadagna avrebbe sì ragione di benedirmi ma chi nell'affare perde avrebbe ragione di maledirmi se tu trovi una borsa di danaro non io te l'ho fatta trovare perché non io l'ho fatta smarrire al tuo prossimo il cero accendilo davanti al mediatore che aiutato la signora giuseppina a guadagnare nuovi milioni io non sono un mediatore d'affari la voce del cristo era insolitamente dura e don camillo era pieno di vergogna perdonatemi balbettò io sono un povero prete di campagna grosso e ignorante e il mio cervello è pieno di nebbia il cristo sorrise non calunniare don camillo esclamò il cristo don camillo intende sempre la mia voce e questo significa che non hai il cervello pieno di nebbia spesso è proprio la cultura che riempie il cervello di nebbia non sei tu che hai peccato anzi la tua riconoscenza mi commuove perché tu in ogni piccola cosa che ti dia gioia sei pronto a vedere la benevolenza di dio e la tua gioia è sempre onesta come onesta e ora la tua gioia nel riavere la campana e onesto sei quando mi vuoi ringraziare per averti fatto riavere la tua campana disonesta e la signora giuseppina la quale crede di potersi accaparrare con danaro la complicità di dio nei suoi sudici affari di danaro don camillo aveva ascoltato in silenzio a capobasso rialzò la fronte vi ringrazio gesù vado a dire a quella strozzina di tenersi i suoi soldi esclamò le mie campane debbono essere tutte campane per bene piuttosto ci sto a morire senza aver potuto risentire la voce di geltrude si avviò fiero e deciso e il cristo lo guardò allontanarsi sorridendo ma quando don camillo fu sulla porta lo richiamò don camillo disse il cristo io so perfettamente cosa significhi per te la tua campana perché io leggo nel tuo pensiero ogni momento e questa tua rinuncia è così grande e nobile che basterebbe da sola purificare il bronzo addirittura della statua dell'anticristo vada e retro satana levati di qui o mi costringerai a concederti oltre la tua campana chissà mai quale altra diavoleria don camillo ristette allora posso tenerla tientela te la sei guadagnata in queste contingenze don camillo dimenticava immancabilmente il numero di casa era davanti all'altare si inchinò fece un dietro front prese la rincorsa poi a metà della chiesa bloccò il motore e arrivò a scivolone fin davanti alla porta e il cristo lo guardò soddisfatto perché anche questo è un modo per cantare le lodi del signore poi accadde qualche giorno dopo un brutto fatto don camillo sorprese un ragazzo che stava scarabocchiando gli col carbone il candido intonaco della canonica e scattò come un bufalo il ragazzo sgusciò via come una lucertola ma don camillo era fuori della grazia di dio e lo rincorse ti agguanterò dovessi spaccarmi i polmoni gridò cominciò una corsa furibonda attraverso i campi e ogni passo l'ira di don camillo aumentava a un tratto il ragazzo si trovò davanti a una siepe fitta come un setaccio e allora si fermò e sgomento si volse mettendo le mani davanti e non aveva neanche più fiato per dire una parola don camillo arrivò come un car armato e con la mano sinistra agguantò un braccio del ragazzo e levò la destra per cominciare il temporale degli scapaccioni ma se sentì sotto le dita un braccio così magro e così leggero che ne ebbe un brivido e spalancò la mano e lasciò ricadere il braccio levato allora guardò il ragazzino e si trovò davanti il viso pallido e gli occhi sbarrati del figlio di straziami straziami era il più sciagurato della banda dei fedelissimi di peppone e non che fosse un fannullone che anzi era sempre in cerca di lavoro il guaio è che trovato un posto lavorava tranquillo un giorno poi il secondo si azzuffava col padrone e così lavorava praticamente cinque giorni al mese don camillo implorò il ragazzino non lo farò più fila via gli disse brusco don camillo poi don camillo mandò a cercare straziami e straziami entrò in canonica con aria strafottente con le mani in saccoccia e col cappello piantato in testa alla maledetta cosa vuole il clero dal popolo chiese con arroganza prima di tutto che ti levi il cappello se no te lo spolvero con una sberla secondariamente che tu la smetta di fare il bullo perché con me non attacca straziami era magro e scalcinato anche lui come suo figlio e una sberla di don camillo l'avrebbe accoppato buttò il cappello su una sedia e fece la faccia dell'uomo annoiato volete dirmi forse che mio figlio vi ha sporcato il palazzo vescovile lo so me l'hanno già detto sua eminenza grigia sarà servita stasera picchieremo il ragazzo se hai il coraggio di toccarlo ti rompo l'osso del collo urlò don camillo dagli da mangiare invece non ti accorgi che quel disgraziato è ridotto uno scheletro non tutti hanno avuto dal padre eterno la fortuna cominciò con sarcarno straziami ma don camillo non lo lasciò continuare quando trovi un posto tientelo invece di perderlo dopo due giorni facendo rivoluzionario voi dovete impicciarvi delle sporche faccende vostre rispose straziami con violenza poi gli volse le spalle per andarsene e allora don camillo lo agguantò per un braccio ma sentì sotto le dita un braccio smagrito come quello del ragazzo e lasciò la presa poi andò a protestare col cristo gesù esclamò è mai possibile che io mi trovi sempre tra le mani dei sacchi d'ossa tutto è possibile in un paese travagliato da tante guerre da tanti odi rispose sospirando il cristo piuttosto cerca di tenere più le mani a posto don camillo andò all'officina e trovò peppone che stava lavorando alla morsa bisogna che tu come sindaco faccia qualcosa per il ragazzo di quel disgraziato di straziami disse don camillo coi fondi che il comune ha in cassa gli posso far vento col cartone del calendario le spose peppone allora fa qualcosa come capo della sezione del tuo sporco partito straziami è uno dei tuoi più fieri farabutti se non sbaglio idem gli posso far vento con la cartella del mio scrittoio fammi il piacere e tutti i soldi che vi manda la russia peppone continuò a limare il corriere dello zar rosso è in ritardo le spose peppone perché non mi prestate voi un po dei soldi che vi manda l'america don camillo scrollò le spalle se non la capisci come sindaco e come capo mandria dovresti almeno capire come padre di un figlio di chissà chi la necessità di aiutare questo disgraziato che mi viene a sporcare col carbone il muro della canonica anzi di al bigio che se non mi ripulisce gratis il muro io attacco il vostro partito dal giornale murale dei democristiani peppone continuò limare poi disse e il figlio di straziami non è il solo del comune che avrebbe bisogno di mare o di montagna se avessi trovato i soldi avrei fatto una colonia e mettiti in giro esclamò don camillo finché stai qui a fare il sindaco li mando dei bulloni soldi non ne trovi i contadini sono pieni di quattrini i contadini non scuciano un ghello reverendo darebbero soldi soltanto se si trattasse di organizzare una colonia per irrobustire i loro vitelli perché non andate voi dal papa o da truman litigarono due ore e corsero il rischio di prendersi a sberle almeno 30 volte don camillo tornò tardissimo che c'è di nuovo chiese il cristo mi sembri agitato per forza rispose don camillo quando un povero prete ha dovuto litigare due ore con un sindaco proletario per fargli capire la necessità di istituire una colonia marina e poi ha dovuto litigare altre due ore per convincere una strozzina capitalista a cacciar fuori soldi occorrenti per impiantare la colonia c'è poco da stare allegri ti capisco rispose il cristo don camillo titubò gesù disse alla fine dovete scusarmi se ho tirato in ballo anche voi nella faccenda dei soldi anche me sì per convincere con la strozzina a mollare i quattrini ho dovuto dirle che stanotte voi mi siete apparso in sogno e mi avete detto che avreste gradito che i soldi lei li desse per un'opera benefica piuttosto che per comprare la nuova campana don camillo dopo aver fatto questo tu hai ancora il coraggio di guardarmi sì rispose tranquillo don camillo il fine giustifica i mezzi macchiavelli non mi pare uno di quei testi sacri sui quali soltanto dovresti basarti esclamò il cristo gesù rispose don camillo sarà una bestemmia ma alla volte fa comodo pure lui anche questo è vero ammise il cristo poi dieci giorni dopo quando davanti alla chiesa passarono cantando i bambini che andavano alla stazione per raggiungere la colonia don camillo corse a salutarli e a di santini e quando si vide davanti il figlio di straziami che era l'ultimo della fila fece la faccia scura poi quando ti sarai rimesso faremo i conti minacciò e vedendo straziami che seguiva un po alla larga la schiera dei bambini fece un gesto di disgusto famiglia di criminali borbottò voltando le spalle e ritornando in chiesa poi durante la notte sognò che gesù gli appariva e gli diceva che avrebbe preferito che i soldi della giuseppina fossero usati per un'opera di bene piuttosto che per una campana già fatto sussurrò nel sonno don camillo vecchio testardo quando nel 22 giravano per la bassa i 18 bl con le squadre che andavano a bruciare le cooperative socialiste maguggia era già il vecchio maguggia alto magro come un chiodo e con la barba lunga e quando improvvisamente anche in paese arrivò il camion con la squadra tutti si chiusero in casa o scapparono lungo gli argini ma il vecchio maguggia rimase al suo posto e così allorché i guastatori entrarono nella cooperativa lo trovarono in piedi dietro al bancone della bottega qui la politica non c'entra disse il vecchio maguggia a quello che pareva il capo della banda è una questione amministrativa questa cooperativa l'ho fondata io e l'ho sempre amministrata io e i conti hanno sempre quadrato e voglio che quadrino fino all'ultimo in questo foglio c'è la nota della roba esistente in bottega datemi lo scarico e poi bruciate quel che volete erano tutte zucche senza sentimento perché soltanto le zucche senza sentimento possono fare la politica bruciando le forme di grana il lardo i salami la farina spaccando colpi di scure le caldaie di rame dei caseifici e ammazzando a moschettate i maiali come appunto si faceva allora nelle cooperative socialiste della bassa tuttavia dopo aver risposto che gli avrebbero dato lo scarico sì ma di legnate si grattarono la pera perplessi e controllarono le forme di parmigiano e l'altra roba principale e scrissero in fondo alla nota va bene per il rimborso presentate la lista all'amministrazione gli dissero poi ridendo non ho premura c'è tempo fate pure il comodo vostro rispose il vecchio maguggia andandosene poi si fermò in fondo alla piazza a veder bruciare la cooperativa e quando di tutto l'edificio non rimase più che qualche tizione si cavò il cappello e tornò a casa nessuno lo molestò e il vecchio maguggia visse chiuso nel suo pezzo di terra e nessuno lo vide più in paese nel 44 una sera don camillo se lo vide comparire davanti in canonica mi hanno proposto di diventare podestà spiegò io ho rifiutato e allora vogliono vendicarsi mandando mio figlio in germania potete aiutarmi don camillo rispose di sì un momento don camillo lo interruppe il vecchio maguggia sia ben chiara una cosa io chiedo aiuto a voi don camillo uomo che stimo non a voi don camillo prete che per il solo fatto di essere prete debbo disistimare il vecchio maguggia era un socialista storico di quelli cioè che aspettano con ansia di morire per poter far dispetto al prete rifiutando i conforti religiosi e disponendo che i funerali vengano fatti al suono dell'internazionale don camillo cacciò le mani dietro la schiena e pregò mentalmente dio che gliele custodisse sta bene rispose don camillo come uomo vi caccerei volentieri fuori di qui a pedate ma come sacerdote debbo aiutarvi però sia ben chiaro che io vi aiuto come galantuomo non come anticlericale tenne il figlio di maguggia nascosto per sei giorni nella cella campanaria poi trovò il modo di spedirlo verso più sicuri lidi dentro un carro di fieno finì il pasticcio e passò del tempo un giorno si disse in giro che il vecchio maguggia era molto malato tanto che oramai era roba di poche ore e un pomeriggio arrivò qualcuno da don camillo per avvertirlo che il vecchio maguggia voleva parlargli don camillo saltò sulla bicicletta e agguantato alla girardengo il manubrio filò come un fulmine ma davanti alla porta trovò il figlio del maguggia mi dispiace don camillo spiegò l'uomo dovete accomodarvi di qui e lo portò di fianco alla casa davanti a una finestra aperta e nella stanza proprio sotto la finestra era il letto del vecchio maguggia ho giurato che mai nessun prete avrebbe varcata alla soglia di questa casa spiegò il vecchio maguggia e non dovete offendervi don camillo aveva una voglia matta di andarsene ma invece rimase posso parlare a voi come uomo e non come prete disse il vecchio maguggia parlate voglio morire senza debiti sulla coscienza disse il vecchio maguggia vi ho chiamato per ringraziarvi di aver salvata la pelle a mio figlio quella volta io non centro rispose don camillo se vostro figlio l'ha scampata non dovete ringraziare me dovete ringraziare dio don camillo non buttiamo la cosa in politica disse il maguggia lasciatemi morire in pace voi non potete morire in pace se non morite nella grazia di dio esclamò angosciato don camillo perché se avete sempre voluto tanto bene agli altri odiate tanto voi stesso il vecchio maguggia tentennò il capo ma a voi don camillo cosa importa chiese poi dopo un poco capisco vi preoccupano i funerali civili per via che risulterebbero un danno morale a voi come parroco bene io voglio morire tranquillo senza nessuno che pensi male di me rifiuto i conforti religiosi ma come piacere a voi personalmente lascerò scritto nel testamento che voglio funerali religiosi come piacere personale io vi posso mandare all'inferno io non sono mica un bottegaio gridò don camillo il vecchio sospirò e don camillo ritornò calmo maguggia implorò pensateci un momentino intanto io pregherò dio che vi illumini la mente è perfettamente inutile rispose il vecchio dio me l'ha sempre illuminata altrimenti non avrei potuto vivere obbedendo a tutti i suoi comandamenti ma non mi confesso perché voi pensereste che il vecchio maguggia ha fatto il galletto con i preti finché stava bene e poi quando se l'è vista brutta gli è venuta la fifa e ha mollato vado all'inferno piuttosto don camillo ansimava ma se credete a dio e all'inferno perché non volete morire come un buon cristiano per non dare una soddisfazione a un prete rispose testardo il vecchio maguggia don camillo ritornò a casa agitatissimo e andò a raccontare tutto al cristo dell'altare è mai possibile che un galantuomo concluse debba ridursi a crepare come un cane per uno stupido orgoglio di questo genere don camillo rispose il cristo sospirando tutto è possibile quando c'entra la politica in guerra l'uomo può perdonare al nemico che poco prima tentava di ucciderlo e può dividere con lui il suo pane ma nella lotta politica l'uomo odia il suo avversario e il figlio può uccidere il padre e il padre uccidere il figlio per una parola don camillo camminò in su in giù poi si fermò gesù disse allargando le braccia se è scritto che maguggia muoia come un cane è inutile insistere sia fatta la volontà di dio don camillo non buttiamo la faccenda in politica ammonisse veramente il cristo due giorni dopo si sparse in paese la notizia che il vecchio maguggia era stato operato e tutto era andato magnificamente e passato un mese don camillo se lo vide comparire in canonica vispo e arzillo adesso è diversa da allora disse maguggia e siccome desidero ringraziare il padre eterno seguendo la via ordinaria vorrei comunicarmi dato però che una cosa tra me il padre eterno e non tra il mio partito il vostro sarebbe simpatico se voi non convocaste per presenziare alla cerimonia tutti i clericali della provincia con gagliardetti e bande musicali sta bene rispose don camillo domattina alle 5 sarà presente soltanto il capo del mio partito quando maguggia fu uscito il cristo chiese a don camillo chi fosse questo capo del suo partito siete voi rispose don camillo don camillo non buttare la cosa in politica ammonì il cristo sorridendo e prima di dire che la volontà di dio è quella di far morire un galantuomo come un cane pensaci sopra non ci dovete badare rispose don camillo si dicono tante cose sciopero generale don camillo fumava il suo mezzo toscano seduto sulla panchina davanti alla canonica quando arrivò di gran carriera un ciclista ed era lo smilzo aveva imperato un nuovo tipo di frenata la frenata la togliatti come la chiamava lui tutta una faccenda complicata alla fine della quale lo smilzo si ritrovava all'impiedi dietro la bicicletta con la ruota posteriore stretta fra le gambe oppure lungo disteso per terra con tutta la bicicletta addosso don camillo lo stette a guardare lo smilzo frenò alla togliatti abbandonò la macchina contro il muro della chiesa e si buttò sulla porta della torre ma la porticina era chiusa chiave ed era inutile scuoterla c'è qualche incendio si informò don camillo alzandosi e appressandosi no c'è che il governo è un porco e allora bisogna chiamare il popolo don camillo tornò a sedersi vallo a chiamare in bicicletta il popolo ci metti un po più di tempo ma fai meno baccano lo smilzo allargò le braccia rassegnato e va bene sospirò chi comanda fa legge il duce ha sempre ragione riprese la bicicletta e si avviò per tornarsene ma appena ebbe svoltato l'angolo della canonica mollò di improvviso il biciclo e spiccò una corsa quando don camillo se ne accorse era troppo tardi ormai lo smilzo stava arrampicandosi come uno scoiattolo lungo il cordone di ferro del parafulmine ed era già a mezza torre arrivato nella cella campanaria tirò la scaletta a più oli dell'ultimo pianerottolo e cominciò a smartellare le campane don camillo considerò serenamente la faccenda non valeva la pena di aspettare che lo smilzo scendesse se era arrivato l'ordine di indignazione generale il fatto di rompere un palo sulla groppa dello smilzo sarebbe stato interpretato come una provocazione roba da evitare con ogni cura perciò don camillo ritornò in canonica però prima passò un momentino dietro l'angolo della casa e allentati i galletti del mozzo cavò dalla forcella la ruota anteriore della bicicletta e se la portò in casa così potrai frenare alla de gasperi borbottò chiudendo la porta col catenaccio dopo mezz'ora di scampanare arrivò in piazza la gente e quando ci furono tutti peppone si affacciò al balcone del municipio e cominciò a parlare sotto un governo antidemocratico e reazionario disse peppone il sopruso diventa legge la quale legge ordina che l'iniqua sentenza di sfratto ai danni del mezzadro polini artemio diventi esecutiva ma il popolo difenderà i suoi diritti e non lo permetterà bene urlò la folla e così peppone continuò su questo tono e ci fu un corteo di protesta poi fu eletta una commissione che formulò un ultimatum da inviare al prefetto o si sospende l'esecuzione della sentenza e si inizia il procedimento per annullarla o sciopero generale 24 ore di tempo per decidere arrivò gente dalla città poi la commissione andò in città poi ci furono dei telegrammi e delle telefonate e le 24 ore furono portate a 48 e poi a 96 ma non si cavò un ragno dal buco e alla fine venne decretato lo sciopero generale nessuno dovrà lavorare per nessuna ragione affermò peppone alla fine quando si dice sciopero generale significa astensione dal lavoro senza eccezione si faranno le squadre di sorveglianza e si interverrà immediatamente e le vacche disse il brusco bisognerà bene dar loro da mangiare e mungerle e se le mungi non puoi buttar via il latte bisogna far funzionare anche i caseifici peppone sbuffò questa è la maledizione dei paesi eminentemente agricoli esclamò in città si fa presto organizzare uno sciopero generale chiudi le fabbriche le officine e buonanotte mica occorre mungerle le macchine e anche dopo 15 giorni di sciopero non succede niente perché basta rimetterle in moto e le macchine vanno mentre qui se lasci crepare una vacca non la rimette in moto più nessuno ad ogni modo abbiamo la fortuna di essere su una strada importante e così possiamo bloccarla e rallentare il traffico di tutta la provincia inoltre si potrebbe benissimo dare allo sciopero un'importanza nazionale cavando 50 metri di binario della ferrovia e interrompendo la linea il bigio si strinse nelle spalle tu lo cavi e due ore dopo arrivano tre autoblindo e quando hanno rimesso a posto le rotaie non le cavi più peppone ribatte che lui se ne infischiava delle autoblindo però era cupo ma si consolò presto beh lo sciopero generale conterà per quello che conterà l'importante che la sentenza di sfratto non venga messa in esecuzione questo è il punto base organizzeremo delle squadre di difesa ad oltranza e se è il caso spareremo il bigio si mise a ridere se vogliono fare lo sfratto lo fanno disse succede come per le rotaie arrivano cinque autoblindo e tu sei fritto peppone diventò ancora più cupo tuba da organizzare blocchi staffette e posti di segnalazione avanzata da una parte e dall'altra della provinciale metti lo smilzo e patirai coi razzi metti qualcuno lungo gli argini poca roba tanto dove c'è acqua e argini le blindo non vanno per il resto ci penso io nei tre giorni che seguirono ci furono dei comizi e dei cortei ma non successe niente di straordinario il blocco della provinciale funzionava perfettamente le macchine arrivavano si fermavano i guidatori bestemmiavano tornavano indietro per otto o nove chilometri e prendevano strade secondarie girando all'argo don camillo non mise fuori il naso un secondo ma sapeva tutto perché era come se ci fosse stata la mobilitazione generale delle vecchie e dalla mattina alla sera era un continuo via vai di nonne e bisnonne ma si trattava per lo più di notizia di pochissima importanza l'unica notizia importante gli arrivò sul finire del terzo giorno e gliela portò la vedova gipelli peppone ha tenuto un gran comizio e io ho sentito tutto spiegò la donna era nero si vede che ci deve essere del brutto in giro gridava come un dannato ha detto che quelli di città possono decidere tutto quello che vogliono ma lo sfratto non si farà ha detto che il popolo difenderà i suoi diritti ad ogni costo e il popolo cosa diceva erano quasi tutti rossi gente venuta anche dalle altre frazioni e gridavano come maledetti don camillo allargò le braccia che dio illumini la loro mente sospirò verso le tre di notte don camillo si svegliò qualcuno dal basso stava tirando dei sassolini contro la sua finestra don camillo sapeva stare al mondo quindi si guardò bene dall'affacciarsi scese cautamente al piano terreno e non a mani vuote e andò a sbirciare da una finestrella seminascosta dal tralcio di vite che si arrampicava sulla facciata della canonica e così siccome la notte era chiara vide chi era il lanciatore di sassolini e andò ad aprire cosa ti succede brusco il brusco entrò e disse che non accendesse la luce prima di decidersi a parlare ci volle qualche minuto poi prese a parlare a bassa voce don camillo disse ci siamo arrivano domani chi carabinieri polizia con le auto blindo per far eseguire lo sfratto di polini non ci vedo niente di strano rispose don camillo questa è la legge la giustizia ha stabilito che polini ha torto e polini deve andarsene bella giustizia esclamò il brusco a denti stretti questo si chiama voler fregare il popolo non mi pare che fosse il caso di venire alle tre di notte per fare una discussione di questo genere osservò don camillo la faccenda non è questa replicò il brusco la faccenda è che peppone ha detto che lo sfratto non si farà e voi lo sapete che quando si impegna lui c'è da sudar freddo don camillo si mise le mani sui fianchi vieni al sodo brusco beh sussurrò il brusco il fatto è che quando si vede dalla parte della città prima un razzo verde poi un razzo rosso vuol dire che le auto blindo stanno arrivando da lì e allora salta in aria un pilone del ponte sul fiumetto se si vede il razzo verde e poi il razzo rosso dalla parte opposta della provinciale salta il ponte di legno sul canalaccio don camillo agguantò per il petto il brusco li abbiamo minati io e peppone due ore fa e peppone di guardia con la pila sull'argine del fiumetto e io sono di guardia con la pila sull'argine del canalaccio tu sei qui e non ti muovi a costo di doverti rompere l'osso del collo esclamò don camillo anzi accompagnami che andiamo a disinnescare la mina già fatto rispose il brusco io sono l'ultimo dei vigliacchi perché ho tradito peppone ma mi pareva che fosse una vigliaccheria più grossa non tradirlo quando lo sa mi ammazza non lo saprà rispose don camillo e adesso statene lì e non ti muovere debbo andare a sistemare quel pazzo a costo di dovergli spaccare la testa il brusco era preoccupato e come fate quello appena vi vede e capisce e piuttosto di darvela vinta fa saltare il ponte anche se non si alzano i razzi e poi come arrivate all'argine dovete passare il ponte e cento metri prima del ponte c'è il bigio col posto di blocco andrò per i campi lui è sull'argine di là e dovrete passare il fiume dio mi aiuterà don camillo si buttò un tabarro nero addosso scavalcò la siepe dell'orto si diede alla campagna erano ormai le quattro e albeggiava passò sotto i filari di vite si bagnò traversando i prati di erba medica ma arrivò non visto fin sotto l'argine del fiumetto a cento metri dal ponte sull'argine opposto doveva stare in agguato peppone don camillo non aveva un piano è difficile farsi un piano in queste circostanze bisogna essere sul posto e vedere e poi si decide si infilò sotto un cespuglio si arrampicò cautamente sul fianco dell'argine e si affacciò peppone era in piedi sull'argine quasi di fronte a lui dall'altra parte del fiume e guardava verso la città vicino a lui era la cassetta della pila con la manetta alzata don camillo cominciò ad architettare un piano di aggiramento l'acqua era alta e correva vorticosa verso il ponte ma risalendo dietro l'argine a monte avrebbe trovato un posto buono per passare inosservato nuotando magari con la testa sotto il ponte era vicino 80 o 90 metri ma da quella parte niente da fare non fece a tempo a mettersi in moto che si udì un sibilo e dalla parte della città si alzò un razzo verde fra qualche istante si sarebbe alzato il razzo rosso di conferma gesù implorò don camillo fammi uccello e pesce per dieci secondi si buttò nell'acqua e un po la corrente che lo portava un po le sue bracciate disperate è un po il padre eterno il fatto è che quando peppone sentì chiamarsi e si voltò don camillo era già abbrancato come un'ostrica a un pilone del ponte si levò in quell'istante il razzo rosso don camillo toglietevi di lì urlò peppone lasciatevi andare in giù sta per saltare tutto si salta insieme rispose don camillo toglietevi di lì urlò ancora peppone con le mani sulla leva della pila io faccio saltare il ponte vi seppellirà te la vedi poi col padre eterno rispose don camillo stringendosi sempre più al pilone si sentivano avvicinarsi le macchine peppone urlò ancora e pareva mille volte pazzo poi abbandonò la leva e si buttò a sedere sull'argine le macchine passarono rombando sul ponte trascorse del tempo peppone si rialzò ma don camillo era ancora laggiù abbrancato al suo pilone toglietevi di lì stramaledetto prete gridò con rabbia peppone se prima non stacchi i fili e non butti la pila dentro il fiume io resto qui fino all'anno venturo mi ci sono affezionato a questo pilone peppone staccò i fili e buttò la pila nell'acqua poi don camillo gli disse di buttare anche i fili e peppone li buttò adesso vieni a darmi una mano concluse don camillo se volete aspettare me metterete le radici rispose peppone straiandosi dietro una macchia di gaggia qui lo raggiunse don camillo sono disonorato disse peppone darò le dimissioni da tutto a me pare che saresti stato disonorato se il ponte lo avessi fatto saltare e cosa dico al popolo avevo promesso di impedire lo sfratto digli che ti sembrava stupido aver combattuto per liberare l'italia e poi dichiarare guerra all'italia peppone approvò anche questo è vero borbottò la faccenda dell'italia va bene come sindaco ma come capo della sezione io ho diminuito il prestigio del mio partito perché c'è nel regolamento del tuo partito che dovete sparare contro i carabinieri e allora spiega a quelle zucche che in fondo anche i carabinieri sono dei figli del popolo sfruttati dal capitalismo sì signore dal capitalismo e dai preti approvò peppone anche i carabinieri sono figli del popolo sfruttati dal capitalismo e dai preti clericali don camillo era bagnato come un pulcino e non aveva voglia di litigare si limitò a consigliare peppone di non dire delle stupidaggini prete clericale non significa niente significa qualche cosa invece ribatte peppone voi per esempio siete un prete sì ma non un prete clericale tutto poi andò a posto perché per compensare lo sfratto del pulini vennero concessi finalmente al comune i fondi per rifare in pietra il ponte provvisorio di legno sul canalaccio e così fu sistemata la disoccupazione davanti alla utilità della massa abbiamo creduto bene di sacrificare l'utilità del singolo mezzagro polinartemio ad ogni modo la cambiale semplicemente rinnovata non pagata il conto col governo rimane aperto compagni in seguito don camillo disse in chiesa che era stata ritrovata da un parrocchiano una ruota di bicicletta e chi l'aveva persa la venisse a ritirare in canonica così nel pomeriggio stesso arrivò lo smirzo e si ebbe la ruota e un pedatone da due tonnellate nel sedere noi poi facciamo i conti dopo disse lo smirzo quando viene la seconda ondata vada che so nuotare rispose don camillo quelli di città quelli che don camillo non riusciva proprio a mandar giù erano i rossi di città i proletari di città funzionano bene finché restano in città ma appena fuori barriera si sentono in obbligo di fare i cittadini e allora diventano odiosi come il fumo negli occhi si capisce che questo succede quando viaggiano in gruppo e specialmente in camion perché allora cominciano subito col gridare del villano quadro a tutti i disgraziati che incontrano lungo la strada e se uno è grasso gli danno del budellone o del pancia distrutto se poi incocciano in una ragazza non ne parliamo quando sono arrivati smontano dal camion comincia il vero spettacolo perché prendono subito il passo del bullo e con la sigaretta appiccicata in fondo alla smorfia della bocca come se fosse stata buttata lì con la fionda camminano caracollando sul cavallo dei pantaloni e salta fuori una faccenda che sta fra zalamor e un marinaio neozelandese in franchigia poi si stravaccano dietro il tavolo dell'osteria e si rimboccano le maniche mostrando le braccia bianche coi segni delle pulci e fanno i baracchieri e pestano i pugni sul tavolo e urlano tirando sulla voce dalle budella il tutto con la finale che nel ritorno se lungo la strada si imbattono in una gallina vagante non se la lasciano scappare di certo arrivò un pomeriggio di domenica un camion pieno zeppo di rossi di città con la scusa di far la scorta a un pezzo grosso della federazione che veniva a tenere un discorso ai piccoli proprietari e peppone finito il comizio prima di ritirarsi in sede a fare il rapporto della situazione al pezzo grosso disse a quelli di città che erano ospiti della sezione e che andassero pure liberamente all'osteria del mulinetto perché c'era una damigiana di brusco a loro disposizione erano una trentina più cinque o sei ragazze addobbate di rosso tipi che a un bel momento gridavano o ehi gigiotto sgancia e allora quello che si chiamava gigiotto si cavava la sigaretta di bocca e la lanciava alla ragazza che la guantava al volo e si fumare a boccate lunghe cacciando poi fuori il fumo da tutti i buchi fin dalle orecchie si misero davanti all'osteria a bere e a cantare e non cantavano male specialmente roba d'opera dopo si stancarono e cominciarono a fare la critica a quelli che passavano per la strada così quando si avanzò da un camillo in bicicletta vedendo un arnese così grosso si divertirono da matti e gridarono guarda un prete da corsa don camillo incassò tranquillo e passò in mezzo alle risate come un panzer su un mucchio di paglia poi arrivato in fondo alla strada invece di svoltare verso casa tornò indietro il secondo passaggio ebbe ancora maggior successo del primo e la massa dei rossi di città si trovò con corde nel gridargli dietro forza budellone don camillo incassò imperturbabile e passò via senza battere ciglio poi naturalmente arrivato in fondo al paese dovete fermarsi e tornare indietro e il terzo passaggio fu memorabile perché dal budellone la massa passò facilmente all'immagine del sacco e uscendo dal generico ebbe modo di specificare anche il contenuto di questo sacco chiunque al posto di don camillo si sarebbe risentito ma don camillo aveva nervi d'acciaio e un formidabile controllo di sé se credono di provocarmi hanno sbagliato indirizzo pensò don camillo un sacerdote non si mette mai a far baruffa con gli avvinazzati delle osterie un sacerdote non si abbassa a livello di uno scaricatore ubriaco quindi frenò buttò da un lato la bicicletta si avanzò verso il gruppo agguantò la tavola la strappò di sotto alla gente la sollevò e la scaraventò in mezzo al mucchio poi trovatasi tra le mani una panca cominciò a sventolarla in quel momento arrivò peppone con un sacco di gente e don camillo si calmò e fu scortato dalla squadra di servizio fino in canonica perché usciti di sotto alla tavola e cessato il temporale della panca quelle di città si erano messi a urlare che lo volevano impiccare e le donne erano le più tremende bella roba signor prete ammonì peppone giunti sulla porta della canonica la politica vi fa proprio perdere il domino stecum lei non è un prete lei è uno squadrista gridò il pezzo grosso della federazione che era sopraggiunto poi guardò la mola enorme di don camillo e le mani enormi come badili e rettificò lei è una squadra d'azione al completo don camillo andò a buttarsi sul letto poi chiuse la finestra poi chiuse la porta e diede il catenaccio poi ficcò la testa sotto il cuscino ma non c'era niente da fare qualcuno lo chiamava da giù e la voce la si udiva sempre allora scese andò lentamente a presentarsi al cristo dell'altare don camillo non hai niente da dirmi don camillo allargò le braccia è stata una cosa indipendente dalla mia volontà disse per evitare ogni possibilità di incidenti io durante il comizio mi sono allontanato dal paese non potevo immaginare che quelli là si sarebbero venuti a sedere davanti all'osteria del molinetto se l'avessi saputo sarei rimasto fuori fino a notte però quando sei tornato indietro per la prima volta lo sapevi che c'erano ribatte il cristo perché sei tornato indietro avevo dimenticato il breviario nella casa dove ero rimasto durante il comizio non dire bugie don camillo esclamò severamente il cristo il breviario lo avevi in tasca puoi negarlo me ne guardo bene protestò don camillo l'avevo in tasca e credevo di averlo dimenticato quando misi la mano in tasca per prendere il fazzoletto e trovai il breviario ormai ero già passato davanti all'osteria e dovevo per forza tornare indietro non c'era altra strada lo sapete potevi tornartene nella casa dove eri rimasto durante il comizio ormai sapevi bene che c'erano quelli là davanti all'osteria già avevi sentito che ti avevano urlato dietro perché potendolo non evitare di dare occasione di manifestare la loro mala creanza don camillo tentennò il capo gesù disse gravemente perché se è legge divina che l'uomo non deve nominare il nome di dio in vano dio ha dato agli uomini l'uso della favella il cristo sorrise avrebbero trovato modo di bestemmiare il nome di dio per iscritto o usando l'alfabeto dei muti rispose ma la ragione è che la virtù sta appunto nel non peccare pur possedendo i mezzi e gli istinti per peccare quindi se io voglio per penitenza digiunare tre giorni non debbo prendere medicine che mi facciano passare completamente la fame ma è mio dovere lasciare intatta questa mia fame e dominarla don camillo disse preoccupato il cristo dove mi vuoi condurre ergo se io arrivato in fondo alla strada intendo dimostrare a dio che io secondo il suo comandamento so dominare i miei istinti e so perdonare chi mi insulta non debbo evitare la prova ma debbo affrontarla serenamente e passare ancora davanti a quei mascalzoni il cristo scosse il capo c'è un grave vizio don camillo tu non devi indurre in tentazione il tuo prossimo non devi invitarlo al peccato non devi provocarlo don camillo allargò le braccia mestamente perdonatemi sospirò ora capisco il mio errore dato che mostrare oggi in pubblico questo abito di cui io fino a poco fa ero orgoglioso può costituire una tentazione e può indurre al peccato tanta gente o non uscirò più di casa o andrò in giro vestito da tranviere il cristo si inquietò un poco queste sono sottigliezze da sofista ma io non voglio più discutere con chi si avvale di cavilli per giustificarsi del malfatto voglio ammettere che tu fossi in buona fede quando hai voluto ripassare per la terza volta come spieghi allora il fatto che invece di dimostrare a dio che sai dominare i tuoi istinti e sai perdonare chi ti ingiuria sei sceso dalla bicicletta e cominciato a manovrare tavole e panche ho commesso un errore di valutazione e un peccato di presunzione cioè ho sbagliato credendo di saper valutare il tempo e così quando sono sceso dalla bicicletta sicuro che fossero passati almeno dieci minuti dall'istante in cui udì l'ultimo insulto mi son trovato davanti all'osteria perché erano passati invece solo pochi secondi diciamo decimi di secondo don camillo sì signore è peccato di presunzione pensando di meritare che dio mi illuminasse tanto la mente da permettermi di dominare perfettamente i miei istinti ecco gesù ho avuto troppa fede in voi se credete che l'eccesso di fede sia condannabile in un sacerdote condannatemi il cristo sospirò don camillo il caso è grave senza che tu te ne accorga il demonio è venuto ad abitare dentro di te e si mescola ora nei tuoi discorsi e bestemmia usando la tua bocca prova a stare tre giorni a pane d'acqua e senza fumare vedrai che il diavolo trovandosi male se ne andrà va bene disse don camillo e grazie del consiglio aspetta ringraziarmi il terzo giorno disse sorridendo il cristo ci fu un gran dire in paese poi appena don camillo ebbe finita la sua dieta antidiavolo ottima cura che lo guarì completamente dai sofismi arrivò in canonica un funzionario della polizia di città seguito da peppone dal suo stato maggiore la giustizia ha fatto la sua indagine sul crimine spiegò con sussiego peppone e ha trovato che la versione che voi avete dato per iscritto all'autorità locale del maresciallo non corrisponde a quella che hanno dato alla federazione i compagni aggrediti ho detto tutta la verità e non ho aggiunto niente affermò don camillo il funzionario tentennò il capo qui intanto si dichiara che il vostro contegno era provocatorio anzi sfacciatamente provocatorio è il contegno che tengo sempre quando vado in bicicletta rispose don camillo qui non l'ho mai trovato provocatorio nessuno beh dipende disse peppone molti qui vedendovi passare in bicicletta sentono il desiderio che vi si spacchi la forcella e finiate col muso per terra in tutti i paesi ci sono dei farabutti spiegò don camillo questo non vuol dire niente secondariamente continuò il funzionario mentre la vostra versione dice che eravate solo la versione dell'altra parte afferma che venne gente in vostro aiuto gente che attendeva in agguato e questo mi pare attendibile visti i risultati dello scontro don camillo protestò fieramente ero solo e a parte le sventole con la panca bastava la tavola che io ho buttato sopra quella marmaglia per ammaccare cinque o sei zucche di città 15 zucche specificò il funzionario poi chiese a peppone se la tavola fosse quella che avevano visto poco prima e peppone disse di sì si rende conto reverendo disse allora con ironia che riesce un po difficile credere che un uomo solo possa gingillarsi in tal modo con una tavola di rovere che sarà quasi due quintali don camillo si ficcò in testa il cappello io non so quanti chili sia disse brusco ad ogni modo si fa presto a pesarla si avviò e gli altri lo seguirono giunti davanti all'osteria del molinetto il funzionario indicò la tavola di rovere è questa qui reverendo questa rispose don camillo e agguantata la tavola dio sa come se la portò sopra il capo sulle braccia tese e la scaraventò nel prato bel colpo gridarono tutti peppone si fece avanti cupo si cavò la giacchetta agguantò la tavola strinse i denti la levò in alto e la scaraventò nel prato si era adunata molta gente fu uno scoppio di entusiasmo viva il sindaco il funzionario che era rimasto a bocca aperta toccò la tavola e provò inutilmente a spostarla poi guardò verso peppone al nostro paese si fa così esclamò peppone con orgoglio allora il funzionario disse va bene va bene saltò sulla macchina e se ne andò come un fulmine peppone e don camillo si guardarono ferocemente in faccia poi si volsero le spalle e se ne andarono senza dire una parola io non capisco come sia borbottò l'oste del mulinetto preti comunisti tutti ce l'hanno con questa povera tavola maledetta la politica e chi l'ha inventata la cosa finì come doveva finire arrivò la chiamata del vescovo e don camillo andò in città con le gambe che gli tremavano il vescovo vecchio piccolo e tutto bianco era solo in un salone del pian terreno sperduto dentro una sedia affoderata di cuoio ci risiamo don camillo disse il vescovo non basta più far vento alla gente con le panche adesso si mettono in circolazione anche le tavole un momento di debolezza monsignore valbettò don camillo io so tutto don camillo lo interruppe il vescovo sarò costretto a mandarti sulla cima di un monte in mezzo alle capre monsignore loro il vescovo si era alzato e curvo sul bastone si era venuto a piantare davanti a don camillo e guardava in su verso la vetta dell'omaccio loro non hanno importanza esclamò minacciando col bastone un sacerdote di dio un uomo cui è affidata la missione di predicare l'amore e la dolcezza non può fare il satanasso gettando tavoli in testa al suo prossimo vergogna il vescovo camminò un poco verso la finestra poi si volse e a me non verrai a raccontare che di solo hai organizzato il colpo hai teso l'agguato uno da solo non ammacca quindici teste no monsignore rispose don camillo ero solo ve lo giuro è stato il tavolo che cadendo sul mucchio ha combinato il pasticcio capirete era un tavolo grosso e pesante come quello lì don camillo toccò il grosso tavolo intagliato che era al centro del salone e il vescovo guardò severamente don camillo ic rotus ic salta disse se non sei un vile mentitore dammene la prova sollevalo se sei capace don camillo si appressò al tavolo e lo abbrancò era molto più pesante di quello dell'osteria ma quando don camillo si metteva in marcia era peggio dell'america gli scricchiolarono le ossa e le vene del collo parevano bastoni di fascina però staccò il tavolo da terra e lentamente lo portò sopra la testa e ve lo tenne a braccia tese il vescovo lo guardava trattenendo il fiato quando vide il tavolo alto sopra la testa di don camillo batte il bastone per terra buttalo ma monsignore gemette don camillo buttalo te lo ordino gridò il vescovo il tavolo andò a fracassarsi in un angolo e la casa tremò per fortuna la stanza era terreno altrimenti sarebbe successo il finimondo il vescovo guardò il tavolo andò a battere col bastoncello sui frantumi poi si volse tentennando il capo verso don camillo povero don camillo sospirò che peccato tu non diventerai mai vescovo sospirò ancora poi allargò le braccia se io fossi stato capace di manovrare così una tavola probabilmente sarei ancora parroco del mio paesello arrivò con gli occhi fuori della testa gente richiamata dal fracasso e si affacciò alla porta che c'è monsignore niente guardarono il tavolo in frantumi ah disse il vescovo niente sono stato io don camillo mi ha fatto un po inquietare e allora ho perso la pazienza gran brutta cosa lasciarsi vincere dall'ira figlioli il signore mi perdoni deo grazias se ne andarono e il vescovo toccò la testa di don camillo che gli si era inginocchiato davanti vattene in pace moschettiere del re dei cieli disse sorridendo e grazie di aver faticato tanto per far divertire un po un povero vecchio don camillo ritornò a casa e raccontò tutto al cristo e il cristo scosse il capo e disse con un sospiro banda di matti filosofia campestre ci fu lo sciopero dei giornalieri e dei famigli da spesa proprio nel pieno del raccolto e la roba nei poderi grossi cominciò a entristire questa era una cosa che don camillo non poteva mandare giù e quando venne l'ordine di diminuire il mangime alle bestie per ridurre la produzione del latte andò a bloccare peppone che era sempre in giro ad ispezionare i posti di sorveglianza senti gli disse se una donna allatta suo figlio e il figlio di un altro e se la pagano poco per il suo servizio di balia per farsi dare di più cosa fa peppone si mise a ridere dice al padre del bambino o mi dai di più o te lo allatti tu bene esclamò don camillo invece quella è una donna speciale e per farsi dare di più sai cosa fa prende una medicina che a poco a poco le fa diminuire il latte e poi dice il padre del marmocchio o mi paghi meglio o continuo fino a quando non avrò più un goccio di latte così restano senza mangiare tutte e due suo figlio e il figlio dell'altro ti pare che sia una donna intelligente peppone storse la bocca non buttiamo la faccenda in politica borbottò i paragoni sono la più gran vigliaccata del mondo perché riducono tutti i problemi ad un esempio pratico mentre nella vita quello che conta è la teoria la balia è una cosa ma la verità è che chi lavora deve essere pagato secondo il giusto e allora quando chi lavora il giusto c'entra dentro anche la balia che con la giustizia sociale riceve un compenso maggiore senza bisogno di prendere delle medicine e altre porcherie e la giustizia sociale caro signor prete è una cosa che a un bel momento bisogna ben cominciarla se si vuole arrivarci in fondo perché è come un gomitolo se uno non riesce a trovare il capo giusto per dipanarlo cosa deve aspettare che glielo indichi lo spirito santo si comincia da qualche parte e poi lungo la strada ci si arrangia don camillo lo interruppe i paragoni non sono più la maggior vigliaccata del mondo dipende da chi li fa peppone si strinse nelle spalle si capisce quello che conta è la teoria generica aggiunse e allora io ti dico che la generica è che in tempi di carestia mondiale si mangia quello che c'è e se uno rovina quel poco che c'è dopo può fischiare l'internazionale finché vuole ma crepa perché nessuno gli dà niente creperemo tutti esclamò peppone tanto prima o dopo si deve crepare e allora crepa gridò don camillo andandosene e quando fu in chiesa si sfogò col cristo dell'altar maggiore è gente che avrebbe bisogno di una lezione disse don camillo mandategli un ciclone che butti all'aria ogni cosa è diventato un mondo maledetto pieno di odio di ignoranza e di cattiveria un diluvio universale ci vuole creperemo tutti e così si farà il conto finale ognuno si presenterà davanti al tribunale divino e riceverà il castigo il premio che merita il cristo sorrise don camillo per arrivare a questo non occorre un diluvio universale ognuno è destinato a morire quando è il suo turno e a presentarsi davanti al tribunale divino per avere il premio o la punizione non è la stessa cosa anche senza cataclismi anche questo è vero riconobbe don camillo tornato calmo poi siccome in fondo gli dispiaceva un po di rinunciare in pieno all'idea del diluvio cercò di salvare il salvabile se almeno poteste far piovere un po la campagna è secca i bacini delle centrali sono vuoti pioverà pioverà don camillo lo rassicurò il cristo è sempre piovuto da che mondo è mondo la macchina è combinata in modo tale che a un bel momento deve piovere o sei del parere che l'eterno abbia sbagliato nell'organizzare le cose dell'universo don camillo si inchinò sta bene disse sospirando capisco perfettamente quanto sia giusto quello che voi dite però che un povero prete di campagna non possa neanche permettersi di chiedere al suo dio di far venire giù due catinelle d'acqua perdonate ma è sconfortante il cristo si fece serio hai mille ragioni don camillo non ti resta a che fare anche tu uno sciopero di protesta don camillo ci rimase male e si allontanò a capo chino ma il cristo lo richiamò non ti cruciare don camillo sussurrò il cristo lo so che il vedere uomini che lasciano deperire la grazia di dio è per te peccato mortale perché sai che io sono sceso da cavallo per accogliere una bricciola di pane ma bisogna perdonarli e che non lo fanno per offendere dio essi cercano affannosamente la giustizia in terra perché non hanno più fede nella giustizia divina e ricercano affannosamente i beni della terra perché non hanno fede nella ricompensa divina e perciò credono soltanto a quello che si tocca e si vede e le macchine volanti sono per essi gli angeli infernali di questo inferno terrestre che essi tentano in vano di far diventare un paradiso è la troppa cultura che porta all'ignoranza perché se la cultura non è sorretta dalla fede a un certo punto l'uomo vede soltanto la matematica delle cose e l'armonia di questa matematica diventa il suo dio e dimentica che è dio che ha creato questa matematica e questa armonia ma il tuo dio non è fatto di numeri don camillo e nel cielo del tuo paradiso volano gli angeli del bene il progresso fa diventare sempre più piccolo il mondo per gli uomini un giorno quando le macchine correranno a cento miglia al minuto il mondo sembrerà gli uomini microscopico e allora l'uomo si troverà come un passero sul pomolo di un altissimo pennone e si affaccerà sull'infinito e nell'infinito ritroverà dio e la fede nella vera vita e odierà le macchine che hanno ridotto il mondo a una manciata di numeri e le distruggerà con le sue stesse mani ma ci vorrà del tempo ancora don camillo quindi rassicurati la tua bicicletta e il tuo motorino non corrono per ora nessun pericolo il cristo sorrise e don camillo lo ringraziò di averlo messo al mondo la volante proletaria comandata dallo smilzo avvistò una mattina uno che stava lavorando sotto un filare di viti del verola e lo catturò portandolo quasi di peso in piazza dove i giornalieri e i famigli aspettavano seduti per terra gli si strinsero attorno era un uomo sulla quarantina e protestava con vehemenza questo è un sequestro di persona sequestro di persona disse peppone che era appena arrivato e perché nessuno ti tiene qui se vuoi andartene vattene lo smilzo e gli altri della volante proletaria lo mollarono l'uomo si guardò attorno e vide tutto in giro la muraglia degli uomini che immobili a braccia incrociate lo guardavano cupi e silenziosi insomma cosa cercate da me esclamò l'uomo e tu cosa sei venuto a cercare qui replicò peppone l'uomo non rispose porco crumiro esclamò peppone afferrandolo per il davanti della blusa e scuotendolo traditore non tradisco nessuno rispose l'alto ho bisogno di guadagnare e lavoro anche tutta questa gente ha bisogno di guadagnare ma non lavora io non c'entro con loro esclamò l'uomo ti ci farò entrare io urlò peppone e lasciatolo lo colpì con un mar rovescio che lo mandò per terra come uno straccio io non c'entro balbetto all'uomo rialzandosi con la bocca piena di sangue un calcio del bigio lo rimandò tra le mani di peppone frugal o ordinò peppone allo smilzo e mentre lo smilzo ficcava le mani nelle tasche dell'uomo peppone lo teneva attanagliato per le braccia ed era inutile di vincolarsi nel fiume urlò la folla in piccolo urlò una donna scarmigliata un momento disse peppone prima vogliamo vedere con che razza di canali abbiamo a che fare lo smilzo gli aveva allungato il portafogli trovato in una tasca dell'uomo e peppone passato l'uomo al brusco sfogliò le carte e consultò a lungo le tessere poi rimise tutto dentro il portafogli e lo riconsegnò all'uomo lasciatelo ordinò a testa bassa c'è un equivoco perché urlò la donna scarmigliata perché sì rispose peppone duro e aggressivo e la donna rinculò fecero salire l'uomo sul camioncino della volante proletaria e lo riaccompagnarono fino al buco della siepe da dove l'avevano cavato fuori può rimettersi a lavorare disse peppone no no rispose l'uomo torno a casa ci deve essere un treno fra un'ora ci furono alcuni minuti di silenzio intanto l'uomo si era lavata la faccia nel fosso e si asciugava col fazzoletto mi dispiace disse peppone però lei un professore un laureato non può mettersi contro dei poveri lavoratori della terra la paga dei professori è minore di quella dell'ultimo dei suoi bifolchi e poi io sono disoccupato peppone scosse la testa lo so ma questo non c'entra anche se il bifolco e lei hanno bisogno della stessa quantità di nutrimento la fame del bifolco è diversa della sua il bifolco quando ha fame ha fame come ha fame un cavallo e non può comandare la sua fame perché nessuno gli ha insegnato a farlo ma lei lo sa il mio bambino non lo sa peppone allargò le braccia se è destino che faccia quello che fa lei imparerà le pare giusto tutto questo non lo so disse peppone la faccenda è che non si capisce mai noi e voi pur essendo in fondo nelle stesse condizioni non possiamo mai fare causa comune contro chi ha troppo l'ha detto lei perché pure avendo bisogno dello stesso nutrimento la nostra fame è diversa dalla vostra peppone scosse il capo se non lo avessi detto io sembrerebbe roba di filosofia borbottò peppone se ne andarono ognuno per la sua strada e la faccenda finì e il problema del ceto medio rimase insoluto giulietta e romeo quando si diceva è uno della bruciata era detto tutto e se in un fatto c'entrava uno della bruciata significava che erano volate sberle da far venire i capelli ricci la bruciata era una gran striscia di terra che correva fra il boscaccio e l'argine grande e il podere lo chiamavano così perché era terra pelata come se ci fosse passato attila e soltanto a seminarvi della dinamite si sarebbe ottenuto qualcosa perché sotto erano tutti sassi e probabilmente si trattava di una fetta di letto del fiume l'aveva comprata a ciro quando era tornato dall'argentina temporibus illis e ci si era rotto sopra le reni ma continuava seminare grano e invece nascevano figli e così trovandosi con un esercito da sfamare aveva buttato gli ultimi soldi dell'argentina nell'acquisto di un vapore una trebbiatrice e una pressa foraggi e siccome erano le prime macchine arrivate nella zona nel 1908 non soltanto si era rimesse a posto le ossa ma di macchine ne aveva tante da poter trebbiare nelle aie più grosse di tre o quattro comuni nel 1908 lo chiamavano già il vecchio della bruciata perché toccava appena i 40 ma aveva già sei figli il primo dei quali aveva compiuto i 18 ed era già bestia come un uomo al confine della bruciata subito di là del boscaccio c'era il fondo della torretta e il padrone si chiamava filotti il quale nel 908 aveva 30 bestie e cinque figli e tirava avanti benone perché la sua era terra che soltanto a sputarci sopra cacciava fuori gran turco e frumento da esposizione internazionale il filotti tanto per dire come stavano le cose era tirato a soldi come la pelle di un tamburo e per scucirgli una lira ci voleva il padre eterno però piuttosto che servirsi delle macchine di quelli della bruciata spendeva tre volte tanto ma faceva arrivare tutti gli anni un vapore da casa di dio stupidaggini una gallina accoppata a sassate un cane bastonato ma alla bassa dove il sole d'estate spacca la testa la gente e schiaccia le case e dove d'inverno non si capisce più quale sia il cimitero e quale sia il paese basta una sciocchezza come questa per mettere due famiglie in guerra perpetua il filotti era uno di chiesa che piuttosto di perdere una messa avrebbe lasciato crepare tutta la famiglia e il vecchio della bruciata riposava il sabato e lavorava la domenica per fargli dispetto e aveva sempre un ragazzo di sentinelle intorno a casa perché gli segnalasse quando il filotti capitava vicino alla siepe di confine allora usciva e cominciava a urlare bestemmie da cavare la corteccia a una rovere il filotti incassava e mandava giù fiele e metteva tutto a frutto aspettando il momento buono così arrivò lo sciopero del 908 e la gente pareva diventata matta tanto era decisa fare le cose sul serio naturalmente se la presero anche col prete il quale teneva le parti dei signori e scrissero sui muri che se uno aveva il coraggio di andare a messa se ne sarebbe pentito venne la domenica e il filotti piazzati i figli e i parenti a guardia della stalla si mise sulla spalla la doppietta e andò tranquillo alla messa trovò il vecchio prete in canonica mi hanno lasciato solo disse il prete sono scappati tutti perfino la perpetua e sagrestano morivano di paura conta poco rispose il filotti si fa lo stesso e chi mi serve la messa ci penso io rispose il filotti e così il vecchio prete cominciò a celebrare la messa e come chierico aveva il filotti il quale stava inginocchiato sul gradino dell'altare ma teneva la doppietta sotto il braccio non c'era un'anima in chiesa e fuori pareva che fossero tutti morti all'elevazione quando il prete alzò l'ostia consacrata la porta della chiesa si spalancò con fracasso il sacerdote istintivamente si volse e si cappello in testa e il sigaro in bocca il prete rimase con l'ostia levata come se fosse diventato di sasso ciro tirò una boccata di fumo si calcò il cappello in testa affondò le mani in saccoccia ed entrò in chiesa il filotti prima suonò il campanello poi prese la mira e fulminò l'uomo con una schioppettata poi ricaricò lo schioppo suonò ancora il campanello e il prete si riscosse e continuò tranquillo la messa sul sagrato non c'erano rimaste neanche le mosche ciro non era morto e neppure ferito gravemente stava lì sdraiato per terra perché aveva una paura matta di azzeccare un'altra impallinata si rialzò quando la messa fu finita andò dal dottore a farsi cavare i pallini che gli avevano ridotto un fianco come un setaccio e non disse ne hai ne vai quando dopo un mese fu completamente rimesso a posto una sera chiamò i quattro figli più grandi mise loro in mano una doppietta e uscì la stradale era in pressione i quattro figli si misero a scorta del macchinone ciro salì a perse la manetta a quanto al volante iniziò la marcia le stradali ora non ci sono più perché i trattori a petrolio le hanno spodestate erano meravigliose fatte come i compressori stradali a vapore ma senza il rullo davanti erano lente potenti e silenziose servivano per trebbiare e per dissodare i terreni vergini cominciò la marcia attraverso i campi verso la casa del filotti salto fuori un cane ma non fece neppure in tempo ad abbaiare che una legnata già lo aveva stecchito tirava vento forte e la macchina poteva arrivare a 40 metri dalla casa del filotti senza che nessuno se ne accorgesse ciro fece manovra poi il figlio più vecchio preso un capo della grossa corda d'acciaio dell'argano e mentre il vecchio mollava la leva si avanzò lento inesorabile verso laia buia e silenziosa gli altri lo seguivano con lo schioppo imbracciato arrivò al pilastro più grosso della porta morta agganciò la fune e tornò indietro di corsa pronto ciro innestò l'argano girò la manetta e successe il terremoto riavvolse il cavo sull'argano diede vapore al fischio e tornò a casa non morì nessuno dei filotti ci rimasero secche tre vacche e venne giù mezza la baracca fra rustico e civile ma il filotti non fiatò conti fra loro la giustizia non c'entrava non ci furono altri fatti di questa violenza quando succedeva qualche piccolo incidente fra i ragazzi i due capoccia uscivano di casa e lentamente si avviavano verso la siepe di confine nel punto dove c'era il pero selvatico le famiglie al completo li seguivano in silenzio a 20 metri dal confine le famiglie si fermavano silenziose e i due capoccia proseguivano fino al pero qui si incontravano si levavano la giacca si rimboccavano le maniche e cominciavano a cazzottarsi senza dire una parola cazzotti di una tonnellata l'uno che piombavano giù lenti e implacabili come mazzate su un incudine quando si erano pestate per bene le ossa smettevano e ritornavano alla base seguiti dalle famiglie poi i ragazzi crebbero non ci fu più occasione di incidenti e i due vecchi smisero di pestarsi poi ci fu la guerra che portò via un paio di figli all'uno e all'altro poi i pasticci del dopoguerra eccetera e così passarono venti anni circa e nessuno pareva a pensarci più ma nel 1929 mariolino il primo nipote del vecchio ciro si accorse che a due anni ed età un uomo ha il dovere morale di girare il mondo per farsi un concetto della vita e si mise traballando in cammino arrivato alla siepe di confine sotto lo storico pero si sedette poco dopo sopraggiunse una piccola sporcacciona di uguale tonnellaggio ed era una certa gina di anni due la prima nipotina del filotti lì accadde che tutte e due avrebbero voluto ottenere l'esclusiva di una pera a mezzo marcia caduta dall'albero e così cominciarono a strapparsi i capelli a graffiarsi poi quando non ne poterono più si sputarono in faccia e tornarono alla base non ci fu bisogno di nessuna spiegazione tutto l'esercito era a tavola e quando entrò mariolino con la faccia a pezzi il padre fece per alzarsi ma il vecchio ciro con un cenno lo inchiodò alla sedia poi si alzò a lui e seguito a distanza da tutta la tribù si avviò verso il pero qui trovò ad aspettarlo il vecchio filotti erano sui 60 tutte e due ma si scazzottarono come giovanotti però siccome poi si accorsero che per rimettersi a posto le osta ci volle un mese e più accadde che il vecchio ciro una mattina arrivato al confine trovò che qualcuno lo aveva chiuso per metà con una rete metallica allora egli chiuse con rete metallica l'altra metà e non se ne parlò più nelle grandi città la gente si preoccupa soprattutto di vivere in modo originale e così saltano poi fuori cose sul genere dell'esistenzialismo che non significano un accidente ma danno l'illusione di vivere in modo diverso dai vecchi sistemi invece nei paesi della bassa si nasce si vive si ama si odia e si muore secondo i soliti schemi convenzionali e la gente se ne infischia se si trova immischiata in una vicenda che è una scoppiazzatura del sangue romagnolo o di giulietta e romeo o dei promessi sposi o della cavalleria rusticana e altre balle di letteratura quindi è un eterno ripetersi di vicende banali vecchie come il cucco ma alla fine tirate le somme quelli della bassa finiscono sottoterra preciso come i letterati di città con la differenza che i letterati di città muoiono più arrabbiati di quelli di campagna perché a quelli di città dispiace non solo di morire ma di morire in modo banale mentre a quelli di campagna dispiace semplicemente di non poter più tirare il fiato la cultura è la più grande porcheria dell'universo perché ti amareggia oltre la vita anche la morte passarono anni ed anni altra guerra e altro dopo guerra rossi come il fuoco quelli della bruciata e neri come il carbone quelli della torretta stando così le cose una sera un famiglio dei filotti venne a chiamare don camillo roba urgente spiegò il famiglio venite subito don camillo andò e si trovò al cospetto del congresso familiare al completo erano tutti seduti attorno all'enorme tavola e il vecchio filotti presiedeva il congresso accomodatevi disse gravemente indicandogli una sedia vuota alla sua destra ho bisogno della vostra assistenza spirituale ci fu un istante di silenzio poi il vecchio filotti fece un cenno ed entrò la gina la prima nipote del filotti che era davvero una bella ragazza ristette davanti al nonno e il vecchio le puntò contro il dito minaccioso è vero dunque chiese la ragazza abbassò il capo da quanto tempo non ricordo balbettò la ragazza quando lui ha fatto il buco nella rete metallica eravamo piccoli avremmo avuto quattro o cinque anni il vecchio alzò le braccia dunque quel mascalzone aveva fatto un buco nella siepe urlò calma lo consigliò don camillo chi è quello che chiamate mascalzone il mariolino della bruciata quello urlò don camillo balzando in piedi proprio lui don camillo don camillo si avvicinò alla ragazza il figlio dell'anticristo l'anima dannata di peppone il delinquente rosso quello che fa i discorsi nelle piazze eccitando il popolo alla rivolta rispondi svergognata come hai potuto posare il tuo sguardo di ragazza onesta e timorosa di dio su quel tizione d'inferno eravamo bambini spiegò la ragazza già il buco nella siepe ghignò il vecchio filotti si alzò lentamente si appressò alla ragazza e la schiaffeggiò la ragazza si nascose il volto tra le mani ma dopo un istante sollevò il capo ci sposeremo disse con voce dura erano passate poco più di due settimane e una sera sul tardi don camillo seduto sul suo seggiolone stava leggendo un suo libricino quando sentì bussare discretamente alla porta della canonica andò ad aprire e si trovò al cospetto di una donna con una sciarpa nera in capo così nel buio dell'andito non la riconobbe ma entrata che fu nel suo studiolo vide che era la gina dei filotti cosa vieni a fare a quest'ora si stupì a sposarmi rispose la ragazza don camillo pensò lucia mondella e si mise a ridere e dopo cosa succede con don rodrigo esclamò e poi quando ci si sposa bisogna essere come minimo in due sono qui disse una voce ed entrò mariolino della bruciata don camillo strinse i pugni cosa vieni a fare nella casa del ministro di dio tu emissario del cominferno mariolino afferrò un braccio della gina andiamo borbottò non te l'ho sempre detto che questi clericali hanno il dente avvelenato dalla politica il giovanotto aveva i capelli spettinati che gli cadevano fin sugli occhi e istintivamente se li gettò l'indietro allora si vide che aveva una scucitura sulla fronte cosa hai fatto chiese don camillo la gina intervenne piena di rabbia gli sono saltati addosso tutti quelli di casa sua gli hanno riempito la testa di pugni e la schiena di seggiolate perché una sporcaccione è andata a far la spia che ci facevamo dei segni sono dei maledetti bolscevichi bisognerebbe scomunicarli mariolino afferrò la ragazza per una spalla la spinse sotto la lampada i miei sono maledetti bolscevichi sghignazzò invece i suoi sono tutti santa gente piena di timor di dio guardate qui la ragazza ora che le era caduto lo scialle che le copriva la testa e le ombreggiava il viso si vedeva benissimo che aveva la faccia piena di lividi e pareva che si fosse pettinata usando invece di un pettine un gatto idrofobo sono 15 giorni che la tengono chiusa nella sua camera come in galera e appena hanno saputo che dalla finestra mi faceva dei segni l'hanno pestata come una fascina di canapa voi filotti siete tutti una masnada di bigotti ipocriti falsi come giuda gridò il giovanotto e voi della bruciata siete dei delinquenti sacrilighi dei criminali senza dio e senza coscienza ribatte con foga la ragazza verrà stalin che vi metterà tutti a posto esclamò il giovane verrà la giustizia che vi metterà tutti in galera esclamò la ragazza non vedo l'ora di averti sposato per cavarti gli occhi e io non vedo l'ora che tu sia mia moglie per riempirti la faccia di schiaffi ribatte il giovanotto don camillo si alzò se non la finite vi prendo a calci tutte e due disse deciso la ragazza si lasciò cadere su una sedia si nascose la faccia tra le mani e cominciò a piangere ma sì si inghiozzò quelli di casa mia mi vogliono picchiare lui mi vuol picchiare il parroco mi vuol picchiare tutti mi vogliono picchiare ma cosa ho fatto di male perché ce l'abbiano tanto con me il giovanotto le appaggiò una mano sulla spalla non ti fare il sangue cattivo le disse con voce affettuosa non sono anch'io nelle tue stesse condizioni ho fatto forse qualcosa di male io tu no gemette la ragazza tu non sei che la vittima di quei farabuti dei tuoi di casa alt disse don camillo non rifacciamo la folla dell'oca se siete venuti qui per litigare potete andarvene siamo venuti qui per sposarci rispose la ragazza sì per sposarci aggiunse il giovanotto avete qualcosa in contrario siamo o non siamo due cristiani come gli altri siamo o non siamo maggiorenni siamo o non siamo liberi di sposarci o ci vuole il permesso della democrazia cristiana da un camillo allargò le braccia non ti scaldare rispose con calma io mica ho detto che non voglio sposarvi io vi sposo come ho sposato tutti quelli che erano in regola e sono venuti qui per sposarsi tutto si svolgerà secondo le leggi ma noi abbiamo premura esclamò la ragazza sono qui per favorirvi trascorso il tempo minimo per le pubblicazioni vi sposerete il giovanotto scrollò le spalle le pubblicazioni se i nostri sanno che vogliamo sposarci è la volta che ci ammazzano no reverendo questo è un caso di emergenza bisogna che ci sposiate subito ragazzi il matrimonio non è una burletta è una cosa che si fa in dieci minuti ma dura tutta una vita è un atto grave solenne anche se viene celebrato nel modo più modesto e semplice ci sono dei regolamenti ai quali non si può derogare abbiate pazienza il matrimonio non è uno zabaione nel quale si prendono due uova si sbattono assieme e in dieci minuti tutto è fatto il ragazzo intervenne e se un disgraziato sta crepando e vuol sposare una donna bisogna fare prima le pubblicazioni e poi aspettare il tempo prescritto il fiato per aspettare che trascorrano i giorni prescritti glielo passa il vescovado voi mi fate un caso speciale ribatte don camillo questo è un caso uguale spiegò il ragazzo perché anche qui c'è di mezzo la pellaccia e voi lo sapete e quindi potete benissimo sposarci in articolum mortorum come se fossimo in agonia don camillo allargò le braccia già l'articolum mortorum con 40 anni in due una salute da arrivare a 150 anni ciascuno non precipitiamo fatemi pensare lasciatemi andare da monsignore per sentire dato il caso come si può fare per tutelare la vostra incolumità bisogna che ci sposiamo subito affermò con voce ferma la ragazza è perché non è lo stesso rimandare qualche giorno non muore mica nessuno è una cosa da vedersi disse il giovane siamo scappati di casa disse la ragazza e non ci torneremo più però non possiamo allontanarci dal paese se prima non ci siamo sposati se prima non siamo sposati non è possibile disse il ragazzo don camillo si sentire a brividire quella affermazione calma serena precisa sicura fatta col tono di chi osserva che non è possibile camminare sull'acqua o vedere con le orecchie lo lasciò senza fiato e guardò ammirato i due giovani abbiate pazienza disse con angoscia lasciatemi pensare fino a domattina vi assicuro che sistemerò tutto va bene rispose il giovanotto torniamo domani i due uscirono e don camillo quando fu solo strinse i pugni e gonfiò il petto li sposerò costo di fare la rivoluzione mondiale esclamò peppone solo nella sua officina stava lavorando attorno al motore di un trattore quando sentì cigolare la porta e alzata la testa si trovò davanti mariolino e la gina per peppone aver davanti un filotto o una vipera cornuta era la stessa cosa con la gina filotti poi ce l'aveva particolarmente perché era stata lei la lingua sacriliga a screditargli tutta la sezione femminile l'hai portata per farle rettificare il cervello si informò peppone peppone sapeva perfettamente che i due se la intendevano e conosceva il contrasto delle famiglie ma non aveva mai voluto entrare in argomento con mariolino perché il principio di peppone era che un compagno quando ha servito il partito può servire anche la regina del perù il compagno basta che sia comunista dal collo in su sei venuto a farle rettificare il cervello si limitò quindi a chiedere non ce n'ho di bisogno signor podestà rispose la ragazza questa faccenda di chiamarlo podestà invece di sindaco era un'altra delle mascalzonate della gina e peppone non l'aveva mai mandata giù si appressò aggressivo e le mise sotto il naso un enorme dito sporco di nero voi gridò dovete guardare come parlate o io vi torco il collo come a una gallina sì come a una di quelle galline che voi e la vostra squadra ci avete rubato per festeggiare il primo maggio ribatte in perterrita la ragazza ma non arrabbiatevi abbiamo capito benissimo che lo avete fatto per la democrazia e che si trattava di galline fasciste l'idea dell'epurazione del pollaio dei filotti era stata un'iniziativa personale dello smilzo e risaliva al 1945 e quindi oltre il resto il prelevamento delle galline dei filotti rientrava nell'amnestia ma ogni tanto nei momenti più delicati politicamente la reazione locale tirava in ballo la sciagurata storia delle galline dei filotti e chi ci rimetteva era sempre il povero smilzo che ogni volta si prendeva un sacco di pedate da peppone peppone le si appressò ancora di più mariolino si strinse alla ragazza per difenderla e allora peppone vide la fronte scucita di mariolino e la faccia pesta della ragazza che accidente è successo domandò mariolino fece il suo rapporto e peppone andò a grattarsi la zucca vicino al trattore porca miseria osservò la fine peppone io non capisco che gusto ci si trovi a pigliare delle sberle ci sono tante donne e tanti uomini ci sono anche tanti partiti lo interruppe dura la ragazza perché allora voi vi siete in testa ardito proprio su quello che vi fa odiare dal 90 per cento del paese 90 per cento un corno bella mia qui il 60 per cento è con noi affermò peppone vedremo le prossime elezioni ribatté la ragazza peppone tagliò corto ad ogni modo sono affari vostri e io non centro e non voglio entrarci io sono il segretario della sezione non sono il segretario galante voi siete il sindaco disse la ragazza si capisce e me ne vanto e allora allora ci dovete sposare subito esclamò la ragazza voi siete matti da legare io faccio il meccanico sghignazzò peppone dopo un istante di perplessità ficcando la testa dentro il cofano del trattore e riprendendo a smartellare la ragazza si volse beffarda verso mariolino dunque esclamò ad alta voce è questo il famoso peppone che non ha paura di nessuno peppone cacciò fuori la testa dal cofano qui non si tratta di aver paura qui si tratta di legge e io non posso sposare due in un'officina e poi certi regolamenti non li ho in testa venite domani mattina in comune metteremo a posto tutto io non so che bisogno ci sia di sposarsi alle dieci e mezzo di notte non ho mai visto un amore così urgente non è questione di amore spiegò mariolino è questione di necessità siamo scappati di casa e non vi torneremo più ma non possiamo lasciare il paese se non siamo sposati quando siamo a posto con la legge con la coscienza allora si piglia il treno e si parte dove si arriva si arriva e va sempre bene perché si tratta di cominciare una cosa dal niente peppone si grattò la testa capisco tutto borbottò tutto è giusto però bisogna aspettare almeno fino a domani vedremo di accomodare la faccenda per stanotte tu dormi qui in officina sul camion e la ragazza può andare a dormire a casa di mia madre io non dormo fuori di casa se non sono sposata esclamò la ragazza nessuno vi obbliga a dormire replicò peppone voi potete rimanere sveglia a dire il rosario a pregare per l'america sì perché adesso se non vi dispiace la bomba atomica ce l'abbiamo anche noi trasse di tasca un giornale e lo dispiegò mariolino prese la ragazza per un braccio grazie capo torniamo domattina spiegò uscirono e peppone rimase lì fermo col giornale in mano all'inferno anche la bomba atomica esclamò spiegazzando il giornale e buttandolo lontano cent'anni prima il fiume in piena aveva rotto l'argine grande e l'acqua era arrivata fino ai piuppi e c'era rimasta riconquistando così in un minuto il pezzo di terra che in tre secoli gli uomini le avevano rubato tra l'argine e i piuppi in una bassa c'era l'oratorio vecchio una chiesetta con una piccola torre tozza e l'acqua se l'era presa così come stava con dentro il vecchio scaccino e l'aveva ricoperta dopo qualche mese qualcuno aveva pensato di recuperare la campana che era rimasta nel campanile sommerso e si era buttato sott'acqua trascinandosi dietro il capo di una lunga corda con un rampino poi siccome tardava a tornare a galla gli altri che stavano sulla riva avevano cominciato a tirare la corda e tira e tira non finiva mai come se quello si fosse buttato in mezzo all'oceano alla fine uscì il rampino al quale non era agganciato nulla e proprio in quel momento si sentì venire dal fondo del fiume un rintoccare spento di campana la campana sommersa si sentì rintoccare qualche anno dopo la notte in cui un certo tolli si uccise affogandosi nel fiume poi la sentirono rintoccare quando si buttò nel fiume la figlia dell'oste del ponte probabilmente nessuno aveva mai sentito niente di niente perché è impossibile udire il rintocco di una campana sepolta in fondo all'acqua ma la leggenda rimase nei campi della bassa le leggende vengono con l'acqua ogni tanto la corrente porta giù un fantasma e lo getta alla deriva 150 anni prima durante un'altra piena uno di quei molini naviganti che ancora oggi si vedono all'ancora in mezzo al fiume dipinti a scacchi bianchi e neri con scritto dio mi salvi sul davanti della capannuccia di legno che sta a cavalcioni dei due barconi affiancati si inabissò e sopra c'era il mugnaio zoppo un vecchio maligno che dio fece bene a mandare al demonio ma rimase il suo fantasma a vagare sull'acqua e in certi grigi tardi pomeriggi d'inverno il molino appariva e si ancorava davanti a questo o quel paese e il mugnaio zoppo scendeva e andava per i campi a cavare uno per uno i granelli del frumento seminato riempiendo sacchi e sacchi poi macinava il grano e buttava la farina al vento e ne usciva nebbia da tagliar col coltello e per quell'anno la terra non dava grano stupidaggini cui nessuno credeva ma cui tutti pensavano quando nelle notti invernali si sentiva mughiare il vento o ululare un cane lontano la notte dei promessi sposi era appunto una di quelle in cui si pensava al mugnaio zoppo e alla campana sommersa verso le undici bussarono alla porta e don camillo si buttò giù dal letto era uno dei filotti la gina è scomparsa disse agitato il vecchio vi vuole subito il biroccio volò lungo le strade buie e don camillo trovò i filotti tutti nella grande cucina anche i ragazzi in camicia e con occhi grandi come soldoni dell'umberto si è sentita sbattere la finestra della camera della gina l'antonia è andata a vedere e ha trovato tutto vuoto spiegò il vecchio filotti scappata dalla finestra sul comò c'era questo biglietto don camillo lesse il foglietto che conteneva poche parole ce ne andiamo o ci sposeremo in chiesa come tutti i cristiani o ci sposeremo all'oratorio vecchio e allora sentirete sonare la campana non può essere più di un'ora fa spiegò il vecchio alle 9 40 quando la moglie di giacomo le ha portato una candela lei era ancora nella sua camera in un'ora si fanno parecchie cose borbottò don camillo don camillo voi ne sapete niente e che ne posso sapere meno male temevo che quegli sciagurati fossero venuti da voi e voi vi foste impietosito vadano all'inferno stramaledetti urlò il vecchio torniamo a letto don camillo pestò sul tavolo un pugno di mezza tonnellata a letto un corno gridò e all'inferno ci dovrete andare voi vecchio rimbambito bisogna trovarli don camillo si avviò verso la porta e tutti anche l'esercito delle donne anche i ragazzi lo seguirono e il vecchio rimase solo nella immensa cucina deserta sull'argine grande il vento soffiava forte ma di là nella fascia di terra tra l'acqua e l'argine l'aria era quasi ferma come se si fosse impigliata tra i rami nudi delle gaggie il giovanotto e la ragazza camminarono in silenzio e ristettero soltanto quando furono in riva all'acqua l'oratorio vecchio è là sotto indicò mariolino sentiranno suonare la campana murmurò la ragazza maledetti tutti borbottò il giovanotto maledetto nessuno sospirò la ragazza quando si sta per morire non si deve maledire nessuno maledetti siamo noi che ci togliamo la vita è un delitto enorme la mia vita è mia e ne faccio quello che voglio ribatte aspro il giovanotto forse avremo per testimoni il vecchio scaccino dell'oratorio e il mugnaio zoppo sospirò la ragazza un'onda breve arrivò sull'arena e l'acqua inzuppò i piedi dei due è fredda come la morte sospirò rabbrividendo la ragazza è questione di un momento rispose il ragazzo nuoteremo fino là al fondone poi ci abbreceremo stretti e ci lasceremo scivolare giù sentiranno suonare la campana sussurrò la ragazza forte come mai ha suonato perché adesso sono due in una volta sola che vanno a trovare il vecchio campanaro ci abbracceremo stretti e nessuno potrà dire niente la morte unisce più del prete e più del sindaco disse il giovanotto la ragazza non rispose il fiume di notte attira come l'abisso e mille ragazze di tutti i secoli si sono trovate sulla riva di un fiume e a un tratto hanno cominciato a camminare lentamente verso l'acqua e lentamente hanno continuato a camminare finché l'acqua non le ha coperte cammineremo tenendoci per mano sussurrò la ragazza quando la terra ci mancherà di improvviso sotto i piedi allora sarà il fondone dell'oratorio e ci abbracceremo si presero per mano e cominciò la marcia orrenda ed inesorabile don camillo seguito dalla mandria dei filotti era uscito dal podere ed era arrivato alla strada che portava al fiume la la cabina della luce ci divideremo metà di qua dell'argine metà di là quindi metà batterà verso monte metà verso valle se non sono ancora arrivati al fiume non lo raggiungeranno lampadine elettriche candele lucerne lumi a olio anche i fanali a carburo delle biciclette tutti avevano un po di luce e si avviarono in silenzio ed ecco che fatti cento metri arrivarono là dove nella strada sboccava un'altra stradetta laterale e quasi cozzarono contro un'altra mandria quelli della bruciata tutti si capisce meno il vecchio e il capo mandria era peppone niente di miracoloso in tutto questo per il semplice fatto che don camillo prima di uscire dalla canonica per salire sul calesse dei filotti aveva detto alla vecchia serva di correre dal sindaco e di raccontargli quello che stava succedendo in modo che lui avvertisse i suoi bolscevichi della bruciata i due capi mandria si fermarono l'uno di fronte all'altro si guardarono fieramente peppone si tolse il cappello e salutò don camillo rispose togliendosi il cappello e le mandrie procedettero affiancate pareva una scena da romanzo con tutti quei lumi nella notte si sale e poi ci si divide disse arrivato sull'argine il comandante supremo don camillo si duce rispose peppone e don camillo lo guardò male uno due tre passi l'acqua arrivava già al ginocchio della ragazza del giovanotto e ormai non è più fredda e la si volgono di scatto e l'argine è pieno di luci ci cercano disse la ragazza se ci prendono ci ammazzano esclamò il giovanotto dieci passi e poi sarebbero state all'orlo del fondone ma ormai il fiume la morte avevano perso il loro fascino la luce e la gente li ricongiungevano violentemente alla vita furono di un balzo sulla riva e poi sull'argine al di là c'erano i campi deserti e i boschi ma li avvistarono subito e cominciò la caccia i due correvano sull'argine e le due mandrie scatenate procedevano più sotto a sinistra e a destra dell'argine furono oltrepassati poi a un urlo di peppone che ansimava come un reggimento di tori in testa alla colonna che procedeva lungo il fiume le due schiere risalirono sull'argine e si congiunsero quando arrivò don camillo che navigava a tutto vapore con le sottane fin sullo stomaco la manovra a tenaglia era finita disgraziata urlò una donna dei filotti avanzando verso la gina filotti ma scalzone gridò una donna della bruciata avanzando minacciosa verso mariolino della bruciata i filotti agguantarono la loro ragazza gli altri il loro giovanotto e si levarono urla furibonde di donne ma ecco che apparvero peppone e don camillo i quali avevano tra le mani una preoccupante stanga di rovere ciascuno in nome di dio disse don camillo in nome della legge urlò peppone tutti tacquero e il lungo corteo si compose e si avviò verso casa davanti giulietta e romeo i promessi sposi dietro loro don camillo e peppone con annesse stanghe di rovere dietro affiancate le due mandrie silenziose appena sceso l'argine il corteo dovette fermarsi perché si trovò la strada sbarrata dal vecchio filotti che vista la nipote alzò i pugni al cielo in quell'istante naturalmente arrivò arrancando anche il vecchio della bruciata che fece per scagliarsi contro il nipote si trovarono come per un miracolo a fianco a fianco si guardarono feroci 156 anni in due ma pieni di rabbia come giovanotti le due mandrie si distesero silenziose ai due lati della strada e tutti alzarono le lucerne i due vecchi si misero l'uno davanti all'altro strinsero i pugni e cominciarono appestarsi i pugni in testa ma era più l'animosità che la forza e dopo un primo assalto ripresero a quatarsi e a studiarsi stringendo i pugni e il filotti aveva anche il coraggio di soffiarsi sulle nocche delle dita come si faceva da ragazzi per dar più forza al pugno allora don camillo si volse verso peppone procedi gli disse non posso sono il sindaco e poi la cosa avrebbe un significato politico don camillo allora si fece avanti appoggiò delicatamente la destra sulla nuca del filotti e la sinistra sulla nuca dell'altro quindi con un colpo secco e preciso mandò la zucca dell'uno a sbattere contro la zucca dell'altro non si videro scintille perché si trattava di ossa vecchie ma il rumore si sentì lontano amen disse peppone riprendendo la marcia e così anche questa storia finì come tutte le storie passarono gli anni e adesso nella rete metallica che divide il podere della torretta dal podere della bruciata c'è sempre il famoso buco e un bambino piccolo piccolo si diverte a passare attraverso il buco da una parte all'altra e il vecchio filotti e il vecchio della bruciata stanno finalmente vicini l'uno all'altro senza litigare e il becchino dice anzi che non ha mai visto due morti andare così d'accordo il pittore la gisella era una donna sui 40 di quelle donne che appena si imbattono in un gruppo di gente raccolta in una piazza innestano la terza e ci si buttano in mezzo a testa bassa urlando dagli dagli al muro impiccalo sbudellalo senza minimamente preoccuparsi se quella gente si sia radunata lì perché è stato catturato un criminale o se invece stia lì semplicemente per ascoltare le balle di un venditore di lucido per scarte una di quelle donne che nei cortei marciano sempre in testa al branco con della gran roba rossa addosso e cantano con voce feroce e quando c'è un comizio col discorso di qualche pezzo grosso ogni tanto saltano su strillando all'oratore sei bello sei un dio e parlano a lui solo ma nella loro voce è tale un furore amoroso che basterebbe per l'intero esecutivo del partito e annessa sezione agit prop la gisella era nel paese la rivoluzione proletaria in persona e appena sentiva che in qualche podere scoppiava un pasticcio piccolo grosso fra lavoranti e padroni correva là a galvanizzare la massa e se il podere era lontano inforcava la bicicletta da corsa di suo marito e se qualcuno lungo la strada le urlava dietro qualcosa rispondeva che soltanto i porci signori hanno roba sporca da nascondere ma che il popolo può mostrare a fronte alta anche il sedere la gisella in occasione dello sciopero dei braccianti si agitò molto a piedi in bicicletta e sul camioncino della squadra di sorveglianza e così 15 giorni dopo la fine dell'agitazione ci fu qualcuno che fra il lusco e il brusco le mise un sacco in testa la trascinò dietro una siepe le tirò su il sipario e li pitturò di rosso il posteriore poi la piantò lì con la testa nel sacco e se ne andò sghignezzando fu una cosa grossa perché a parte il fatto che la gisella per lavare l'onta dovette star seduta un sacco di tempo dentro una bacinella piena di benzina peppone vide nel fatto una sanguinosa offesa a tutta la massa proletaria e allora diventò furibondo tenne un comizio urlò parole di fuoco contro gli ignoti delinquenti reazionari e proclamò uno sciopero generale di protesta tutto fermo gridò alla fine tutto chiuso tutto bloccato fino a quando l'autorità costituita non avrà arrestato i delinquenti il maresciallo e i quattro carabinieri della stazione si misero in movimento ma a voler sanare gente che di sera in aperta campagna ficca un sacco in testa una donna e le pittura di rosso il posteriore è come cercare un ago in un carro di fieno signor sindaco disse il maresciallo a peppone al termine della prima giornata di ricerche abbiate pazienza non è il caso che voi persistiate in uno sciopero la giustizia funziona anche senza sciopero peppone scosse il capo fino a quando non avrete accalappiato questo delinquente qui tutto rimane fermo rispose tutto le indagini ripresero la mattina seguente all'alba non avendo la gisella potuto vedere chi l'aveva verniciata perché il sacco le copriva la faccia gli unici che potessero dire qualcosa sul fattaccio erano quindi il sacco e la parte verniciata il maresciallo si aggrappò al sacco lo studiò con la lente centimetro per centimetro lo pesò lo misurò lo fiutò lo brutalizzò prendendolo a calci ma i sacchi in generale sono di scarsissima eloquenza e quello lì poi era il sacco più anonimo e taciturno dell'universo il maresciallo allora mandò a chiamare il medico condotto veda un po lei disse faccia una visita a quella donna e cosa ci posso trovare a parte il fatto che la parte lesa è stata trattata con benzina qui non si tratta dei soliti pittori che quando hanno pitturato il loro quadro ci mettono la firma dottore rispose il maresciallo qui non bisogna ragionare perché se uno ragiona si mette a ridere non ci pensa più ma qui c'è gente che non ha il senso del ridicolo e ti combina una tragedia paralizzando la vita di un comune intero il medico andò a visitare la gisella e ritornò dopo un'ora ha un po di peracidità allo stomaco e le tonsille irritate spiegò il medico allargando le braccia se le interessa la pressione l'ho misurata è tutto quello che posso dirle tornarono verso sera i quattro carabinieri non un'impronta non un indizio niente benissimo ghignò feroce peppone quando seppe l'esito da domani chiusi anche i fornai si distribuisce la farina e la gente si arrangia a fare il pane in casa don camillo stava prendendo il fresco seduto sulla panchina davanti alla canonica quando si trovò davanti improvvisamente peppone reverendo disse peppone cupo dittatoriale chiamate il campanaro e fatelo salire sulla torre a fermare l'orologio qui si deve fermare tutto perfino l'orologio gli farò vedere io quei vigliacchi come si organizza uno sciopero generale tutto fermo don camillo tentennò il capo tutto fermo cominciando dal cervello del sindaco il cervello del sindaco funziona benissimo urlò peppone don camillo accese il mezzo toscano peppone disse dolcemente tu credi che il tuo cervello funzioni e invece la tua faziosità l'ha bloccato e così gli impedisce di avvertirti che tu stai affogando miseramente nel ridicolo e questo mi dispiace se ti vedessi prendere sulla groppa un carico di legnate dio mi perdoni non proverei nessuna pena ma vedendoti ridicolo mi fai pietà non me ne importa niente del giudizio del clero gridò peppone l'orologio deve essere fermato o lo fermo io a raffiche di mitra peppone aveva nella voce e nei gesti come un disperato furore e don camillo si sentì toccato il campanaro non c'è disse alzandosi andiamo su noi si arrampicarono lungo le scalette a pioli della torre e arrivati alla cella dell'orologio si fermarono davanti al meccanismo che era di quelli vecchi con grossi ingranaggi ecco spiegò don camillo indicando una ruota basta mettere questo cavicchio lì e si ferma tutto sì sì deve fermarsi esclamò peppone che sudava don camillo si appoggiò al muro vicino a una finestrella che dava sui campi peppone disse un uomo semplice aveva un figlio malato e tutte le sere il bambino veniva accolto dalla febbre e non c'era verso di farla passare e il termometro segnava sempre vicino ai 40 e allora l'uomo semplice che ad ogni costo voleva far qualcosa per il suo bambino prese il termometro e lo schiacciò sotto i piedi peppone continuava a guardare il meccanismo dell'orologio peppone disse don camillo tu ora vuoi fermare l'orologio ma non mi fai ridere rideranno gli imbecilli ma io provo per te la stessa pena che sento pensando a quel padre che ha pestato il termometro sotto i piedi peppone si sincero perché vuoi fermare l'orologio peppone non rispose don camillo parlò con voce grave tu vuoi fermare l'orologio perché è sulla torre e lo vedi mille volte al giorno dovunque tu vada l'orologio della torre ti guarda come l'occhio della sentinella dalla torretta dei campi di prigionia e se tu volgi il capo dall'altra parte è inutile perché senti quello sguardo pesarti sulla nuca e se ti chiudi in casa e nascondi la testa sotto il cuscino quello sguardo passa i muri e poi i rintocchi dell'orologio ti raggiungono e ti portano la voce del tempo ti portano la voce della tua coscienza è inutile se hai paura di dio perché hai peccato nascondere il crocifisso che hai sul letto dio rimane e ti parlerà per tutta la tua vita con la voce del tuo rimorso è inutile peppone che tu fermi l'orologio della torre il tempo non lo fermi il tempo continua passano le ore passano i giorni e ogni istante qualcosa che tu rubi peppone alzò la testa e gonfiò il petto sgonfiati pallone pieno di fumo gridò don camillo ferma pure l'orologio non fermerai il tempo e le messe languiranno nei campi le vacche deperiranno nelle stalle il pane di istante in istante diminuirà sulla messa degli uomini la guerra è l'infamia più orrenda che esista ma se il malvagio tenta di invadere la tua terra e depredare le tue cose la tua libertà tu devi difenderti scioperare vuol dire difendere dei sacrosanti diritti difendere il tuo pane la tua libertà e l'avvenire dei tuoi figli così invece sei tu il malvagio che porta alla guerra contro il suo simile per tutelare il suo stupido orgoglio di uomo di parte è una guerra di prestigio il tipo di guerra più empio e maledetto la giustizia esistono delle leggi da te accettate le quali tutelano il cittadino da capo a piedi dentro e fuori non occorre che intervenga un partito per tutelare il sedere di un appassionario da strapazzo ferma il tuo sciopero invece di fermare l'orologio scesero e quando furono giù peppone si piantò davanti a don camillo don camillo disse peppone noi due possiamo parlarci chiaro dite la verità siete stato voi don camillo sospirò no peppone io sono un sacerdote e come tale non posso arrivare così in basso io al massimo avrei potuto pitturarle di rosso la faccia ma allora la cosa avrebbe perso il suo significato peppone lo guardò negli occhi io disse don camillo mi sono limitato a ficcarle il sacco in testa a legarla e a portarla dietro la siepe poi me ne sono andato per i fatti miei e dietro la siepe chi c'era don camillo si mise a ridere peppone parlò gravemente quando c'era da rischiare la ghirba io mi fidavo di voi e voi vi fidavate di me facciamo come se fosse allora la cosa resta tra noi due don camillo allargò le braccia peppone una povera creatura oppresse angariata una infelice creatura che da anni soffre in silenzio le pene dell'inferno si rivolge al suo parroco per avere un aiuto come si fa a non ascoltare la sua straziante invocazione dietro la siepe c'era il marito della gisella peppone pensò al marito della gisella a quello metto magro e patito che doveva rammendarsi calzoni e farsi da mangiare mentre sua moglie girava per attivizzare le masse e si strinse nelle spalle poi pensò che il marito della gisella era uno di quelli del bianco fiore e corrugò la fronte don camillo disse con voce dura lo ha fatto come democristiano no peppone come marito soltanto come marito peppone si avviò per ordinare la ripresa del lavoro però voi esclamò quando fu sulla porta della torre minacciando don camillo col dito l'ho fatto anche per incoraggiare la pittura spiegò don camillo allargando le braccia la festa peppone mandò il testo del proclama che era già tardi e il vecchio barchini il cartolaio tipografo ci mise cinque ore per comporlo e alla fine era stanco morto e cascava da tutte le parti per il gran sonno tuttavia trovò ancora la forza di arrivare alla canonica con la prima bozza di stampa che roba è domandò don camillo guardando con diffidenza il foglio che il barchini aveva dispiegato sulla tavola roba fina soghignò il barchini la prima faccenda che saltò all'occhio di don camillo fu un democrazia con due z che parevano addirittura tre tanto erano due e fece notare che ce ne voleva una soltanto bene rispose soddisfatto il vecchio barchini appena torno la tolgo e la metto nella parola faziosità della penultima riga che ho dovuto comporre con una z sola perché non avevo più carattere non vale la pena borbottò don camillo lascia così com'è è sempre meglio dare incremento alla democrazia che alla faziosità cominciò a leggere attentamente il proclama si trattava in definitiva del programma della festa della stampa del partito con annesse e considerazioni di carattere politico sociale cosa significa qui al numero 6 questa gara ciclistico artistica patriottica a coppie miste con le città di tali ambisessualmente allegoriche beh spiegò il barchini si tratta di una corsa in bicicletta dove ogni concorrente maschio porta una ragazza seduta in canna e ogni ragazza è vestita la città italiana una rappresenta milano l'altra venezia l'altra travestita da bologna l'altra da roma eccetera e ogni rispettivo ciclista è vestito secondo il tipo della città per esempio quello che porta sulla canna milano è vestito in tuta da operaio per via dell'industria quello che porta in canna bologna è vestito da contadino per via delle mili agricola quello che porta a genova è vestito da marinaio e via discorrendo da un camillo chiese altre delucidazioni e questo tiro a segno politico satirico popolare non lo so don camillo è una baracca che metteranno in piedi in piazza all'ultimo momento dicono che sarà dopo la corsa delle città la cosa più importante della giornata don camillo era rimasto freddissimo fino a quel momento ma arrivato alle ultime righe del manifesto lanciò un grido ma no il barchini sogghignò ma sì don camillo proprio così nella mattinata di domenica peppone gli altri dirigenti della sezione gireranno per le strade principali del paese strillando il giornale del partito ma è un scherzo esclamò don camillo scherzo un corno lo hanno fatto in tutte le principali città d'italia e a fare gli strilloni c'erano non soltanto dirigenti di federazioni direttori di giornali ma addirittura deputati non l'aveva letto uscito il barchini don camillo dopo aver camminato a lungo in su e in giù per la stanza andò a inginocchiarsi davanti al cristo dell'altar maggiore gesù disse fate venire presto domenica e perché don camillo non ti pare che il tempo sia abbastanza rapido nel suo corso naturale sì ma ci sono delle occasioni in cui i minuti sembrano ore ci ripensò un poco però aggiunse don camillo in altre circostanze le ore sembrano minuti e quindi c'è un compenso lasciate pur stare tutto come sta adesso aspetterò la domenica per via normale il cristo sospirò quale pensiero malvagio ti gira nel cervello pensieri malvagi io se l'innocenza potesse possedere un volto umano io non avrei che a guardarmi nello specchio e dire ecco l'innocenza forse faresti meglio a dire ecco la bugia don camillo si segnò e si levò non mi guarderò nello specchio disse andandosene in fretta arrivò finalmente la domenica mattina e dopo la prima messa don camillo andò a mettersi la tonaca migliore si lustrò le scarpe spazzolò con cura il cappello e facendo uno sforzo per non mettersi a correre arrivò l'emme l'emme fino alla strada principale della borgata c'era zeppo di gente e tutti giravano in su e in giù con indifferenza ma si capiva che aspettavano qualcosa e a un bel momento si udì lontano il vocione di peppone il sindaco che vende i giornali esclamarono tutti presi da subitane agitazione e si strinsero lungo i marciapiedi come se dovesse passare un corteo don camillo si piantò in prima fila e gonfiò il torace per sembrare più alto ancora apparve peppone con un gran fascio di giornali sotto il braccio e ogni tanto qualcuno dei suoi dislocati lungo il percorso si staccava dalla folla e andava a comprare un giornale tutta l'altra gente era mutolita perché peppone urlava come uno strillone e questo faceva venire voglia di ridere però guardava a destra e a sinistra con una faccia così cattiva che la voglia di ridere passava subito e la cosa con quell'urlo che risuonava nel silenzio e quella gente immobile stretta lungo i muri e quell'omone che camminava solo in mezzo alla strada deserta non era ridicola ma tragica peppone passò davanti a don camillo e don camillo lo lasciò passare poi improvvisamente si udì il vocione di don camillo come una cannonata giornalaio peppone rimase bloccato si volse lentamente e fulminò don camillo con uno sguardo da cominterna ma don camillo non ne fu turbato si avanzò tranquillo verso peppone frugando nella tasca per trarne il portamonete per favore l'osservatore romano disse con indifferenza ma in modo tale che lo sentissero fino fuori provincia peppone oltre alla testa voltò anche il resto del corpo verso don camillo non parlò ma nei suoi occhi c'era un intero discorso di lenin allora don camillo parve riscuotersi e allargò sorridendo le braccia oh mi scusi signor sindaco esclamò ero sopra pensiero e l'avevo scambiata per il giornalaio capisco capisco mi dia pure una copia del suo giornale peppone strinse ancora di più i denti e lentamente allungò una copia del giornale a don camillo che messo il foglio sotto il braccio prese a frugare nel portafogli ne trasse un biglietto da 5.000 e lo porse a peppone peppone guardò il biglietto poi ritornò a fissare don camillo negli occhi e gonfiò il torace capisco capisco disse allora don camillo ritirando la mano col biglietto è stupido da parte mia pensare che lei mi possa dare il resto indicò il fascio di giornali che peppone recava sotto il braccio ne deve aver presi pochi di spiccioli continuò poveretto ha ancora i giornali tutti lì peppone non compì atti di violenza si strinse fra le gambe il fascio dei giornali cacciò una mano in tasca e trattane una grossa manata di banconote cominciò a contare a don camillo il resto delle 5.000 lire se non le dispiace è già il quarto pacco di giornali che io vendo si bilò peppone continuando a snocciolare banconote don camillo sorrise compiaciuto mi fa piacere ma mi bastano 4.500 tenga pure il resto l'onore di aver comprato un giornale dal signor sindaco vale ben più di 500 lire e poi mi lascio il piacere di aiutare un giornale che nonostante i suoi nobili sforzi non riesce ad avere una diffusione sufficiente a mantenerlo in vita peppone sudava 4.985 gridò neanche un centesimo di meno reverendo non abbiamo bisogno dei vostri soldi oh lo so lo so disse don camillo con ambiguità intascando il resto cosa vorrebbe dire urlò peppone stringendo i pugni per l'amor del cielo non voglio dire niente gli spiegò il giornale mentre peppone si riassettava unità sillabò don camillo oh che strano è scritto in italiano peppone muggì brevemente e poi partì rimettendosi a urlare con una rabbia tale che pareva la dichiarazione di guerra alle potenze occidentali mi scusi balbettò don camillo non si arrabbi credevo in buona fede che fosse scritto in russo nel pomeriggio quando vennero a dirgli che il discorso era finito e che erano incominciati festeggiamenti popolari don camillo uscì di casa e andò a portare a spasso le sue enormi spalle in su e in giù per la piazza la corsa con le allegorie in bicicletta riuscì una cosa veramente ingambissima arrivò prima al traguardo trieste che era seduta in canna sulla bicicletta dello smilzo e in giro circolava già dalla mattina la storia appunto di trieste perché durante la seduta alla sezione alcuni avevano detto che trieste non bisognava mettercela dato lo sfondo politico della cosa e allora peppone aveva cominciato a sbraitare che suo fratello era morto in guerra per liberare trieste e che a non mettere trieste in gara era come dire che suo fratello era stato un traditore del popolo così avevano messo trieste la quale era rappresentata dalla compagna carola la murosa dello smilzo vestita di tricolore con l'alabarda sul pregevole petto e lo smilzo era vestito da fantaccino della guerra 15 18 con l'elmetto in testa il 91 a tracolla schiattava dal caldo ma peppone gli aveva ordinato di arrivare primo lo devi fare per me per mio fratello disse peppone e così lo smilzo arrivò primo e poi dovettero fargli la respirazione artificiale perché era negato nel sudore don camillo vedendo arrivare trieste in canna alla bicicletta della fanteria pareva diventato matto per l'entusiasmo e si divertì anche alla corsa nei sacchi e alla rottura delle pignatte e quando gli dissero che avevano aperto il tiro a segno politico satirico si buttò in mezzo alla folla per arrivare al baraccone attorno al baraccone c'era una resta spaventosa ma ciò non preoccupò don camillo che quando si metteva in moto era come un panzer doveva essere una faccenda desiderante perché tutti ridevano e urlavano in definitiva si trattava di una cosa semplice c'erano da buttar giù a pallate dei grossi pupazzi di legno alti un metro e mezzo sagome pitturate ma pitturate da uno in gambissima un artista di città e l'importante era che raffiguravano alla perfezione in caricatura i principali esponenti dei partiti di centro e di destra e il pupazzo più grosso raffigurava don camillo don camillo si riconobbe immediatamente ed era veramente buffo così raffigurato e capì allora perché la gente ridesse tanto non disse niente strinse le mascelle e si mise a braccia concerti a guardare si avanzò un giovane bullo col fazzoletto rosso al collo comprò sei palle e cominciò il tiro le sagome erano sei e l'ultima a destra era quella di don camillo il giovane tirava bene preciso e ogni colpo era un pupazzo che si rovesciava andò giù il primo poi il secondo poi il terzo poi il quarto però man mano che i pupazzi in piedi diminuivano diminuivano anche gli urli della gente e così quando cadde il quinto pupazzo c'era silenzio perfetto toccava al pupazzo di don camillo il giovane bullo sbirciò con la coda dell'occhio il don camillo in carne d'ossa che gli stava a fianco un passo di distanza poi rimise la palla sul parapetto e se ne andò la gente cominciò a borbottare e nessuno si faceva più avanti e ad un tratto apparve peppone dammi disse peppone l'addetto al baraccone aveva raddrizzato tutte le sagome e mise sei palle sul parapetto davanti a peppone peppone cominciò a tirare la gente si ritrasse cadde il primo pupazzo poi il secondo poi il terzo peppone tirava con ferocia con rabbia cadde il quarto pupazzo cadde il quinto rimaneva in piedi il pupazzo di don camillo don camillo volse lentamente il capo e incontrò lo sguardo di peppone in pochi secondi tutto un lungo colloquio avvenne fra quegli occhi e gli occhi di don camillo dovevano essere di una eloquenza straordinaria perché peppone era diventato terreo ma questo non significava niente peppone infatti si rimboccò le maniche si piantò saldo sulle gambe mirò al pupazzo portò lentamente il braccio indietro e sparò il colpo con un colpo simile avrebbe abbattuto non una sagoma di legno ma addirittura un bue tanta era la rabbia con la quale peppone aveva lanciata la pesante palla di stracci e per la violenza la palla colpito il pupazzo rimbalzò indietro ma il pupazzo non cadde sei inceppata la cerniera spiegò il giovanotto del tiro a segno dopo aver guardato dietro al pupazzo le solite mene del vaticano sghigliazzò peppone rimettendosi la giacca e andandosene mentre la gente come sollevata da un incubo riprendeva a ridere se ne andò anche don camillo e a sera tarda peppone gli capitò davanti in canonica guardate spiegò cupo che ci ho ripensato sopra e appena siete andato via ho fatto togliere la vostra sagoma perché non si interpretasse la cosa come un'offesa alla religione io ce l'ho con voi come uomo politico il resto non mi interessa bene rispose don camillo peppone si avviò verso la porta per quella pallata che vi ho tirato adesso mi dispiace in un certo senso ad ogni modo è andata bene così sì rispose don camillo è andata bene così perché se il mio pupazzo andava giù saresti andato giù anche tu avevo pronto un pugno ad ammazzare un elefante l'avevo capito borbottò peppone ad ogni modo c'era in ballo il prestigio del partito e ho dovuto tirare d'altra parte voi stamattina mi avete fatto fare una figura barbina davanti alla gente don camillo sospirò anche questo è vero beh siamo pari concluse peppone non ancora peppone borbottò don camillo forgendo a peppone qualcosa ridami il biglietto da 5.000 di stamattina e prenditi questo quello di stamattina era falso peppone si mise i pugni sui fianchi lo siete o non lo siete un farabutto altro che pallate al vostro fantoccio bombe al tritolo in testa voi bisognerebbe tirare e adesso come si fa che ho già versati tutti i soldi all'incaricato della federazione che è venuto oggi insieme all'oratore da un camillo ripose il suo danaro nel portafogli quanto mi dispiace sospirò non avrò pace finché campo pensando di aver danneggiato il tuo partito peppone se ne andò per non compromettersi la maestra vecchia il monumento nazionale del paese era la maestra vecchia una donnetta piccola e magra che tutti avevano sempre visto perché aveva insegnato la bc ai padri ai figli e ai figli dei figli e adesso viveva sola in una casetta un po fuori dell'abitato e ce la faceva tirare avanti con la pensione soltanto perché quando mandava nelle botteghe a comprare mezzetto di burro o di carne o altra roba da mangiare le facevano pagare il mezzetto ma gliene davano sempre due o tre etti per le uova era un pasticcio perché anche se una maestra due o tremila anni e si ha perso la nozione del peso quando domanda un paio d'uova e le danno invece sei uova se ne accorge sempre e allora il dottore rimediò al guaio perché un giorno che la incontrò le disse che la trovava molto giù e le fece delle domande e poi le ordinò di eliminare le uova la maestra vecchia faceva soggezione a tutti e anche don camillo cercava di girarle alla larga perché dal giorno in cui disgraziatamente il suo cane era saltato nell'orto della signora cristina e le aveva fracassato un vaso di gerani tutte le volte che la vecchia incontrava don camillo lo minacciava col bastone e gli gridava che c'è un dio anche per i preti bolscevichi non poteva mandar giù peppone che quando era ragazzetto vediva a scuola con le tasche piene di rane di uccelletti e altre porcherie e che una mattina era arrivato a cavalcioni di una vacca assieme a quell'altro zuccone del brusco che gli faceva da palafreniere usciva di casa pochissime volte e non parlava mai con nessuno perché aveva sempre odiato i pettegolezzi ma quando le dissero che peppone era diventato sindaco e faceva i proclami allora uscì e quando fu arrivata in piazza si fermò davanti a un manifesto appiccicato al muro inforcò gli occhiali e lo lesse tutto da cima a fondo con fiero cipiglio poi aperse la borsetta tirò fuori il lapis rosso e blu segnò gli errori e scrisse in fondo al manifesto quattro asino e dietro c'erano i più potenti rossi del paese che stavano a guardare cupi in volto a braccia concerte e con le mascelle serrate ma nessuno ebbe il coraggio di dire niente la legnaia della signora cristina era nell'orto dietro la casa ed era sempre ben fornita perché di notte spesso qualcuno scavalcava la siepe e andava a buttare un paio di ciocchio o un fascinotto nel mucchio ma l'inverno fu freddo e la maestra aveva troppi anni sulle piccole spalle curve per poterne uscire senza le costole rotte e così non la si vide più in giro e lei non si accorgeva neanche quando mandava a comprare due uova che gliene mandavano otto e una sera mentre peppone era in seduta a consigliare venne qualcuno a dirgli che la signora cristina lo aveva fatto chiamare e che si rigasse perché lei non aveva tempo di aspettare i suoi comodi per morire don camillo era stato chiamato prima ed era corso subito perché sapeva che oramai era questione di ore aveva trovato un grande letto bianco con dentro una vecchina così piccola e così magra che pareva un bambino ma non era affatto svanita la maestra vecchia e appena intravide la grossa massa nera di don camillo fece un risolino vi piacerebbe che adesso io vi confessassi che ho fatto un sacco di porcherie e invece niente caro il mio signor parroco beh vi ho chiamato perché voglio morire con l'anima pulita senza rancori perciò vi perdono di avermi rotto il vaso di gerani vi perdono di avermi chiamato prete bolcevico sussurrò don camillo grazie ma non c'era neanche bisogno ribatté la vecchina perché nelle cose conta lo spirito col quale sono fatte e io vi davo del prete bolcevico così come davo dell'asino al sindaco peppone senza intenzione di offendere don camillo con dolcezza cominciò un lungo discorso per far capire la signora cristina che quello era il momento di abbandonare ogni umana prosopopea anche la più piccola perché per avere la speranza di andare in paradiso la speranza lo interruppe la signora cristina ma io ho la sicurezza di andarci è questo un peccato di presunzione disse dolcemente don camillo nessun mortale può avere la sicurezza di aver vissuto sempre secondo le leggi di dio la signora cristina sorrise nessun mortale eccetto la signora cristina rispose perché alla signora cristina questa notte gesù cristo è venuto a dire che lei andrà in paradiso quindi la signora cristina è sicura a meno che non ne sappiate più voi di gesù cristo davanti a una fede così formidabile così precisa così inequivocabile don camillo rimase senza fiato e si mise in un angolo a dire le sue preghiere poi arrivò peppone ti perdono per via delle rane e delle altre porcherie disse la vecchia maestra io ti conosco e so che in fondo non sei cattivo pregherò dio che ti perdoni i tuoi delitti grossi peppone allargò le braccia signora balbettò io non ho mai commesso dei delitti non dire bugie ribattesse vera la signora cristina tu e gli altri bolshevichi come te avete mandato via il re relegandolo in un'isoletta lontana per farlo morire di fame assieme ai suoi bambini la maestra si mise a piangere e peppone a veder piangere una vecchina così piccola sentì la voglia di mettersi a urlare non è vero esclamò è vero rispose la maestra me l'ha detto il signor biletti che sente la radio e leggi giornali domani gli spacco la faccia a quel reazionario sporco mugolò peppone don camillo diteglielo voi che non è vero don camillo si appressò vi hanno informata male spiegò dolcemente sono tutte bugie né isole deserte né morti di fame tutte bugie ve lo assicuro meno male sospirò rasserenata la vecchina e poi esclamò peppone mica soltanto noi l'abbiamo mandato via c'è stata la votazione ed è risultato che erano più quelli che non lo volevano che quelli che lo volevano e allora è andato via e nessuno gli ha detto fatto niente così funziona la democrazia ma che democrazia rispose severa la signora cristina i re non si mandano via scusi rispose confuso peppone e cosa volete che rispondesse poi la signora cristina si riposò un poco e parlò tu sei il sindaco disse e questo è il mio testamento la casa non è mia e i miei pochi stracci dagli a chi ne ha bisogno i miei libri tienli tu che ne hai bisogno devi fare molti esercizi di comporre e studiare i verbi sì signora rispose peppone voglio un funerale senza musica perché non è una cosa seria e voglio un funerale senza carro come nei tempi civili con la cassa portata a spalle e sulla cassa voglio la bandiera sì signora rispose peppone la mia bandiera disse la signora cristina quella che è lì a fianco dell'armadio la mia bandiera con lo stemma e fu tutto perché poi la signora cristina sussurrò dio ti benedica anche se sei bolscevico ragazzo mio e poi chiuse gli occhi e non li aperse più peppone la mattina dopo fece chiamare in comune tutti i rappresentanti dei partiti e quando li ebbe davanti disse che la signora cristina era morta e il comune per esprimere la riconoscenza del popolo le avrebbe tributato solenni funerali questo ve lo dico come sindaco e come sindaco interprete della volontà di tutta la cittadinanza vi ho chiamato qui perché domani non mi si rimproveri che faccio di mia testa il fatto è che la signora cristina ha espresso come sua ultima volontà di essere portata a spalle nella bara e sopra ci vuole la bandiera con lo stemma qui ognuno dica come la pensa i rappresentanti dei partiti reazionari fanno il piacere di stare zitti perché tanto sappiamo benissimo che loro sarebbero felicissimi anche se ci fosse la banda che suona la cosiddetta marcia reale parlò per primo quello del partito d'azione e parlava bene perché era un laureato per riguardo a un solo defunto noi non possiamo ricaro offesa ai centomila morti col sacrificio dei quali il popolo ha conquistato la repubblica e via discorrendo tutto difilato con molto calore concludendo che la signora cristina aveva lavorato con la monarchia ma per la patria e quindi niente di più giusto che sulla bara fosse distesa la bandiera che oggi rappresenta la patria bene approvò begollini il socialista che era più marxista di marx è finita l'era dei sentimentalismi e delle nostalgie se voleva la bandiera con lo stemma doveva morire prima beh questa è una stupidaggine esclamò il farmacista capo dei repubblicani storici si deve dire piuttosto che oggi la pubblica ostentazione di quell'emblema in un funerale potrebbe suscitare risentimenti che snaturerebbero la cerimonia trasformandola in una manifestazione politica e diminuendone se non distruggendone il nobile significato poi fu la volta del rappresentante dei democristiani la volontà dei morti è sacra disse con voce solenne e la volontà della defunta signora è particolarmente sacra per noi perché tutti l'amiamo e la veneriamo e guardiamo la sua attività prodigiosa come a un apostolato ed appunto per questa venerazione per questo rispetto alla sua memoria siamo dell'avviso di cercare di evitare ogni minimo atto irrispettoso che pur rivolto ad altro oggetto suonerebbe come offesa alla sacra memoria dell'estinta perciò anche noi ci associamo agli altri nello sconsigliare l'uso della vecchia bandiera peppone approvò gravemente con un cenno del capo poi si rivolse a don camillo il quale era stato convocato anche lui e don camillo era pallido cosa ne pensa il signor parroco il signor parroco prima di parlare aspetta di sentire quale sia il parere del signor sindaco peppone si raschiò un poco in gola e prese la parola in qualità di sindaco disse vi ringrazio per la vostra collaborazione e come sindaco approvo il vostro parere di evitare la bandiera richiesta dalla defunta però siccome in questo paese non comanda il sindaco ma comandano i comunisti come capo dei comunisti vi dico che me ne infischio del vostro parere e domani la signora cristina andrà al cimitero con la bandiera che vuole lei perché io rispetto più lei morta che voi tutti vivi e se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo faccio volare giù dalla finestra il signor prete ha qualcosa da dire cedo alla violenza rispose allargando le braccia don camillo che era rientrato nella grazia di dio e così il giorno dopo la signora cristina andò al cimitero nella bara portata a spalla da peppone dal brusco dal bigio e dal fulmine e tutte quattro avevano al collo i loro fazzoletti rossi come il fuoco ma sulla bara c'era la bandiera della signora maestra cose che succedono là in quel paese strampalato dove il sole picchia martellate in testa alla gente e la gente ragiona più con la stanga che col cervello ma dove almeno si rispettano i morti 5 più 5 le cose si erano guastate forte per via della politica e pur senza che fosse successo niente di speciale peppone quando incontrava don camillo faceva una smorfia di disgusto e voltava la faccia da un'altra parte poi durante un discorso in piazza peppone aveva fatto delle allusioni offensive a don camillo e lo aveva chiamato il corvaccio del cancelliere in seguito avendo don camillo risposto per le rime sul giornaletto della parrocchia una notte gli scaricarono davanti alla porta della canonica un biroccio di letame sì che alla mattina dovette uscire con una scala dalla finestra e sul mucchio c'era un cartello don camillo concimati la zucca di qui cominciò una polemica verbale giornalistica e murale così accesa e violenta che c'era in giro sempre più un maledetto odore di legnate e dopo l'ultima replica di don camillo attraverso il giornaletto la gente disse se quelli di peppone non rispondono ci siamo e quelli di peppone non risposero anzi si chiusero in un silenzio preoccupante e pareva l'attimo che precede il temporale una sera don camillo stava in chiesa assorto nelle sue preghiere quando udì cigolare la porticina del campanile e non fece neppure a tempo a levarsi in piedi che peppone gli stava dinanzi peppone aveva il viso tetro e teneva una mano dietro la schiena pareva ubriaco e i capelli gli ciondolavano sulla fronte don camillo con la coda dell'occhio mirò un candelabro che gli stava a fianco e calcolata bene la distanza si alzò in piedi con un balzo all'indietro e si trovò con la mano stretta attorno al pesante arnese di bronzo peppone strinse le mascelle e guardò negli occhi don camillo e don camillo aveva tutti i nervi tesi ed era sicuro che appena peppone avesse mostrato quello che celava dietro le spalle il candelabro sarebbe partito come una setta lentamente peppone trasse la mano da dietro la schiena e porsi a don camillo un grosso pacco stretto e lungo don camillo pieno di sospetto non accennò ad allungare la mano e allora peppone deposto il pacco sulla balaustra dell'altare strappò la carta blu e apparvero cinque lunghe torce di cera grosse come un palo di vigna sta morendo spiegò con voce cupa peppone allora don camillo si ricordò che qualcuno gli aveva detto che il bambino di peppone da 4 o 5 giorni stava male ma don camillo non ci aveva fatto molto caso credendo si trattasse di cosa da poco e ora capiva il silenzio di peppone e la mancata replica sta morendo disse peppone accendetele subito don camillo andò in sagristia a prendere dei candelabri e infilate le cinque grosse torce di cera si accinse a disporle davanti al cristo no disse con rancore peppone quello lì è uno della vostra congrega accendetele davanti a quella là che non fa della politica non camillo a sentire chiamare quella là la madonna strinse i denti e sentì una voglia matta di rompere la testa peppone ma tacque e andò a disporre le candele accese davanti alla statua della vergine nella cappelletta a sinistra si volse verso peppone diteglielo ordinò con voce dura peppone allora don camillo si inginocchiò e sottovoce disse alla madonna che quelle cinque grosse candele gliele offriva peppone perché aiutasse il suo bambino che stava male quando si rialzò peppone era scomparso passando davanti all'altar maggiore don camillo si segnò rapidamente e tentò di sgattaiolare via ma la voce del cristo lo fermò don camillo cos'hai don camillo allargò le braccia umiliatissimo mi dispiace disse che abbia bestemmiato così quel disgraziato né io ho trovato la forza di dirgli niente come si fa a fare delle discussioni con un uomo che ha perso la testa perché gli muore il figlio hai fatto benissimo rispose il cristo la politica è una maledetta faccenda spiegò don camillo voi non dovete avervene a male non dovete essere severo con lui e perché dovrei giudicarlo male sussurrò il cristo egli onorando la madre mia mi riempie il cuore di dolcezza mi spiace un po che l'abbia chiamata quella là don camillo scosse il capo avete inteso male protestò egli ha detto accendetele tutte davanti alla beata vergine santissima che sta in quella cappella là figuratevi se avesse avuto il coraggio di dire una cosa simile figli o non figli lo avrei cacciato fuori a pedate ho proprio piacere che sia così rispose sorridendo il cristo proprio piacere però parlando di me ha detto quello lì non lo si può negare ammise don camillo ad ogni modo io sono convinto che egli lo ha detto per fare un affronto a me non a voi lo giurerei tanto ne sono convinto don camillo uscì e dopo tre quarti d'ora rientrò pieno di orgasmo ve l'avevo detto gridò sciorinando un pacco sulla balaustra mi ha portato cinque candele da accendere anche a voi cosa ne dite è molto bello tutto questo rispose sorridendo il cristo sono più piccolette delle altre spiegò don camillo ma in queste cose quello che conta è l'intenzione e poi dovete tenere presente che peppone non è ricco e con tutte le spese di medicina e dottori si è inguaiato fino agli occhi tutto ciò è molto bello ripete il cristo presto le cinque candele furono accese e pareva che fossero cinquanta tanto splendevano si direbbe persino che mandino più luce delle altre osservò don camillo e veramente mandavano molta più luce delle altre perché erano cinque candele che don camillo era corso a comprare in paese facendo venire giù dal letto il droghiere e dando soltanto un acconto perché don camillo era povero in canna e tutto questo il cristo lo sapeva benissimo e non disse niente ma una lacrima scivolò giù dai suoi occhi e rigò di un filo d'argento il legno nero della croce e questo voleva dire che il bambino di peppone era salvo e così fu il cane ci fu la faccenda del cane che sconvolse la testa un po' a tutti una notte si udì venire di lontano dall'argine del fiume un lamento lungo e cupo e la gente rabbrividì e disse è lui risalendo il fiume controcorrente dopo il borgo di don camillo c'erano distese lungo l'argine tre paesi piccoli la rocca casa bruciata e le stoppie e quando mesi e mesi prima si sentì dire che alle stoppie tutte le notti un cane faceva il verso del lupo e nessuno era mai riuscito a vederlo si pensò che erano storie da ubriachi poi la faccenda navigò verso la valle e si disse che il cane adesso urlava di notte sull'argine di casa bruciata e la cosa cominciò a dar fastidio poi si seppe che il cane spaventava quelli della rocca e oramai tutti ci credevano così quando si udì venire dall'argine l'ululato del cane la gente balzò sedere sul letto e venne il sudor freddo a parecchi la notte seguente fu la stessa cosa e molti si segnarono perché quello più che il verso di una bestia era un lamento umano la gente si metteva a letto col batticuore e non riusciva a prendere sonno perché aspettava l'urlo e siccome la faccenda continuava fu deciso di fare una battuta e una mattina una ventina di uomini presero gli schioppi e rastrellarono l'argine e le vicinanze e spararono su tutti i cespugli che si muovevano ma non trovarono un accidente e la notte ricominciò la solfa inutile fu la seconda battuta la terza non la fecero perché con tutto quel mistero la gente aveva paura anche di giorno corsero le donne da don camillo a pregarlo di andare a benedire l'argine ma don camillo rispose di no quando si tratta di cani si va dalla calappia cani non dal prete la paura fa novanta anche in vaticano disse un bel pezzo di ragazza che chiamavano carola ed era fidanzata dello sbilzo don camillo allora cavò un palo dell'orto e si avviò seguito a distanza dalle donne che a un certo punto si fermarono ad aspettare mentre egli proseguiva per l'argine cercò a destra e a sinistra pestò legnate su tutti i cespugli e alla fine ricomparve non c'è niente già che ci eravate potevate pestarci sopra anche una benedizione esclamò la carola vi sarebbe costata poco se non guardi come parli la pesto a te e a tutta l'udì la benedizione l'ammonì don camillo se vi da fastidio il cane mettetevi la bambagia dentro le orecchie così dormirete come dormo io il guaio è che per dormire la notte bisogna avere la coscienza tranquilla e molte di voi non l'hanno fatevi vedere più spesso in chiesa piuttosto la carola attaccò bandiera rossa che ebbe un finale molto rapido perché don camillo le spedì dietro il palo poi la notte si udì l'ululato del cane e anche don camillo che pure aveva la coscienza a posto non riuscì a dormire il giorno dopo incontrò peppone mi hanno detto che ieri siete andato a vedere per via del cane spiegò peppone ci sono andato anch'io adesso e non ho visto niente se il cane urla di notte dall'argine vuol dire che il cane di notte c'è borbottò don camillo e allora e allora chi davvero lo vuol trovare deve andare sull'argine di notte quando il cane c'è non di giorno quando il cane non c'è peppone si strinse nelle spalle e chi ci va di notte chiese peppone qui tutti hanno paura come se si trattasse del diavolo anche tu si informò don camillo peppone titubò un poco e voi domandò camminarono l'uno a fianco dell'altro in silenzio poi don camillo si fermò se trovassi uno disposto a venire con me io andrei disse don camillo anch'io ribatte peppone anch'io vado se trovo uno che viene con me difficile trovarlo già ammise don camillo rifiutando spudoratamente di accorgersi che se tutte e due cercavano uno che li accompagnasse la faccenda era già a posto automaticamente ci fu qualche momento di imbarazzo poi peppone allargò le braccia rassegnato allora ci vedremo stasera dopo le nove si trovarono dopo le nove e camminarono cautamente sotto i filari e se ci fosse stato un amplificatore il battito dei loro cuori avrebbe dato l'idea di una mitragliatrice che marciava piena birra giunti a un cespuglio sotto l'argine si appostarono e attesero in silenzio con la doppietta in pugno passarono le ore si fece un silenzio da cimitero e la luna mise fuori il muso dalle nubi e illuminò quella tristezza ed ecco l'ululato lungo e agghiacciante che fermò il cuore di don camillo e di peppone veniva dal fiume e i due cautamente uscirono dalla macchia e si affacciarono all'argine come a una trincea il lamento si ripetè e non c'era dubbio proveniva da un canneto che si protendeva nell'acqua per una ventina di metri don camillo e peppone inchiodarono gli occhi sul canneto che era contro luce perché la luna batteva sull'acqua e ad un tratto videro distintamente un'ombra nera che si muoveva e presero la mira appena si alzò l'ululato partirono due colpi e l'ululato si trasformò in un guaito di dolore allora la paura scomparve e tutte e due saltarono fuori don camillo si tirò sulle sottane ed entrò nell'acqua seguito da peppone arrivati in mezzo al canneto trovarono un cane nero ferito e peppone lo illuminò con la torcia elettrica non era una bestia cattiva e gli lambì la mano e allora peppone passò immediatamente la voglia di spedirgli un colpo nel cervello avete preso una gamba disse peppone a don camillo l'abbiamo preso casomai specificò don camillo peppone agguantò il cane per il collare e lo tirò su sotto il cane c'era un sacco che galleggiava impigliato fra le canne il sacco lo tirò su don camillo ed era un grosso sacco militare di tela impermeabile che l'acqua aveva resa dura come il ferro peppone si chinò e con la roncoletta segò il fil di ferro che chiudeva la bocca del sacco ma subito si rizzò in piedi e guardò pallido don camillo una storia come un'altra rispose don camillo qualcuno chissà quando ha fatto fuori un uomo lo ha messo in un sacco e ha buttato il sacco nel fiume l'uomo aveva un cane e il cane si è buttato nell'acqua e ha seguito il sacco che la corrente portava a valle il sacco si è impigliato un bel momento in un canneto davanti alle stoppie poi davanti a casa bruciata di giorno il cane si nascondeva o andava a cercare cibo e di notte ritornava presso il suo padrone chissà da quanto tempo urla ogni notte e lo udivano soltanto quando il sacco si fermava vicino a qualche paese peppone scosse il capo ma perché urlava domandò e perché urlava soltanto di notte forse perché la coscienza per farsi sentire può prendere a prestito anche la voce di un cane e perché la voce della coscienza la si sente meglio di notte il cane aveva alzato la testa coscienza disse ad alta voce don camillo il cane rispose con un guaito non si poté mai sapere chi fosse l'infelice del sacco perché il tempo e l'acqua avevano distrutto ogni segno dopo aver tanto navigato trovò il suo approdo in terra benedetta e il cane morì e lo seppellirono don camillo e peppone dopo aver fatta una buca profonda come l'inferno perché riposasse in pace ma nei paesi e nei casolari sparsi lungo il fiume c'è gente ancora oggi che si sveglia nel cuore della notte e balza a sedere sul letto con la fronte di accia perché sento ululare il cane e lo sentirà ululare per tutta la vita autunno nel pomeriggio del giorno 3 comparve in canonica barchini il cartolaio tipografo nessuno ancora disse barchini si vede proprio che hanno intenzione di non fare niente c'è ancora tempo obiettò don camillo non sono neanche le quattro barchini scosse il capo corto che sia il testo mi ci vogliono sempre tre ore per comporlo poi c'è la correzione e poi la stampa a stampare col torchio un foglio alla volta è un macello potete essere sicuro don camillo caso mai mando ad avvertirvi per prudenza don camillo aspettò ancora un'ora poi non avendo più avuto nuove del barchini si infilò la palandrana e andò in municipio il sindaco naturalmente non c'era e allora appunto deciso sull'officina di peppone e qui trovò il sindaco intento a rifare la vite a un bullone buonasera signor sindaco qui non c'è nessun sindaco rispose l'altro con malgarbo senza neppure alzare gli occhi dal suo lavoro il sindaco sta in municipio qui c'è soltanto il cittadino giuseppe bottazzi che mentre gli altri vanno a spasso si rompe il filo della schiena per guadagnarsi il pane don camillo non si scompose giusto ribatte si potrebbe allora chiedere un favore al cittadino giuseppe bottazzi o è arrivato l'ordine del cominterna che il compagno peppone deve comportarsi da villanzone anche fuori servizio peppone interruppe il suo lavoro sentiamo borbottò sospettoso ecco spiegò con bel garbo don camillo bisognerebbe che il cittadino giuseppe bottazzi fosse tanto gentile da dire al compagno peppone che quando incontra il signor sindaco lo preghi di mandare al parroco don camillo una copia del manifesto che il comune ha fatto stampare in occasione del 4 novembre perché don camillo vorrebbe affiggerlo all'albo del suo ricreatorio peppone riprese a lavorare dite al signor parroco che all'albo del suo dopo lavoro ci appiccichi la fotografia del papa c'è già spiegò don camillo adesso mi occorrerebbe una copia del manifesto per il 4 novembre così domani potrò leggerlo ai ragazzi e spiegare il significato della data peppone sghignazzò guarda un po il reverendo che sa il latino e ha studiato dei libri di storia di mezzo quintale l'uno ha proprio bisogno che il meccanico peppone il quale ha fatto la terza elementare gli dia idee per spiegare il 4 novembre mi dispiace ma stavolta vi è andata male se credevate di potervi divertire assieme a tutta la vostra pretaglia in borghese spiegando l'analisi logica dei miei errori di grammatica vi sbagliate sbagli tu protestò calmo don camillo io non ho nessuna intenzione di divertirmi cercando errori di grammatica nello scritto del meccanico peppone io voglio semplicemente chiarire ai miei ragazzi quello che pensa la più alta autorità del paese sul 4 novembre io parroco parlando del 4 novembre voglio essere d'accordo con te sindaco perché esistono alcune cose nelle quali tutti dobbiamo essere d'accordo quindi non è questione di politica peppone conosceva perfettamente don camillo e gli si piantò davanti coi pugni sui fianchi don camillo diamo leontaglio alla poesia e veniamo al sodo lasciate stare la storiella del manifesto da appiccicare all'albo e ditemi cosa volete da me non voglio niente desidero sapere se il manifesto per il 4 novembre l'hai fatto o non l'hai fatto se non l'hai fatto sono qui io per aiutarti a buttarlo giù grazie del pensiero gentile ma il manifesto non l'ho fatto e non lo farò ordine dell'agit prop ordine di nessuno gridò peppone ordine della mia coscienza e basta il popolo ne ha piena l'anima di guerre e di vittorie il popolo sa benissimo cosa sono le guerre senza bisogno di esaltarle con discorsi e proclami don camillo scosse il capo sei su una strada sbagliata peppone qui non si tratta di esaltare una guerra si tratta di rendere un omaggio di riconoscenza a coloro che in quella guerra hanno sofferto e ci hanno rimesso la pelle balle con la scusa di ricordare i morti e le sofferenze si fa della sporca propaganda militarista guerraiola e monarchica l'eroismo il sacrificio quello che muore buttando la stampella dietro al nemico in fuga le campane di san giusto trento e trieste il grappa la sagra di santa gorizia il piave che mormorava il bollettino della vittoria gli immancabili destini tutta roba che puzza di monarchia e di regio esercito e che serve soltanto per montare la testa i giovani e far propaganda al nazionalismo e all'odio contro il proletariato perché salta fuori l'istria la dalmazia le foibe tito stalin il cominter l'america il vaticano cristo i nemici della religione eccetera fino ad arrivare al punto che il proletariato è il nemico della patria e quindi bisogna rifare l'impero peppone via via che parlava si era accalorato e gesticolava come se tenesse un comizio e quando ebbe finito don camillo disse con calma bravo peppone sembri un articolo completo dell'unità ad ogni modo rispondi alla mia domanda non fai niente per la vittoria per la vittoria ho già fatto un sacco di naia e questo basta mi hanno portato via mia madre che ero ancora un ragazzo mi hanno ficcato in una trincea mi hanno riempito di pidocchi di fame e di sporcizia poi mi hanno fatto marciare di notte sotto l'acqua con una tonnellata di roba sulla groppa mi hanno fatto andare all'assalto mentre venivano giù pallottole come grandine mi hanno detto che mi arrangiassi quando sono rimasto ferito ho fatto il facchino il becchino il cuciniere l'artigliere l'infermiere il mulo il cane il lupo e la iena poi mi hanno dato un fazzoletto con sull'italia un vestito di cotonaccio un foglio con scritto che avevo fatto il mio dovere e io sono tornato a casa per andare a implorare lavoro da quelli che si erano fatti milioni alle spalle mie e di tutti gli altri disgraziati peppone si interruppe e levò solennemente l'indice questo è il mio proclama concluse e se volete finirlo con una frase storica metteteci in rosso che il compagno peppone si vergogna di aver combattuto per arricchire questa porca gente e oggi sarebbe soltanto orgoglioso di poter dire sono stato un disertore don camillo tentennò il capo scusa tanto chiese perché nel 43 sei andato in montagna e cosa c'entra gridò peppone questa è tutta un'altra cosa qui non mi ci ha mica comandato sua maestà di andarci ci sono andato di mia spontanea volontà e poi c'è guerra e guerra capisco borbottò don camillo per un italiano combattere contro avversari politici italiani è sempre una cosa più simpatica non dite fesserie don camillo urlò peppone io quando ero lassù non facevo della politica io difendevo la patria come esclamò don camillo mi pareva di aver sentito che parlavi di patria c'è per la messa in suffragio dei caduti in guerra la chiesa era zeppa non ci fu discorso don camillo disse semplicemente alla fine della messa i bambini del recreatorio si recheranno a deporre una corona al monumento e alla fine della messa tutti si incolonnarono dietro i bambini e il silenzioso corteo sfilò per il paese fino alla piazza la piazza era deserta ma ai piedi del monumentino ai caduti qualcuno aveva deposto due grosse corone di fiori una con nastro tricolore e sul nastro c'era scritto il comune l'altra tutta di garofani rossi e sul nastro c'era scritto il popolo le ha portate la squadraccia mentre voi stavate dicendo la messa spiegò il padrone del caffè della piazza c'erano tutti meno peppone fu deposta la corona dei ragazzi e senza discorsi l'assemblea si sciolse nel rincasare don camillo incontrò peppone quasi non lo riconosceva perché piovigginava e peppone era imbaccuccato nel pastrano ho visto le corone disse don camillo le corone quali chiese con indifferenza peppone quelle del monumento belle peppone si strinse nelle spalle deve essere stata un'idea dei ragazzi vi dispiace figurati davanti alla canonica peppone fece per andarsene ma don camillo lo trattenne vieni a bere un bicchiere non è avvelenato puoi star sicuro un'altra volta borbottò peppone voglio andare a casa sto poco bene non ho neanche potuto lavorare ho freddo brividi per tutta la vita brividi le solite influenze di stagione l'unica medicina è un bicchier di vino anzi ho delle magnifiche compresse di aspirina entra peppone entrò siediti intanto io vado a prendere la bottiglia disse don camillo quando tornò di lì a poco col vino e i bicchieri trovò peppone che si era seduto ma non si era tolto il pastrano ho un freddo cane spiegò peppone preferisco rimanere coperto fai il comodo tuo porse a peppone un bicchiere colmo e due pastiglie bianche manda giù peppone mandò giù l'aspirina e ci beve sopra il vino don camillo uscì un momento e rientrò con una bracciata di legna che cacciò nel camino una fiammata farà bene anche a me spiegò don camillo dando fuoco alla legna ho ripensato le tue parole di ieri disse don camillo quando la vampa si alzò dal tuo punto di vista hai ragione tu per me la faccenda della guerra è stata una cosa tutta diversa anch'io ero un pretino appena sfornato dal seminario quando mi ci trovai dentro pidocchi fame naia pallottole sofferenze preciso come per te io non andavo all'assalto si capisce andavo a raccogliere i feriti ma per me la cosa era diversa era il mio mestiere questo mestiere me l'ero scelto io per te la cosa era un'altra il tuo mestiere non era quello del soldato per fortuna perché quelli che fanno il soldato per mestiere sono davvero tutta gentaccia beh questo non è sempre vero borbottò peppone anche fra gli ufficiali effettivi c'è della brava gente e poi bisogna riconoscerlo saranno dei puzzoni che girano con la caramella però quando c'è da rischiare la pelle la rischiano senza tante storie ad ogni modo continuò don camillo mentre per me il rimaner sotto le pallottole a curar feriti e dare l'olio santo ai moribondi rappresentava il mio mestiere di prete per te era solo una fregatura il mestiere del prete è quello di accaparrare le anime da spedire in paradiso via vaticano quindi per un prete trovarsi in mezzo a un'epidemia di colera in mezzo a un terremoto a una guerra è una pacchia è la cuccagna per uno che si guadagna la vita salvando le anime ma uno come te cos'ha da salvare in guerra la pelle peppone fece per spostarsi perché le fiamme nel camino erano infernali e così con due aspirine in corpo e un pastrano addosso c'era da scoppiare di caldo no peppone disse don camillo se ti sposti è morto il gioco l'aspirina la si prende per sudare più sudi e più presto guarisci bevici sopra un altro bicchiere di vino piuttosto è fresco e ti toglierà la sete peppone bevette due bicchieri di vino e si asciugò il sudore proprio così continuò don camillo io capisco benissimo che uno il quale è costretto a rischiare la pelle così senza nessuno scopo non desideri che squagliarsela in queste condizioni uno che fa il disertore non è un pauroso è semplicemente una creatura umana che segue il suo istinto di conservazione bevi peppone peppone e bevette grondava e pareva dovesse scoppiare da un momento all'altro adesso puoi toglierti il pastrano lo consigliò don camillo così quando poi esci te lo rimetti e non senti il trapasso del caldo al freddo no non ho caldo io sono uno che ragiona continuò don camillo hai fatto benissimo a non mettere fuori nessun manifesto saresti venuto meno ai tuoi principi ieri io pensavo semplicemente ed egoisticamente al mio caso per me c'era l'interesse l'affare nella guerra figurati che una volta per la smania di salvare un'anima e di mettermi in bella luce davanti al padre eterno sentendomi chiamare da uno che era stato bloccato da una palla fra la nostra trincea e quella austriaca saltai fuori della trincea e andai a raccontargli le solite cose che si dicono i moribondi e mi morì tra le braccia io ci presi un paio di pallottole di striscio in testa roba da niente ma si fa per dire lo so questo fatto disse cupo peppone l'ho letto sul giornale militare che ci portavano in trincea invece di portarci da mangiare quei porci vi diedero anche la medaglia se non sbaglio da un camillo si volse e guardò un quadretto appeso alla parete l'ho messa lì disse troppe medaglie ci sono in giro voi avreste il diritto di portarla protestò peppone dopo aver cacciato giù un altro bicchiere chi non ruba le medaglie ha il diritto di portarle non parliamo di queste cose con te che giustamente hai tutto un altro concetto della guerra ma togliti il pastrano peppone peppone pareva il diluvio universale del sudore tanto aveva caldo ma era testardo come un mulo e non si cavò il pastrano in fondo concluse don camillo tu che disprezzi così tutto quanto appartiene alla retorica patriottarda tu che hai come massima che la tua patria e il mondo sei più nel giusto degli altri poiché per te un giorno come quello della vittoria rappresenta una data nefasta in quanto chi vince una guerra è più propenso a fare un'altra guerra di chi perde è vero che in russia danno la medaglia ai disertori e puniscono quelli che fanno atti di coraggio in guerra uffa gridò peppone lo sapevo che avreste trovato il modo di buttare la faccenda in politica lo sapevo poi si calmò improvvisamente muoio dal caldo sospirò e cavatelo questo pastrano peppone si tolse finalmente il pastrano e allora si vide che peppone aveva appuntata al vavero della giacca la medaglia d'argento che si era guadagnata nella guerra 15 18 beh disse don camillo cavando dal quadretto la sua medaglia d'argento e appuntandosela sulla tonaca è un'idea è ora avvertì la vecchia serva affacciandosi possiamo andare a mangiare un boccone disse don camillo mangiarono bevero un numero considerevole di bottiglie e alla fine brindarono a non so quali vecchie carcasse di generali dell'altra guerra poi verso sera peppone si rimise il cappotto e si avviò verso la porta spero che non sfrutterete ignobilmente questo episodio di debolezza no rispose don camillo però al giorno in cui dovrò impiccarti nessuno potrà impedirmi di impiccarti con rispetto ve ne accorgerete quando verrà la seconda ondata borbottò peppone cupo scomparendo nella sera ombre di morti volteggiavano nella luce incerta di un cielo bigio da sagra di santa gorizia e pareva un quadro allegorico di plinio nomellini paura peppone fini di leggere il giornale arrivato con la posta del pomeriggio poi disse allo smilzo il quale aspettava ordine seduto su un fusto in un angolo dell'officina piglia la macchina e porta qui la squadra entro un'ora roba grave si informò lo smilzo fila gridò peppone lo smilzo mise in moto il doge e partì dopo tre quarti d'ora era di ritorno coi venticinque uomini della squadra salì anche peppone e arrivarono ben presto alla casa del popolo tu stai qui di guardia la macchina ordinò peppone allo smilzo se vedi qualcosa di poco chiaro chiama quando furono nella sala delle adunanze peppone tenne rapporto qui disse picchiando la manaccia sul foglio che recava enormi titoli la faccenda è arrivata al punto massimo ci siamo la reazione è scatenata si spara contro i compagni si gettano bombe contro tutte le sedi del partito l'essere ad alta voce alcuni pezzi del giornale che era poi milano sera un foglio milanese del pomeriggio e badate che chi dice queste cose non è un giornale del nostro partito è un giornale indipendente e non ci sono storie perché ci sta scritto bello chiaro sotto la testata figuriamoci brontorò il brusco se sono costretti a dire così anche i giornali indipendenti i quali tirano sempre maledettamente verso destra e ci fanno l'opposizione tutte le volte che possono figuriamoci come in realtà debbono essere ancora più gravi le cose non vedo l'ora di leggere domattina l'unità il bigio si strinse nelle spalle troverai forse di meno disse all'unità ci sono dei compagni in gamba ma tutti letterati gente di cultura i quali fanno della gran filosofia ma tendono sempre a minimizzare queste faccende per non eccitare il popolo gente istruita che si preoccupa di star sempre nella regola e di non uscire dalla legalità aggiunse il pelle rossa poeti più che altro concluse peppone però è gente che quando piglia in mano la penna da via delle legnate che ti appiccicano al muro anche il padre eterno ripresero a parlare della situazione furono riletti pezzi principali del giornale milanese e commentati qui la rivoluzione fascista è in atto disse peppone qui da un momento all'altro risaltano fuori le squadre d'azione che bruciano le cooperative e le case del popolo e cominciano a stangare gente e a purgarla il giornale parla di sedi fasciste e di squadristi non c'è da equivocare se si trattasse di semplice qualunquismo capitalismo monarchia o altra roba parlerebbe di reazionare di nostalgici eccetera qui si parla chiaro e tondo di fascismo e di squadre d'azione e badiamo che è un giornale indipendente qui noi dobbiamo essere pronti a fronteggiare ogni evenienza il lungo disse che secondo lui prima che si muovessero gli altri avrebbero dovuto muoversi loro conoscevano uno per uno tutti i reazionari e gli ex del comune si vanno a trovare uno per uno a casa si legnano e non se ne parla più bah obiettò il brusco mi pare che così passiamo immediatamente dalla parte del torto qui anche il giornale dice che bisogna rispondere alle provocazioni non provocare le provocazioni perché se provochiamo sono loro che hanno diritto di rispondere alle provocazioni peppone approvò se si deve legnare uno lo si deve legnare con giustizia e democrazia era caduta la sera in riva al fiume d'autunno comincia a venir sera alle 10 di mattina e l'aria ha il colore dell'acqua discussero con calma un'altra mezz'ora quando a un tratto si udì uno scoppio che fece tremare i vetri uscirono e trovarono lo smilzo abbandonato per terra dietro al camion come morto con la faccia piena di sangue affidarono il corpo esanime dello smilzo alla moglie del custode e saltarono sul camion via urlò peppone mentre il lungo prendeva il volante partirono a e fatti due o tre chilometri lungo si volse verso peppone dove andiamo già borbottò peppone dove andiamo frenarono e raccolsero le idee fecero marcia indietro ritornarono in paese e si formarono davanti alla sede dei democristiani trovarono un tavolo due sedie e un ritratto del papa e buttarono tutto giù dalla finestra poi risalirono sul camion e puntarono decisi verso l'ortaglia non può essere stato che quel vigliacco del pizzi a lanciare la bomba che ha ammazzato lo smilzo disse il pelle rossa c'è la morte con noi dalla volta che abbiamo litigato quando c'era lo sciopero di braccianti ci vedremo ha detto circondarono la casa che era isolata entrò peppone il pizzi era in cucina e stava rimestando la polenta la moglie preparava la tavola e il ragazzo inginocchiato davanti al focolare metteva legna sul fuoco il pizzi alzò gli occhi vide peppone capì che qualcosa non andava guardò il ragazzino che giocava i suoi piedi cosa vuoi chiese hanno buttato una bomba davanti alla sede ed hanno ammazzato lo smilzo gridò peppone io non c'entro rispose il pizzi la moglie si avanzò piglia il ragazzo e vattene disse il pizzi la donna agguantò il ragazzo e si ritrasse tu hai detto che ce l'avresti fatta pagare quando abbiamo questionato per lo sciopero dei braccianti tu sei un porco reazionario peppone si avanzò minaccioso ma il pizzi fece un passo indietro e agguantata una rivoltella che stava sul ripiano del camino la puntò contro peppone fermati peppone o ti fulmino in quel momento qualcuno che stava in agguato fuori spalancò la finestra sparò una revolverata e il pizzi cadde a terra cadendo lasciò partire dalla sua rivoltella un colpo che andò a perdersi nella cenere del fucolare la donna abbassò gli occhi sul corpo del marito e si mise una mano davanti alla bocca il ragazzo si buttò sul padre e cominciò a urlare montarono in fretta sul camion e si allontanarono in silenzio prima di arrivare in paese si fermarono scesero e si avviarono alla spicciolata davanti alla casa del popolo c'era gente e peppone incontrò don camillo che ne stava uscendo è morto chiese peppone ci vuol altro per far crepare un arnese di quel genere rispose sghignazzando don camillo bella figura che avete fatto bruciando il tavolo della sede dei democristiani ci sarà da ridere peppone lo guardò cupo c'è poco da ridere caro reverendo qui si tratta di bombe don camillo lo guardò con interesse peppone gli disse i casi sono due o sei un mascalzone o sei un cretino invece peppone non era né l'uno né l'altro semplicemente non sapeva ancora che non era scoppiata una bomba ma la gomma del doge quella ricostruita che stava dietro sotto il letto del camion e un pezzaccio di gomma aveva colpito alla testa il povero smilzo andò a guardare sotto il camion e vide la gomma sbudellata e allora pensò al pizzi disteso sul pavimento della cucina e alla donna che aveva messo una mano davanti alla bocca per non urlare e al ragazzo che urlava intanto la gente rideva poi dopo un'ora smise di ridere perché si sparse in paese la voce che il pizzi era stato ferito morì la mattina dopo e quando i carabinieri andarono a interrogare la moglie la donna li guardò con occhi sbarrati dal terrore avete visto nessuno ero nell'altra stanza ho sentito sparare un colpo e ho trovato mio marito per terra non ho visto niente altro il ragazzo dov'era stava già a letto adesso dov'è l'ho mandato da sua nonna non si riuscì a sapere niente altro la rivoltella risultò mancante di un colpo il proiettile che aveva ammazzato il pizzi era entrato da una tempia il calibro della palla era identico a quello della rivoltella che aveva in pugno il pizzi si concluse che era stato un suicidio don camillo lesse il verbale lesse le dichiarazioni dei familiari con la conferma che il pizzi da tempo era preoccupato per un grosso affare di semi andato malamente e che più volte aveva espresso la volontà di farla finita poi si recò conferire col cristo gesù disse addolorato è questo il primo morto del paese cui non posso fare l'ufficio funebre ed è giusto che sia così perché chi uccide se stesso uccide una creatura di dio e si e non avrebbe neppure diritto di riposare in un campo santo a voler esserse veri certamente don camillo ma se si tollera che egli sia sepolto in un campo santo egli però dovrà arrivarci solo come un cane perché chi rinuncia alla sua umanità si abbassa al rango degli animali ciò è doloroso ma deve essere così la mattina dopo era domenica don camillo pronunciò durante la messa un terribile discorso sul suicidio fu spietato tremendo implacabile non mi appresserei al cadavere di un suicida concluse neppure se sapessi che questo mio gesto gli ridarebbe la vita il funerale del pizzi si svolse nel pomeriggio stesso la bara fu caricata su un carro di terza classe disadorno che si mise in moto traballando e dietro su due barocci erano la moglie il figlio e due fratelli del pizzi quando il trasporto entrò in paese la gente chiuse le gelosie e si mise a sbirciare tra le fessure a un tratto accadde qualcosa da togliere il respiro sbucò improvvisamente don camillo con due chierichetti e la croce e postosi davanti al carro prese a camminare salmodiando giunto al sagrato don camillo fece un cenno ai due fratelli del pizzi che tolta la bara dal carro la recarono in chiesa qui don camillo celebrò l'ufficio dei defunti e benedisse la salma poi ritornò davanti al carro funebre e a piedi e salmodiando traversò tutto il paese non un'anima si fece vedere al campo santo calata la bara nella fossa don camillo gonfiò il petto e gridò con voce di tuono dio premi la tua vita onesta o galantuomo antonio pizzi poi gettò un pugno di terra nella fossa e benedetta la bara uscì lento e traversò il paese spopolato dalla paura gesù disse don camillo quando fu arrivato avete qualcosa da rimproverarmi sì don camillo quando si va ad accompagnare al cimitero un povero defunto non sta bene portare una pistola in tasca capisco gesù rispose don camillo avrei dovuto infilarla in una manica più a portata di mano no don camillo questi arnesi si lasciano a casa anche se si tratta di accompagnare la salma di uno che è stato suicidato gesù disse don camillo volete scommettere che una commissione composta dei miei più fedeli baciapile scriverà indignata al vescovo che io ho commesso un sacrilegio accompagnando al cimitero un suicida no rispose il cristo non scommetto perché la stanno già scrivendo con questo atto mi sono attirato l'odio di tutti di quelli che hanno ucciso il pizzi di quelli che pur sapendo come sanno tutti qui che il pizzi è stato ucciso avrebbero trovato comodo che nessuno mettesse in dubbio il suicidio degli stessi parenti del pizzi che avrebbero gradito far credere che neppure sospettavano che non si fosse suicidato uno dei fratelli mi ha chiesto ma non è proibito portare in chiese suicidi della moglie stessa del pizzi che ha paura non per sé ma per suo figlio e tace per difendere la vita del figlio la porticina dell'entrata laterale cigolò e don camillo si volse ed apparve il ragazzo del pizzi il ragazzo si fermò davanti a don camillo vi ringrazio a nome di mio padre disse con voce grave e dura da uomo fatto poi se ne andò silenzioso come un'ombra ecco disse il cristo ecco qualcuno che non ti odia don camillo ma il suo cuore è pieno di odio per chi gli ha ucciso il padre ed è una dannata catena che nessuno riesce a spezzare neanche voi che vi siete fatto mettere in croce per questi maledetti cani rabbiosi il mondo non è finito rispose sereno il cristo il mondo è appena cominciato e lassù il tempo lo si misura a miliardi di secoli non bisogna perdere la fede don camillo c'è tempo c'è tempo la paura continua dopo l'uscita del suo giornaletto don camillo si trovò solo mi pare di essere in mezzo al deserto confido al cristo e non cambia niente anche quando intorno cento persone perché essi sono lì a mezzo metro da me ma fra me e loro c'è un cristallo spesso mezzo metro sento le loro voci ma è come se venissero da un altro mondo è la paura rispose il cristo essi hanno paura di te di me di te don camillo e ti odiano vivevano caldi e tranquilli dentro il bozzolo della loro viltà sapevano la verità ma nessuno poteva obbligarli a sapere perché nessuno aveva detto pubblicamente questa verità tu hai agito e parlato in modo tale che essi ora debbono saperla la verità e perciò ti odiano e hanno paura di te tu vedi fratelli che quali pecore obbediscono agli ordini del tiranno e gridi svegliatevi dal vostro letargo guardate le genti libere confrontate la vostra vita con quella delle genti libere ed essi non ti saranno riconoscenti ma ti odieranno e se potranno ti uccideranno perché tu li costringe ad accorgersi di quello che essi già sapevano ma per amor di quieto vivere fingevano di non sapere essi hanno occhi ma non vogliono vedere essi hanno orecchie ma non vogliono sentire sono vili ma non vogliono che nessuno dica loro che sono vili tu hai resa pubblica un'ingiustizia e hai messo la gente in questo grave dilemma se taci tu accetti il sopruso se non lo accetti devi parlare era tanto più comodo poterlo ignorare il sopruso ti stupisce tutto questo don camillo allargò le braccia no disse mi stupirei se non sapessi che per aver voluto dire la verità agli uomini voi siete stato messo in croce me ne dolgo semplicemente arriva poi un messo del vescovo don camillo spiegò monsignore ha letto il vostro giornale e ha saputo le reazioni che esso ha suscitato in paese il primo numero gli è piaciuto ma ci terrebbe molto che il secondo numero non contenesse la vostra necrologia vedete voi questo è indipendente dalla volontà della direzione rispose don camillo e perciò dovrebbe rivolgere questa preghiera non a me ma a dio è appunto quello che sta facendo spiegò il messo e ci teneva lo sapeste il maresciallo dei carabinieri era uno che sapeva stare al mondo si incontrò per caso con don camillo ho letto il vostro giornale disse la faccenda delle tracce dei pneumatici sull'aia del pizzi è molto interessante non ve ne eravate accorto no rispose il maresciallo non me ne sono accorto perché appena le ho viste ci ho fatto buttare dentro un po di gesso qua e là e così per caso ho riscontrato confrontando i calchi con le ruote dei vari autocari del paese che le impronte sono state lasciate dal doge del sindaco inoltre sempre per caso ho notato che il pizzi si è sparato nella tempia sinistra mentre aveva la rivoltella nella mano destra e frugando nella cenere del focolare ho trovato la pallottola che era sfuggita dalla rivoltella del pizzi quando il pizzi è caduto colpito dalla palla arrivata gli attraverso la finestra don camillo lo guardò male perché non l'avete detto l'ho detto a chi dovevo dirlo reverendo e mi hanno risposto che se in un momento simile avessi fatto arrestare il sindaco la cosa avrebbe immediatamente acquistato un carattere politico quando queste cose vengono buttate in politica si insabbiano bisogna aspettare l'occasione e me l'avete data voi don camillo io non voglio scaricare le responsabilità sugli altri voglio semplicemente evitare il pericolo che la cosa debba insabbiarsi perché c'è chi ne fa una faccenda politica don camillo rispose che il maresciallo aveva fatto benissimo io non posso mettervi due carabinieri alle costole per guardarvi le spalle don camillo sarebbe una fesseria nera lo so ma se potessi ve ne metterei un battaglione intero borbottò il maresciallo non occorre maresciallo a guardarmi le spalle ci penserà il padre eterno speriamo che stia più attento che col pizzi concluse il maresciallo le indagini ripresero il giorno dopo e vennero ferocemente interrogati vari possidenti e affittuari e poiché tra essi c'era anche il verola che protestava indignato il maresciallo gli rispose calmo calmo signore mio dato che il pizzi era politico e nessuno gli rubò niente e dato che elementi nuovi fanno pensare non più a un suicidio ma un omicidio si deve escludere che si tratti di delitto politico o a scopo di furto quindi dobbiamo orientare le indagini verso coloro che avevano relazioni di interessi o di amicizia col pizzi e che potevano nutrire odio contro di lui la faccenda continua così per alcuni giorni e la gente interrogata era indignatissima il brusco era pieno di rabbia ma taceva peppone disse al fine quel maledetto sta giocandoci come ragazzini tu vedrai quando avrà interrogati tutti anche la levatrice fra quindici giorni verrà da te e ti chiederà sorridendo se non ti dispiace che interroghi uno dei nostri e tu non potrai dirgli di no e quello lo interrogerà e salterà fuori tutto mi fai ridere gridò peppone mancosì che mi cava le unghie non interrogerà né te né me negli altri che pensiamo noi interrogerà proprio quello che spiffererà tutto interrogerà proprio quello che ha sparato eppone sghignazzò non dire sciocchezze ma se non lo sappiamo neppure noi chi è che ha sparato era così nessuno aveva visto chi dei 25 uomini della squadra avesse sparato caduto il pizzi erano risaliti tutti in camion e si erano poi lasciati senza dire una parola e del fatto non si era parlato più peppone guardò negli occhi il brusco chi avrà sparato disse e chi lo sa forse anche tu io gridò peppone e come facevo se non ero neanche armato sei entrato da solo in casa del pizzi nessuno ha visto cosa hai fatto là dentro ma hanno sparato dalla finestra qualcuno saprà chi era appostato alla finestra di notte tutti i gatti sono bigi anche se uno ha visto non ha visto niente uno solo ha visto la faccia di quello che ha sparato ed è il ragazzo altrimenti i suoi non avrebbero detto che era a letto e se il ragazzo lo sa lo sa anche don camillo se non lo sapesse di sicuro non avrebbe fatto e detto quel che ha fatto e detto maledetto chi l'ha portato qui urlò peppone intanto il cerchio si stringeva e il maresciallo tutte le sere disciplinatamente andava a riferire al sindaco sullo svolgimento delle indagini non posso spiegarmi di più signor sindaco disse una sera ma ci siamo pare ci sia di mezzo una donna e pone rispose ma no però lo avrebbe strozzato volentieri era già sera tarda e don camillo stava dandosi da fare nella chiesa deserta aveva rizzata una scaletta sull'ultimo gradino dell'altare nel legno di un braccio della croce si era aperta una crepa lungo la venatura e don camillo stuccata la crepa stava ora attingendo con un po di vernice il gesto bianco della stuccatura ad un tratto sospirò e il cristo gli parlò sommesso cos'hai don camillo da qualche giorno mi sembri affaticato ti senti poco bene che sia un po di influenza no gesù confessò senza alzare la testa don camillo è paura tu hai paura e di che mai non lo so se sapessi di che cosa ho paura non avrei più paura rispose don camillo c'è qualcosa che non va qualcosa sospeso nell'aria qualcosa da cui non posso difendermi venti uomini che mi aggrediscono con lo schioppo in pugno non mi fanno paura mi seccano perché sono venti e io sono solo e senza schioppo se io mi trovo in mezzo al mare non so nuotare penso fra un minuto affogherò come un pulcino e allora mi dispiace molto ma non provo paura quando su un pericolo si può ragionare non si prova paura la paura è per i pericoli che si sentono ma non si conoscono è come se camminassi a occhi bendati su una strada sconosciuta brutta faccenda non hai più fede nel tuo dio don camillo da mi anima cetera tolle l'anima è di dio i corpi sono della terra la fede è grande ma questa è una paura fisica la mia fede può essere immensa ma se sto dieci giorni senza bere ho sete la fede consiste nel sopportare questa sete accettando la cuore sereno come una prova impostaci da dio gesù io sono pronto a sopportare mille paure come questa per amor vostro però ho paura il cristo sorrise mi disprezzate no don camillo se tu non avessi paura che valore avrebbe il tuo coraggio nei paesi in riva al fiume il silenzio sgomenta perché in esso si sente la minaccia don camillo passava con cura il pennellino sul legno della croce e vedeva la mano del cristo trapassata dal chiodo gli parve ad un tratto che quella mano si animasse in quell'istante un colpo fece rintronare la chiesa qualcuno aveva sparato dalla finestra della cappelletta di fianco abbaiò un cane poi abbaiò un altro cane si udì lontana una breve raffica di mitra poi ritornò il silenzio don camillo guardò sgomento il viso del cristo gesù disse io ho sentito la vostra mano sulla mia fronte tu vaneggi don camillo don camillo riabbassò gli occhi e li fissò sulla mano attraversata dal chiodo poi si sentì come un brivido e si lasciò sfuggire dalla dita il barattolo il pennellino il polso del cristo era stato trapassato dalla palla gesù disse ansimando voi mi avete respinta la testa e avete ricevuto nel braccio la palla che era diretta a me don camillo la palla non è rimasta nel legno della croce gridò don camillo ecco dove finita a destra in alto dalla parte opposta della finestrina c'era un quadretto con dentro un cuore d'argento la palla aveva rotto il vetro e si era piantata nel centro del cuore don camillo corse in sagristia a cercare una scala lunga e tese uno spago tra il buco che la palla aveva fatto nel vetro della finestrina e il buco fatto nel cuore del quadretto e lo spago passava 30 centimetri dal chiodo infisso nella mano del cristo qui c'era la mia testa disse don camillo il vostro braccio è rimasto colpito perché mi avete spinto il capo indietro questa è la prova don camillo calmati ma don camillo ormai non si poteva calmare più e se non gli fosse venuto un febbrone da elefante dio solo sa cosa avrebbe combinato don camillo ed io che appunto lo sapeva gli mandò un febbrone da elefante che lo appiccicò nel letto come uno straccio bagnato giallo e rosa la finestra attraverso la quale avevano sparato dava sul campicello di proprietà della chiesa il maresciallo e don camillo stavano dietro la cappelletta studiando la faccenda ecco qui la prova disse il maresciallo indicando quattro buchi che spiccavano sull'intonaco chiaro a un paio di spanne sotto il davanzale della finestrella famosa tolse di tasca un coltellino frugò in uno dei buchi e alla fine venne fuori qualcosa secondo me la faccenda è semplice spiegò il maresciallo il tipo era postato lontano e ha sparato una raffica di mitra contro la finestra illuminata quattro palle sono finite qui nel muro una ha bucato il vetro ed è entrata don camillo scosse il capo vi ho detto che era un colpo di pistola e sparato da qui non sono ancora tanto rimbambito da non saper distinguere un colpo di pistola da una raffica di mitra prima è stato sparato un colpo di pistola e da qui dopo è stata sparata una raffica di mitra da più lontano si dovrebbe trovare il bossolo qui vicino allora ribatté il maresciallo e il bossolo non c'è don camillo scosse le spalle ci vorrebbe il critico musicale della scala per saper distinguere dalla tonalità se un colpo viene sparato con una pistola ripetizione o con un revolver a tamburo se quello sparato con un revolver a tamburo il bossolo se l'è portato via il maresciallo cominciò a braccare tutt'attorno e alla fine trovò qualcosa sul tronco di uno dei ciliegi piantati a cinque o sei metri di fianco alla chiesa una delle pallottole ha tagliato la corteccia disse e la cosa era evidente si grattò la zucca perplesso bah borbottò alla fine facciamo pure il poliziotto scientifico prese un palo e lo portò per terra rasente al muro davanti a uno dei buchi nell'intonaco poi prese a camminare per il campo e ogni tanto mirava al tronco del ciliegio colpito dalla palla e si spostava a destra o a sinistra fino a quando il tronco non copriva il palo piantato sotto il muro così a un bel momento si trovò davanti alla siepe e al di là della siepe c'erano il fosso e una carrareccia don camillo lo raggiunse e uno da una parte uno dall'altra della siepe cominciarono a braccare per terra cercarono poco don camillo dopo cinque minuti disse ecco qui e si trattava di un bossolo di mitra poi trovarono gli altri tre questo prova quanto dico io esclamò il maresciallo il tipo ha sparato da qui contro la finestra don camillo scosse la testa io non me ne intendo di mitra disse don camillo ma so che negli altri fucili le pallottole non fanno le curve guardate un po voi sopraggiunse un carabiniere il quale avvertì il maresciallo che in paese tutti erano calmi grazie tanto osservò da un camillo mica hanno sparato contro di loro hanno sparato contro di me il maresciallo si fece dare il moschetto dal carabiniere e coricatosi per terra lo puntò contro il primo vetro della finestra della cappella dove pressa poco ricordava che c'era il buco della pallottola se sparaste dove andreste a finire domandò da un camillo era un calcolo da ragazzini partendo da lì e dovendo passare attraverso la finestrina della cappella una pallottola sarebbe al massimo arrivata a sbattere la testa contro il primo confessionale a destra a tre metri dalla porta della chiesa a meno che non fosse una pallottola ammaestrata quella non poteva passare per l'altare neanche se si scannava concluse il maresciallo il che significa don camillo che quando in una faccenda ci siete immischiato voi son pasticci da strapparsi i capelli non vi bastava che fosse uno solo a spararvi no signore ne vuole due uno che gli spara da dietro la finestra e uno che gli spara da dietro una siepe lontana 150 metri beh io sono fatto così rispose don camillo non vado a spese la sera peppone radunò alla sede tutto lo stato maggiore e i fiduciari delle frazioni del comune peppone era cupo compagni disse un nuovo fatto è venuto a complicare la situazione locale un ignoto ha sparato questa notte contro il cosiddetto parroco e la reazione approfitta di questo episodio per rialzare il capo e gettare nuovo fango sul partito la reazione vile come sempre non ha il coraggio di parlare chiaro ma come abbiamo saputo mormora negli angolini e ci accusa la responsabilità di questo attentato il lungo alza una mano e peppone gli fece cenno che poteva parlare prima di tutto disse il lungo si potrebbe dire alla signora reazione la quale cominci a dimostrarci che c'è stato l'attentato contro il prete perché fino a questo momento è soltanto lui a dirlo e siccome non c'erano testimoni può benissimo essere stato il signor reverendo in persona a sparare la revolverata per poter scrivere sul suo porco giornale delle infamità contro di noi cominciamo col tirar fuori le prove bene approvò il consesso il lungo ha ragione peppone riprese la parola un momento quello che dice il lungo è giusto ma non dobbiamo escludere la possibilità che il fatto sia vero conoscendo anche il carattere di don camillo non si può dire onestamente che sia uno che usi dei sistemi ambigui compagno peppone interruppe spocchia il capocellula di molinetto ricordati che chi è prete è sempre prete tu ti lasci fregare dai sentimentalismi se tu avessi dato retta a me il suo sporco giornale non sarebbe uscito e oggi il partito non avrebbe avuto il danno delle infame insinuazioni a proposito del suicidio del pizzi nessuna pietà contro i nemici del popolo chi ha pietà dei nemici del popolo tradisce il popolo peppone picchiò un pugno sul tavolo non ho nessun bisogno che tu mi dia delle lezioni di morale urlò lo spocchia non si impressionò intanto se invece di opporti ci avessi lasciato fare quando si poteva fare gridò adesso non avremmo ancora tra i piedi un sacco di mascalzoni reazionari io spocchia era un giovane sui 25 anni magro con gran capelli all'indietro ondulati in cima alla testa e tirati a lucido dalle parti e che finivano in una specie di cresta di dietro come usavano i cafoni del nord e i bulli di trastevere aveva gli occhi piccoli e le labbra sottili peppone gli si avvicinò aggressivo tu sei un cretino gli disse guardandolo in faccia l'altro in pallidi ma stette zitto ritornato al tavolo peppone riprese a parlare approfittando di un episodio che si basa sulla semplice affermazione di un prete continuò la reazione tenta nuove speculazioni ai danni del popolo bisogna che i compagni siano oggi decisi come non mai alle ignobili insinuazioni ad un tratto gli accadde una strana cosa che non gli era capitata mai peppone si ascoltò gli pareva che lui peppone fosse laggiù in fondo e ascoltasse quello che peppone stava dicendo la carne venduta la reazione assoldata dai nemici del proletariato gli agrari affamatori peppone ascoltava e via via gli pareva di ascoltare un altro la cricca sabauda il clero falso il governo nero l'america la plutocrazia cosa vuol dire plutocrazia perché quello là parla di plutocrazia che non sa neanche cosa vuol dire pensava peppone si guardò attorno e vide facce che quasi non riconosceva occhi ambigui e i più ambigui erano quelli del giovane spocchia pensò al brusco il fedelissimo e cercò i suoi occhi ma il brusco era là in fondo a braccia concerte e con la testa bassa ma sappiano i nostri nemici che lo spirito della resistenza non è indebolito in noi le armi che un giorno impugniamo per difendere la libertà ora peppone si sentì che egli stava urlando come impazzito poi l'applauso lo fece rientrare in se stesso così va bene gli sussurrò lo spocchia mentre stavano uscendo tu lo sai peppone basta un fischio si comincia i miei ragazzi sono pronti anche fra un'ora bravo bravo rispose peppone battendogli la mano sulla spalla ma gli avrebbe volentieri stritolata la zucca chissà poi perché rimasero soli lui e il brusco e stettero zitti un po e allora gridò un bel momento peppone sei diventato scemo non mi dici neanche se ho parlato bene o no hai parlato benissimo rispose il brusco benissimo meglio di tutte le altre volte poi tra i due ripiombò la cortina del silenzio peppone faceva dei conti su un registro ad un tratto afferrò un ferma carta di cristallo lo scagliò con violenza per terra e urlò con rabbia una bestemmia lunga complicata esasperata il brusco lo guardò una macchia d'inchiostro spiegò peppone chiudendo il registro le solite penne di quell'altro del barchini osservò il brusco guardandosi bene dal far notare a peppone che siccome peppone stava scrivendo col lapis la faccenda della macchia d'inchiostro non quadrava quando furono fuori nella notte e si trovarono al crucicchio peppone stette lì come se volesse dire qualcosa al brusco poi tagliò corto allora ci vediamo domani domani capo buonanotte ciao brusco si era ormai sotto natale e bisognava tirar fuori d'urgenza dalla cassetta le statuette del presepe ripulirle ritoccarle col colore riparare le ammaccature ed era già tardi ma don camillo stava ancora lavorando in canonica sentì bussare alla finestra e poco dopo andò ad aprire perché si trattava di peppone peppone si sedette mentre don camillo riprendeva le sue faccende e tutte e due e tacquero per un bel po vecchio dio esclamò ad un tratto peppone con rabbia non avevi altro posto che venire in canonica a bestemmiare si informò calmo don camillo non potevi bestemmiare mentre eri alla sede non si può più neanche bestemmiare in sede borbottò peppone perché anche se uno bestemmia deve dare delle spiegazioni don camillo prese a ritoccare con la biacca la barba di san giuseppe in questo porco mondo un galantuomo non può più vivere esclamò peppone dopo un po e cosa ti interessa domandò don camillo sei forse diventato un galantuomo lo sono sempre stato o bella non l'avrei mai immaginato don camillo continuò ritoccare la barba di san giuseppe poi passò ritoccargli la veste ne avete ancora per molto tempo si informò peppone con ira se mi dai una mano in poco si finisce peppone era meccanico ed aveva mani grandi come badili e dita enormi che facevano fatica a piegarsi però quando uno aveva un cronometro da accomodare bisognava che andasse da peppone perché è così e sono proprio gli omoni grossi che sono fatti per le cose piccolissime filettava la carrozzeria delle macchine i raggi delle ruote dei barocci come uno del mestiere figuratevi adesso mi metto a pitturare i santi borbottò non mi avrete mica preso per il sagrestano don camillo pescò in fondo la cassetta e tirò su un affarino rosa grosso quanto un passerotto ed era proprio il bambinello peppone si trovò in mano la statuetta senza sapere come e allora prese un pennellino e cominciò a lavorare di fino lui di qua e don camillo di là dalla tavola senza potersi vedere in faccia perché c'era fra loro il barbaglio della lucerna è un mondo porco disse peppone non ci si può fidare di nessuno se uno vuol dire qualcosa non mi fido neppure di me stesso don camillo era assorbitissimo dal suo lavoro c'era da rifare tutto il viso della madonna roba fine e di me ti fidi chiese don camillo con indifferenza non lo so prova a dirmi qualcosa così vedi peppone finì gli occhi del bambinello la cosa più difficile poi rinfrescò il rosso delle piccole labbra vorrei piantare lì tutto disse peppone ma non si può chi te lo impedisce impedirmelo io piglio una stanga di ferro e faccio fuori un reggimento hai paura mai avuto paura al mondo io sì peppone qualche volta ho paura peppone intinse il pennello beh qualche volta anch'io disse peppone e appena si sentì don camillo sospirò anche lui la pallottola mi è passata a quattro dita dalla fronte raccontò don camillo se non avessi tirato indietro la testa proprio in quel momento ci rimanevo secco è stato un miracolo ora peppone aveva finito il viso del bambinello e stava ripassando il rosa del corpo mi dispiace di averlo sbagliato borbottò peppone ma ero troppo lontano e c'erano di mezzo i ciliegi don camillo fermò il pennello da tre notti spiegò peppone il brusco girava attorno alla casa del pizzi per via che l'altro non facesse fuori il ragazzo il ragazzo deve aver visto chi ha sparato dalla finestra contro suo padre e l'altro lo sa io intanto giravo attorno a casa vostra perché ero sicuro che l'altro sapeva che anche voi sapete chi ha sparato sul pizzi l'altro chi non lo so rispose peppone io l'ho visto di lontano avvicinarsi alla finestra della cappelletta ma non potevo sparargli prima che facesse qualcosa appena sparato ho sparato anch'io l'ho sbagliato sia ringraziato il signore disse don camillo so come spari e allora posso dire che sono stati due i miracoli chi sarà lo sapete soltanto voi e il ragazzo chi è don camillo parlò lentamente si peppone lo so ma nessuna cosa al mondo può farmi violare il segreto della confessione il peppone sospirò e continuò a pitturare c'è qualcosa che non va disse ad un tratto mi pare che tutti mi guardino con altri occhi adesso tutti anche il brusco anche al brusco sembrerà così e anche agli altri rispose don camillo ognuno ha paura dell'altro e ognuno quando parla è come se sentisse di doversi sempre difendere perché questo non facciamo della politica peppone peppone sospirò ancora mi sento come in galera disse cupo c'è sempre una porta per scappare da ogni galera di questa terra rispose don camillo le galere sono soltanto per il corpo e il corpo conta poco ormai il bambinello era finito e fresco di colore e così rose chiaro pareva che brillasse in mezzo all'enorme mano scura di peppone peppone lo guardò e gli parve di sentir sulla palma il tepore di quel piccolo corpo e dimenticò la galera depose con delicatezza il bambinello rosa sulla tavola e don camillo gli mise vicino la madonna il mio bambino sta imparando la poesia di natale annunciò con fierezza peppone sento che tutte le sere sua madre gliela ripassa prima che si addormenti è un fenomeno lo so ammise don camillo anche la poesia per il vescovo l'aveva imparata meraviglia peppone si irrigidì quella è stata una delle vostre più grosse ma scalzonate esclamò quella me la dovete pagare a a morire si fa sempre a tempo ribatte don camillo poi vicino alla madonna curva sul bambinello pose la statuetta del suo marello questo è il figlio di peppone questa la moglie di peppone è questo peppone disse don camillo toccando per ultimo il suo marello e questo è don camillo esclamò peppone prendendo la statuetta del bue e ponendola vicino al gruppo va fra bestie ci si comprende sempre concluse don camillo uscendo peppone si ritrovò nella cupa notte padana ma ormai era tranquillissimo perché sentiva ancora nel cavo della mano il tepore del bambinello rosa poi udì risuonarsi all'orecchio le parole della poesia che ormai sapeva a memoria quando la sera della vigilia me la dirà sarà una cosa magnifica si rallegrò anche quando comanderà la democrazia proletaria le poesie bisognerà lasciarle stare anzi renderle obbligatorie il fiume scorreva placido e lento lì a due passi sotto l'argine ed era anch'esso una poesia una poesia cominciata quando era cominciato il mondo e che ancora continuava e per arrotondare le vigare il più piccolo dei miliardi di sassi in fondo all'acqua c'erano voluti mille anni e soltanto fra venti generazioni l'acqua avrà levigato un nuovo sassetto e fra mille anni la gente correrà a 6.000 chilometri l'ora su macchine a razzo superatomico e per far cosa per arrivare in fondo all'anno e rimanere a bocca aperta davanti allo stesso bambinello di gesso che una di queste sere il compagno peppone ha ripitturato col pennellino avete ascoltato mondo piccolo di giovannino guareschi grazie a tutti